da madame pomfrey prima che i giudici diano il punteggio laggiù ha già dovuto sistemare digori ce l'hai fatta harry esclamò agrid con voce roca ce l'hai fatta e proprio contro lo spinato te lo ricordi che cosa aveva detto charlie che era il peggio grazie agrid disse harry ad alta voce in modo che agrid non continuasse a blaterare rivelando che gli aveva mostrato i draghi in anticipo anche il professor moody sembrava molto soddisfatto il suo occhio magico ballava tra le palpebre come bere un bicchier d'acqua harry ringhiò di là potter nella tenda pronto soccorso per favore insistette la professoressa mcgonagall harry uscì dal recinto ancora ansante e vide madame pomfrey in piedi all'ingresso di una seconda tenda aveva l'aria agitata draghi esclamò in tono disgustato trascinando dentro harry la tenda era divisa in cubicoli harry distinse l'ombra di cedric attraverso la tela ma cedric non sembrava ferito gravemente era seduto almeno madame pomfrey esaminò la spalla di harry parlando in tono arrabbiato per tutto il tempo l'anno scorso i dissenatori quest'anno i draghi cos'altro faranno entrare a scuola l'anno prossimo sei molto fortunato è piuttosto superficiale devo ripulirla prima di medicarla però pulì il taglio con una spruzzata di un liquido violetto che fumava e bruciava poi gli sfiorò la spalla con la bacchetta e la sentì guarire all'istante ora stai lì seduto tranquillo un minuto seduto e poi potrai andare a vedere il punteggio si precipitò fuori dalla tenda harry la sentì entrare nel cubicolo accanto e chiedere come va adesso digori harry non voleva star seduto era ancora troppo carico di adrenalina si alzò per vedere che cosa succedeva fuori ma prima di aver raggiunto l'ingresso della tenda ermione entrò di corsa seguita da ron harry sei stato eccezionale disse ermione con voce rocca c'erano graffi sul suo viso nei punti in cui aveva affondato le unghie per la paura sei stato straordinario davvero ma harry stava guardando ron che era molto pallido e lo fissava come se fosse un fantasma harry disse in tono molto serio chiunque abbia messo il tuo nome in quel calice io io credo che stiano cercando di farti fuori era come se le ultime settimane non fossero mai passate come se harry incontrasse ron per la prima volta appena dopo essere stato designato campione ci sei arrivato è disse freddamente ci hai messo un bel po ermione stava in mezzo a loro tesa guardando dall'uno all'altro ron aprì la bocca incerto harry capì che stava per scusarsi e all'improvviso sentì che non aveva bisogno di ascoltarlo è tutto ok disse prima che ron potesse spiccicar parola lascia perdere no disse ron non avrei dovuto lascia perdere ripete harry ron gli sorrise imbarazzato harry ricambiò il sorriso ermione scoppiò in lacrime non c'è niente da piangere le disse harry sbalordito voi due siete così stupidi gridò lei tra le lacrime pestando il piede a terra poi prima che uno di loro potesse fermarla abbracciò tutti e due e sfrecciò via singhiozzando con tutte le sue forze quante storie commentò ron scuotendo la testa harry andiamo staranno dando il punteggio prendendo l'uovo d'oro e la firebolt più sollevato di quanto non avesse creduto possibile solo un'ora prima harry si chinò per uscire dalla tenda con ron al fianco che parlava in fretta sei stato il migliore davvero non c'è paragone cedric ha fatto una cosa strana ha trasfigurato una pietra per terra l'ha trasformata in un cane voleva che il drago lo inseguisse beh è stata una gran bella trasfigurazione e ha funzionato in un certo senso perché ha preso l'uovo ma si è anche bruciato il drago ha cambiato idea a metà strada e ha deciso che preferiva acchiappare lui se l'è cavata per un pelo e quella fleur ha tentato una specie di incantesimo credo che volesse ipnotizzarlo o roba del genere beh ha funzionato un po almeno il drago era tutto insonno lito ma poi ha sbuffato ed è venuto fuori un gran getto di fuoco e la sua gonna ha preso fuoco la spenta facendo uscire dalla bacchetta un po d'acqua e crum non ci crederai ma non gli è nemmeno venuto in mente di volare probabilmente è stato il migliore dopo di te comunque l'ha beccato nell'occhio con un incantesimo solo che quello si è messo a calpestare tutto dal dolore e ha schiacciato metà delle uova vere gli hanno tolto dei punti non doveva danneggiarle ron riprese fiato mentre lui e harry raggiungevano lo steccato ora che lo spinato era stato portato via harry vide dove erano seduti i cinque giudici all'altro capo impostazioni elevate rivestite d'oro ciascuno può dare al massimo dieci disse ron e harry strizzando gli occhi per vedere dall'altra parte del campo vide il primo giudice madame maxim levare per aria la bacchetta ne sfuggì quello che parve un lungo nastro d'argento che si curvò in un grande otto non male esclamò ron tra gli applausi della folla credo che ti abbia tolto dei punti per via della spalla poi toccò al signor crouch che sparò in aria un nove sta andando bene strillò ron dando dei gran colpi nella schiena a harry poi silente anche lui disegnò un nove la folla applaudiva più forte che mai ludo bug man dieci dieci di serri incredulo ma mi sono fatto male a che gioco sta giocando harry non lamentarti gridò ron eccitato e poi carcaroff levò la bacchetta si fermò un attimo e poi anche dalla sua bacchetta filò fuori un numero quattro cosa tuonò ron infuriato quattro tu sporca canaglia parziale a crew mai dato dieci ma harry non importava non gli sarebbe importato nemmeno se carcaroff gli avesse dato zero l'indignazione di ron valeva almeno cento punti per lui non lo disse a ron naturalmente ma il suo cuore era più leggero dell'aria quando si voltò per uscire dallo steccato e non era solo ron non erano solo i grifondoro quelli che applaudivano nella folla quando si era arrivati al dunque quando avevano visto che cosa doveva affrontare gran parte dei ragazzi della scuola si erano schierati dalla sua parte come da quella di cedric non gli importava dei serpeverde ora poteva sopportare qualunque insulto da parte loro sei al primo posto alla pari harry tu e crum disse charlie weasley affrettandosi a raggiungerli mentre tornavano a scuola e senti devo correre devo mandare un gufo a mamma le ho giurato di dirle che cosa succedeva ma è stato incredibile oh sì e devi restare qui ancora qualche minuto bugman vuole parlarti nella tenda dei campioni ron disse che lo avrebbe aspettato così erri tornò nella tenda che ora sembrava diversa amichevole e accogliente ripensò a quello che aveva provato mentre schivava lo spinato e lo paragonò alla lunga attesa prima di uscire ad affrontarlo non c'era confronto l'attesa era stata incommensurabilmente peggiore fleur cedric e crum entrarono insieme un lato del viso di cedric era coperto da una densa pasta arancione che presumibilmente stava curando la sua scottatura sorrise a harry quando lo vide bel colpo harry anche il tuo disse harry e gli restituì il sorriso ben fatto tutti quanti esclamò ludo bugman entrando saltellando nella tenda soddisfatto come se fosse stato lui a superare un drago ora solo due parole veloci avete una bella pausa lunga prima della seconda prova che avrà luogo la mattina del 24 febbraio alle nove e mezzo ma nel frattempo vi diamo qualcosa a cui pensare se guardate le uova d'oro che tenete in mano vedrete che si aprono vedete il segno dovete risolvere l'indovinello che c'è nel vostro uovo perché vi dirà qual è la seconda prova e vi permetterà di prepararvi è tutto chiaro sicuri bene allora potete andare harry uscì dalla tenda raggiunse ron e insieme camminarono lungo il limitare della foresta parlando fitto harry voleva sapere nel dettaglio che cosa avevano fatto gli altri campioni poi mentre aggiravano il suffo di alberi dietro il quale harry aveva visto i draghi ruggire per la prima volta una strega gli si parò davanti all'improvviso era rita skitter quel giorno era vestita di verde acido che sintonava perfettamente con la penna prendi appunti pronta all'azione congratulazioni harry disse con un gran sorriso chissà se hai voglia di dirmi una parolina cosa hai provato affrontando il drago che cosa ne pensi dei punteggi secondo te sono giusti sì ho proprio voglia di dirle una parolina disse harry con ferocia addio e ripartì con ron alla volta del castello il fronte di liberazione degli elfi domestici quella sera harry ron e ermione salirono alla guferia a cercare reo harry voleva scrivere a sirius per dirgli che era riuscito a superare in colume la prova del drago lungo le scale harry aggiornò ron su tutto quello che sirius gli aveva detto di carcaroff sulle prime ron fu sconvolto dalla notizia che carcaroff era stato un mangiamorte ma quando entrarono nella guferia decretò che avrebbero dovuto sospettarlo fin dall'inizio tutto torna no disse ti ricordi quello che aveva detto malfoi sul treno che suo padre carcaroff erano amici ora sappiamo dove si sono conosciuti probabilmente giravano insieme incappucciati alla coppa del mondo però erri se è stato davvero carcaroff a mettere il tuo nome nel calice adesso si sentirà un idiota no non ha funzionato è ti sei fatto appena un graffio vieni qui faccio io leo era così soffriccitato all'idea di una consegna che continuava a svolazzare attorno alla testa di harry ululando ininterrottamente ron afferrò il piccolo gufo e lo tenne ben stretto mentre harry gli fissava la lettera alla zampa non è assolutamente possibile che le altre prove siano così pericolose come potrebbero riprese ron portando leo verso la finestra la sai una cosa scommetto che potresti vincere il torneo harry dico sul serio harry sapeva che ron voleva solo farsi perdonare il comportamento delle ultime settimane ma gli fece piacere lo stesso ermione invece si appoggiò alla parete della guferia incrociò le braccia e guardò torva ron harry ha ancora un bel po di strada da fare prima della fine del torneo disse seria se quella era la prima prova non oso pensare a quello che si prepara sempre ottimista e ribatte ron beffardo tu e la professoressa trelonei dovreste uscire insieme qualche volta lanciò leo fuori dalla finestra il gufetto precipitò per quattro metri prima di riuscire a rimettersi diritto la lettera fissata alla sua zampa era molto più lunga e pesante del solito perché harry non aveva potuto fare a meno di scrivere la cronaca dettagliata di come aveva schivato accerchiato e infine giocato lunga lo spinato guardarono leo sparire nell'oscurità e poi ron disse beh sarà meglio scendere per la tua festa a sorpresa harry fred e george ormai dovrebbero aver rubato abbastanza cibo dalle cucine e quando fecero il loro ingresso nella sala comune di grifondoro questa esplose di nuovo di urla e applausi c'erano montagne di torte e brocche di succo di zucca e di burro birra dappertutto lee jordan aveva sparato alcuni favolosi fuochi d'artificio freddi del dottor filibuster con innesco ad acqua e l'aria era pervasa listelline e scintille e dean thomas che disegnava benissimo aveva appeso alcuni standardi nuovi davvero notevoli con harry che sfrecciava attorno alla testa dello spinato sulla sua firebolt anche se a dir la verità un paio mostravano cedric con la testa in fiamme harry aveva quasi dimenticato che cosa si provava ad aver davvero fame e si sedette con ron e ermione non riusciva a credere alla sua felicità aveva di nuovo ron al suo fianco aveva superato la prima prova e non avrebbe dovuto affrontare la seconda prima di tre mesi accidenti quanto pesa disse lee jordan soppesando l'uovo d'oro che harry aveva posato su un tavolo aprilo harry dai vediamo un po che cosa c'è dentro dovrebbe cercare di risolvere l'indovinello da solo intervenne prontamente ermione sono le regole del torneo avrei dovuto arrangiarmi da solo anche per superare il drago sussurrò harry in modo che solo ermione lo sentisse e lei gli sorrise con aria colpevole sì dai harry aprilo ripeterono in parecchi lì passò l'uovo harry che infilò le dita nel solco che correva tutto intorno e lo divise in due era cavo e completamente vuoto ma nell'istante in cui harry lo aprì un fragore tremendo un gemito alto e stridulo invase la stanza la cosa più simile che harry avesse mai sentito era stato alla festa di comple morte di nick quasi senza testa dove tutti i componenti dell'orchestra fantasma suonavano la sega musicale fallo star zitto ululò fred le mani premute sulle orecchie harry lo richiuse di scatto che cos'era chiese simus finnegan fissando l'uovo sembrava una banshee forse la prossima volta dovrai affrontarne una harry era qualcuno che stavano torturando esclamò neville che era impallidito bruscamente rovesciando panini alla salsiccia su tutto il pavimento dovrai vedertela con la maledizione cruciatus non dire sciocchezze neville è illegale disse george non userebbero la maledizione cruciatus sui campioni secondo me assomigliava un po a persi quando canta forse la tua prova è attaccarlo mentre fa la doccia harry vuoi una crostatina alla marmellata ermione disse fred ermione guardò perplessa il vassoio che le porgeva fred fece un gran sorriso è tutto a posto disse non gli ho fatto niente ma stai attenta a quelle con la crema neville che ne aveva appena addettata una tossicchiò e la sputò fred scoppiò a ridere era solo uno scherzetto neville ermione prese una crostatina alla marmellata poi chiese tutta questa roba l'hai presa nelle cucine fred sicuro rispose fred con un sorriso fece uno squittio acuto e imitò un elfo domestico le daremo tutto quello che vuole signore tutto tutto sono spaventosamente utili mi cucinerebbero un bue arrosto se dicessi che un certo languorino com'è che fate entrare laggiù chiese ermione in tono innocente e casuale facile rispose fred c'è una porta nascosta dietro un quadro di una ciotola di frutta basta fare il solletico alla pera e si mette a ridere e si interruppe e la guardò con sospetto perché o niente rispose lei in fretta vuoi provare a organizzare uno sciopero degli elfi domestici vero disse george hai deciso di lasciar perdere i volantini e sobbillarli direttamente fino all'insurrezione parecchi ragazzi ridacchiarono ermione non rispose guai a te se vai giù a spaventarli con la faccenda della libertà e dello stipendio la moni fred li distrai dai fornelli in quel momento tutti si portarono a guardare neville che si stava trasformando in un grosso canarino oh mi dispiace neville gridò fred dal di sopra delle risate mi ero dimenticato erano proprio le crostatine alla crema che abbiamo stregato un minuto dopo comunque neville fu in piena muta e appena gli furono cadute le piume riprese il suo aspetto di sempre si unì addirittura alle risate crostatine canarine gridò fredda alla folla agitata le abbiamo inventate io e george sette zellini luna è un affare era quasi luna del mattino quando finalmente eri salì in dormitorio con ron neville simus e dean prima di chiudere le tende del suo letto a baldacchino eri sistemò il modellino dell'ungaro spinato sul tavolo accanto al letto e quello sbadigliò si acciambellò e chiuse gli occhi davvero pensò eri tirando le tende agrid aveva ragione dopo tutto erano creature a posto i draghi l'inizio di dicembre portò a hogwarts vento e nevischio per quanto d'inverno il castello fosse sempre pieno di spifferi eri si rallegrava dei suoi fuochi e dei muri spessi tutte le volte che passava davanti alla nave di durmstrang che beccheggiava sul lago al vento forte le vele nere gonfie contro il cielo oscuro probabilmente rifletteva anche la carrozza di bobaton era piuttosto gelida agrid si assicurava che i cavalli di madame maxim fossero sempre ben riforniti della loro bevanda preferita whisky di malto i vapori che si levavano dall'abbeveratoio nell'angolo del loro recinto bastavano a far girare la testa tutta quanta la classe di cura delle creature magiche cosa inutile se non dannosa dal momento che si stavano ancora occupando degli orrendi schiopodi e avevano bisogno di essere del tutto lucidi non so bene se vanno in letargo o no disse agrid alla classe che rabbrividiva nell'orto delle zucche spazzato dal vento la lezione dopo magari possiamo provare a vedere se ci va una dormitina mettiamoli in queste casse erano rimasti solo dieci schiopodi a quanto pareva tra quelli non si era manifestata la tendenza ad ammazzarsi a vicenda al momento raggiungevano una lunghezza di due metri la spessa corazza grigia le potenti zampe brulicanti i pungiglioni e le ventose contribuivano a rendergli schiopodi le creature più repellenti che erri avesse mai visto la classe guardò scoraggiata le enormi casse che agrid aveva portato fuori tutte foderate di cuscini e soffici coperte poi li portiamo dentro disse agrid e ci mettiamo sopra il coperchio e stiamo a vedere cos'è che succede ma gli schiopodi si dedusse non andavano in letargo e non apprezzarono il fatto di venire costretti prima a entrare poi a essere rinchiusi in casse imbottite di cuscini ben presto agrid si trovò a strillare niente paura insomma niente paura mentre gli schiopodi zampettavano furiosi nell'orto delle zucche costellato dai resti bruciacchiati delle casse gran parte dei ragazzi malfoi crebbe goyle per primi si erano rifugiati nella capanna di agrid passando per la porta sul retro e vi si erano barricati harry ron ermione invece furono tra quelli che rimasero all'aperto a cercare di aiutare agrid insieme riuscirono a bloccare e legare nove schiopodi anche se a costo di numerosi tagli e scottature alla fine ne rimase solo uno adesso non spaventatelo gridò agrid mentre ron e eri usavano le bacchette per sparare getti di scintille ardenti contro lo schiopodo che avanzava minaccioso verso di loro il pungiglione inarcato vibrante sopra la schiena provate un po a farci scivolare la corda attorno al pungiglione così non fa del male agli altri sicuro non sia mai urlò ron arrabbiato mentre lui e eri arretravano contro il muro della capanna di agrid continuando a tenere a distanza lo schiopodo con le scintille bene 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 questo si chiama divertirsi rita skitter era appoggiata allo steccato che circondava il giardino di agrid e guardava il caos lì dentro portava un pesante mantello rosso vivo con il collo di pelliccia viola e la borsetta di coccodrillo a tracolla agrid si tuffò sullo schiopodo che minacciava eri e ron e lo schiacciò a terra dalla coda partì un getto di fuoco che carbonizzò le piante di zucca l'intorno lei chi è chiese agrid a rita skitter stringendo in un cappio il pungiglione dello schiopodo rita skitter inviato della gazzetta del profeta rispose rita con un gran sorriso i suoi denti d'oro luccicarono silente non aveva detto che lei non aveva più il permesso di girare dentro la scuola disse agrid e si oscurò in viso mentre scendeva dalla groppa dello schiopodo ora leggermente ammaccata e cominciava a spingerlo verso i suoi compagni rita fece finta di niente come si chiamano queste affascinanti creature chiese con un sorriso ancora più ampio schiopo di sparacoda brontolò agrid davvero esclamò rita che sembrava interessatissima non ne ho mai sentito parlare da dove vengono harry osservò un russore preoccupante salire di sotto la barba incolta di agrid e il suo cuore ebbe un tuffo dove li aveva presi agrid gli schiopodi ermione che stava pensando la stessa cosa disse in fretta sono molto interessanti vero vero cosa oh sì aia interessanti rispose harry mentre lei gli pestava un piede ah sei qui harry esclamò rita skitter voltandosi allora cura delle creature magiche ti piace è una delle tue materie preferite sì rispose harry risoluto agrid gli rivolse un sorriso enorme splendido commentò rita davvero splendido insegna da molto aggiunse rivolta agrid harry notò che i suoi occhi passavano in rassegna dean che aveva un brutto taglio sulla guancia lavanda che aveva i vestiti bruciacchiati simus che aveva parecchie dita scottate e poi si posarono sulle finestre della capanna dietro le quali si trovava gran parte della classe i nasi schiacciati contro il vetro aspettando il via libera questo è solo il secondo anno rispose agrid splendido non le andrebbe di rilasciare un'intervista rendere note alcune delle sue esperienze con le creature magiche il profeta una rubrica dedicata agli animali tutti i mercoledì sono certa che lo sa potremmo parlare di questi schifoi di spegnicoda schiopo di sparacoda la corresse agrid entusiasta sì perché no harry aveva un brutto presentimento ma non ci fu modo di comunicarlo a agrid senza che rita skitter se ne accorgesse così dovete rimanere lì impalato in silenzio mentre agrid e rita si accordavano per incontrarsi ai tre manici di scopa per una lunga intervista poi su al castello suonò la campana il segnale della fine delle lezioni beh arrivederci erri esclamò allegramente rita skitter a venerdì sera allora agrid non farà che distorcere tutto quello che le dirà mormorò erri sottovoce purché non li abbia importati illegalmente quegli schiopodi disse ermione sconfortata si scambiarono uno sguardo era esattamente il genere di cosa che agrid avrebbe potuto fare agrid si è ficcato in un mucchio di guai prima d'ora e silente non lo ha mai licenziato rispose ron in tono consolatorio il peggio che può capitare è che agrid si debba liberare degli schiopodi ups ho detto il peggio volevo dire il meglio erri e ermione risero e andarono a pranzo un po più tranquilli erri si godette appieno le due ore di divinazione quel pomeriggio erano ancora alle prese con mappe stellari e predizioni ma ora che lui e ron erano tornati amici la cosa era di nuovo molto divertente la professoressa trelonei che era stata così soddisfatta di tutti e due quando avevano predetto la propria orrenda morte ben presto reagì bruscamente alle loro risatine che facevano da sottofondo alla sua spiegazione dei vari modi in cui plutone poteva sconvolgere la vita quotidiana sarei indotta a credere disse in un surro mistico che non nascondeva la sua evidente irritazione che alcuni di noi e scoccò uno sguardo molto eloquente a erri sarebbero un po meno frivoli se avessero visto ciò che ho visto io durante il mio esame della sfera la scorsa notte mentre ero la seduta assorta nel mio ricamo la necessità di consultare l'occhio mi ha sopraffatta mi sono alzata ho preso posto davanti a esso e ho scrutato nelle sue profondità cristalline e cosa credete che abbia visto là dentro un brutto vecchio pipistrello con gli occhiali enormi bisbigliò ron a mezza voce erri si sforzò intensamente di restare serio la morte miei cari sia parvati che lavanda si portarono le mani alla bocca terrificate sì riprese la professoressa trelonei e annui con decisione viene è sempre più vicina volteggia sopra di noi come un avvoltoio sempre più bassa sempre più bassa sul castello fissò con insistenza erri che sbadigliò vistosamente metterebbe un po più paura se non l'avesse già fatto un'ottantina di volte disse erri quando finalmente tornarono all'aria fresca delle scale fuori dall'aula della professoressa trelonei ma se fossi caduto stecchito tutte le volte che me l'ha predetto sarei un miracolo della scienza medica saresti una specie di fantasma super concentrato sghignazzò ron mentre incrociavano il barone sanguinario che avanzava nella direzione opposta i grandi occhi sinistramente fissi almeno non ci ha dato compiti spero che ermione se ne becchi un bel po dalla professoressa vector adoro non avere da studiare quando lei sgobba ma ermione non venne a cena e non era nemmeno in biblioteca più tardi quando andarono a cercarla la sola persona là dentro era victor crum ron gironzolò dietro gli scaffali per un po osservò crum discusse bisbigliando con erri se era il caso di chiedergli l'autografo ma poi si rese conto che sei o sette ragazze erano appostate nel corridoio lì dietro intente a discutere la stessa identica cosa e il suo entusiasmo svanì chissà dove è andata disse ron mentre lui e erri tornavano alla torre di grifondoro non so guazzabuglio ma la signora grassa aveva appena cominciato a scattare in avanti quando un rumore di passi affrettati alle loro spalle annunciò l'arrivo di ermione erri esclamò ansante fermandosi di colpo dietro di lui la signora grassa la guardò dall'alto inarcando le sopracciglia erri devi venire devi venire è successa una cosa incredibile per favore afferrò erri per un braccio e cercò di trascinarlo indietro nel corridoio che cosa succede le chiese erri te lo farò vedere quando saremo là o andiamo presto erri cercò con gli occhi ron che rispose al suo sguardo incuriosito ok disse erri seguendo ermione lungo il corridoio mentre ron gli teneva dietro o non fate caso a me gridò loro la signora grassa seccata non scusatevi per avermi disturbato devo restare qui appesa occhi aperti finché non tornate vero sì grazie gridò ron al di sopra della propria spalla ermione dove stiamo andando chiese erri dopo che lei li ebbe trascinati giù per sei piani ed ebbe imboccato la scalinata di marmo che portava alla sala d'ingresso vedrete vedrete fra un minuto disse ermione eccitata ai piedi delle scale volto a sinistra e corse verso la porta che cedric digori aveva varcato la notte dopo che il calice di fuoco aveva sputtato il suo nome e quello di erri erri non l'aveva mai oltrepassata prima lui e ron seguirono ermione giù per una rampa di scalini di pietra ma invece di finire in un cupo passaggio sotterraneo come quello che portava alla cantina di piton si ritrovarono in un ampio corridoio di pietra ben illuminato da torce e decorato da allegri quadri che raffiguravano soprattutto cibo o aspetta un po di serri lentamente a metà del corridoio aspetta un attimo ermione cosa lei si voltò a guardarlo so di che cosa si tratta di serri diede una gomitata a ron e indicò il quadro alle spalle di ermione ritraeva una gigantesca ciotola d'argento piena di frutta ermione esclamò ron cominciando a capire stai cercando di incastrarsi in quella faccenda del crepa no no non è così disse lei in fretta non è per il crepa ron hai cambiato il nome disse ron guardando la torvo adesso che cosa siamo il fronte di liberazione degli elfi domestici non ho intenzione di piombare in quella cucina per cercare di farli smettere di lavorare non lo farò non ti sto chiedendo questo ribatte ermione con impazienza sono appena scesa a parlare con loro e ho scoperto andiamo erri voglio che tu veda lo afferrò di nuovo per il braccio lo trascinò davanti al quadro della ciotola gigante tese l'indice e fece il solletico alla grossa pera verde che prese a contorcersi ridacchiando e all'improvviso si trasformò in una grossa maniglia verde ermione la afferrò spalancò la porta e spinse con decisione erri all'interno erri ebbe appena il tempo di scorgere un enorme stanza dal soffitto alto con cumuli di pentole padelle di rame lucente accatastate lungo le pareti di pietra e un enorme focolare di mattoni all'altro capo quando qualcosa di piccolo sfrecciò verso di lui dal centro della stanza squittendo harry potter signore harry potter un istante dopo l'elfo urlante gli piombò dritto contro lo stomaco abbracciandolo così forte che credette che gli si spezzassero le costole dobby disse boccheggiando sì è proprio dobby signore sì disse la vocina acuta da un punto imprecisato nei dintorni del suo ombelico dobby sperava tanto di vedere harry potter signore harry potter è venuto a trovarlo signore dobby lo lasciò andare e fece qualche passo indietro sorridendogli da sotto in su gli enormi occhi verdi a forma di palline da tennis traboccanti di lacrime di felicità aveva quasi lo stesso aspetto che ricordava harry naso a punta orecchie da pipistrello mani e piedi lunghi tutto tranne gli abiti che erano molto diversi quando dobby lavorava per i malfoi indossava sempre la stessa vecchia federa sudicia ora invece portava il più stravagante assortimento di vestiti che harry avesse mai visto era ancora peggio dei maghi camuffati da babbani alla coppa del mondo in testa aveva un coprite iera con attaccato un bel numero di spille vistose una cravatta a disegni di ferri di cavallo sul petto nudo un paio di quelli che sembravano pantaloncini da calcio taglia bambino e calzini spaiati uno era quello che harry aveva usato per far sì che lucius malfoi liberasse dobby l'altro era a strisce rosa e arancioni dobby che cosa ci fai qui disse harry stupefatto dobby è venuto a lavorare a hogwarts signore strillò dobby eccitato il professor silente ha trovato un lavoro a dobby e a winky signore winky disse harry anche lei è qui sì signore sì esclamò dobby afferrò la mano di harry e lo trascinò dentro le cucine passando tra quattro lunghi tavoli di legno disposti esattamente sotto ognuno dei quattro tavoli delle case che si trovavano di sopra nella sala grande al momento erano sgombri visto che la cena era terminata ma immaginò che un'ora prima fossero stati coperti di piatti che venivano spediti su attraverso il soffitto ai loro corrispondenti almeno un centinaio di piccoli elfi gremivano la cucina sorridevano si inchinavano e facevano riverenze mentre dobby guidava harry portavano tutti la stessa uniforme uno strofinaccio con ricamato il blasono di hogwarts drappeggiato a mo di toga dobby si fermò davanti al focolare di mattoni winky signore disse winky era seduta su uno sgabello vicino al fuoco a differenza di dobby evidentemente non era andata in cerca di vestiti particolari indossava un grazioso completino e un cappellino blu coordinato con dei buchi per far posto alle sue grandi orecchie comunque mentre ciascun pezzo della stravagante collezione di abiti di dobby era così pulito e ben tenuto che sembrava nuovo di zecca era chiaro che winky non si prendeva affatto cura dei suoi vestiti c'erano macchie di minestra sulla camicetta e una bruciatura sulla gonna ciao winky la salutò harry le labbra di winky tremarono poi l'elfa scoppiò in lacrime che zampillarono dai suoi grandi occhi marroni e le bagnarono gli abiti proprio come alla coppa del mondo di quidditch o santo cielo disse ermione lei e ron avevano seguito harry e dobby all'altro capo della cucina winky non piangele ti prego non ma winky gemette più forte che mai dobby sorrise a harry harry potter gradisce una tazza di te squitti ad alta voce sovrastando i singhiozzi di winky si va bene disse harry in un attimo sei elfi domestici gli si avvicinarono trotterellando con un grosso vassoio d'argento carico di teiere tazze per harry ron e ermione un brico del latte e un bel piattone di biscotti il servizio è ottimo commentò harry impressionato ermione lo guardò cupa ma tutti gli elfi sembravano felicissimi fecero un profondo inchino e arretrarono da quanto tempo sei qui dobby gli chiese harry mentre dobby serviva il tè solo da una settimana harry potter signore disse dobby allegramente dobby è venuto a trovare il professor silente signore signore è molto difficile per un elfo domestico che è stato licenziato trovare un nuovo lavoro signore davvero molto difficile a queste parole winky gemette ancora più forte mentre il naso a pomodoro schiacciato le colava abbondantemente ma lei non faceva niente per arginare il flusso dobby ha girato il paese per due anni interi signore cercando di trovare lavoro striglò dobby ma dobby non ha trovato lavoro signore perché dobby vuole essere pagato adesso a queste parole gli elfi domestici sparsi per la cucina che avevano guardato e ascoltato con interesse distolsero tutti lo sguardo come se dobby avesse detto qualcosa di volgare e imbarazzante ermione invece disse meglio per te dobby grazie signorina disse dobby rivolgendole un sorriso a trentadue denti ma gran parte dei maghi non vogliono un elfo domestico che vuole la paga signorina gli elfi domestici non fanno così dicono e hanno chiuso la porta in faccia a dobby a dobby piace lavorare ma vuole mettersi dei vestiti e vuole essere pagato harry potter a dobby piace essere libero gli elfi domestici di hogwarts avevano cominciato a tenersi a distanza da dobby come se avesse una malattia contagiosa winky rimase dove era anche se il volume del suo pianto si alzò decisamente e poi harry potter dobby va a trovare winky e scopre che anche winky è stata liberata signore disse dobby incantato a questo punto winky si gettò dallo sgabello su cui era seduta e piombò lunga distesa a faccia in giù sui lastroni di pietra picchiando i piccoli pugni per terra e ululando di dolore ermione si chinò accanto a lei e cercò di consolarla ma niente di ciò che disse riuscì a fare la minima differenza dobby riprese il suo racconto urlando per sovrastare gli strilli di winky e poi a dobby è venuta l'idea harry potter signore perché dobby e winky non trovano lavoro insieme dice dobby dove c'è abbastanza lavoro per due elfi domestici dice winky e dobby pensa e poi gli viene in mente signore a hogwarts così dobby e winky sono venuti a trovare il professor silente signore e il professor silente ci ha presi dobby fece un gran sorriso e lacrime di felicità gli inumidirono di nuovo gli occhi e il professor silente dice che pagherà dobby signore se dobby vuole essere pagato e così dobby è un elfo libero signore e dobby guadagna un galeone alla settimana e ha un giorno libero al mese non è molto gridò ermione indignata dal pavimento sovrastando gli urli e il picchiar di pugni di winky il professor silente ha offerto a dobby dieci galeoni la settimana e i fine settimana di riposo disse dobby con un improvviso piccolo brivido come se la prospettiva di tanti agi e ricchezze fosse spaventosa ma dobby gli ha fatto abbassare il prezzo signorina a dobby piace la libertà signorina ma lui non pretende troppo signorina preferisce il lavoro e tu winky quanto ti paga il professor silente chiese ermione gentilmente se aveva pensato che questo avrebbe rincuorato winky si sbagliava di grosso winky in effetti smise di piangere ma quando si alzò a sedere guardò torva ermione con gli enormi occhi marroni il viso completamente bagnato ed un tratto furibondo winky è un elfa caduta in disgrazia ma winky non si fa ancora pagare strillò winky non è caduta così in basso winky si vergogna di essere stata liberata come è giusto che sia si vergogna ripete ermione senza capire ma winky andiamo è il signor crouch che dovrebbe vergognarsi non tu tu non hai fatto niente di sbagliato lui è stato davvero orribile con te ma a queste parole winky si picchiò le mani sui buchi nel cappello schiacciandosi le orecchie in modo da non riuscire a sentire una parola e strillò tu non deve insultare il mio padrone signorina tu non insulta signor crouch signor crouch è un bravo mago signorina signor crouch fa bene a licenziare cattiva winky winky ha qualche difficoltà ad adattarsi harry potter squitti dobby in tono confidenziale winky dimentica che non è più legata al signor crouch adesso può dire quello che pensa ma non vuole farlo gli elfi domestici non possono dire quello che pensano dei loro padroni allora chiese oh no signore no disse dobby improvvisamente serio fa parte della schiavitù dell'elfo domestico signore noi tiene i loro segreti e sta zitti signore noi tiene alto l'onore della famiglia e non parla mai male di loro anche se il professor silente ha detto a dobby che non è severo su questa cosa il professor silente ha detto che noi è liberi di di parve improvvisamente nervoso e fece cenno a harry di avvicinarsi harry si curvò in avanti e dobby sussurrò ha detto che noi è liberi di chiamarlo vecchio rimbambito se ci va signore scoppiò in una risatina spaventata ma dobby non vuole harry potter continuò tornando a parlare normalmente e scuotendo la testa tanto che le orecchie sbatacchiarano di qua e di là a dobby piace tanto il professor silente signore ed è fiero di tenere i suoi segreti per sé ma adesso puoi dire quello che vuoi dei malfoi gli chiese harry sorridendo uno sguardo vagamente terrorizzato invase gli occhi enormi di dobby 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 potrebbe disse in tono dubbioso raddrizzò le piccole spalle dobby potrebbe dire a harry potter che i suoi vecchi padroni erano cattivi maghi oscuri dobby per un istante fu scosso da un tremito sconvolto dalla sua stessa audacia poi corse al tavolo più vicino e cominciò a picchiarci la testa contro molto forte e a squittire dobby cattivo dobby cattivo harry afferrò dobby per il nodo della cravatta e lo allontanò dal tavolo grazie harry potter grazie disse dobby senza fiato massaggiandosi la testa hai solo bisogno di un po di allenamento disse harry allenamento squitti winky furiosa tu dovrebbe vergognarti dobby di parlare così dei tuoi padroni loro non è più i miei padroni winky esclamò dobby in tono di sfida a dobby non importa più di quello che loro pensa tu è un elfo cattivo dobby gemette winky mentre le lacrime riprendevano a scorrerle sul viso il mio povero signor crouch che cosa farà senza winky ha bisogno di me ha bisogno del mio aiuto io ha curato i crouch per tutta la vita e mia madre l'ha fatto prima di me e la mia nonna prima di lei che cosa direbbe loro due se sapesse che winky è stata liberata che vergogna che vergogna seppellì di nuovo il viso nella gonna e ululò winky intervenne ermione con fermezza sono sicura che il signor crouch se la cava benissimo senza di te l'abbiamo incontrato sai i signori ha visto il mio padrone esclamò winky senza fiato alzando la faccia striata di lacrime dalla gonna e fissando ermione i signori l'ha visto a hogwarts sì rispose ermione lui e il signor bugman sono giudici al torneo tre maghi viene anche il signor bugman squitti winky e con gran sorpresa di harry e anche di ronne di ermione a giudicare dalle loro espressioni parve di nuovo arrabbiata il signor bugman è un mago cattivo un mago tanto cattivo al mio padrone non piace o no neanche un po bugman cattivo chiese erri oh sì rispose winky e annui furiosamente il mio padrone dice delle cose a winky ma winky non le ripete winky winky custodisce i segreti del suo padrone si sciolse di nuovo in lacrime la sentirono singhiozzare nella gonna povero padrone povero padrone niente più winky che lo aiuta non riuscirono a cavarle un'altra parola sensata la lasciarono al suo pianto e finirono di bere il tè mentre dobby chiacchierava allegramente della sua vita di elfo liberato e dei progetti che aveva per i risparmi dobby si compra presto un golfino harry potter disse tutto felice indicando il petto nudo sai che cosa ti dico dobby disse ron che sembrava aver preso in gran simpatia l'elfo ti regalerò quello che la mia mamma mi farà per natale me ne regala sempre uno ti piace il bordeaux vero dobby ne fu felicissimo forse dovremo rimpicciolirlo un po per fartelo andar bene gli disse ron ma starà a meraviglia con il tuo coprite ieri mentre lasciavano la cucina molti degli elfi li circondarono offrendo spuntini da portare di sopra ermione rifiutò osservando con sguardo addolorato gli elfi che continuavano a fare inchini e riverenze ma harry e ron si riempirono le tasche di tortine e pasticcini grazie mille disse harry agli elfi tutti radunati attorno alla porta per dar loro la buonanotte ci vediamo dobby harry potter dobby può venire a trovarti qualche volta signore chiese dobby esitante ma certo che puoi gli rispose harry e dobby sorrise radioso la sapete una cosa disse ron quando lui ermione harry si furono lasciati alle spalle le cucine e presero a salire i gradini che portavano all'ingresso per tutti questi anni ho sempre ammirato tanto fred e george che rubavano cibo dalle cucine beh non si può dire che sia difficile vero non vedono l'ora di dartelo è la cosa migliore che sia potuta capitare a quegli elfi disse ermione precedendo gli altri su per la scalinata di marmo il fatto che dobby sia venuto a lavorare qui intendo gli altri elfi vedranno come felice ora che è libero e piano piano capiranno che è proprio quello che desiderano anche loro speriamo che non facciano troppo caso a winky disse harry o si riprenderà disse ermione anche se sembrava un po perplessa quando lo shock sarà passato e lei si sarà abituata a hogwarts capirà quanto sta meglio senza quel crouch pare che lo adori disse ron masticando una crostatina alla crema non ha molta stima per bugman però vero disse harry chissà come ne parla crouch a casa probabilmente dice che non è un granché come capufficio disse ermione e diciamocelo ha le sue ragioni non è così comunque preferirei lavorare per lui che per il vecchio crouch disse ron almeno bugman ha il senso dell'umorismo se ti sentisse persi disse ermione con un sorrisetto sì beh persi non vorrebbe lavorare con nessuno che abbia senso dell'umorismo no esclamò ron addentando un cremino al cioccolato persi non riconoscerebbe una battuta di spirito nemmeno se ballasse nuda davanti a lui con il copritagliera di dobb in testa la prova inaspettata potter weasley volete stare attenti la voce irritata della professoressa mcgonagall si bilò come una frusta attraverso l'aula di trasfigurazione il giovedì henry e ron sobbalzarono e la guardarono era la fine della lezione avevano concluso il loro lavoro i merli indiani che avevano trasformato in porcellini d'india erano stati rinchiusi in una grossa gabbia sulla scrivania della professoressa mcgonagall il porcellino di neville aveva ancora le piume avevano ricopiato i compiti dalla lavagna descrivete facendo degli esempi i modi in cui gli incantesimi trasformanti devono essere adattati quando si formulano scambi intraspecie la campana sarebbe suonata a momenti henry e ron che stavano tirando di scherma in fondo alla classe con due delle bacchette finte di george fred alzarono lo sguardo ron brandiva un pappagallo di latta henry un merluzzo di gomma ora che potter e weasley sono così gentili da comportarsi come si conviene alla loro età disse la professoressa mcgonagall scoccando ai due uno sguardo furente mentre la testa del merluzzo di henry si affrosciava e cadeva silenziosa a terra il becco del pappagallo di ron si era staccato qualche istante prima devo dire qualcosa a tutti quanti si avvicina il ballo del ceppo un evento tradizionale nell'ambito del torneo tre maghi e un'opportunità per noi di socializzare con i nostri ospiti stranieri ora il ballo sarà aperto solo a quelli dal quarto anno in su anche se potete invitare una studentessa o uno studente più giovane se volete lavanda brown fece una risatina acuta parvati patil le diede una gomitata forte nelle costole il viso contratto mentre cercava di non scoppiare a ridere a sua volta entrambe si voltarono verso henry la professoressa mcgonagall le ignorò cosa che eri giudicò profondamente ingiusta dal momento che aveva appena riproverato lui e ron è di rigore l'abito da cerimonia riprese la professoressa mcgonagall il ballo comincerà alle otto della sera di natale e finirà a mezzanotte nella sala grande ora la professoressa mcgonagall scrutò la classe con aria eloquente naturalmente in occasione del ballo del ceppo tutti noi potremo lasciarci un po' andare disse in tono di disapprovazione lavanda rise più forte la mano premuta sulla bocca per soffocare il rumore henry questa volta capì che cosa c'era da ridere la professoressa mcgonagall non sembrava proprio il tipo che sapeva lasciarsi andare ma questo non significa continuò la professoressa mcgonagall che saranno ammesse eccezioni alle regole di comportamento richieste agli studenti di hogwarts sarò profondamente rammaricata se uno studente di grifondoro metterà in imbarazzo la scuola in qualunque maniera suonò la campana e ci fu la solita confusione di sedie smosse e preparativi vari la professoressa mcgonagall disse sovrastando il rumore potter devo parlarti se non ti dispiace temendo che ciò avesse qualcosa a che fare con il merluzzo di gomma senza testa henry si avviò depresso verso la cattedra la professoressa mcgonagall attese che il resto della classe se ne fosse andato e poi disse potter i campioni e i loro partner quali partner esclamò henry la professoressa mcgonagall lo guardò sospettosa come se lui avesse cercato di fare lo spiritoso i partner per il ballo del ceppo potter disse gelida i vostri partner per le danze le viscere di henry si contorsero partner per le danze si sentì arrossire io non ballo aggiunse in fretta così che balli disse la professoressa mcgonagall irritata è quello che ti sto dicendo per tradizione i campioni e i loro partner aprono le danze henry ebbe un'improvvisa visione di se stesso in fracca e tuba accompagnato da una ragazza addobbata di pizzi e volant come zia petunia quando andava alle feste di lavoro di zio vernon io non ballo ripete fa parte della tradizione disse la professoressa mcgonagall con fermezza tu sei un campione di hogwarts e farai quello che ci si aspetta da te come rappresentante della scuola quindi fai in modo di procurarti una dama potter ma io non mi hai sentito potter disse la professoressa mcgonagall in tono definitivo una settimana prima henry avrebbe dichiarato che trovare una dama per il ballo sarebbe stata una bazzecola rispetto all'idea di sfidare un ungaro spinato ma ora che aveva compiuto quest'ultima impresa e doveva affrontare la prospettiva di invitare una ragazza al ballo sentì che avrebbe preferito fare un altro giro con lo spinato henry non aveva mai visto tanta gente decidere di rimanere a hogwarts per natale lui lo faceva sempre naturalmente perché l'alternativa era tornare a private drive e fino ad allora aveva sempre fatto parte della minoranza che restava quell'anno invece sembrava che tutti i ragazzi dal quarto anno in su avessero deciso di rimanere e a henry pareva che fossero tutti ossessionati dal ballo imminente le ragazze almeno lo erano ed era straordinario quante ragazze ci fossero all'improvviso a hogwarts non l'aveva quasi notato prima ragazze che bisbigliavano nei corridoi ragazze che scoppiavano a ridere al passaggio dei maschi ragazze eccitate che si scambiavano mucchi di bigliettini su quello che avrebbero indossato la notte di natale perché devono muoversi in branco chiese henry a ron mentre una dozzina di ragazze passavano loro davanti ridendo sotto i baffi e fissando henry come si fa a beccarne una da sola per invitarla la chiappi all'azzo suggerì ron tu sei già con chi vuoi provarci henry non rispose sapeva perfettamente chi gli sarebbe piaciuto invitare ma trovare il coraggio era un'altra cosa ciò era un anno più grande di lui era molto carina un'ottima giocatrice di quidditch ed era anche molto popolare ron parve capire che cosa stava succedendo nella testa di henry senti andrà tutto liscio sei uno dei campioni hai appena sconfitto un ungaro spinato scommetto che faranno la fila per venire con te in nome della loro amicizia recentemente ricucita ron aveva parlato con appena un velo di amarezza nella voce e in più con gran meraviglia di henry si scoprì che aveva ragione una ragazza ricciuta del terzo anno di tassofrasso con cui henry non aveva mai parlato gli chiese di andare al ballo con lei proprio il giorno dopo henry fu colto così alla sprovvista che disse no prima ancora di aver preso in considerazione la possibilità la ragazza si allontanò con aria ferita henry dovette sopportare le battute di dean simus e ron per tutta l'ora di storia della magia il giorno dopo altre due ragazze gli chiesero la stessa cosa una del secondo anno e con suo profondo terrore una del quinto che aveva l'aria di poterlo mandare k o se avesse rifiutato era piuttosto carina disse ron sincero quando ebbe smesso di ridere era 30 centimetri più alta di me ribatte henry ancora sgomento pensa che figura avrei fatto a cercare di ballare con lei le parole di ermione a proposito di crum continuavano a tornargli in mente lo adorano solo perché è famoso e infatti henry dubitava che le ragazze che gli avevano chiesto di accompagnarle sarebbero volute andare al ballo con lui se non fosse stato un campione della scuola però se fosse stata ciò a invitarlo non gliene sarebbe importato niente del perché purché lo facesse nel complesso henry dovete ammettere che anche con l'imbarazzante prospettiva di dover aprire il ballo la vita era decisamente migliorata dopo la prima prova nei corridoi non era più il bersaglio di tante battute sarcastiche e sospettava che la cosa avesse parecchio a che fare con cedric doveva aver detto ai tassofrasso di lasciare in pace henry in cambio della soffiata sui draghi circolavano anche meno spille tifa per cedric digori draco malfoy naturalmente citava ancora l'articolo di rita skitter tutte le volte che se ne presentava l'occasione ma suscitava sempre meno risate e ad aumentare il senso di benessere di henry sulla gazzetta del profeta non erano apparse pagine su agrid non sembrava che ci interessassero tanto le creature magiche a dirti la verità disse agrid quando henry ron e ermione gli chiesero com'era andata l'intervista con rita skitter durante l'ultima lezione di cura delle creature magiche del trimestre con loro gran sollievo agrid aveva rinunciato a ogni contatto diretto con gli schiopodi e quel giorno erano a riparo dietro la sua capanna seduti a un tavolo a cavalletti a preparare una nuova selezione di cibi coi quali tentare gli schiopodi voleva solo che ci parlavo di te henry continuò agrid a voce più bassa beh io ci dico che siamo amici da quando ti ero venuto a prendere dai darsley non ha mai dovuto rimproverarlo in quattro anni mi fa non le ha mai dato fastidio a lezione io ci dico di no e lei non sembra per niente contenta mi sa che preferiva se ci dicevo che eri terribile henry ma certo disse henry gettando brani di fegato di drago in una grossa ciotola di metallo e impugnando il coltello per tagliarne degli altri non può continuare con la storia del piccolo eroe tragico alla lunga è noioso vuole una nuova prospettiva agrid disse ron saggiamente sgusciando uova di salamandra dovevi dire che eri è un delinquente pazzo ma non è vero esclamò agrid sinceramente colpito doveva intervistare piton disse eri con una smorfia lui mi cuocerebbe a puntino potter passa il limite da quando ha messo piede in questa scuola ha detto così eh disse agrid mentre ron e ermione ridevano beh magari hai mandato al diavolo qualche regoletta eri ma sei un tipo a posto grazie agrid disse eri con un gran sorriso ci sarai anche tu a quella storia del ballo di natale agrid gli chiese ron pensavo di venire a darci un'occhiata sì rispose agrid burbero deve essere bello mi sa apri le danze vero chi è che ha invitato ancora nessuno rispose eri e si accorse di arrossire agrid non insistette l'ultima settimana del trimestre divenne sempre più turbolenta dappertutto correvano voci sul ballo del ceppo anche se eri non credeva alla metà di esse per esempio si diceva che silente avesse acquistato 800 barili di idromele aromatico da madame rosmerta pareva certo invece che avesse ingaggiato i weird sisters eri non sapeva esattamente chi o che cosa fossero i weird sisters non avendo mai avuto la possibilità di ascoltare una radio da maghi ma dalla folle eccitazione di quelli che erano cresciuti con le frequenze di rsn radio strega network ne dedusse che si trattava di un gruppo musicale molto famoso alcuni dei professori rinunciarono a insegnare loro granché quando le loro menti erano così evidentemente altrove il minuscolo professor flitwick li lasciò giocare durante la sua lezione del mercoledì e lui stesso rimase a lungo a parlare con eri del perfetto incantesimo di appello che aveva usato nella prima prova del torneo tre maghi altri insegnanti non furono così generosi nulla avrebbe mai distolto il professor beans per esempio dal leggere a fatica i suoi appunti sulle rivolte dei goblin visto che nemmeno la morte gli aveva impedito di continuare a insegnare sospettavano che una cosetta come il natale non lo avrebbe certo dissuaso era incredibile come riuscisse a far sembrare le più turpie sanguinarie rivolte dei goblin noiose come la relazione di persi sui fondi di calderone anche i professori mcgonagall e moody li fecero lavorare fino all'ultimo e le chance che piton gli permettesse di giocare in classe erano le stesse che avrebbe avuto eri a essere nominato suo erede universale fissandoli con aria cattiva li informò che li avrebbe messi alla prova sugli antidoti ai veleni nel corso dell'ultima lezione del trimestre è proprio perfido disse ron amaramente quella sera nella sala comune di grifondoro assegnarci un test l'ultimo giorno rovinare l'ultimo pezzetto di trimestre con un bel mucchio di ripasso non è che proprio tu ti stia ammazzando di lavoro vero osservò ermione guardandolo da sopra gli appunti di pozioni ron era indaffarato a costruire un castello di carte prese dal suo mazzo boom molto più interessanti delle carte babbane perché c'era la possibilità che tutto quanto saltasse in aria da un momento all'altro è natale ermione disse eri pigramente stava rileggendo per la decima volta i magnifici sette sprofondato in una poltrona vicino al fuoco ermione guardò severa anche lui credevo che facessi qualcosa ricostruttivo eri anche se non vuoi imparare gli antidoti tipo disse eri mentre osservava joy jenkins dei cannoni di chadley sparare un bolide verso un cacciatore dei pipistrelli di balli castle quell'uovo sibilò ermione dai ermione ho tempo fino al 24 febbraio disse eri aveva rinchiuso l'uovo d'oro nel suo baule di sopra e non l'aveva aperto dai festeggiamenti dopo la prima prova mancavano ancora due mesi e mezzo prima di dover sapere che cosa significasse quell'ulurato stridente dopo tutto ma potresti metterci settimane per capirlo esclamò ermione passerai per un vero idiota se tutti gli altri sapranno che cos'è la seconda prova e tu no lascialo in pace ermione se l'è meritato un po di riposo disse ron e depose le ultime due carte in cima al castello che esplose in grande stile bruciacchiandogli le sopracciglia sei carino ron si intonerà con il tuo abito da sera erano fredde george sedettero al tavolo con ermione e ron mentre quest'ultimo si bastava la faccia per valutare i danni ron ci presti leo chiese george no è fuori a consegnare una lettera rispose ron perché perché george vuole invitarlo al ballo disse fred sarcastico perché vogliamo spedire una lettera razza di scemo disse george si può sapere a chi è che continuate a scrivere voi due disse ron smettila di ficcare il naso nelle cose che non ti riguardano ron o ti brucerò anche quello disse fred agitando la mano con fare minaccioso allora avete già tutti una dama o un cavaliere per il ballo no rispose ron beh sarà meglio che ti sbrighi ragazzo o quelle carine saranno tutte occupate disse fred e tu con chi ci vai chiese ron con angelina rispose fred immediatamente senza alcuna traccia di imbarazzo cosa disse ron sorpreso l'hai già invitata giusto disse fred si voltò e gridò attraverso la sala comune ehi angelina angelina che stava chiacchierando con alicia spinnet vicino al fuoco si voltò a guardarlo cosa c'è gridò in risposta vuoi venire al ballo con me angelina lo squadrò per un attimo sì ok rispose poi torno a rivolgersi ad alicia e riprese a chiacchierare con un mezzo sorriso stampato in faccia ecco fatto disse fred a eri e ron semplicissimo si alzò sbadigliando allora sarà meglio che usiamo un gufo della scuola george andiamo uscirono ron smise di tastarsi le sopracciglia e guardò eri attraverso le rovine fumanti del suo castello di carte in effetti dovremmo darci da fare sai invitare qualcuno ha ragione non vogliamo certo finire con un paio di troll ermione farfugliò indignata un paio di come hai detto beh hai capito disse ron alzando le spalle preferirei andarci da solo che con con eloise midgen diciamo la sua acne è migliorata moltissimo ultimamente ed è molto simpatica ha il naso storto osservò ron oh capisco disse ermione incollerita quindi in pratica inviterai la ragazza più carina che sia disposta ad accettarti anche se è una persona orribile sì è più o meno così rispose ron vado a dormire scattò ermione e filò verso la scala delle ragazze senza aggiungere un'altra parola il corpo insegnante di hogwarts nello sforzo continuo di impressionare i visitatori di bobaton e durmstrang sembrava deciso a mostrare il castello al suo meglio per natale quando le decorazioni furono tutte al loro posto eri notò che erano le più straordinarie che avesse mai visto a scuola ghiaccioli sempiterni erano stati appesi ai corrimani della scalinata di marmo i soliti dodici alberi di natale della sala grande erano coperti di qualunque cosa dalle bacche luminose di agrifoglio ad autentici gufi d'oro ululanti e le armature erano state tutte stregate in modo da intonare canti di natale quando qualcuno gli passava davanti era davvero una cosa straordinaria sentire venite fedeli cantato da un elmo vuoto che sapeva solo metà delle parole filci il custode dovette estrarre parecchie volte pivs dalle armature dove aveva preso l'abitudine di nascondersi colmando le lacune nelle canzoni con rime di sua invenzione tutte decisamente volgari e eri non aveva ancora invitato ciò al ballo lui e ron cominciavano a innervosirsi anche se come osservò eri ron senza una compagna avrebbe fatto la figura dello stupido molto meno di lui eri doveva aprire le danze con gli altri campioni c'è sempre mirtilla malcontenta disse tetro alludendo al fantasma che infestava il bagno delle ragazze al secondo piano eri dobbiamo solo stringere i denti e farlo disse ron il venerdì mattina nel tono di chi medita di prendere d'assalto una fortezza inespugnabile questa sera quando torneremo in sala comune avremo tutti e due una dama d'accordo ok rispose eri ma tutte le volte che sbirciò ciò quel giorno all'intervallo e poi a pranzo e una volta mentre andava a storia della magia lei era circondata da amiche non andava mai da nessuna parte da sola forse poteva tenderle un agguato mentre andava in bagno ma no pareva che anche la ci andasse con una scorta di quattro o cinque ragazze ma se non agiva in fretta sarebbe stata di sicuro invitata da qualcun altro trovo difficile concentrarsi per il test di antidoti di piton e di conseguenza si scordò di aggiungere l'ingrediente chiave un besoar così prese un voto bassissimo ma non gli importava era troppo occupato a mettere insieme tutto il suo coraggio per ciò che stava per fare quando suonò la campana afferrò la borsa e corse verso la porta del sotterraneo ci vediamo a cena disse a ronne ermione e sfrecciò su per le scale doveva solo dire a ciò che voleva parlarle a quattro occhi tutto qui corse attraverso i corridoi affollati cercandola e più in fretta del previsto la trovò che usciva da una lezione di difesa contro le arti oscure ciò posso parlarti un momento le risatine dovrebbero essere messe fuori legge pensò erri infuriato mentre tutte le ragazze attorno a ciò si sbellicavano lei però no disse ok e lo seguì lontano dalle orecchie delle sue compagne erri si voltò a guardarla e il suo stomaco fece un balzo come se scendendo le scale avesse saltato un gradino disse non poteva invitarla non poteva ma doveva ciò rimase lì a guardarlo perplessa le parole gli uscirono di bocca prima che erri le avesse pronunciate non è bello con me cosa disse ciò vuoi vuoi venire al ballo con me disse erri perché doveva arrossire proprio ora perché oh disse ciò e arrossì anche lei oh erri mi dispiace tanto e sembrava davvero sincera ma ho già promesso di andare con qualcun altro oh disse erri che strano un attimo prima le sue viscere si contorcevano come serpi ma ora gli sembrava di non avere affatto delle viscere oh ok disse non c'è problema mi dispiace davvero ripete lei non c'è problema ripete erri rimasero lì a guardarsi e poi ciò disse beh sì disse erri beh ciao disse ciò sempre molto rossa si allontanò erri le gridò dietro prima di riuscire a trattenersi con chi ci vai o con cedric rispose lei con cedric digori oh certo disse erri gli erano tornate le viscere era come se durante la loro assenza qualcuno le avesse imbottite di piombo del tutto dimentico della cena risali lentamente fino alla torre di grifondoro con la voce di ciò che gli risuonavano in le orecchie a ogni gradino cedric cedric digori cedric aveva cominciato quasi a piacergli era disposto a sorvolare sul fatto che una volta lo aveva battuto a quidditch e che era bello e famoso e che era il campione preferito praticamente da tutti ora all'improvviso realizzò che cedric in effetti era un inutile bamboccio che non aveva abbastanza cervello da riempirci un porta uovo luci fatate disse in tono piatto alla signora grassa la parola d'ordine era cambiata il giorno prima sì certo caro trillò lei raddrizzandosi il nuovo cerchietto coi lustrini mentre scattava in avanti per lasciarlo passare erri entrò nella sala comune si guardò attorno e con sua sorpresa vide ron seduto in un angolo lontano pallidissimo ginny era seduta vicino a lui e gli parlava a bassa voce in tono consolatorio che cosa è successo ron chiese erri unendosi a loro ron alzò gli occhi verso erri una sorta di cieco terrore stampato in volto perché l'ho fatto esclamò fuori di sé non so che cosa mi è preso cosa chiese erri lui ha appena invitato al ballo flor della cour spiegò ginny sembrava trattenere a stento un sorrisetto ma continuò a dare pacche comprensive sul braccio di ron tu che cosa esclamò erri non so che cosa mi è preso ripete ron senza fiato che cosa avevo in testa c'era un sacco di gente tutto intorno sono impazzito tutti lì a guardare le stavo passando davanti nell'ingresso era lì che parlava con digori ed è stato più forte di me e glielo chiesto ron gemette e si nascose il viso tra le mani continuò a parlare meglio a far fugliare mi ha guardato come se fossi una romaca marina o roba del genere non mi ha nemmeno risposto e poi non so è come se fossi tornato in me e sono scappato via e in parte vila disse erri avevi ragione sua nonna era una vila non è stata colpa tua scommetto che sei passato di lì proprio mentre faceva un incantesimo da vila per digori e ci sei rimasto in mezzo ma comunque perdeva il suo tempo lui va al ballo con ciò chan ron lo fissò di sotto in su l'ho appena invitata disse erri in tono inespressivo e me l'ha detto gini all'improvviso aveva smesso di sorridere ma è pazzesco disse ron siamo i soli rimasti a non avere nessuno beh a parte neville ehi indovina chi ha invitato ermione cosa esclamò erri preso in contropiede dalla straordinaria notizia sì è vero disse ron e un po di colore gli tornò in viso mentre cominciava a ridere me l'ha detto dopo pozioni ha detto che lei è sempre così gentile che lo aiuta con i compiti eccetera ma lei gli ha detto che ci va già con un altro figuriamoci è solo che non voleva andarci con neville voglio dire chi la inviterebbe sta zitto intervenne gini seccata non ridere in quel momento ermione entrò dal buco del ritratto perché voi due non siete venuti a cena disse e si unì a loro perché smettetela di ridere voi due perché tutti e due sono appena stati bidonati dalle ragazze che avevano invitato al ballo disse gini questo chiuse la bocca a erri e ron grazie mille gini disse ron in aspro tutte quelle carine erano già occupate ron disse ermione altezzosa eloise midgen comincia a sembrarti niente male adesso è beh sono sicura che da qualche parte troverai qualcuna che ti dirà di sì ma ron stava fissando ermione come se all'improvviso la vedesse in una nuova luce ermione nevi la ragione tu sei una ragazza che scoperta ribatte lei acida beh puoi venire con uno di noi due no non posso replicò ermione o andiamo disse lui impaziente abbiamo bisogno di una compagna faremo la figura degli stupidi se non troviamo nessuno tutti gli altri hanno non posso venire con te disse ermione e arrossì perché ci vado già con un altro no non è vero disse ron l'hai detto solo per liberarti di nevil davvero disse ermione gli occhi che lampeggiavano pericolosamente solo perché tu ci hai messo tre anni per accorgertene ron non vuol dire che nessun altro abbia capito che sono una ragazza ron la fissò stupefatto poi sorrise di nuovo ok ok lo sappiamo che sei una ragazza disse va bene adesso ci vieni te l'ho già detto ripete ermione molto arrabbiata ci vado con un altro e uscì precipitosamente diretta al dormitorio femminile sta mentendo disse ron tranquillamente guardandola allontanarsi non è vero disse gini piano e allora chi è chiese ron in tono brusco non sarò io a dirtelo sono affari suoi disse gini giusto disse ron decisamente sconcertato questa faccenda sta diventando assurda gini tu puoi andare con erri e io non posso disse gini e diventò anche lei scarlatta ci vado con con nevil mi ha invitata quando ermione gli ha detto di no e ho pensato beh che altrimenti non potevo andarci io non sono del quarto anno sembrava molto avvilita credo che andrò a cena disse e si alzò e uscì a testa china dal buco del ritratto ron guardò erri con gli occhi sbarrati che cosa gli è preso a tutti quanti ma erri aveva appena visto parvati e lavanda entrare dal buco del ritratto era giunto il momento di un'azione decisa aspettami qui disse a ron poi si alzò andò risoluto verso parvati e disse parvati vuoi venire al ballo con me parvati fu scossa dalle risate erri attese che si spegnessero le dita incrociate nelle tasche sì allora va bene disse infine erro si furiosamente grazie disse erri sollevato lavanda tu ci vieni con ron ci va con simus disse parvati e tutte e due ridacchiarano più forte che mai erri sospirò non vi viene in mente nessuna che possa andare con ron disse abbassando la voce in modo che ron non sentisse ermione granger propose parvati ci va con un altro parvati rimase esterrefatta o con chi chiese con avidità erri alzò le spalle non ne ho idea rispose allora per ron beh disse parvati lentamente credo che mia sorella potrebbe padma sai di corvo nero se vuoi glielo chiedo sì sarebbe splendido disse erri fammi sapere d'accordo e tornò da ron convinto che questo ballo creasse più problemi che altro e sperando intensamente che il naso di padma patil fosse ben diritto il ballo del ceppo nonostante l'enorme mole di compiti per le vacanze erri non era dell'umore giusto per stare chino sui libri alla fine del trimestre e trascorse la settimana che precedeva il natale divertendosi più che poteva insieme a tutti gli altri la torre di grifondoro era di poco meno affollata che durante l'anno scolastico sembrava anche che si fosse rimpicciolita dal momento che i suoi occupanti erano molto più scalmanati del solito fredde george avevano avuto un gran successo con le loro crostatine canarine e nei primi due giorni delle vacanze c'era dappertutto gente che si riempiva di piume all'improvviso in breve tutti i grifondoro impararono a trattare con estrema cautela il cibo che veniva loro offerto nel caso avesse una crostatina canarina nascosta al centro e george rivelò a erri che lui e fred al momento stavano lavorando alla creazione di qualcosa di nuovo erri prese mentalmente nota di non accettare nemmeno una patatina da fredde george in futuro non aveva ancora dimenticato dadley e la mu molle lingua la neve cadeva fitta sul castello e sul parco la carrozza azzurra di bobaton sembrava una grossa fredda zucca glassata dal gelo vicino alla casetta di zenzero ghiacciata che era la capanna di agrid mentre i boccaporti della nave di durmstrang erano ricoperti di ghiaccio e il sartiame candido di neve gli elfi domestici giù nelle cucine stavano superando se stessi con una serie di ricchi stufati speciali e ottimi pasticci e solo fleur de la cour riusciva a trovare qualcosa di cui lamentarsi è troppo pesante questo mangiare di hogwarts la sentirono brontolare una sera mentre uscivano alle sue spalle dalla sala grande ron seminascosto dietro erri ben deciso a non farsi riconoscere da fleur non riuscirò a entrare nel mio vestito da sera che tragedia sbottò ermione mentre fleur entrava nell'ingresso si crede davvero chissà che cosa quella là vero ermione con chi vai al ballo disse ron continuava a rivolgerle questa domanda a tradimento nella speranza di coglierla di sorpresa e farla rispondere ma ermione si limitava a metter su il broncio e ripetere non te lo dico mi prenderesti in giro e basta stai scherzando weasley disse malfoi alle loro spalle vorresti dire che qualcuno ha invitato quella roba al ballo non la sangue marcio zannuta erri e ron si voltarono insieme di scatto ma ermione salutò qualcuno alle spalle di malfoi e disse ad alta voce buonasera professor mudi malfoi impallidi e fece un balzo guardandosi intorno terrorizzato ma mudi era ancora al tavolo degli insegnanti a finire lo stufato sei un furetto nervosetto è malfoi disse ermione sprezzante e lei erri e ron salirono la scalinata di marmo ridendo di cuore ermione disse ron guardandola di sottecchi improvvisamente accigliato i tuoi denti cos'hanno disse lei beh sono diversi l'ho appena notato ma certo credevi che mi sarei tenuta le zanne che mi aveva fatto crescere malfoi no voglio dire sono diversi da come erano prima che ti scagliasse l'incantesimo sono tutti diritti e e grandi giusti all'improvviso ermione fece un sorriso malizioso e allora se ne accorse anche erri era un sorriso molto diverso da quello che ricordava beh quando sono andata da madame pomfrey a farmi di rimpicciolire lei ha preso uno specchio e mi ha detto di fermarla quando fossero tornati alla loro misura disse e io l'ho solo lasciata andare avanti un po il sorriso divenne ancora più largo mamma e papà non saranno tanto contenti sono secoli che cerco di convincerli a farmeli rimpicciolire ma loro volevano che continuassi con l'apparecchio sapete sono dentisti pensano che denti e magia non dovrebbero guardate è tornato leo il guffetto di ron ululava all'impazzata in cima al corrimano coperto di ghiaccioli un rotolo di pergamena legato alla zampa i ragazzi che gli passavano davanti lo additavano e ridevano e un gruppo di ragazzina del terzo anno si fermò e disse oh guardate quel guffetto non è carino stupido piccolo idiota piumato sibilò ron correndo su per le scale afferrando leo le lettere le devi portare dritto al destinatario non devi perdere tempo a metterti in mostra leo cantò allegramente la testina che spuntava dal pugno di ron le ragazzine del terzo anno sembravano scioccate sparite sbottò ron agitando il pugno che strizzava leo il quale cantò più allegramente che mai ecco prendi la erri aggiunse sottovoce mentre le ragazzine del terzo anno filavano via con aria scandalizzata sfilò la risposta di sirius dalla zampa di leo erri se la cacciò in tasca e corsero su alla torre di grifondoro per leggerla tutti quanti in sala comune erano troppo impegnati a sfogare le loro energie vacanziere per notare che cosa facevano gli altri erri ron e ermione presero posto lontano dagli altri vicino a una finestra buia che si stava lentamente coprendo di neve erri lesse caro erri congratulazioni per essere riuscito a superare lo spinato chiunque abbia messo il tuo nome in quel calice non deve essere troppo felice adesso volevo suggerirti un incantesimo congiuntivitis visto che gli occhi sono il punto debole dei draghi è quello che ha usato crum sussurrò ermione ma la tua idea si è rivelata migliore sono davvero ammirato però non credere che sia finita erri hai superato solo una prova chiunque ti abbia buttato nella mischia a molte altre opportunità di farti del male tieni gli occhi aperti in particolare quando la persona di cui abbiamo parlato è nei dintorni e concentrati su una cosa tenerti fuori dai guai rimani in contatto voglio sempre essere informato su qualunque fatto insolito sirius tale quale ammudi disse erri piano infilando di nuovo la lettera nella tasca dell'abito vigilanza costante come se io andassi in giro a occhi chiusi sbattendo contro i muri ma ha ragione erri disse ermione tu hai ancora due prove da superare dovresti proprio dare un'occhiata a quell'uovo sai e cominciare a capire che cosa vuol dire ermione ha ancora un sacco di tempo sbottò ron ti va di fare una partita a scacchi erri sì ok disse erri poi notando l'espressione di ermione disse dai come faccio a concentrarmi con tutto questo baccano non riuscirei nemmeno a sentire l'uovo immagino di no disse lei con un sospiro e si sedette a guardare la loro partita a scacchi che culminò in un eccitante scacco matto di ron che coinvolse un paio di coraggiosissimi pedoni e un alfiere molto violento erri si svegliò di soprassalto la mattina di natale chiedendosi il perché aprì gli occhi e vide una creatura dai grandissimi tondi occhi verdi fissarlo di rimando nell'oscurità così vicino che i loro nasi quasi si sfioravano dobby strillò erri ritraendosi così in fretta dall'elfo che quasi cadde dal letto non farlo mai più dobby è spiacente signore squitti dobby ansioso balzando indietro le lunghe dita premute sulla bocca dobby vuole solo augurare a harry potter buon natale e dargli un regalo signore harry potter ha detto che dobby poteva venire a trovarlo una volta o l'altra signore ok disse harry il respiro ancora affannato mentre il battito del cuore tornava normale solo solo la prossima volta dammi una spintarella non so non piombarmi addosso così harry tirò indietro le tende che circondavano il letto prese gli occhiali dal comodino e li inforcò il suo strillo aveva svegliato ron simus dean e neville tutti e quattro spiavano dalle fessure tra le loro tende gli occhi gonfi e i capelli arruffati qualcuno ha cercato di aggredirti harry chiese simus assonnato no è solo dobby borbottò harry tornate a dormire no i regali esclamò simus notando il grosso mucchio ai piedi del suo letto ron dean e neville decisero che ormai che erano svegli potevano anche loro dedicarsi all'apertura dei pacchi harry si voltò di nuovo verso dobby in piedi accanto al suo letto ancora nervoso per aver spaventato harry c'era un ciondolo natalizio legato all'occhiello in cima al copriteiera dobby può dare a harry potter il suo regalo squitti esitante ma certo che puoi disse harry anche io ho qualcosa per te era una bugia non aveva comprato proprio niente per dobby ma aprì in fretta il baule ed estrasse un paio di calzini appallottolati particolarmente sformati erano i più vecchi e i più orrendi che avesse giallo senape ed erano appartenuti a zio vernon erano super bitorsoluti perché harry da un anno li usava per avvolgerci il suo spioscopio estrasse lo spioscopio e diede i calzini a dobby dicendo scusa mi sono dimenticato di impacchettarli ma dobby ne fu davvero deliziato i calzini sono i vestiti preferitissimi di dobby signore disse sfilandosi quelli vecchi e mettendosi quelli di zio vernon io ne ho sette adesso signore ma signore disse gli occhi sgranati dopo aver tirato su al massimo i calzini che ora sfioravano l'orlo dei pantaloncini loro ha fatto uno sbaglio al negozio harry potter loro ti ha dato due calzini uguali ma no harry come hai fatto a non accorgertene disse ron ghignando dal suo letto coperto di carta da regalo sai che cosa ti dico dobby ecco prendi questi due così puoi mescolarli come si deve e qui c'è il tuo golfino gettò a dobby un paio di calzini violetti che aveva appena scartato e il golf lavorato ai ferri mandato dalla signora weasley dobby fu sopraffatto dall'emozione signore è molto gentile squitti gli occhi colmi di lacrime facendo un profondo inchino a ron dobby lo sapeva che il signore deve essere un grande mago perché è il più grande amico di harry potter ma dobby non sapeva che era anche generoso di spirito nobile altruista sono solo calzini disse ron che era arrossito in zona orecchie però sembrava piuttosto compiaciuto wow harry aveva appena aperto il regalo di harry un berretto dei cannoni di chadley forte se lo ficò in testa faceva a pugni con il colore dei suoi capelli dobby tese a harry un pacchetto che si rivelò contenere calzini dobby li fa lui con le sue mani signore disse l'elfo allegramente compra la lana con i soldi del suo stipendio signore il calzino sinistro era rosso vivo con un motivo di scope quello destro era verde con un disegno di boccini sono sono davvero beh grazie dobby disse harry e se li infilò scatenando nell'elfo un nuovo pianto di gioia dobby adesso deve andare signore noi sta già preparando la cena di natale nelle cucine disse dobby e uscì di corsa dal dormitorio salutando ron e gli altri con la mano gli altri regali di harry furono molto più soddisfacenti dei calzini spaiati di dobby con l'ovvia eccezione di quello dei darsley che consisteva in un unico fazzoletto di carta un minimo storico harry pensò che si ricordassero bene la mu molle lingua ermione gli aveva regalato un libro intitolato squadre di quidditch della gran bretagna e dell'irlanda ron un sacchetto pieno di cacca bombe sirius un utile coltellino munito di accessori per aprire ogni serratura e disfare ogni nodo e agrid una gran scatola di dolci che comprendeva tutti i suoi preferiti gelatine tutti gusti più uno cioccorane gomme bolle drubol e api frizzole c'era anche naturalmente il solito pacco della signora weasley con un nuovo golf verde con un drago ricamato harry immaginava che charlie le avesse raccontato tutto dello spinato e una gran quantità di tortini fatti in casa harry e ron si incontrarono con ermione in sala comune e scesero insieme a colazione passarono gran parte della mattinata nella torre di grifondoro dove tutti si stavano godendo i loro regali poi tornarono nella sala grande per un pranzo sontuoso che comprendeva almeno 100 tacchini e puddin di natale e montagne di scoppiarelli magici nel pomeriggio uscirono nel parco la neve era intatta eccetto per i profondi solchi tracciati dagli studenti di durmstrang e bobaton per salire al castello ermione decise di assistere alla battaglia a palle di neve di harry e dei weasley invece di prendervi parte e alle cinque annunciò che tornava su alla torre a prepararsi per il ballo cosa ti ci vogliono tre ore disse ron fissandola in credulo e pagandola momentanea distrazione quando george lo centrò in pieno con una grossa palla di neve con chi ci vai urlò dietro a ermione ma lei si limitò a sventolare la mano risalì i gradini di pietra e sparì nel castello non ci fu il tè di natale quel giorno dal momento che il ballo comprendeva un banchetto così alle sette quando ormai era difficile prendere bene la mira tutti abbandonarono la battaglia a palle di neve e tornarono insieme in sala comune la signora grassa era seduta nella cornice con la sua amica violet del piano di sotto entrambe erano decisamente brille e scatole vuote di cioccolatini al liquore ingombravano la parte inferiore del quadro fucilatate è questa la parola giusta ridacchiò quando le dissero la parola d'ordine e scattò in avanti per lasciarli passare eri ron simus din e nevil indossarono gli abiti da cerimonia su nel dormitorio tutti molto impacciati anche semmai quanto ron che si guardava atterrito nel lungo specchio nell'angolo non c'era niente da fare quel coso assomigliava tremendamente a un vestito da donna in un disperato tentativo di farlo sembrare più maschile scagliò un incantesimo tagliuzzante sui pizzi al collo e ai polsi funzionò a meraviglia i pizzi erano spariti anche se non aveva fatto un lavoro molto preciso e gli orli erano ancora spaventosamente sfilacciati mentre si apprestavano a scendere non riesco ancora a capire come avete fatto voi due a beccarvi le ragazze più carine del nostro anno mugugnò din magnetismo animale disse ron cupamente tirando i fili che pensolavano dai polsini dell'abito la sala comune aveva un'aria strana così piena di ragazzi dai vestiti colorati invece della solita massa nera parvati aspettava eri ai piedi delle scale in effetti era molto carina con un abito rosa shocking un nastro d'oro nella lunga treccia scura e braccialetti d'oro che scintillavano ai polsi eri fu sollevato vedendo che non ridacchiava stai bene le disse esitante grazie ribatte lei padma ti aspetta nella sala d'ingresso aggiunse rivolta a ron va bene disse ron guardandosi intorno dov'è ermione parvati al sole spalle allora scendiamo eri ok ei disse eri che avrebbe tanto voluto poter rimanere in sala comune fred gli fece l'occhiolino quando gli passò davanti uscendo dal buco del ritratto anche la sala d'ingresso era stipata di studenti che ciondolavano in attesa delle otto quando le porte della sala grande si sarebbero aperte i ragazzi che dovevano incontrarsi con i partner di case diverse si facevano largo tra la folla cercandosi parvati scorse sua sorella padma e la guidò da eri e ron ciao disse padma che era carina quanto parvati nel suo vestito di un turchese vivo non parve però troppo entusiasta di avere ron come partner i suoi occhi scuri indugialono sul colletto e sui polsi sfilacciati dell'abito mentre lo squadrava da capo a piedi ciao disse ron senza guardarla scrutando la folla o no piegò appena le ginocchia per nascondersi dietro eri perché stava passando fleur de la cour favolosa nel suo abito di satè in grigio argento accompagnata dal capitano della squadra di quiddici di corvo nero roger davis quando furono scomparsi ron si raddrizzò di nuovo e guardò oltre le teste della folla ma dove è ermione esclamò ancora una volta un gruppo di serpeverde salì dai gradini della loro sala comune sotterranea davanti c'era malfoi indossava un abito di velluto nero con il colletto alto che secondo eri lo faceva assomigliare a un prete pensi parkinson stringeva il braccio di malfoi avvolta in un abito rosa pallido molto sontuoso crebbe goyle erano vestiti di verde tutti e due sembravano sassi color muschio e nessuno dei due eri fu lieto di notare era riuscito a trovare un'accompagnatrice il portone di quercia si aprì e tutti si voltarono a guardare l'ingresso degli studenti di durmstrang con il professor karkaroff krum era in testa al gruppo accompagnato da una ragazza carina vestita di azzurro che eri non conosceva oltre le loro teste vide che una parte del prato davanti al castello era stata trasformata in una sorta di grotta piena di luci fatate centinaia di fatine in carne e ossa erano sedute nei cespugli di rose fatti apparire sul posto e svolazzavano su quelle che sembravano le statue di babbo natale e le sue renne poi la voce della professoressa mcgonagall gridò i campioni qui per favore parvati si risistemò i braccialetti radiosa lei e eri dissero ci vediamo fra un attimo a ron e padma e avanzarono mentre la folla chiacchierina si apriva per lasciarli passare la professoressa mcgonagall che indossava un abito da sera scozzese rosso e si era sistemata una ghirlanda di cardi piuttosto bruttina attorno alla tesa del cappello disse loro di aspettare su un lato della porta mentre entravano tutti gli altri dovevano fare il loro ingresso nella sala grande in corteo una volta che il resto degli studenti avesse preso posto ai tavoli fleur de la cour e roger davis si dispose lo vicino alla porta davis sembrava così esterrefatto per la fortuna di avere fleur come compagna che riusciva a stento a toglierle gli occhi di dosso anche cedric e ciò erano vicini a eri che guardò altrove in modo da non dover fare conversazione il suo sguardo invece cadde sulla ragazza al braccio di crum e rimase a bocca aperta era ermione ma non somigliava affatto a ermione si era fatta qualcosa ai capelli non erano più cespugliosi ma lisci e lucenti e legati in un nodo elegante dietro la testa indossava un abito di un morbido tessuto blu per vinca e aveva un comportamento in qualche modo diverso o forse era solo l'assenza della solita ventina di libri che di solito portava appesi alla schiena sorrideva anche piuttosto nervosamente a dire il vero e si notava moltissimo che i denti davanti erano rimpiccioliti eri non riusciva a capire come aveva fatto a non accorgersene prima ciao eri esclamò ciao parvati parvati fissava ermione con uno sguardo incredulo assai poco lusinghiero non era la sola comunque quando si aprirono le porte della sala grande il fan club di crum in biblioteca entrò tutto impettito scoccando a ermione occhiate d'odio pensi perkinson la guardò a occhi sbarrati entrando con malfoi e anche lui parve non riuscire a trovare un insulto da rivolgerle ron le passò davanti senza guardarla una volta che tutti si furono sistemati nella sala grande la professoressa mcgonagall disse ai campioni e ai loro accompagnatori di mettersi in fila a coppie e di seguirla obbedirono e la sala grande applaudì mentre facevano il loro ingresso e avanzavano verso un grande tavolo rotondo all'altra estremità della sala dove avevano preso posto i giudici le pareti della sala erano tutte coperte di brina d'argento scintillante con centinaia di ghirlande di edera e vischio che si incrociavano attraverso il nero soffitto stellato i tavoli delle case erano spariti al loro posto ce n'erano un centinaio più piccoli illuminati da lanterne e ciascuno ospitava una dozzina di persone harry si sforzò di non inciampare nei propri piedi parvati aveva l'aria di divertirsi rivolgeva gran sorrisi a tutti portando harry con tanta energia da farlo sentire un cane da esibizione guidato a bacchetta scorse ron e padma mentre si avvicinava al tavolo dei giudici ron scrutava ermione con gli occhi ridotti a fessure padma era imbronciata silente sorrise allegramente mentre i campioni si avvicinavano al suo tavolo ma carcaroff ostentava un'espressione molto simile a quella di ron mentre guardava crum e ermione avvicinarsi ludo bugman che per l'occasione indossava una veste di un viola acceso a grandi stelle gialle batteva le mani con l'entusiasmo degli studenti e madame maxime che aveva sostituito la sua solita uniforme di satè nero con un abito dall'ampia gonna di seta color lavanda applaudiva educatamente ma il signor crouch harry notò all'improvviso non c'era il quinto posto del tavolo era occupato da percy weasley quando i campioni e i loro accompagnatori ebbero raggiunto il tavolo percy scostò la sedia vuota al suo fianco e fissò harry con uno sguardo eloquente harry capì al volo e si sedette accanto a lui che indossava un abito da sera nuovissimo blu marino è un'espressione di assoluto compiacimento sono stato promosso disse prima ancora che harry potesse chiederglielo e dal tono parve annunciare la sua elezione a supremo reggente dell'universo ora sono l'assistente personale del signor crouch e sono qui in sua vece perché non è venuto chiese harry non aveva una gran voglia di sorbirsi una conferenza sui fondi di calderone per tutta la cena mi dispiace dire che il signor crouch non sta bene non sta affatto bene e così dalla coppa del mondo non c'è da stupirsi troppo lavoro non è più quello di una volta anche se ancora piuttosto notevole naturalmente la testa è rimasta eccezionale ma la coppa del mondo è stato un disastro per tutto il ministero e il signor crouch ha subito un grave colpo a causa del comportamento scorretto di quella sua elfa domestica blinkie o come accidenti si chiamava naturalmente l'ha allontanata subito dopo ma beh come ho già detto tira avanti ha bisogno che qualcuno si prenda cura di lui e credo che da quando lei se n'è andata il suo menage familiare sia decisamente peggiorato e poi abbiamo dovuto organizzare il torneo e ci sono stati gli strascichi della coppa con quella rivoltante skitter che ci lonza intorno continuamente no pover uomo si sta godendo un meritato tranquillo natale sono solo felice che sapesse di avere qualcuno su cui contare per sostituirlo harry aveva un gran desiderio di chiedergli se il signor crouch aveva smesso di chiamarlo weatherby ma resistette alla tentazione i lucenti piatti d'oro erano ancora vuoti ma c'erano piccoli menu disposti di fronte a ciascuno dei commensali harry prese il suo esitante e si guardò attorno non c'erano camerieri silente però passò attentamente in rassegna il proprio menu e poi disse con voce chiara rivolto al suo piatto costolette di maiale e le costolette di maiale apparvero colto il meccanismo anche il resto della tavolata fece le sue ordinazioni ai piatti harry guardò ermione per vedere come reagiva a quel nuovo più complicato modo di cenare che doveva significare un sacco di lavoro in più per gli domestici ma per una volta ermione non sembrava concentrata sul crepa era immersa in una fitta conversazione con victor crum e pareva accorgersi a malapena di quello che mangiava in quel momento erry si sorprese a pensare che non aveva mai veramente sentito parlare crum prima però al momento parlava e come e con molto entusiasmo beh noi anche abbiamo un castello anche se non grosso come questo è non così comodo io crede stava spiegando ermione noi abbiamo solo quattro piani e i fuochi viene accesi solo per scopi di magia ma noi abbiamo un parco più grosso di questo anche se d'inverno noi ha molto poco luce e così noi usiamo esso non molto ma d'estate noi foliamo tutti i giorni su lago su montagna insomma insomma victor disse carcaroff con una risata che non si estese agli occhi gelidi non raccontare anche il resto altrimenti la tua affascinante amica saprà dove trovarci silente sorrise un brillio negli occhi igor quanti misteri si potrebbe pensare che non volete visitatori beh silente disse carcaroff scoprendo i denti ingialliti in tutto il loro splendore cerchiamo tutti di proteggere i nostri domini privati no non vegliamo tutti gelosamente sulle case della conoscenza che ci sono state affidate non siamo giustamente fieri di essere i soli a conoscere i segreti della nostra scuola non abbiamo ragione di proteggerli oh non mi sognerei mai di pretendere di conoscere tutti i segreti di hogwarts igor disse silente in tono amabile solo stamattina per esempio ho preso la direzione sbagliata mentre andavo in bagno e mi sono ritrovato in una stanza di magnifiche proporzioni che non avevo mai visto prima che ospitava una collezione di vasi da notte davvero notevole quando sono tornato indietro per guardare meglio ho scoperto che la stanza era sparita ma devo tenerla ad occhio è probabile che sia accessibile solo alle cinque e mezzo del mattino o che compaia solo quando la luna è a un quarto o quando colui che la cerca alla vescica straordinariamente gonfia harry sbuffò nel suo piatto di goulash persi si accigliò ma harry avrebbe giurato che silente gli avesse fatto l'occhiolino nel frattempo fleur de la cour criticava le decorazioni di hogwarts parlando con roger davis così ne danniante disse in tono sbrigativo guardando le pareti scintillanti della sala grande al palazzo di bobatron abbiamo sculture di ghiascio tutto intorno la sala da pranzo a natale non si sciolgono naturalmente sono grandi statue di diamante che brillano e il mangiare è semplice monte superbe e abbiamo cori di ninfe dei boschi mentre mangiamo non abbiamo quelle brutte armature nei corridoi e se un poltergeist mai on tra bobaton viene espulso consa e colpisce onoramente il tavolo con la mano roger davis la guardava parlare ipnotizzato e non riusciva a centrare la bocca con la forchetta harry aveva l'impressione che davis fosse troppo occupato a contemplare fleur per capire anche solo una parola di quello che stava dicendo verissimo disse in fretta picchiando la mano sul tavolo come aveva fatto fleur consa sì harry si guardò intorno agrid era seduto a un altro dei tavoli degli insegnanti indossava di nuovo il suo orrendo vestito marrone peloso e scrutava il tavolo dei giudici harry lo vide agitare timidamente la mano e seguendo il suo sguardo vide madame maxim rispondergli gli opali che scintillavano alla luce delle candele ermione stava insegnando a crum la pronuncia originale del suo nome lui continuava a chiamarla ermion e maioni disse scandendo le sillabe ermioni quasi disse lei intercettando lo sguardo di harry con un sorriso quando tutto il cibo fu consumato silente si alzò e chiese agli studenti di imitarlo poi a un colpo di bacchetta i tavoli schizzarono via e si risposero lungo i muri lasciando il pavimento sgombro silente fece apparire una piattaforma sopraelevata lungo la parete di destra sopra c'erano una batteria completa parecchie chitarre un liuto un violoncello e alcune cornamuse i weird sisters salirono sul palcoscenico salutati da applausi entusiasti tutti avevano i capelli eccezionalmente lunghi e portavano abiti neri che toccavano terra accuratamente strappati e lacerati presero gli strumenti e harry che era così impegnato a guardarli da aver quasi dimenticato che cosa stava per succedere all'improvviso si accorse che le lanterne su tutti gli altri tavoli si erano spente e che gli altri campioni e i loro accompagnatori erano in piedi dai si bilò parvati dobbiamo ballare alzandosi harry inciampò nel vestito i weird sisters attaccarono una melodia lenta e lugubre harry avanzò sulla pista da ballo bene illuminata badando bene a non incrociare lo sguardo di nessuno vide simus e dean che lo salutavano con la mano e ridacchiavano e un attimo dopo parvati lo aveva afferrato per le mani gliene aveva sistemata uno attorno alla propria vita e teneva ben stretta l'altra nella sua non era poi così male pensò harry girando lentamente sul posto era parvati a portare tenne gli occhi fissi sulle teste degli spettatori e ben presto anche molti di loro li raggiunsero sulla pista da ballo così che i campioni non furono più al centro della tensione neville e gini ballavano lì vicino vide gini strizzare gli occhi mentre neville le pestava i piedi e silente volteggiava con madame maxim la sproporzione tra i due era tale che la punta del cappello di silente solleticava appena il mento di lei comunque madame maxim si muoveva con molta grazia per essere così robusta ma l'occhio moody era impegnato in un goffo two step con la professoressa sinistra che evitava nervosamente la sua gamba di legno bei calzini potter ringhiò moody passandogli accanto l'occhio magico che scrutava attraverso l'abito di harry o sì me li ha fatti dobbio l'elfo domestico disse harry con un gran sorriso è così inquietante sussurrò parvati mentre moody si allontanava un tonfo dopo l'altro quell'occhio non dovrebbero nemmeno permetterlo harry accolse con sollievo la tremolante nota finale della cornamusa i weird sisters smisero di suonare gli applausi riempirono di nuovo la sala e harry mollò immediatamente parvati sediamoci eh oh ma questa è proprio bella esclamò parvati mentre i weird sisters attaccavano un'altra canzone molto più veloce no non mi piace menti harry e la condusse via dalla pista oltre fredde angelina che ballavano con tanto entusiasmo che i ragazzi attorno a loro si scostavano per paura di essere travolti verso il tavolo dove erano seduti ron e padma come va chiese harry a ron prendendo posto e aprendo una bottiglia di burro birra ron non rispose stava fissando cupo ermione e crum che ballavano lì vicino padma era seduta con braccia e gambe incrociate un piede che dondolava a tempo con la musica ogni tanto scoccava uno sguardo scontento a ron che la ignorava completamente parvati si sedette di fronte a harry incrociò a sua volta gambe e braccia e dopo pochi minuti fu a ballare da un ragazzo di bobaton non ti dispiace vero harry disse parvati cosa disse harry che stava guardando ciò e cedric non importa sbottò parvati e se ne andò con il ragazzo di bobaton alla fine della canzone non fece ritorno ermione si avvicinò e si sedette sulla sedia lasciata vuota da parvati era un po rossa in faccia ciao disse erri ron rimase zitto fa caldo vero disse ermione sventolandosi con la mano victor è andato a prendere da bere ron le scoccò un'occhiata fulminante victor esclamò non ti ha ancora chiesto di chiamarlo vicky ermione lo guardò sorpresa che cos'hai chiese se non lo sai tu rispose ron sprezzante non ho intenzione di spiegartelo ermione lo fissò poi guardò harry che si strinse nelle spalle ron che cosa è di durmstrang esplose ron gareggia contro harry contro hogwarts tu tu stai ron evidentemente stava cercando parole abbastanza forti per definire il crimine di ermione fraternizzando con il nemico ecco che cosa stai facendo ermione rimase a bocca aperta non fare lo stupido disse dopo un attimo il nemico ma insomma chi era quello tutto esagitato quando li avviste arrivare chi era che voleva il suo autografo chi tiene un suo modellino su nel dormitorio ron fece finta di non sentire immagino che ti abbia chiesto di accompagnarlo quando eravate tutti e due in biblioteca proprio così disse ermione con le guance sempre più rosse e allora che cosa è successo hai cercato di convincerlo a unirsi al crepa vero no non è vero se proprio lo vuoi sapere lui lui ha detto che veniva in biblioteca tutti i giorni per cercare di parlare con me ma non trovava il coraggio disse precipitosamente ermione e arrossì tanto da diventare dello stesso colore del vestito di parvati sì certo questo è quello che dice lui disse ron maligno e con che cosa vorresti dire è ovvio no lui è uno studente di carcarof no lui sa chi frequenti sta solo cercando di avvicinarsi a erri di ottenere informazioni riservate su di lui o di avvicinarsi quel tanto che basta per stregarlo sembrava che ron l'avesse schiaffeggiata quando parlò la voce di ermione tremava di rabbia per tua informazione non mi ha chiesto una singola cosa a proposito di erri non una ron cambiò strategia alla velocità della luce allora spera che tu lo aiuti a scoprire che cosa vuol dire il suo uovo immagino che vi siate ben consultati in quei vostri incontri ravvicinati in biblioteca non lo aiuterei mai a scoprire che cosa dice l'uovo esclamò ermione fuori di sé mai come hai potuto dire una cosa del genere io voglio che erri vinca il torneo erri lo sa vero erri hai uno strano modo di dimostrarlo disse ron sarcastico il torneo ha lo scopo di mettere in contatto maghi stranieri e fare amicizia con loro disse ermione con voce acuta no non è vero urlò ron lo scopo è vincere gli altri ragazzi cominciavano a guardarli ron disse erri piano non mi dà nessun fastidio che ermione sia venuta al ballo con crum ma ron ignorò anche erri perché non vai a cercare vicky si starà chiedendo dove sei finita disse non chiamarlo vicky ermione balzò in piedi e corse via sulla pista da ballo ben presto scomparve tra la folla ron la guardò allontanarsi con un misto di rabbia e soddisfazione hai intenzione di invitarmi a ballare gli chiese padma no rispose ron continuando a guardare torvo nella direzione di ermione bene sbottò padma e si alzò per andare a raggiungere parvati e il ragazzo di bobaton che riuscì a recuperare un amico tanto in fretta che erri pensò che avesse usato un incantesimo di appello dov'è ermioni disse una voce crum era appena arrivato al loro tavolo con due burro birre non ne ho idea rispose ron ostinato guardandolo di sottecchi l'hai persa eh crum era di nuovo arcigno beh se fetete lei dite che ho da bere disse e andò via dondolando hai fatto amicizia con victor crum eh ron persi si avvicinò scattante sfregandosi le mani con aria molto pomposa ottimo è questo lo scopo sai cooperazione magica internazionale con gran fastidio di erri prese immediatamente il posto lasciato libero da padma il tavolo dei giudici era vuoto il professor silente ballava con la professoressa sprout ludo bugman con la professoressa mcgonagall madame maxime e agrid aprivano un ampio varco sulla pista mentre volteggiavano tra gli studenti e carcaroff era sparito quando la canzone successiva fu finita tutti applaudirono di nuovo e erri vide ludo bugman fare il baciamano alla professoressa mcgonagall e tornare tra la folla in quel momento gli si avvicinarono fred e george che cosa credono di fare infastidire un membro anziano del ministero sibilò persi osservando con sospetto fred e george non hanno nessun rispetto ma ludo bugman si liberò in fretta di fred e george poi vide erri agitò la mano e si avvicinò al loro tavolo spero che i miei fratelli non la stessero disturbando signor bugman disse subito persi cosa o niente affatto niente affatto disse bugman no mi stavano solo dicendo qualcosa di più di quelle loro bacchette finte forse posso dar loro una mano per metterle in commercio ho promesso di metterle in contatto con un paio di conoscenze che ho all'emporio degli scherzi di zonco persi non parve affatto felice e erri era pronto a scommettere che si sarebbe precipitato a raccontare tutto alla signora weasley non appena tornato a casa a quanto pareva i progetti di fred e george erano diventati ancora più ambiziosi ultimamente se speravano di vendere al pubblico bugman aprì la bocca per chiedere qualcosa a erri ma persi lo interruppe come le sembra che stia andando il torneo signor bugman il nostro ufficio è piuttosto soddisfatto quell'intoppo con il calice di fuoco scoccò un'occhiata a erri è stato leggermente spiacevole certo ma da allora appare che le cose siano filate lisce non crede oh sì disse bugman allegramente ci si diverte un sacco come sta il vecchio barty peccato che non sia potuto venire oh sono certo che il signor crouch si rimetterà molto in fretta disse persi solennemente ma nel frattempo sono più che disposto a dargli una mano naturalmente non si tratta solo di venire ai balli rise con leggerezza oh no ho avuto a che fare con ogni genere di cose saltate fuori durante la sua assenza avete sentito che alibashir è stato sorpreso a contrabbandare un carico di tappeti volanti nel paese e stiamo cercando di convincere i transilvani a firmare il bando internazionale dei duelli o un incontro con il loro capo della cooperazione magica all'inizio dell'anno nuovo andiamo a fare due passi borbottò ron a harry allontaniamoci da persi fingendo di avere sete harry e ron si allontanarono dal tavolo costeggiarono la pista da ballo e uscirono nella sala d'ingresso il portone era ancora aperto e le luci danzanti delle fatine nel giardino delle rose baluginavano e scintillavano mentre loro due scendevano i gradini poi si trovarono circondati da cespugli tortuosi sentieri ornamentali e grandi statue di pietra harry sentì un gocciolio sembrava proprio una fontana qua e là panchine intagliate ospitavano ragazzi e ragazze harry e ron si incamminarono lungo uno dei viottoli tortuosi attraverso i cespugli di rose ma avevano fatto pochi passi quando udirono una voce sgradevolmente familiare non vedo che cosa ci sia da agitarsi tanto igor severus non puoi fingere che non stia succedendo niente la voce di carcarof era bassa e ansiosa come se si sforzasse di non farsi sentire da altri è diventato sempre più evidente negli ultimi mesi sono davvero preoccupato non posso negarlo allora scappa disse bruscamente la voce di piton vattene farò io le tue scuse io comunque rimango a hogwarts piton e carcarof svoltarono l'angolo piton aveva la bacchetta in mano e faceva saltar via i cespugli di rose con un cipiglio decisamente ostile da molti dei cespugli si levarono strilli e spuntarono sagome scure dieci punti in meno per tasso frasso fosset sibilò piton a una ragazza in fuga e dieci punti in meno anche per corvo nero stebbins a un ragazzo che la seguì di corsa e voi due che cosa state facendo aggiunse notando harry e ron sul sentiero davanti a sé carcarof osservò harry parve piuttosto preoccupato di vederli lì la mano gli corse nervosamente al pizzetto e cominciò a riarrotolarselo sul dito stiamo camminando rispose ron asciutto non è contro la legge vero continuate a camminare allora sibilò piton e li oltrepassò velocemente il lungo mantello nero che ondeggiava le sue spalle carcarof lo seguì di corsa harry e ron ripresero a scendere il sentiero che cos'è che preoccupa tanto carcarof borbottò ron e da quando lui e piton si danno del tu aggiunse harry piano avevano raggiunto una grossa renna di pietra su cui zampillava l'acqua scintillante di un'alta fontana su una panchina accanto spiccavano le nere sagome di due esseri enormi intenti a guardare l'acqua alla luce della luna e poi harry udì la voce di agrid l'ho capito dal primo momento che ti ho vista stava dicendo con voce curiosamente rocca harry e ron rimasero paralizzati non era proprio il genere di situazione da interrompere bruscamente harry si guardò intorno su per il sentiero e vide fleur de la cour e roger davis seminascosti dietro un cespuglio di rose lì vicino diede un colpetto a ron sulla spalla e fece cenno con la testa verso di loro per dire che potevano sgattagliolare via da quella parte senza farsi notare fleur e davis gli parvero parecchio indaffarati ma ron gli occhi sgranati dall'orrore alla vista di fleur scosse vigorosamente la testa e trascinò harry nell'ombra fitta dietro la renna che cosa hai capito a grid disse madame maxime con voce talmente bassa che sembrava stesse facendo le fusa harry non aveva nessuna intenzione di stare a sentire agrid avrebbe detestato essere spiato in una situazione del genere harry personalmente non l'avrebbe sopportato potendo si sarebbe infilato le dita nelle orecchie e avrebbe cominciato a canticchiare ad alta voce ma non era certo una soluzione praticabile invece cercò di concentrarsi su uno scarabeo che zampettava lungo la schiena della renna di pietra ma lo scarabeo non era abbastanza interessante da fargli ignorare le parole che seguirono lo sapevo e basta sapevo che tu eri come me era tua mamma o tuo papà io io non so tu che vuole dire agrid per me era mia mamma disse agrid piano era una delle ultime della gran bretagna certo che non me la ricordo tanto bene è andata via sai quando avevo tre anni non era un tipo materno proprio no beh non fa parte della loro natura vero non so che fine ha fatto potrebbe anche essere morta per quello che ne so madame maxim non disse niente e harry suo malgrado distolse gli occhi dallo scarabeo e guardò oltre la renna ascoltando non aveva mai sentito agrid parlare della sua infanzia prima d'allora al mio papà ci si è spezzato il cuore quando è andata via un piccoletto era mio papà a sei anni riuscivo a tirarlo su e metterlo in cima alla credenza se mi sgridava lo facevo ridere tanto la voce profonda di agrid si spezzò madame maxim lo ascoltava immobile fissando almeno in apparenza la fontana argentata è stato lui a tirarmi su ma è morto subito dopo che ho cominciato la scuola da allora ho dovuto arrangiarmi silente è stato un grande aiuto sai tanto gentile con me è stato agrid tirò fuori un fazzolettone di seta a pallini e si soffiò il naso con una gran pernacchia così comunque su di me ho già detto abbastanza e tu di che origini sei ma madame maxim si era improvvisamente alzata in piedi fa freddo disse ma quale che fosse il tempo non era nemmeno remotamente freddo come la sua voce io torna dentro e esclamò agrid smarrito no non andare io io non ne ho mai incontrato un altro prima d'ora un altro che cosa esattamente chiese madame maxim in tono gelido se avesse potuto harry avrebbe detto agrid che era meglio non rispondere invece rimase lì nell'ombra stringendo i denti sperando con tutto se stesso che non succedesse ma fu inutile un altro mezzo gigante naturalmente disse agrid come osi strillò madame maxim la sua voce rimbombò come una sirena nella quieta aria notturna alle spalle di harry flor e roger furono sbalzati via dal loro cespuglio di rose nessuna mai ha insultato me in tutta la vita mezza gigante mua ho solo le ossa gondi e scappò ampi sciami multicolori di fatine si levarono nell'aria mentre passava spazzando via i cespugli agrid rimase seduto sulla panchina a guardarla era troppo buio per vedere la sua faccia poi dopo un minuto si alzò e si allontanò non in direzione del castello ma dall'altra parte nel parco oscuro verso la sua capanna dai disse harry a ron molto piano andiamo ma ron non si mosse che cosa c'è chiese harry ron si voltò verso harry con espressione davvero molto seria lo sapevi sussurrò che agrid era mezzo gigante no rispose harry con un'alzata di spalle e allora dall'occhiata di ron capì all'istante che stava rivelando una volta ancora la sua scarsa conoscenza del mondo magico era stato cresciuto dai darsley e quindi c'erano molte cose che i maghi davano per scontate e che per lui erano rivelazioni ma queste sorprese erano diminuite da quando era entrato a scuola in quel momento però si rese conto che la maggior parte dei maghi non avrebbe detto e allora scoprendo che uno dei loro amici aveva per madre una gigantessa ti spiego quando siamo dentro disse ron piano dai flore e roger davis erano spariti probabilmente in un cespuglio più intimo harry e ron fecero ritorno nella sala grande parvati e padma sedevano a un tavolo lontano con una folla intera di ragazzi di bobaton e ermione stava ballando ancora con crum harry e ron presero posto a un tavolo piuttosto lontano dalla pista da ballo allora harry incalzò ron che cos'hanno i giganti beh sono sono ron si sforzò di trovare le parole poco simpatici concluse debolmente e allora disse harry agride a posto lo so ma accidenti non mi meraviglio che non ci tenga a farlo sapere rispose ron scuotendo la testa ho sempre creduto che fosse incappato in un brutto incantesimo di ingozzamento da piccolo o roba del genere non voleva parlarne ma chi se ne importa se sua madre era una gigantessa beh a nessuno di quelli che lo conoscono importerà niente perché sanno che non è pericoloso disse ron lentamente ma harry sono malvagi i giganti è come ha detto agrid è nella loro natura sono come i troll gli piace uccidere lo sanno tutti comunque in gran bretagna non ce ne sono più che cosa gli è successo beh si stavano estinguendo comunque e un sacco sono stati uccisi dagli auror dovrebbero esserci dei giganti all'estero però si nascondono soprattutto sulle montagne ma chi vuole prendere in giro quella maxime disse harry osservando madame maxime seduta da sola al tavolo dei giudici con aria molto cupa se agrid è un mezzo gigante allora lo è anche lei ossa grandi la sola cosa conosce più grandi delle sue è un dinosauro harry e ron passarono il resto della festa a discutere di giganti nel loro angolino visto che nessuno dei due aveva alcuna voglia di ballare harry cercò di ignorare ciò e cedric quei due gli mettevano addosso una gran voglia di prendere a calci qualcosa quando a mezzanotte i weird sisters smisero di suonare tutti rivolse loro un ultimo sonoro scroscio di applausi e cominciarono ad avviarsi verso la sala d'ingresso molti ragazzi dicevano che avrebbero voluto che il ballo durasse di più ma harry fu assolutamente felice di andare a dormire per quello che lo riguardava la serata non era stata granché divertente fuori nella sala d'ingresso harry e ron videro ermione augurare la buonanotte a crum prima che lui facesse ritorno alla nave di durmstrang lei rivolse a ron un'occhiata gelida e lo superò di corsa su per la scalinata di marmo senza dire una parola harry e ron la seguirono ma a metà della scalinata harry si sentì chiamare ehi harry era cedric digori saliva di corsa le scale per raggiungerlo mentre ciò aspettava di sotto nell'ingresso sì disse harry freddamente cedric esitò lasciando capire di voler parlare a quattro occhi con harry ron scrollò le spalle stizzito e continuò a salire da solo senti cedric abbassò la voce mentre ron spariva mi hai detto dei draghi quindi ti devo un favore sai l'uovo d'oro il tuo ulula quando lo apri sì rispose harry beh fatti un bagno ok cosa fatti un bagno e porta con te l'uovo e pensaci su nell'acqua calda ti aiuterà a riflettere fidati harry lo guardò sbalordito e te ne dico un'altra aggiunse cedric usa il bagno dei prefetti quarta porta a sinistra della statua di boris il basito al quinto piano la parola d'ordine è fresco pino devo andare volevo dare la buonanotte fece un altro gran sorriso a harry e corse giù per le scale da ciò harry tornò alla torre di grifondoro da solo era un consiglio estremamente bizzarro perché mai un bagno avrebbe dovuto aiutarlo a capire che cosa voleva dire l'uovo ululante cedric lo stava prendendo in giro stava cercando di fargli fare la figura dell'idiota così ciò per contro lo avrebbe ammirato ancora di più la signora grassa e la sua amica di russavano nel ritratto sopra il buco harry dovette strillare luci fatate per svegliarle cosa che le irritò parecchio salì nella sala comune e là trovò che ron e ermione stavano litigando furiosamente a tre metri di distanza l'uno dall'altra si urlavano addosso rossi in faccia beh se non ti va lo sai qual è la soluzione è gridò ermione i capelli le stavano crollando dalla crocchia elegante e il suo volto era contratto dalla rabbia ah sì urlò ron di rimando e qual è la prossima volta che c'è un ballo invitami prima che lo faccia qualcun altro e non come ultima spiaggia ron aprì e chiuse la bocca senza parlare come un pesce rosso fuori dall'acqua mentre ermione girava sui tacchi e correva su per la scala delle ragazze ron si voltò a guardare harry beh farfugliò folgorato beh questo dimostra solo non ha proprio capito harry non disse nulla era troppo contento di essere di nuovo amico di ron per dire la sua in quel momento ma dentro di sé pensava che ermione avesse capito molto più di ron lo scoop di rita skitter il 26 dicembre tutti si svegliarono tardi la sala comune di grifondoro era molto più tranquilla di quanto non fosse stata ultimamente e frequenti sbadigli punteggiavano le pigre conversazioni i capelli di ermione erano di nuovo crespi confessò a harry di aver usato una gran quantità della tricopozione di sciariccio per il ballo ma è troppo complicato farlo tutti i giorni concluse in tono pratico solleticando dietro le orecchie un gratastinchi impegnato a fare le fusa ron e ermione parevano aver raggiunto un tacito accordo non parlare della loro lite erano piuttosto amichevoli l'uno verso l'altra anche se stranamente formali ron e henry comunque le raccontarono subito della conversazione tra madame maxime e agrid ma ermione a differenza di ron non trovò affatto spaventosa la notizia che agrid fosse un mezzo gigante beh me lo immaginavo disse alzando le spalle sapevo che non poteva essere un gigante puro perché sono alti sei metri ma sinceramente tutta questa agitazione per i giganti non possono essere tutti terribili è lo stesso tipo di pregiudizio che la gente nutre nei confronti dei lupi mannari è solo fanatismo no ron aveva l'aria di voler ribattere qualcosa l'italiente ma forse non voleva scatenare un'altra lite perché si accontentò di scuotere la testa incredulo mentre ermione non lo guardava era giunto il momento di pensare ai compiti che avevano trascurato durante la prima settimana di vacanza tutti sembravano piuttosto giù di tono ora che il natale era passato o meglio tutti tranne erri che cominciava di nuovo a sentirsi un po nervoso il guaio era che il 24 febbraio sembrava molto più vicino visto da questo versante del natale e lui non aveva ancora fatto niente per decifrare l'indovinello dentro l'uovo d'oro quindi cominciò a tirar fuori l'uovo dal baule tutte le volte che saliva al dormitorio ad aprirlo e ad ascoltare attentamente nella speranza che questa volta l'ululato avrebbe avuto un senso si sforzò di pensare che cosa gli ricordava quel suono a parte 30 seghe musicali ma non aveva mai sentito niente del genere chiuse l'uovo lo scosse vigorosamente e lo riaprì per vedere se i rumori erano cambiati ma niente da fare cercò di interrogare l'uovo strillando più forte dei suoi gemiti ma non successe nulla arrivò a scagliare l'uovo attraverso la stanza anche se non si aspettava davvero che servisse harry non aveva dimenticato il suggerimento di cedric ma dati i sentimenti men che amichevoli che nutriva nei suoi confronti al momento preferiva non accettare il suo aiuto se poteva farne a meno e comunque se cedric avesse voluto davvero dargli una mano avrebbe dovuto essere molto più esplicito lui harry gli aveva detto esattamente che cosa sarebbe successo nella prima prova e cedric lo ricambiava dicendogli di farsi un bagno beh non aveva bisogno di quella schifezza di suggerimento e soprattutto non da parte di uno che continuava a camminare per i corridoi mano nella mano con ciò e così giunse il primo giorno del nuovo trimestre harry scese per andare a lezione carico di libri pergamene e penne d'oca come al solito ma anche con il pensiero fisso dell'uovo che gli pesava sullo stomaco come se lo avesse mangiato la neve era ancora alta nel parco e durante le lezioni di erbologia le finestre della serra erano coperte di una condensa così fitta che non si riusciva a vedere fuori nessuno aveva una gran voglia di andare a cura delle creature magiche visto il tempo anche se come osservò ron gli schiopodi probabilmente li avrebbero aiutati a scaldarsi o rincorrendoli o sparando scintille con tanta forza da appiccare il fuoco alla capanna di agrid ma quando arrivarono trovarono davanti alla porta una vecchia strega coi capelli grigi tagliati cortissimi e il mento molto pronunciato muovetevi allora la campana è suonata cinque minuti fa abbaiò contro di loro mentre avanzavano a fatica nella neve chi è lei disse ron fissandola dov'è agrid mi chiamo professoressa grabli plank disse lei in tono brusco e sono la vostra supplente di cura delle creature magiche dove è agrid ripete erri a voce alta è indisposto rispose seccamente la professoressa grabli plank erri udì alle sue spalle un suono di risate basse e sgradevoli si voltò draco malfoi e il resto dei serpeverde erano in arrivo erano tutti giulivi e nessuno parve sorpreso di vedere la professoressa grabli plank da questa parte prego disse quest'ultima avanzando lungo il recinto degli enormi cavalli di bobaton che tremavano di freddo erri ron e ermione la seguirono guardando verso la capanna di agrid tutte le tende erano tirate agrid era là dentro solo e malato che cosa agrid disse erri affrettandosi a raggiungere l'insegnante non è affar tuo rispose lei invece sì ribatte erri infervorato che cosa gli è successo la professoressa grabli plank finse di non sentirlo li guidò oltre il recinto che ospitava i cavalli di bobaton rannicchiati l'uno contro l'altro per difendersi dal freddo verso un albero a limitare della foresta proibita dove era legato un grosso bell'esemplare di unicorno un coro di oh si levò dalle ragazze oh è così bello sussurrò lavanda brown come ha fatto devono essere difficilissimi da catturare l'unicorno era di un bianco così splendente che a confronto la neve sembrava grigia grattava il suolo nervosamente con gli zoccoli d'oro gettando indietro la testa cornuta i ragazzi stiano indietro abbaiò la professoressa grabli plank tendendo un braccio e urtando forte erri in pieno petto preferiscono il tocco femminile gli unicorni le ragazze davanti e avvicinatevi con cautela avanti ad agio lei e le ragazze avanzarono lentamente verso l'unicorno lasciando i ragazzi indietro vicino alla staccionata a guardare nell'istante in cui la professoressa grabli plank fu fuori tiro erri si divorse a ron che cosa credi che abbia non pensi che uno schiopodo non è stato aggredito potter se è questo che temi disse malfoi piano no è solo che si vergogna troppo a far vedere quel suo brutto faccione che stai dicendo esclamò erri brusco malfoi infilò la mano nella tasca dell'abito e ne estrasse un foglio di giornale piegato ecco qui disse mi dispiace così tanto di essere io il latore potter soghignò mentre erri afferrava il foglio lo spiegava e leggeva con ron simus dean e neville sopra la sua spalla era un articolo corredato di una foto di agrid con l'aria decisamente imbarazzata l'errore gigantesco di silente albus silente eccentrico preside della scuola di magia e stregoneria di hogwarts non ha mai avuto paura di fare scelte discutibili in fatto di personale docente scrive rita skitter inviato speciale a settembre di quest'anno ha assunto alastor malocchio mudi il noto ex auror iettatore per insegnare difesa contro le arti oscure una decisione che ha fatto aggrottare molte fronti al ministero della magia data la ben nota abitudine di mudi di aggredire chiunque faccia un movimento brusco in sua presenza ma l'occhio mudi comunque sembra gentile e responsabile se confrontato con il semi umano che silente ha assunto per insegnare cura delle creature magiche rubeus agrid che ammette di essere stato espulso da hogwarts al terzo anno da allora si goda il posto di guardacaccia lavoro garantito gli da silente lo scorso anno però agrid ha fatto uso della sua misteriosa influenza sul preside per assicurarsi anche il posto di insegnante di cura delle creature magiche davanti a parecchi candidati con migliori credenziali agrid decisamente enorme e feroce di aspetto ha usato l'autorità da poco acquisita per terrorizzare gli studenti a lui affidati con una successione di orrende creature mentre silente finge di non vedere agrid ha causato menomazioni a parecchi allievi durante una serie di lezioni che molti ammettono essere state decisamente spaventose io sono stato aggredito da un ipogrifo e il mio amico vincent krebb si è preso un brutto morso da un vermicolo dichiara draco malfoy uno studente del quarto anno tutti quanti detestiamo agrid ma abbiamo troppa paura per parlare agrid non intende comunque porre fine alla sua campagna intimidatoria nel corso della sua conversazione con un inviato della gazzetta del profeta il mese scorso ha ammesso di allevare creature che ha battezzato schiopo di sparacoda si tratta di un incrocio altamente pericoloso tra una manticora e un fiamma granchio la creazione di nuove razze di creature magiche è come tutti sanno un'attività generalmente tenuta sotto stretto controllo dall'ufficio regolazione e controllo delle creature magiche agrid a quanto pare si considera al di sopra di queste futili restrizioni mi stavo solo divertendo un po' ha dichiarato prima di cambiare argomento in fretta e furia come se non bastasse la gazzetta del profeta ha ora scoperto le prove del fatto che agrid non è come ha sempre finto di essere un mago puro sangue in effetti non è nemmeno un umano puro sangue siamo in grado di rivelare in esclusiva che sua madre è niente meno che la gigantessa friedwolfa il cui domicilio è attualmente sconosciuto sanguinari e violenti i giganti sono arrivati alla soglia dell'estinzione combattendo gli uni contro gli altri nel corso dell'ultimo secolo i pochi superstiti si sono uniti a colui che non deve essere nominato e si sono macchiati di alcune delle più terribili stragi di babbani del suo regno di terrore mentre molti dei giganti che hanno servito colui che non deve essere nominato sono stati uccisi dagli auror in lotta contro il lato oscuro friedwolfa non era tra di loro è possibile che sia fuggita in una delle comunità di giganti ancora esistenti tra monti stranieri come se le sue bizzarrie nel corso delle lezioni di cura delle creature magiche non bastassero il figlio di friedwolfa sembra aver ereditato la sua natura violenta per un bizzarro scherzo del fato agrid pare aver stretto una salda amicizia con il ragazzo che ha provocato la caduta di voi sapete chi costringendo di conseguenza la propria stessa madre come il resto dei sostenitori di voi sapete chi a nascondersi forse harry potter non conosce la sgradevole verità sul suo grosso amico ma albus silente certo ha il dovere di garantire che harry potter con i suoi compagni sia messo in guardia contro i pericoli che corre chi frequenta mezzi giganti harry finì di leggere e guardò ron che era rimasto a bocca aperta come ha fatto a scoprirlo sussurrò ma non era questo a infastidire harry cosa vorrebbe dire tutti quanti detestiamo agrid esplose rivolto a malfoy che cosa sono quelle sciocchezze sul fatto che lui e indicò crebbe sarebbe stato morso da un vermicolo non hanno nemmeno i denti crebbe ridacchiava decisamente compiaciuto beh credo che con questo la carriera di insegnante di quel deficiente dovrebbe essere finita disse malfoy con gli occhi che brillavano mezzo gigante e io che pensavo che si fosse trangugiato una bottiglia di cresci cresci da piccolo ai nostri genitori questa faccenda non andrà proprio giù avranno paura che si mangi i loro figli tu ehi laggiù state guardando la voce della professoressa grabli plank raggiunse i ragazzi le ragazze erano tutte attorno all'unicorno e lo accarezzavano harry era così arrabbiato che l'articolo della gazzetta del profeta gli tremò fra le mani mentre si voltò a guardare senza vederlo l'unicorno di cui la professoressa grabli plank stava elencando le molte proprietà magiche a voce alta in modo che sentissero anche i ragazzi spero tanto che resti quella donna disse parvati pati la lezione finita mentre stavano tornando al castello per pranzo è così che mi sono sempre immaginata cura delle creature magiche creature come si deve come gli unicorni non dei mostri e a agrid non pensi esclamò harry arrabbiato mentre salivano la scala agrid rispose parvati con voce dura può sempre fare il guardacaccia no da dopo il ballo parvati era molto fredda con harry lui sospettava che avrebbe dovuto dedicarle più attenzioni ma lei pareva comunque essersi divertita un mondo di certo raccontava a tutti che si sarebbe incontrata con il ragazzo di bobaton il prossimo fine settimana a hogsmeade è stata una gran bella lezione commentò ermione mentre entravano nella sala grande non sapevo la metà delle cose che la professoressa grabli plank ci ha detto sugli uni guarda qua ringhiò harry ficcandole sotto il naso l'articolo della gazzetta del profeta ermione rimase a bocca aperta mentre leggeva la sua reazione fu esattamente la stessa di ron come ha fatto quell'orrida skitter a scoprirlo non è possibile che gliel'abbia detto agrid no rispose harry avanzando verso il tavolo di grifondoro e lasciandosi cadere su una sedia furioso non l'ha mai detto nemmeno a noi no suppongo che fosse così arrabbiata perché lui non gli ha detto un sacco di roba schifosa su di me che è andata in giro a ficcare il naso per vendicarsi forse ha sentito quando lui l'ha detto a madame maxima al ballo disse ermione piano l'avremmo vista in giardino esclamò ron e poi non ha più il permesso di girare a scuola agrid ha detto che silente l'ha buttata fuori forse ha un mantello dell'invisibilità disse harry servendosi di pollo inumido con tanta veemenza che schizzò sugo dappertutto è proprio il genere di cosa che farebbe nascondersi nei cespugli a spiare la gente come avete fatto tu e ron vuoi dire disse ermione noi non l'abbiamo fatto apposta disse ron indignato non avevamo scelta quell'idiota parlare della sua mamma gigantessa dove chiunque poteva sentirlo dobbiamo andare a trovarlo disse harry questa sera dopo divinazione dobbiamo dirgli che lo rivogliamo tu lo rivuoi scattò rivolto a ermione io beh non voglio far finta che non sia stata una piacevole novità seguire per una volta una vera lezione di cura delle creature magiche ma certo che voglio indietro agrid è ovvio aggiunse in fretta ermione intimidita dallo sguardo furibondo di harry così quella sera dopo cena il terzetto usci di nuovo dal castello e discese i prati ghiacciati verso la capanna di agrid bussarono a rispondere furono i latrati cavernosi di zanna agrid siamo noi gridò harry picchiando sulla porta apri non rispose sentirono zanna grattare alla porta mugolando ma quella non si aprì la tempestarono per altri dieci minuti ron andò anche a bussare forte a una finestra ma non ci fu risposta perché ci evita disse ermione quando finalmente si furono arresi e si incamminarono di nuovo verso la scuola non crederà che ci importi che è un mezzo gigante ma evidentemente agrid importava per tutta la settimana non si fece vivo non comparve al tavolo degli insegnanti alle ore dei pasti non lo videro svolgere i suoi compiti di guardacaccia nel parco e la professoressa grabli plank continuò a insegnare cura delle creature magiche malfoy gongolava più non posso ti manca il tuo amichetto continuava a sussurrare a harry tutte le volte che c'era un insegnante nei baraggi in modo da sfuggire alla vendetta ti manca l'uomo elefante a metà di gennaio era prevista una gita a hogsmeade ermione fu molto sorpresa che eri contasse di andarci credevo che avresti approfittato del fatto che la sala comune sarà tranquilla disse che ti saresti messo a lavorare sul serio su quell'uovo no io io credo di sapere di che cosa si tratta menti eri davvero disse ermione colpita bravo lo stomaco di eri si contorse per i sensi di colpa ma lui decise di ignorarlo aveva ancora cinque settimane per risolvere l'indovinello dell'uovo dopo tutto e praticamente erano secoli e se fosse andato a hogsmeade magari avrebbe incontrato agrid e avrebbe potuto convincerlo a tornare il sabato lui ron e ermione uscirono insieme dal castello e si diressero al cancello attraverso il parco freddo e bagnato mentre passavano davanti alla nave di durmstrang ancorata nel lago videro victor crum salire in coperta con addosso solo un costume da bagno era davvero magro ma evidentemente molto più forte di quel che sembrava perché si arrampicò sul fianco della nave tese le braccia e si tuffò dritto nel lago è pazzo disse eri fissando la testa scura di crum che rispuntava in mezzo allo specchio d'acqua deve essere gelato siamo in gennaio dalle sue parti fa molto più freddo disse ermione magari qui per lui è abbastanza caldino sì ma c'è sempre la piovra gigante disse ron non sembrava preoccupato speranzoso semmai ermione notò il suo tono di voce e si accigliò è davvero simpatico sai disse non è affatto come uno potrebbe immaginare visto che è di durmstrang mi ha detto che gli piace molto di più qui da noi ron tacque non aveva nominato crum dal ballo ma il 26 dicembre eri aveva trovato sotto il suo letto un braccino in miniatura che sembrava strappato via da un pupazzetto vestito con i colori della squadra di quidditch della bulgaria eri tenne gli occhi bene aperti in cerca di agrid per tutta la high street invasa dal fango e una volta scoperto che agrid non si trovava in nessuno dei negozi suggerì una visita ai tre manici di scopa il pub era affollato come al solito ma una rapida occhiata a tutti i tavoli disse a eri che agrid non c'era col cuore pesante si avvicinò al bancone con ron e ermione ordinò tre burro birre a madame rosmertha e si disse cupamente che dopo tutto avrebbe fatto meglio a restare a casa ad ascoltare l'uovo ululante ma non ci va mai in ufficio sussurrò ermione all'improvviso guardate indicò lo specchio dietro il bancone eri vivide riflesso ludo bugman seduto in un angolo nella penombra con un gruppo di goblin bugman parlava molto in fretta a voce bassa con i goblin che tenevano tutti le braccia incrociate e avevano l'aria piuttosto minacciosa era davvero strano pensò a eri che bugman si trovasse lì ai tre manici di scopa in un fine settimana privo di eventi legati al torneo tre maghi e quindi senza obblighi di giurato osservò bugman nello specchio sembrava di nuovo teso quasi come la notte nella foresta prima della comparsa del marchio nero ma proprio in quell'istante bugman guardò verso il bancone vide eri e si alzò un attimo un attimo eri lo udì dire bruscamente ai goblin e bugman gli si avvicinò di fretta il ghigno fanciullesco di nuovo al suo posto eri esclamò come stai speravo proprio di incontrarti va tutto bene bene grazie rispose eri posso parlarti a quattro occhi eri è una cosa veloce disse bugman con insistenza non potreste lasciarci soli un attimo voi due ok disse ron e lui e ermione andarono a cercarsi un tavolo bugman guidò eri lungo il bancone il più lontano possibile da madame rosmerta beh è solo che volevo complimentarmi di nuovo con te per la tua splendida esibizione contro quello spinato eri disse bugman davvero superbo grazie disse eri ben sapendo che non poteva essere tutto lì perché bugman avrebbe potuto congratularsi con lui anche davanti a ron e ermione ma bugman non pareva avere una gran fretta di vuotare il sacco eri lo guardò gettare un'occhiata nello specchio ai goblin che stavano studiando lui e eri in silenzio attraverso gli scuri occhi a fessura un incubo assoluto disse bugman a eri sottovoce notando che anche eri osservava i goblin il loro inglese non è granché è come essere di nuovo con tutti quei bulgari alla coppa del mondo di quidditch ma almeno loro usavano un linguaggio dei segni che un altro essere umano poteva capire questi qua continuano a blaterare in goblinese e io so solo una parola di goblinese blood vac vuol dire piccone non mi va di usarla perché non vorrei che pensassero che li sto minacciando esplose in una breve risata cavernosa che cosa vogliono chiese eri notando che i goblin stavano ancora osservando bugman con molta attenzione beh disse bugman improvvisamente molto nervoso loro stanno cercando barty crouch perché lo cercano qui disse eri è al ministero a londra no in effetti non ho idea di dove sia disse bugman è che ha smesso di venire a lavorare ormai manca da un paio di settimane il giovane persi il suo assistente dice che è ammalato a quanto pare manda istruzioni via gufo ma ti dispiace non farne parola con nessuno eri perché rita skitter è ancora lì che si impiccia dove può e io ci scommetto che trasformerebbe la malattia di barty in qualcosa di sinistro probabilmente scriverebbe che è scomparso come bertha jorkins si sa niente di lei chiese eri no rispose bugman di nuovo teso ho delle persone che la stanno cercando naturalmente era ora pensò eri ed è tutto molto strano è sicuro che ci è arrivata in albania perché là ha incontrato la sua seconda cugina e poi è partita per andare a sud a trovare una zia e sembra che sia sparita senza lasciare alcuna traccia per strada che mi prenda un colpo se capisco che cosa in testa non è proprio il tipo che fugge comunque però ma che cosa facciamo stiamo qui a parlare di goblin e di bertha jorkins veramente volevo chiederti e abbassò la voce come va con l'uovo d'oro non male menti eri bugman parve capire che non era sincero senti eri disse sempre a voce bassissima questa cosa mi fa star male tu ci sei finito dentro nel torneo non ti sei fatto avanti da solo e se la sua voce era così bassa che eri dovette avvicinarsi per sentire se posso darti una mano una spintarella nella direzione giusta tu mi piaci proprio come hai superato quel drago beh basta che tu lo dica eri guardò il tondo roseo faccione di bugman e i suoi grandi occhi celesti dobbiamo risolvere gli indovinelli da soli no disse ben attento a mantenere un tono di voce leggero per non dare l'impressione di star accusando il capo dell'ufficio per i giochi e gli sport magici di violare le regole beh sì disse bugman impaziente ma andiamo eri vogliamo tutti che vinca hogwarts no ha offerto una mano anche a cedric chiese eri un impercettibile ruga solcò il volto liscio di bugman no rispose io come ho detto ti ho preso in simpatia ho pensato che potevo offrirti beh grazie disse eri ma credo di esserci quasi con l'uovo dovrebbero bastare un paio di giorni non era del tutto certo del motivo per cui stava rifiutando l'offerta di bugman a parte il fatto che bugman era quasi un estraneo e che accettare il suo aiuto gli sembrava molto più un imbroglio che non chiedere consiglio a ron ermione o sirius bugman parve quasi offeso ma non riuscì ad aggiungere altro perché a quel punto comparvero fred e george salve signor bugman disse fred allegramente possiamo offrirle da bere no rispose bugman con un ultimo sguardo deluso a eri no grazie ragazzi fred e george parvelo delusi quasi quanto bugman che guardava eri come se lo avesse crudelmente tradito beh devo scappare disse è stato un piacere vedervi buona fortuna eri e corse fuori dal pub i goblin scivolarono tutti giù dalle sedie e uscirono dopo di lui eri andò a raggiungere ron e ermione che cosa voleva chiese ron si è offerto di aiutarmi con l'uovo d'oro disse eri ma non dovrebbe esclamò ermione molto turbata è uno dei giudici e comunque tu l'hai già scoperto vero quasi disse eri beh non credo che assilente piacerebbe sapere che bugman ha cercato di convincerti a barare disse ermione con uno sguardo di profonda disapprovazione spero che stia cercando di aiutare anche cedric no vi l'ho chiesto disse eri e chi se ne importa se qualcuno aiuta digori ribatte ron dentro di sé eri si disse perfettamente d'accordo quei goblin non sembravano molto ben disposti disse ermione sorseggiando la sua burro birra che cosa ci facevano qui cercavano crouch secondo bugman disse eri è ancora ammalato non va a lavorare forse persi lo sta avvelenando disse ron probabilmente crede che se crouch tira le cuoia diventerà lui il capo dell'ufficio per la cooperazione magica internazionale ermione scoccò a ron uno sguardo del tipo non si scherza su queste cose e disse buffo dei goblin che cercano il signor crouch dovrebbero trattare con l'ufficio regolazione e controllo delle creature magiche crouch però sa un sacco di lingue osservò eri forse hanno bisogno di un interprete ti dai pena per quei poveri piccoli goblin adesso è chiese ron a ermione stai pensando a fondare lo spurga o qualcosa del genere società per la protezione e l'utilizzo ragionevole dei goblin abbietti disse ermione sarcastica i goblin non hanno bisogno di protezione non avete sentito quello che ci ha spiegato il professor beans sulle rivolte dei goblin no rispose lo eri e ron in coro beh sono piuttosto bravi a trattare con i maghi disse ermione sorseggiando un altro po di burro birra sono molto abili non sono come gli elfi domestici che non si difendono mai o o disse ron fissando la porta rita skitter era appena entrata quel giorno era vestita di giallo banana le lunghe unghie erano dipinte di rosa shocking ed era accompagnata dal solito fotografo panciuto prese da bere per entrambi e i due si fecero strada tra la folla fino a un tavolo vicino eri ron e ermione la guardarono torvi mentre si avvicinava parlava in fretta e sembrava molto soddisfatta di qualcosa non sembrava che avesse molta voglia di parlare con noi è bozo ora perché secondo te e che cosa ci fa con un branco di goblin al seguito comunque gli fa visitare la zona che sciocchezza è sempre stato un pessimo bugiardo forse sta succedendo qualcosa credi che dovremo indagare un po l'ex capo degli sport magici caduto in disgrazia ludo bugman bell'attacco bozo dobbiamo solo trovare una storia che gli si adatti sta cercando di rovinare la vita a qualcun altro disse eri ad alta voce alcune persone si voltarono gli occhi di rita skitter si dilatarono dietro gli occhiali tempestati di brillantini quando vide chi aveva parlato eri esclamò con un gran sorriso ma è splendido perché non ti unisci a non le verrei vicino con un manico di scopa lungo tre metri disse eri infuriato perché ha fatto quella cosa a agrid è rita skitter inarcole sopracciglia pesantemente ritoccate i nostri lettori hanno il diritto di sapere la verità eri sto solo facendo il mio chi se ne importa se è un mezzo gigante urlò eri lui è a posto nel pub era calato il silenzio madame rosmerta guardava da dietro il bancone senza accorgersi che il boccale che stava riempiendo di idromele già traboccava il sorriso di rita skitter si incrinò appena ma un attimo dopo tornò smagliante aprì con uno scatto la borsa di cocodrillo estrasse la penna prendi appunti e disse cosa ne dici di un'intervista sull'agrid che conosci tu eri l'uomo dietro i muscoli la tua improbabile amicizia e le ragioni che la sostengono lo definiresti un surrogato della figura paterna ermione scattò in piedi di colpo il bicchiere di burro birra stretto in mano come una granata lei è disgustosa disse a denti stretti passerebbe soprattutto pur di mettere insieme un articolo e va bene chiunque vero anche ludo bugman siediti stupida ragazzina e non parlare di cose che non capisci disse freddamente rita skitter guardando ermione con occhi improvvisamente duri so cose di nudo bugman che ti farebbero arricciare i capelli non che ne abbiano bisogno aggiunse con un'occhiata alla chioma crespa di ermione andiamo disse ermione dai erri ron uscirono seguiti da parecchi sguardi quando furono sulla soglia erri si voltò la penna prendi appunti di rita skitter era in azione sfrecciava avanti e indietro su un rotolo di pergamena posato sul tavolo sarai tu la prossima vittima ermione disse ronna voce bassa e preoccupata mentre risalivano la strada in fretta deve solo provarci strillò ermione tremava di rabbia le farò vedere una stupida ragazzina questo sarei o la pagherà prima erri poi agrid non vorrai fare una scenata a rita skitter disse ron nervoso dico sul serio ermione troverà qualcosa su di te i miei genitori non leggono la gazzetta del profeta non può costringere me a nascondermi esclamò ermione camminando così in fretta che erri e ron le stavano dietro a fatica l'ultima volta che l'avevano vista così arrabbiata ermione aveva dato un ceffone a draco malfoi e nemmeno agrid non avrebbe mai dovuto farsi sconvolgere da quella sottospecie di essere umano andiamo cominciò a correre e li precedette su per la strada attraverso i cancelli fiancheggiati da cinghiali alati e poi su per i prati fino alla capanna di agrid le tende erano ancora tirate e avvicinandosi sentirono zanna abbaiare agrid urlò ermione picchiando sulla porta agrid adesso basta lo sappiamo che sei lì dentro non importa a nessuno se tua madre era una gigantessa agrid non puoi permettere a quella viscida skitter di farti questo agrid vieni fuori ti stai comportando la porta si aprì ermione sbottò era o e poi si interruppe bruscamente perché si trovò faccia a faccia non con agrid ma con albus silente buon pomeriggio disse il preside in tono amabile sorridendo noi volevamo vedere agrid disse ermione con una vocina sottile sottile sì l'avevo sospettato disse silente gli occhi che brillavano perché non entrate e ok disse ermione i tre amici entrarono nella capanna zanna si slanciò addosso a erri abbaiando come un pazzo e cercando di lecargli le orecchie erri parò l'assalto e si guardò intorno agrid era seduto al tavolo sul quale erano posati due grossi boccali di tè era in uno stato pietoso aveva la faccia tutta a macchie gli occhi gonfi e quanto ai capelli era andato da un estremo all'altro aveva rinunciato a tentare di domarli e così ora sembravano una parrucca di fil di ferro aggrovigliato ciao agrid disse erri agrid alzò gli occhi ciao disse con voce molto roca ci vuole dell'altro tè credo disse silente chiudendo la porta alle spalle del terzetto estraendo la bacchetta e facendola ruoteare un po un vassoio da te apparve ruotando a mezz'aria assieme a un piatto di dolcetti silente fece planare il vassoio sul tavolo e tutti si sedettero ci fu una breve pausa e poi silente disse per caso hai sentito quello che stava gridando la signorina granger agrid ermione arrossì ma silente le sorrise e riprese ermione erri e ron sembrano ancora intenzionati a esserti amici a giudicare dal modo in cui hanno cercato di sfondare la porta ma certo che vogliamo ancora essere tuoi amici disse erri guardando agrid non crederai che le cose che dice quella vacca della skitter scusi professore aggiunse in fretta rivolto a silente sono diventato momentaneamente sordo e non ho idea di quello che hai detto erri disse silente girandosi i pollici gli occhi al soffitto d'accordo disse erri imbarazzato volevo solo dire agrid come hai potuto credere che dessimo peso alle cose che quella donna ha scritto su di te due grosse lacrime colarono dagli occhi nero pece di agrid e caddero lentamente nella sua barba aggrovigliata questi tre amici sono la prova vivente di quello che ti stavo dicendo agrid disse silente sempre osservando il soffitto con grande attenzione ti ho mostrato le lettere di innumerevoli genitori che ti ricordano da quando erano studenti qui e che mi dicono in termini inequivocabili che se ti licenziassi avrebbero qualcosa da ridire non tutti disse agrid con voce rauca non tutti vogliono che resto insomma agrid se stai cercando di ottenere il consenso universale temo che resterai chiuso in questa capanna per un sacco di tempo disse silente che ora lo scrutava con sguardo deciso attraverso gli occhialetti a mezzaluna da quando sono diventato preside di questa scuola non ho passato una settimana senza ricevere almeno un gufo di protesta per il modo in cui la dirigo ma che cosa dovrei fare barricarmi nel mio studio e rifiutarmi di parlare con chi che sia lei lei non è un mezzo gigante gracchiò agrid agrid ma guarda che parenti ho io esclamò henry con veemenza pensa ai darsley ottimo argomento disse il professor silente mio fratello aberford è stato processato per aver praticato incantesimi inopportuni su una capra era su tutti i giornali ma aberford si è nascosto certo che no ha tenuto la testa alta ed è andato avanti a fare le sue cose come al solito certo non sono proprio sicuro che sappia leggere quindi potrebbe non essere stato coraggio il suo torna a insegnare agrid disse ermione piano ti prego ritorna ci manchi davvero agrid deglutì altre lacrime gli caddero sulle guance e nella barba ruffata silente si alzò mi rifiuto di accettare le tue dimissioni agrid e mi aspetto che tu torni a lavorare lunedì disse ci vediamo a colazione alle otto e mezzo nella sala grande niente scuse buon pomeriggio a tutti silente uscì dalla capanna fermandosi solo per grattare zanna dietro le orecchie quando la porta si fu chiusa alle sue spalle agrid prese a singhiozzare con la faccia affondata nelle mani ermione continuò a dargli dei colpetti sul braccio e alla fine agrid alzò gli occhi davvero molto rossi e disse grand'uomo silente grand'uomo sì è vero disse ron posso prendere uno di quei dolcetti agrid serviti pure disse agrid asciugandosi gli occhi con il dorso della mano oh ma ragione certo avete ragione tutti sono stato uno stupido il mio papà si sarebbe vergognato di come mi sono comportato sgorgarono altre lacrime ma le asciugò con più decisione e disse non vi ho mai fatto vedere una foto del mio vecchio vero ecco qua agrid si alzò aprì un cassetto del comò e ne estrasse la foto di un mago basso con i suoi stessi occhi neri infossati che sorrideva seduto sulla spalla di agrid quest'ultimo era alto più di due metri a giudicare dal melo alle sue spalle ma il suo viso era senza barba giovane rotondo e liscio non dimostrava più di undici anni questa è stata fatta subito dopo che ero entrato a hogwarts disse agrid con voce gracchiante papà era arci contento certo che potevo anche non essere mica un mago sapete per via che la mia mamma beh insomma certo che non sono mai stato granché in magia davvero ma almeno non ha saputo che mi avevano buttato fuori sapete è morto che facevo il secondo anno silente è quello che è stato dalla mia parte dopo che papà se n'è andato mi ha trovato il lavoro di guardacaccia si fida della gente lui ci dà a tutti un'altra possibilità è per questo che è diverso dagli altri presidi ecco piglierebbe chiunque a hogwarts basta che hanno talento lo sa che la gente può venire fuori ok anche se le loro famiglie non erano beh proprio rispettabili ma alcuni non lo capiscono ce ne sono certi che te lo rinfacciano sempre ci sono certi che farebbero finta di essere solo un po grossi invece di alzarsi e dire sono quello che sono e non mi vergogno non vergognarti mai mi diceva il mio vecchio e se qualcuno te lo rinfaccia è gente che non vale una cicca e aveva ragione io con lei non ci perdo più tempo ve lo prometto ossa grandi gliele do io le ossa grandi harry ron e ermione si guardarono nervosamente harry avrebbe preferito portare a passeggio 50 schiopo di sparacoda piuttosto che ammettere davanti a agrid di averlo sentito parlare con madame maxim ma agrid continuò a parlare senza accorgersi dell'effetto delle sue parole la sai una cosa harry disse alzando lo sguardo dalla foto del padre gli occhi molto luminosi la prima volta che ti ho visto mi ricordavi un po me niente mamma e papà e credevi che a hogwarts non ti ci saresti mica ritrovato ti ricordi non eri sicuro di essere all'altezza e adesso guardati erri campione della scuola fissò un attimo erri e poi disse in tono molto serio lo sai cosa mi piacerebbe erri mi piacerebbe se vinci davvero fagli vedere a quelli che uno non deve essere puro sangue per farcela non bisogna vergognarsi di quello che sei fagli vedere che è silente che ha ragione a prendere tutti basta che sanno fare le magie come va con quell'uovo erri benissimo rispose erri davvero benissimo la faccia triste di agrid si illuminò di un sorriso umido così si fa fagliala vedere a tutti erri stendili mentire a agrid non era esattamente come mentire a chiunque altro quel pomeriggio più tardi erri tornò al castello con ron e ermione senza riuscire a cancellare dalla mente la faccia felice di agrid al pensiero che lui vincesse il torneo quella sera l'incomprensibile uovo pesò più che mai sulla coscienza di erri e al momento di andare a dormire aveva deciso era giunto il momento di mettere da parte l'orgoglio e vedere se il suggerimento di cedric valeva qualcosa l'uovo e l'occhio visto che erri non aveva idea di quanto dovesse durare il bagno per scoprire il segreto dell'uovo d'oro decise di farlo di notte quando avrebbe potuto prendersi tutto il tempo che voleva pur riluttante all'idea di accettare altri favori da cedric decise anche di usare il bagno dei prefetti erano pochissime le persone ammesse da dentro quindi era molto meno probabile che qualcuno lo disturbasse erri preparò accuratamente il suo piano perché era già stato sorpreso una volta da filci il custode fuori dal letto e nel posto sbagliato nel cuore della notte e non desiderava ripetere l'esperienza il mantello dell'invisibilità naturalmente sarebbe stato fondamentale e come ulteriore precauzione erri pensò di portare con sé la mappa del malandrino che insieme al mantello era il mezzo più efficace che possedesse per infrangere le regole sulla mappa era riportata l'intera hogwarts comprese le sue molte scorciatoie e i passaggi segreti e cosa più importante di tutte mostrava le persone all'interno del castello ferme o in movimento come minuscoli puntini con tanto di nome così che erri avrebbe potuto individuare in tempo chiunque si fosse avvicinato al bagno il giovedì sera erri scivolò fuori dal letto indossò il mantello sgattaiolò di sotto e proprio come aveva fatto la sera che agrid lo aveva portato dai draghi attese che il buco del ritratto si aprisse stavolta era ron ad aspettare fuori per dire la parola d'ordine alla signora grassa frittelle di banana buona fortuna mormorò entrando nella sala comune mentre erri usciva di soppiatto quella notte era strano muoversi sotto il mantello perché erri teneva il pesante uovo sotto un braccio e reggeva la mappa davanti al naso con l'altro comunque i corridoi illuminati dalla luna erano deserti e silenziosi e controllando la mappa a intervalli strategici erri si assicurò di non incontrare nessuno che voleva evitare quando raggiunse la statua di boris il basito un mago dall'aria sbarrita con i guanti infilati sulle mani sbagliate individuò la porta giusta le si avvicinò e borbottò la parola d'ordine fresco pino proprio come gli aveva detto cedric la porta si aprì cigolando erri la oltrepassò la chiuse a chiave e si sfilò il mantello dell'invisibilità guardandosi attorno il suo primo pensiero fu che valeva la pena di diventare prefetto solo per poter usare quel bagno era illuminato dolcemente da un magnifico candeliere acceso ed era tutto di marmo bianco compresa quella che sembrava una piscina vuota rettangolare incassata al centro del pavimento almeno un centinaio di rubinetti d'oro si trovavano ai bordi della piscina ciascuno con una pietra di colore diverso incastonata nel pomolo c'era anche un trampolino lunghe tende di lino bianco pendevano alle finestre una grossa pila di soffici asciugamani candidi si ergeva in un angolo e sulla parete c'era un solo dipinto con la cornice dorata ritraeva una sirena bionda profondamente addormentata su una roccia i lunghi capelli che le fluttuavano davanti al viso tutte le volte che russava harry avanzò guardandosi attorno mentre i suoi passi rimbombavano per quanto splendido fosse il bagno e benché avesse un gran desiderio di provare un po di quei rubinetti ora che si trovava lì non riusciva a scacciare l'idea che cedric l'avesse preso in giro come diavolo era possibile che tutto questo lo aiutasse a risolvere il mistero dell'uovo alla fine depose uno dei soffici asciugamani il mantello la mappa e l'uovo accanto alla vasca grande come una piscina poi si inginocchiò e aprì alcuni rubinetti ne scorse acqua mischiata a vari tipi di bagnoschiuma anche se era un genere di bagnoschiuma che harry non aveva mai provato prima da un rubinetto schizzavano bolle rosa e azzurre grandi come palloni da calcio un altro versava una schiuma candida così densa all'aspetto che pareva ci si potesse camminare sopra un terzo spruzzava nubi violette dall'aroma intenso che galleggiavano appena sopra l'acqua harry si divertì per un po ad aprire e chiudere i rubinetti apprezzandone soprattutto uno dal getto che rimbalzava in ampi archi sulla superficie dell'acqua poi quando la piscina fu piena di acqua calda schiuma e bolle e ci mise pochissimo tempo considerate le dimensioni harry chiuse tutti i rubinetti si sfilò la vestaglia il pigiama e le pantofole e scivolò dentro era così profonda che toccava appena e fece un paio di vasche prima di tornare accanto al bordo e tenersi a galla fissando l'uovo per quanto piacevole fosse nuotare nell'acqua calda e schiumosa con nuvole di vapore colorato che gli danzavano intorno non gli venne alcun lampo di genio ne ebbe un'improvvisa rivelazione harry allungò le braccia prese l'uovo tra le mani bagnate e lo aprì l'alto stridulo gemito riempì il bagno echeggiando contro le pareti di marmo ma era incomprensibile come al solito se non di più a causa dell'eco lo richiuse di scatto temendo che il rumore potesse attrarre filci e chiedendosi se non fosse proprio quello il piano di cedric e poi qualcuno parrò facendolo sobbalzare tanto che l'uovo gli cadde e rotolò con un gran fracasso sul pavimento del bagno io proverai a metterlo dentro l'acqua se fossi in te harry aveva inghiottito un bel po di bolle per lo spavento si rimise diritto sputacchiando e vide il fantasma di una ragazza dall'aria molto depressa seduto a gambe incrociate sopra un rubinetto era mirtilla malcontenta che di solito si inghiuzzava nel tubo di scarico di un bagno tre piani più giù mirtilla esclamò erri indignato io non ho niente addosso la schiuma era così densa che non si vedeva nulla ma erri aveva la sgradevole sensazione che mirtilla lo avesse spiato da uno dei rubinetti fin dal suo arrivo ho chiuso gli occhi quando sei entrato disse lei strizzando gli occhi attraverso gli occhiali spessi sono secoli che non vieni a trovarmi sì beh disse erri piegando appena le ginocchia giusto per essere sicuro che mirtilla non vedesse altro che la sua testa non dovrei venire nel tuo bagno no è uno di quelli delle femmine una volta non ci badavi disse mirtilla malinconica ci venimi sempre era vero anche se era solo perché erri ron e ermione avevano scoperto nel bagno guasto di mirtilla il luogo adatto per preparare in segreto la pozione polisucco una miscela proibita che aveva trasformato erri e ron in copie viventi di crebbe e goil per un'ora in modo da permettere loro di intrufolarsi nella sala comune di serpeverde e infatti mi sono beccato una punizione disse erri cosa vera solo a metà una volta persi l'aveva sorpreso mentre usciva dal bagno di mirtilla ho pensato che era meglio non tornarci dopo oh capisco disse mirtilla tormentandosi un brufolo sul mento con aria bellicosa beh comunque io proverei l'uovo nell'acqua cedric digori ha fatto così hai spiato anche lui disse erri indignato che cosa fai ti intrufoli qui dentro la sera per vedere i prefetti che fanno il bagno a volte rispose mirtilla in tono malizioso ma non sono mai venuta fuori a parlare con qualcuno prima d'ora sono commosso ribatte erri cupo tieni gli occhi chiusi controllò che mirtilla avesse coperto bene gli occhiali con le mani prima di hissarsi su dalla vasca avvolgersi l'asciugamano ben stretto e andare a prendere l'uovo una volta che fu tornato nell'acqua mirtilla spiò tra le dita e disse avanti dai aprilo sott'acqua erri mise l'uovo sotto la superficie schiumosa e lo aprì e questa volta non si lamentò ne uscì invece un suono gorgogliante una canzone le cui parole non si riuscivano a distinguere attraverso l'acqua devi mettere sotto anche la testa disse mirtilla che sembrava divertirsi moltissimo a dargli ordini avanti erri trasse un bel respiro e scivolò sott'acqua e poi seduto sul fondo di marmo della vasca piena di bolle udì un coro di voci misteriose che cantava dentro l'uovo aperto tra le sue mani vieni a cercarci dove noi cantiamo cantare sulla terra non possiamo e mentre stai cercando pensa a questo abbiamo quel che ti mancherà presto per rintracciarlo hai un'intera ora se lo ritrovi puoi tenerlo ancora ma dopo un'ora l'orizzonte è tetro è troppo tardi non l'avrai mai indietro erri ritornò a galla e infranse la superficie coperta di bolle scuotendosi via i capelli dagli occhi sentito disse mirtilla se vieni a cercarci dove noi cantiamo e poi è una specie di minaccia aspetta devo ascoltarlo un'altra volta e si rituffò sott'acqua ci vollero altri tre ascolti subacquei prima che erri imparasse la canzone a memoria poi rimase a galla per un po' lambicandosi il cervello mentre mirtilla stava lì seduta a guardarlo devo andare a cercare delle persone che non possono usare la loro voce sulla terra ferma disse lentamente chi potrebbero essere sei un po' tardo e non aveva mai visto mirtilla malcontenta così allegra a parte il giorno in cui la dose di pozione polisucco aveva appioppato a ermione un muso peloso e la coda di un gatto erri si guardò intorno pensando se le voci si potevano sentire solo sott'acqua allora potevano verosimilmente appartenere a creature subacquee espose la teoria a mirtilla che gli rivolse un sorrisetto di superiorità beh è quello che pensava digori disse è rimasto lì a parlare da solo per un secolo un secolo erano sparite quasi tutte le bolle sott'acqua disse erri lentamente mirtilla che cosa vive nel lago a parte la piovra gigante o un sacco di creature rispose lei a volte ci vado laggiù a volte non ho scelta se qualcuno tira l'acqua quando non me lo aspetto cercando di non pensare a mirtilla malcontenta che finiva nel lago risucchiata da un tubo assieme al contenuto di un water erri chiese beh là sotto c'è qualcosa che ha voci umane aspetta lo sguardo di erri era caduto sulla sirena che russava appesa al muro mirtilla ci sono sirene là sotto vero oh molto bene replicò lei gli spessi occhiali che brillavano digori ci ha messo molto di più eppure lei era sveglia mirtilla fece un cenno verso la sirena con una smorfia di disgusto sulla faccia triste che ridacchiava e si metteva in mostra e agitava la coda è così vero disse erri eccitato la seconda prova è andare a cercare le sirene nel lago e ma all'improvviso capì quello che stava dicendo e sentì l'entusiasmo svanire come se qualcuno avesse appena tirato via un tappo dal suo stomaco non nuotava molto bene non aveva mai avuto occasioni per farlo dadley aveva preso lezioni quando era piccolo ma zia petunia e zio vernon senza dubbio nella speranza che prima o poi annegasse non si erano preoccupati che erri imparasse a sua volta un paio di vasche di quella piscina andavano benissimo ma il lago era molto grande e molto profondo e le sirene di sicuro non vivevano in superficie mirtilla disse erri lentamente come faccio a respirare a quelle parole gli occhi di mirtilla si riempirono di nuovo di lacrime insensibile mormorò frugandosi in tasca alla ricerca di un fazzoletto perché insensibile chiese erri esterrefatto parlare di respirare davanti a me disse lei con voce acuta e la sua voce rimbombò contro le pareti del bagno quando non posso quando non da secoli seppellì il viso nel fazzoletto e tirò su forte col naso erri si ricordò che mirtilla era sempre stata permalosa sul fatto di essere morta mentre nessun altro fantasma lui noto faceva tante storie scusa disse impaziente non volevo è solo che mi sono dimenticato certo è facile dimenticarsi che mirtilla è morta ribatte mirtilla singhiozzando e guardandolo con gli occhi gonfi nessuno ha sentito la mia mancanza anche quando ero viva gli ci sono volute ore e ore per scoprire il mio corpo lo so ero la seduta ad aspettarli olive hornby è venuta in bagno sei ancora lì a fare il muso mirtilla ha detto perché il professor di pet mi ha detto di venire a cercarti e poi ha visto il mio cadavere oh non se l'hai dimenticato finché è vissuta ho fatto le cose per bene l'ho seguita dappertutto e glielo ho ricordato sì sì e una volta al matrimonio di suo fratello ma erri non la ascoltava stava pensando di nuovo alla canzone delle sirene abbiamo quel che ti mancherà presto suonava come se volessero rubare qualcosa di suo qualcosa che doveva riprendersi che cosa avrebbero portato via e poi naturalmente è andata al ministero della magia perché smettessi di perseguitarla così sono dovuto a tornare qui a vivere nel mio bagno bene disse erri in tono distratto beh ne so molto più di prima chiudi ancora gli occhi per favore devo uscire recuperò l'uovo dal fondo della vasca si arrampicò fuori si asciugò e si rimise il pigiama e la vestaglia verrai a trovarmi ancora nel mio bagno qualche volta chiese mirtilla malcontenta in tono lugubre mentre erri raccoglieva il mantello dell'invisibilità ci proverò disse erri anche se dentro di sé pensava che sarebbe andato al bagno di mirtilla solo se ogni altro bagno del castello fosse stato intasato ci vediamo mirtilla grazie per il tuo aiuto ciao ciao disse lei cupa e mentre si infilava il mantello dell'invisibilità erri la vide sparire di nuovo su per il rubinetto fuori nel buio corridoio erri studiò la mappa del malandrino per controllare che la strada fosse ancora libera sì i puntini con i nomi di filcio e mrs norris erano ancora opportunamente nel loro ufficio tutto sembrava immobile tranne pivs che saltellava nella sala dei trofei al piano di sopra erri aveva fatto il primo passo verso la torre di grifondoro quando qualcos'altro sulla mappa attrasse la sua attenzione qualcosa di decisamente strano pivs non era la sola cosa in movimento un singolo puntino volteggiava in una stanza nell'angolo in basso a sinistra l'ufficio di piton ma il puntino non era marchiato severus piton era bartemius crouch erri fissò la macchiolina il signor crouch stava troppo male per andare a lavorare o per partecipare al ballo del ceppo e allora che cosa stava facendo di nascosto a hogwarts a luna del mattino erri guardò attentamente mentre il puntino girava per la stanza fermandosi qua e là erri esitò riflettendo e poi la curiosità prevalse si voltò e si incamminò dalla parte opposta verso la scala più vicina voleva vedere che cosa stava combinando crouch scese le scale più piano che poteva anche se i volti in alcuni ritratti si girarono incuriositi allo scricchiolio di un asse al fruscio del suo pigiama sgattaiolò lungo il corridoio spinse di lato un arazzo a metà strada e imboccò una scala più stretta una scorciatoia che lo avrebbe portato due piani più in basso continuava a scrutare la mappa perplesso non era in carattere con il corretto rigoroso signor crouch intrufolarsi nell'ufficio di un'altra persona a quell'ora della notte e poi a metà della scala senza pensare ad altro che al bizzarro comportamento del signor crouch harry sprofondò dritto nello scalino infido che neville dimenticava sempre di saltare annaspò e l'uovo d'oro ancora umido per il bagno gli scivolò da sotto il braccio si lanciò in avanti per cercare di prenderlo al volo ma era troppo tardi l'uovo cadde giù per la lunga scala con un boato di gran cassa ogni gradino il mantello dell'invisibilità scivolò via harry lo afferrò e la mappa del malandrino gli sfuggì di mano e cadde giù per sei gradini dove sprofondato com'era nello scalino fino al ginocchio non poteva arrivare a prenderla l'uovo d'oro rotolò al di là della razzo ai piedi della scala si aprì di scatto e cominciò a ululare harry estrasse la bacchetta e cercò di toccare la mappa del malandrino per cancellarla ma era troppo lontana rimettendosi addosso il mantello harry si rialzò le orecchie tese gli occhi sbarrati dalla paura e quasi immediatamente era l'inconfondibile urlo di guerra di filci il custode harry sentì i suoi rapidi passi strascicati che si avvicinavano sempre di più la voce affannosa vibrante di rabbia che cos'è questo fracasso vuoi svegliare tutto il castello ti prenderò ti prenderò sai e questo cos'è i passi di filci si arrestarono si chiudì un tintinnio di metallo contro metallo e l'ululato si interruppe filci aveva raccolto l'uovo e l'aveva chiuso harry rimase immobile una gamba ancora incastrata profondamente nel gradino magico in ascolto da un momento all'altro filci avrebbe scostato la razzo aspettandosi di vedere pivs e non ci sarebbe stato nessun pivs ma se avesse salito le scale avrebbe visto la mappa del malandrino e mantello dell'invisibilità o no la mappa avrebbe mostrato un harry potter nel punto esatto in cui si trovava lui un uovo disse piano il signor filci ai piedi delle scale tesorino mrs norris era evidentemente con lui questo è uno degli enigmi del tre maghi appartiene a un campione della scuola harry si sentì male il cuore gli martellava forte pivs rugì filci trionfante hai rubato scostò bruscamente la razza harry vide il suo orrendo viso gonfio e i pallidi occhi sporgenti che scrutavano la scala oscura e per filci deserta ti nascondi eh disse piano vengo a prenderti pivs hai rubato un indizio del tre maghi pivs silente ti butterà fuori di qui per questo sporco ladruncolo di un poltergeist filci prese a salire le scale l'ossuta gatta grigio cenere alle caviglie gli occhi a lampadina di mrs norris così simili a quelli del suo padrone erano fissi proprio addosso a harry lui si era già chiesto prima d'allora se il mantello dell'invisibilità funzionasse con i gatti sopraffatto dall'ansia osservò filci avvicinarsi sempre di più avvolto nella vecchia vestaglia di flanella cercò disperatamente di liberare la gamba imprigionata ma riuscì solo a sprofondare ancora di qualche centimetro a momenti filci avrebbe visto la mappa o gli sarebbe venuto addosso filci che cosa succede filci si fermò qualche gradino più in basso di harry e si voltò ai piedi delle scale c'era l'unica persona in grado di peggiorare la situazione piton indossava una lunga camicia da notte grigia e sembrava cadaverico e pivs professore sussurrò filci malevolo ha gettato quest'uovo giù dalle scale piton salì in fretta le scale e si fermò accanto a filci harry strinse i denti certo che il cuore che batteva tanto forte lo avrebbe tradito da un momento all'altro pivs disse piano piton guardando l'uovo tra le mani di filci ma pivs non sarebbe potuto entrare nel mio ufficio quest'uovo era nel suo ufficio professore certo che no sbottò piton ho sentito dei colpi e degli ululati sì professore era l'uovo stavo venendo a vedere l'ha tirato pivs professore e quando sono passato davanti al mio ufficio ho visto che le torce erano accese e lo sportello di un armadio era aperto qualcuno ci ha frugato dentro ma pivs non poteva lo so che non poteva filci esplose piton sigillo il mio ufficio con un incantesimo che solo un mago potrebbe spezzare piton guardò su per le scale diritto attraverso harry e poi giù nel corridoio sottostante voglio che tu venga ad aiutarmi a cercare l'intruso filci io sì professore ma filci guardò con desiderio su per le scale passando da parte a parte harry che capì che esitava a rinunciare all'opportunità di incastrare pivs vai lo supplicò in silenzio vai con piton vai mrs norris spiava da dietro le gambe di filci harry ebbe la netta impressione che riuscisse a fiutarlo perché aveva riempito la vasca con tutta quella schiuma profumata il fatto è professore disse filci in tono supplichevole che il preside dovrà starmi a sentire questa volta pivs ha rubato a uno studente potrebbe essere la mia occasione per farlo espellere dal castello una volta per tutte filci non mi importa un accidente di quel maledetto poltergeist è il mio ufficio che è clank 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 piton si tìa all'improvviso lui e filci guardarono giù verso i piedi della scala harry vide malocchio moody avanzare zoppicando nello stretto spazio tra le loro teste moody indossava il vecchio mantello da viaggio sulla camicia da notte e si appoggiava al bastone come al solito cos'è un pigiama party ringhiò su per le scale io e il professor piton abbiamo sentito dei rumori professore disse subito filci pivs il poltergeist che buttava roba in giro come al solito e poi il professor piton ha scoperto che qualcuno è penetrato nel suo sito sibilò piton a filci moody fece un passo verso i piedi delle scale harry vide il suo occhio magico soffermarsi su piton e poi senza ombra di dubbio su di lui il cuore di harry ebbe un tuffo moody riusciva a vedere attraverso i mantelli dell'invisibilità soltanto lui poteva cogliere la bizzarria della situazione piton in camicia da notte filci con l'uovo stretto tra le mani e lui harry imprigionato nella scala sopra di loro la fessura obliqua che moody aveva per bocca si spalancò dalla sorpresa per qualche secondo lui e harry si guardarono negli occhi poi moody chiuse la bocca e rivolse di nuovo l'occhio azzurro su piton ho sentito bene piton chiese lentamente qualcuno è penetrato nel tuo ufficio non è importante disse piton freddamente al contrario ringhiò moody è molto importante chi potrebbe voler penetrare nel tuo ufficio uno studente direi rispose piton harry vide una vena pulsare in modo orribile sulla tempia unticcia di piton è già successo prima ingredienti di pozioni sono spariti dalla mia dispensa privata studenti che cercavano di preparare misture illegali senza dubbio quindi devo dedurre che stavano cercando ingredienti di pozioni disse moody non è che tu nascondi qualcos'altro nel tuo ufficio harry vide i contorni del viso giallastro di piton diventare di un brutto color mattone mentre la vena nella tempia pulsava più in fretta lo sai che non nascondo niente moody disse in tono calmo e minaccioso dal momento che tu stesso hai frugato con gran cura nel mio ufficio il viso di moody si contorse in un sorriso privilegi da auror piton silente mi ha detto di tenere d'occhio si dà il caso che silente si fidi di me disse piton a denti stretti mi rifiuto di credere che ti abbia dato ordine di perquisire il mio ufficio ma certo che silente si fida di che ringhò moody è un uomo fiducioso vero è convinto che a tutti sia dovuta una seconda possibilità ma io io dico che ci sono macchie che non vengono via piton macchie che non vengono mai via capisci quello che voglio dire piton all'improvviso fece una cosa molto strana si afferrò convulsamente il braccio sinistro con la mano destra come se gli facesse male moody scoppiò a ridere torna a dormire piton tu non hai l'autorità di mandarmi da nessuna parte si bilò piton lasciando andare il braccio di botto come se fosse arrabbiato con se stesso ho diritto quanto tedi a girarmi in questa scuola di notte allora girati lontano da qui disse moody con voce carica di minaccia spero tanto di incontrarti in un corridoio buio una volta o l'altra a proposito ti è caduto qualcosa con una fitta di panico e rivide moody indicare la mappa del malandrino che si trovava ancora sulle scale sei gradini sotto di lui mentre piton e filce si voltavano a guardare harry gettò alle ortiche ogni precauzione alzò le braccia sotto il mantello e le agitò furiosamente rivolto a moody per attirare la sua attenzione e disse muovendo solo le labbra è mia mia piton si era proteso per prenderla con una terribile espressione di improvvisa consapevolezza accio pergamena la mappa si alzò da terra scivolò tra le dita tese di piton e scese le scale svolazzando a mezz'aria per atterrare in mano a moody colpa mia disse moody tranquillamente è mia deve essermi caduta prima ma gli occhi neri di piton dardeggiarono dall'uovo tra le braccia di filce alla mappa in mano a moody harry capì che stava facendo due più due come solo lui sapeva potter disse piano cosa disse moody quietamente ripiegando la mappa intascandola potter ringhiò piton poi voltò la testa e fissò esattamente il punto in cui si trovava harry come se all'improvviso riuscisse a vederlo quell'uovo è l'uovo di potter quel foglio di pergamena appartiene a potter l'ho visto prima lo riconosco potter è qui potter col suo mantello dell'invisibilità piton tese le mani come un cieco e prese a salire le scale harry avrebbe giurato che le sue larghe narici erano dilatate nel tentativo di fiutarlo intrappolato harry si tirò indietro cercando di evitare la punta delle dita di piton ma da un momento all'altro qui non c'è niente piton abbaiò moody ma sarò felice di riferire al preside con quanta prontezza hai pensato a harry potter cosa vorrebbe dire ringhiò piton voltandosi di nuovo a guardare moody le mani ancora tese a pochi centimetri dal petto di harry vorrebbe dire che silente è molto interessato a sapere chi c'è là con quel ragazzo disse moody soppicando più vicino ai piedi delle scale e anch'io piton molto interessato la luce della torcia baluginò sul suo viso straziato così che le cicatrici e il pezzo di naso mancante parvero più fondi e cupi che mai piton stava guardando moody e harry non riuscì a vederlo in faccia per un istante nessuno si mosse ne parlò poi piton abbassò lentamente le mani pensavo solo disse la voce forzatamente calma che se potter fosse di nuovo in giro di notte è un'abitudine sbagliata bisognerebbe impedirglielo per per la sua incolumità capisco disse moody dolcemente ti stanno molto a cuore gli interessi potter vero ci fu una pausa piton e moody continuavano a scrutarsi missis norris diede in un sonoro miagolio sempre spiando tra le gambe di filch alla ricerca della fonte del profumo di bagnoschiuma di harry credo che tornerò a letto disse piton bruscamente è l'idea migliore che ti sia avvenuta in tutta la notte ribatte moody ora filch se vuole darmi quell'uovo no disse filch stringendo l'uovo come se fosse il suo figlioletto primogenito professor moody questa è la prova della slealtà di pivs è di proprietà del campione a cui l'ha rubato disse moody ora me lo consegni piton scese le scale e oltrepassò moody senza aggiungere una parola filch richiamò missis norris che fissò harry con sguardo vacuo per qualche altro istante prima di voltarsi e seguire il suo padrone col respiro ancora affannoso harry sentì piton allontanarsi lungo il corridoio filch tese a moody l'uovo e sparì a sua volta borbottando rivolto a missis norris non importa carina domattina andremo da silente gli diremo che cosa ha combinato pivs una porta sbatté harry rimase a fissare moody che posò il bastone sull'ultimo scalino e cominciò a salire a fatica verso di lui con un sordo clank un gradino sì e uno no c'è mancato poco potter borbottò sì io grazie disse harry debolmente che cos'è questa cosa chiese moody estraendo la mappa del malandrino dalla tasca e dispiegandola una mappa di hogwarts disse harry sperando che moody lo tirasse fuori presto dalla scala la gamba gli faceva proprio male per la barba di merrino sussurrò moody fissando la mappa l'occhio magico che roteava impazzito questa questa sì che è una mappa potter sì è piuttosto utile disse harry gli occhi gli cominciavano a lacrimare dal dolore professor moody crede che potrebbe aiutarmi cosa oh sì 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 certo moody afferrò harry per le braccia e tirò la gamba di harry si liberò dal gradino in fingardo e lui si mise diritto su quello di sopra moody continuava a osservare la mappa potter disse lentamente non è che per caso hai visto chi è entrato nell'ufficio di piton vero su questa mappa voglio dire è sì che l'ho visto ammise harry era il signor crouch l'occhio magico di moody scorse roteando l'intera mappa all'improvviso moody parve preoccupato crouch disse ne sei ne sei sicuro potter sicurissimo disse harry beh non è più qui disse moody l'occhio che continuava a sfrecciare sulla mappa crouch ciò è molto molto interessante non disse nulla per quasi un minuto continuando a fissare il foglio harry capì che la notizia aveva per lui un preciso significato e desiderava tanto sapere quale fosse chissà se avrebbe osato chiederlo moody gli faceva un po paura però lo aveva appena aiutato a evitare un bel mucchio di guai professor moody secondo lei perché il signor crouch voleva dare un'occhiata all'ufficio di piton moody distorse l'occhio magico dalla mappa e lo fissò ancora vibrante su harry l'occhio sembrava passare harry da parte a parte e lui ebbe l'impressione che moody stesse valutando se rispondergli o no e quanto rivelargli mettiamola così potter borbottò moody alla fine dicono che il vecchio malocchio ha la fissazione di catturare maghi oscuri ma malocchio e niente niente in confronto a barty crouch continuò a scurtare la pergamena harry bruciava dalla voglia di saperne di più professor moody disse di nuovo crede che questo possa avere qualcosa a che fare con forse il signor crouch crede che stia succedendo qualcosa che cosa chiese moody con voce secca harry si chiese quanto poteva dire non voleva che moody sospettasse che aveva una fonte di informazione al di fuori di hogwarts ciò avrebbe potuto portare a domande spinose su sirius non lo so borbottò harry ultimamente succedono cose strane no c'era scritto anche sulla gazzetta del profeta il marchio nero alla coppa del mondo e i mangiamorte il resto entrambi gli occhi male assortiti di moody si allargarono sei un ragazzo sveglio potter disse l'occhio magico tornò a vagare sulla mappa del malandrino è possibile che crouch la pensi così disse lentamente al quanto possibile ultimamente sono circolate strane voci corroborate da rita skitter naturalmente fanno innervosire parecchie persone credo un cupo sorriso gli increspò la bocca storta oh se c'è una cosa che odio sussurrò più rivolto a se stesso che a harry mentre l'occhio magico era immobile sull'angolo in basso a sinistra del foglio è un mangiamorte rimesso in libertà harry lo fissò sbigottito possibile che moody volesse dire proprio quello che pensava harry e ora voglio fare una domanda a te potter disse moody in tono più pratico il cuore di harry sprofondò lo sapeva che ci si sarebbe arrivati moody stava per chiedergli dove aveva preso quella mappa che era un oggetto magico alquanto dubbio e la storia di come era finita nelle sue mani incolpava non solo lui ma suo padre fred e george weasley e il professor lupin il loro ultimo professore di difesa contro le arti oscure moody agitò la mappa davanti a harry che si preparò me la puoi prestare oh disse harry era molto affezionato alla sua mappa ma d'altra parte era decisamente sollevato che moody non gli avesse chiesto dove l'aveva presa e senza dubbio gli doveva un favore sì certo bravo ragazzo ringhiò moody posso farne buon uso potrebbe essere esattamente ciò di cui avevo bisogno su a letto potter andiamo salirono insieme fino in cima alla rampa di scale con moody che esaminava la mappa come se fosse un tesoro di cui non avesse mai visto l'uguale prima dall'ora avanzarono in silenzio fino alla porta dell'ufficio di moody e qui quest'ultimo si fermò e alzò gli occhi verso harry mai pensato a una carriera come auror potter no rispose harry preso alla sprovvista è il caso che tu ci pensi su disse se moody annuendo e guardando harry grazie grazie la seconda prova avevi detto che avevi già risolto l'indovinello dell'uovo esclamò ermione indignata parla più piano si bilò harry ho solo bisogno di perfezionarlo va bene lui ron e ermione erano seduti in fondo alla classe di incantesimi con un tavolo tutto per loro quel giorno dovevano esercitarsi nell'opposto dell'incantesimo di appello l'incantesimo di esilio a causa del rischio di brutti incidenti quando gli oggetti continuavano a volare per la stanza il professor flitwick aveva dato a ciascuno una pila di cuscini con cui fare esercizio perché non facessero del male a nessuno se non arrivavano a destinazione era giusto in teoria ma in pratica non funzionava granché la mira di neville era così scarsa che continuava a spedire per sbaglio attraverso la stanza cose molto più pesanti come il professor flitwick per esempio scordati l'uovo per un minuto d'accordo si bilò harry mentre il professor flitwick sfrecciava sopra di loro con aria rassegnata atterrando in cima a un grosso armadio sto cercando di raccontarti di piton e moody quella lezione era la copertura ideale per una conversazione riservata dal momento che tutti quanti si divertivano troppo per prestar loro attenzione ormai da una mezz'ora harry ripercorreva le sue avventure della notte prima sussurrando a spizziche bocconi piton ha detto che moody ha perquisito anche suo ufficio mormorò ron gli occhi accesi di interesse mentre esiliava un cuscino con un colpo di bacchetta quello si alzò a mezz'aria e portò via il cappello dalla testa di parvati cosa credi che moody si trovi qui per tenere d'occhio piton oltre che carcaroff beh non so se è quello che silente gli ha chiesto di fare ma è quello che fa senza dubbio disse harry agitando la bacchetta senza far molta attenzione così che il suo cuscino fece una specie di buffa capriola e cadde dal tavolo moody ha detto che silente permette a piton di restare qui solo perché gli sta dando una seconda possibilità o roba del genere cosa esclamò ron gli occhi sgranati mentre il suo cuscino roteava in alto rimbalzava contro il candelabro e ricadeva pesantemente sulla scrivania di flitwick harry forse moody crede che sia stato piton a mettere il tuo nome nel calice di fuoco o ron disse ermione scuotendo il capo scettica una volta pensavamo che piton stesse cercando di uccidere harry ed è saltato fuori che gli stava salvando la vita ti ricordi esiliò un cuscino che attraversò in volo la stanza e atterrò nello scatolone dove sarebbero dovuti finire tutti quanti harry guardò ermione riflettendo era vero che piton gli aveva salvato la vita una volta ma la cosa strana era che piton lo detestava a morte proprio come aveva detestato il padre di harry quando erano stati compagni di scuola piton adorava togliere punti a harry e certamente non aveva mai perso l'occasione per punirlo o per suggerire la sua sospensione dalla scuola non mi importa che cosa dice moody riprese ermione silente non è uno stupido ha avuto ragione a fidarsi di agrid e del professor lupin anche se un mucchio di gente non gli avrebbe dato un lavoro e allora perché non dovrebbe aver ragione a proposito di piton anche se piton è un po malvagio concluse prontamente ron andiamo ermione allora perché tutti questi cacciatori di maghi oscuri frugano nel suo ufficio perché il signor crouch finge di essere ammalato disse ermione ignorando ron è un po strano no che non ce la faccia venire al ballo del ceppo ma riesca a venire quassù nel cuore della notte quando gli va a te non piace crouch per via di quell'elfa winky disse ron e spedì un cuscino contro la finestra e a te piace pensare che piton stia tramando qualcosa disse ermione spedendo il suo cuscino dritto nello scatolone a me piacerebbe sapere che cosa ha fatto piton della sua prima possibilità se adesso è alla seconda rispose er di cupo e il suo cuscino con sua gran sorpresa volò attraverso la stanza e atterrò con precisione su quello di ermione per soddisfare il desiderio di sirius di sapere tutto ciò che di strano accadeva a hogwarts quella sera erri gli spedì una lettera con un gufo bruno e gli raccontò tutto che il signor crouch era penetrato nell'ufficio di piton e della conversazione tra moody e piton poi rivolse tutta la sua attenzione al problema più urgente che gli stava davanti come sopravvivere sott'acqua per un'ora il 24 febbraio a ron piaceva l'idea di usare ancora l'incantesimo di appello erri aveva parlato di respiratori da sub e ron non capiva perché erri non avrebbe dovuto farne arrivare uno dalla più vicina città babbana ermione demolì il piano sottolineando che nell'improbabile eventualità che erri fosse riuscito a imparare come si usa un respiratore entro il tempo massimo di un'ora sarebbe stato di certo squalificato per infrazione al codice internazionale di segretezza magica era troppo sperare che nessun babbano vedesse un respiratore filare per la campagna in direzione di hogwarts naturalmente la soluzione ideale sarebbe che ti trasfigurassi in un sottomarino disse se solo avessimo già fatto trasfigurazione umana ma non credo che si faccia prima del sesto anno e può finire malissimo se non sai quello che fai sì non ho una gran voglia di andarmene in giro con un periscopio che mi spunta dalla testa disse erri ma potrei sempre aggredire qualcuno davanti a moody così potrebbe trasformarmi lui però sceglierebbe lui in cosa trasformarti disse ermione serissima no credo che la cosa migliore sia un incantesimo così erri pensando che ben presto ne avrebbe avuto abbastanza della biblioteca per tutta la vita si seppellì di nuovo tra i volumi polverosi alla ricerca di un incantesimo che consentisse a un essere umano di sopravvivere senza ossigeno comunque anche se lui ron e ermione fecero ricerche all'ora di pranzo la sera e per tutti i fine settimana anche se erri chiesa alla professoressa mcgonagall il permesso di usare il reparto proibito e domandò aiuto perfino all'irritabile madame pins con quella sua aria da avvoltoio non trovarono proprio niente che consentisse a erri di trascorrere un'ora sott'acqua e di riuscire a raccontarlo familiari sensazioni di panico presero a tormentare erri che una volta ancora trovò difficile concentrarsi sulle lezioni il lago che erri aveva sempre dato per scontato come una delle tante parti del parco catturava il suo sguardo tutte le volte che si trovava vicino a una finestra una vasta massa di acqua gelata color piombo le cui cupe ghiacciate profondità cominciavano a sembrare remote quanto la luna proprio come prima della sfida contro lo spinato il tempo scivolava via come se qualcuno avesse stregato gli orologi mancava una settimana al 24 febbraio c'era ancora tempo mancavano cinque giorni presto avrebbe trovato qualcosa tre giorni per favore fa che trovi qualcosa per favore a meno due giorni erri cominciò a digiunare di nuovo l'unica cosa buona della colazione il lunedì fu il ritorno del gufo bruno che aveva spedito a sirius sfilò la pergamena la srotolò e vide la lettera più breve che sirius gli avesse mai scritto mandami la data del prossimo fine settimana a hogsmeade via stesso gufo erri voltò il foglietto sperando di trovare qualcos'altro ma era in bianco fra due fine settimana sussurrò ermione che aveva letto il messaggio da sopra la spalla di erri tieni prendi la mia penna e rimanda subito indietro il gufo erri scarabocchiò la data sul retro della lettera di sirius legò di nuovo quest'ultima la zampa del gufo bruno e lo guardò decollare che cosa si era aspettato un consiglio su come sopravvivere sott'acqua aveva pensato solo a raccontare a sirius tutto di pitone mudi e così si era dimenticato di parlare dell'indovinello dell'uovo perché vuole sapere del prossimo fine settimana a hogsmeade chiese ron non so rispose erri sordamente la temporanea felicità che lo aveva per vaso alla vista del gufo era svanita andiamo cura delle creature magiche erri non sapeva se agrid volesse farsi perdonare per gli schiopo di sparacoda o se fosse perché ne erano rimasti solo due o perché stava cercando di dimostrare di essere all'altezza della professoressa grabli prank ma comunque da quando era tornato al lavoro aveva continuato le lezioni sugli unicorni salto fuori che agrid sugli unicorni la sapeva lunga quanto sui mostri anche se era chiaro che trovava deludente la loro mancanza di zanne velenose quel giorno era riuscito a catturare due puledri di unicorno a differenza degli esemplari adulti erano d'oro puro parvati e lavanda furono rapite alla loro vista e anche pensi parkinson dovette fare uno sforzo per nascondere quanto le piacevano sono più facili da vedere degli adulti disse agrid alla classe diventano d'argento quando hanno due anni e a quattro ci cresce il corno non diventano bianchi finché non sono cresciuti più o meno a sette anni da cuccioli sono un po più tranquilli quasi quasi ci piacciono anche i maschi dai venite avanti potete accarezzarli se vi va dateci un po di questi zuccherini stai bene erri borbottò agrid avvicinandosi a lui mentre tutti gli altri si assiepavano attorno ai piccoli unicorni si rispose erri sei solo nervoso e disse agrid un po rispose erri erri disse agrid battendogli una manona sulla spalla così che erri piegò le ginocchia sotto il peso mi preoccupavo prima di vederti alle prese con quello spinato ma adesso lo so che puoi fare tutto quello che ti metti in testa non ho proprio nessun pensiero sarai bravissimo hai già risolto l'indovinello vero erri annui ma nel farlo fu sopraffatto dal folle desiderio di confessare che non aveva idea di come sopravvivere in fondo al lago alzò gli occhi verso agrid forse qualche volta doveva immergersi nel lago per trattare con le creature che lo popolavano dopo tutto si occupava di tutto il resto del parco vincerai ringhiò agrid battendo di nuovo sulla spalla di erri che si sentì sprofondare un altro po nel terreno fangoso lo so me lo sento vincerai erri erri non ebbe cuore di cancellare il sorriso lieto e fiducioso dalla faccia di agrid fingendo di essere interessato ai cuccioli di unicorno si sforzò a sua volta di sorridere e andò con gli altri ad accarezzarli la sera prima della seconda prova erri si sentiva prigioniero di un incubo era pienamente consapevole che se anche per miracolo fosse riuscito a scoprire un incantesimo adatto imparare a padroneggiarlo nel giro di una notte era un'impresa disperata come aveva fatto a ridursi così perché non si era messo a lavorare prima sull'indovinello perché si era distratto in classe e se un insegnante una volta avesse accennato a come respirare sott'acqua lui e ron e ermione erano seduti in biblioteca mentre fuori il sole tramontava sfogliando febbrilmente pagine e pagine di incantesimi nascosti l'uno all'altro da enormi pile di libri erri aveva un gran tuffo al cuore tutte le volte che su una pagina vedeva la parola acqua ma quasi sempre era roba del tipo prendete due pinte d'acqua mezza libra di foglie di mandragola a pezzetti e un tritone non credo che ci riusciremo disse ron con voce inespressiva dall'altro capo del tavolo non c'è niente niente quello che ci va più vicino è quella roba per prosciugare pozzanghere e stagni quell'incantesimo essiccante ma non è nemmeno vagamente così potente da svuotare il lago eppure deve esserci qualcosa borbottò ermione avvicinandosi una candela aveva gli occhi così stanchi che stava china sui minuscoli caratteri di antichi stregamenti e incanti obliati col naso a due centimetri dalla pagina non possono aver preparato una prova insuperabile e invece sì disse ron erri domani vai giù al lago va bene ci ficchi dentro la testa urli a quelle sirene di restituirti quello che ti hanno rubato e stampo a vedere se lo ributtano fuori è il meglio che tu possa fare amico un modo c'è disse ermione contrariata ci deve essere aveva l'aria di prendere la mancanza di informazioni utili in biblioteca come un affronto personale la biblioteca non l'aveva mai tradita prima lo so che cosa dovevo fare disse erri giacendo a faccia in giù su trucchi sfiziosi per tipi scherzosi avrei dovuto imparare a diventare un animagus come sirius sì così potevi trasformarti in un pesce rosso quando ti andava disse ron o in una rana disse erri sbadigliando era sfinito ci vogliono anni per diventare animagus e poi devi iscriverti al registro disse ermione in tono vago strizzando gli occhi per scrutare l'indice di curiosi dilemmi magici e loro soluzioni ce l'ha detto la professoressa mcgonagall vi ricordate bisogna iscriversi all'ufficio per l'uso improprio delle arti magiche dichiarare in che tipo di animale sei in grado di trasformarti e le tue caratteristiche perché non puoi farlo quando ne hai voglia ermione stavo scherzando disse stancamente erri lo so che non ho uno straccio di possibilità di trasformarmi in una rana di qui a domani mattina o questo non serve disse ermione chiudendo con un colpo secco curiosi dilemmi magici e loro soluzioni chi mai vorrebbe farsi crescere il naso a riccioli a me non dispiacerebbe disse la voce di fred weasley sarebbe un bell'argomento di conversazione no herry ron e ermione alzarono lo sguardo fred e george erano appena spuntati da dietro una scaffalatura che cosa ci fate voi due qui chiese ron vi stavamo cercando spiegò george la mcgonagall vuole vederti ron e anche te ermione perché domandò ermione sorpresa non so era un po triste però disse fred dobbiamo accompagnarvi giù nel suo ufficio disse george ron e ermione fissarono herry che si sentì sprofondare lo stomaco la professoressa mcgonagall avrebbe dato una strigliata a ron e ermione per quanto lo stavano aiutando quando avrebbe dovuto scoprire come affrontare la prova da solo ci rivediamo in sala comune disse ermione a rialzandosi per andare via con ron erano tutti e due parecchio preoccupati porta tutti i libri che riesci ok va bene disse erri inquieto alle otto madame pins aveva spento tutte le lampade e venne a cacciar via erri dalla biblioteca barcollando sotto il peso di tutti i libri che riusciva a trasportare erri tornò nella sala comune di grifondoro trascinò un tavolo in un angolo e riprese a cercare non c'era nulla in mitiche magie per stregoni stravaganti nulla in guida alla stregoneria medievale nemmeno un accenno a gesta subacquee in antologia degli incantesimi del diciottesimo secolo né in allucinanti abitatori degli abissi né in poteri che non sapevate di avere cosa farvene ora che avete aperto gli occhi gratta stinchi si arrampicò in grembo a erri e si acciambellò facendo le fusa la sala comune si svuotò lentamente attorno a erri tutti continuavano a fargli gli auguri per la mattina dopo con voci allegre e fiduciose come quella di agrid tutti evidentemente convinti che stesse permettere a segno un'altra stupefacente esibizione come quella che era riuscito a compiere nella prima prova erri non riusciva a rispondere si limitava ad annuire con la sensazione che gli si fosse incastrata in gola una pallina da golf dalle dieci a mezzanotte rimase solo nella stanza con gratta stinchi aveva sfogliato tutti i libri che restavano e ron e ermione non erano tornati è finita si disse non puoi farcela domattina ti toccherà andare giù al lago e dire ai giudici si vide mentre spiegava che non poteva affrontare la prova immaginò gli occhi di bugman sgranati dallo stupore il sorriso giallastro e compiaciuto di carcaroff riusciva quasi a sentire la voce di fleur de la cour lo sapevo è troppo piccolo e solo a monte un ragazzino vide malfoi far lampeggiare la spilla potter fa schifo davanti alla folla vide il volto mortificato incredulo di agrid dimenticando di avere in grembo gratta stinchi erri si alzò di botto gratta stinchi soffiò irato mentre piombava a terra rivolse a erri uno sguardo di disgusto e se ne andò con la coda a scovolo per aria ma erri stava già correndo su per la scala a chiocciola che portava al dormitorio voleva prendere il mantello dell'invisibilità e tornare in biblioteca sarebbe rimasto là tutta la notte se ce ne fosse stato bisogno lumos sussurrò quindici minuti più tardi mentre apriva la porta della biblioteca con la punta della bacchetta accesa sgattaiolò lungo gli scaffali sfilando altri libri libri di stregonerie ed incantesimi libri sulle sirene e sui mostri marini libri su maghi e streghe celebri su invenzioni magiche su qualunque cosa potesse comprendere una citazione di passaggio su come sopravvivere sott'acqua li portò tutti a un tavolo poi si mise al lavoro consultandoli alla debole luce della bacchetta controllando l'orologio di quando in quando l'una del mattino le due il solo modo di andare avanti era continuare a ripetersi nel prossimo libro nel prossimo nel prossimo la sirena del quadro nel bagno dei prefetti rideva eri galleggiava come un tappo nell'acqua spumeggiante vicino alla sua roccia mentre lei teneva la firebolt in alto fuori dalla sua portata vieni a prenderla ridacchiava maliziosamente vai salta non posso disse eri affannato allungandosi verso la firebolt e cercando di non finire sott'acqua dammela ma lei lo colpì al fianco con il manico della scopa sghignazzando fa male vattere aia harry potter si deve svegliare signore smettila di picchiarmi dobbio deve picchiare harry potter signore deve svegliarsi eri aprì gli occhi si trovava ancora in biblioteca il mantello dell'invisibilità gli era scivolato via nel sonno e la guancia era appiccicata alle pagine di dove c'è una bacchetta c'è un modo si alzò a sedere raddrizzandosi gli occhiali strizzando gli occhi alla chiara luce del giorno harry potter deve sbrigarsi strillò dobbio la seconda prova comincia fra dieci minuti harry potter dieci minuti gracchiò harry dieci dieci minuti guardò l'orologio dobbio aveva ragione erano le 9 e 20 un grosso peso morto parve sfondare il petto di harry e invadergli lo stomaco presto harry potter squitti dobbio tirando harry per la manica tu dovrebbe essere giù al lago con gli altri campioni signore è troppo tardi dobbio disse harry disperato non affronterò la seconda prova non so com'è harry potter farà la seconda prova squitti l'elfo dobbio sapeva che harry non aveva trovato il libro giusto così dobbio l'ha fatto al posto suo cosa esclamò harry ma tu non sai qual è la seconda prova dobbio lo sa signore harry potter deve andare dentro il lago e trovare quello rosso trovare che cosa e portar via quello rosso alle sirene che cos'è quello rosso il suo amico rosso signore quello rosso quello rosso che ha regalato a dobbio il golfino dobbio si tirò il golfino bordori stretto che portava sopra i pantaloncini cosa esclamò harry senza fiato hanno preso hanno preso ron ciò che mancherà harry potter signore squitti dobbio è tempo un'ora l'orizzonte è tetro recitò harry fissando l'elfo paralizzato dal terrore è troppo tardi non l'avrai mai indietro dobbio che cosa devo fare harry potter deve mangiare questo signore strillò l'elfo e si infilò una mano nella tasca dei pantaloncini per estrarne una pallottola di quelle che sembravano viscide code di ratto di un verde grigiastro appena prima di entrare nel lago signore è alga branchia a cosa serve disse harry fissando l'alga branchia farà respirare harry potter sott'acqua signore dobbio disse harry agitatissimo ascoltami ne sei sicuro non poteva fare a meno di ricordare che l'ultima volta che dobbio aveva cercato di aiutarlo si era ritrovato senza ossa nel braccio destro dobbio è molto sicuro signore disse l'elfo convinto dobbio ascolta signore è un elfo domestico va su e giù per il castello ad accendere le luci e pulire i pavimenti dobbio ha sentito la professoressa mcgonagall e il professor mudi in sala professori che parlavano della prossima prova dobbio non può permettere che harry potter si perde il suo amico i dubbi di harry svanirono balsando in piedi si tolse il mantello dell'invisibilità lo ficcò nella borsa prese l'alga branchia e se la mise in tasca poi si precipitò fuori dalla biblioteca con dobbio alle calcagna dobbio dovrebbe essere in cucina signore strillò dobbio mentre irrompevano in corridoio si accorgeranno che dobbio non c'è buona fortuna harry potter signore buona fortuna a più tardi dobbio gridò harry e sfrecciò lungo il corridoio e giù per le scale facendo i gradini tre alla volta nella sala d'ingresso c'erano pochi ritardatari che avevano lasciato la sala grande dopo colazione e ora uscivano dal portone di quercia per andare ad assistere alla seconda prova rimasero sbigottiti alla vista di harry che sfrecciava via travolgendo colin e danny scrivei mentre balsava giù dai gradini di pietra e si precipitava nel parco luminoso e gelato correndo giù per il prato vide che i sedili che a novembre avevano circondato la staccionata dei draghi ora erano disposti sulla riva opposta schierati in tribune colme fino a scoppiare che si rifletteva nel lago di sotto il chiacchiericcio eccitato della folla e che giava stranamente sull'acqua mentre harry correva a gambe levate dall'altra parte del lago verso i giudici che erano seduti a un altro tavolo ricoperto d'oro sulla riva cedric fleur e crum erano accanto al tavolo dei giudici e guardavano harry sfrecciare verso di loro sono qui disse harry ansimando fermandosi di colpo nel fango e schizzando senza volerlo l'abito di fleur dove sei stato disse una voce autoritaria in tono di disapprovazione la prova sta per cominciare harry si voltò per si weasley sedeva al tavolo dei giudici il signor crouch era di nuovo assente insomma insomma persi disse ludo bugman che sembrava decisamente sollevato di vedere harry lasciagli riprendere fiato silente sorrise a harry ma karkaroff e madame maxim non sembravano affatto contenti di vederlo era ovvio dai loro sguardi che erano convinti che non si sarebbe presentato harry si chinò le mani sulle ginocchia cercando di prendere fiato aveva una fitta al fianco come un coltello piantato tra le costole ma non c'era tempo per liberarsene ludo bugman si muoveva tra i campioni disponendoli lungo la a tre metri di distanza l'uno dall'altro harry era l'ultimo della fila vicino a crum che indossava i calzoncini da bagno e aveva la bacchetta pronta tutto a posto harry sussurrò ludo bugman mentre lo allontanava ancora un po da crum sai quello che devi fare sì sbuffò harry massaggiandosi le costole bugman gli diede una strizzatina alla spalla e tornò al tavolo dei giudici puntò la bacchetta verso la propria gola come aveva fatto alla coppa del mondo disse sonorus e la sua voce si levò fragolosa verso le tribune al di là dell'acqua scura bene tutti i nostri campioni sono pronti per la seconda prova che comincerà al mio fischio hanno un'ora esatta per recuperare ciò che è stato sottratto loro uno due tre il fischio è che già acuto nell'acqua fredda immobile le tribune risuonarono di urla e applausi senza voltarsi a guardare che cosa facevano gli altri campioni harry si tolse le scarpe e le calze estrasse dalla tasca la manciata di alga branchia se la ficcò in bocca ed entrò nel lago era così freddo che sentì la pelle delle gambe bruciare come se fosse fuoco e non acqua ghiacciata la veste insuppata lo appesantiva mentre avanzava sprofondando ora l'acqua gli arrivava oltre le ginocchia e i piedi che diventavano rapidamente insensibili slittavano sul limo e sulle piatte pietre scivolose masticava l'alga branchia più in fretta e con più vigore che poteva era sgradevolmente viscida e gommosa come tentacoli di polpo quando l'acqua gli arrivava ormai alla vita si fermò deglutì e aspettò che succedesse qualcosa sentiva le risate della folla e sapeva di avere un'aria stupida lì a camminare nel lago senza mostrare alcuna traccia di poteri magici ciò che di lui era ancora asciutto era coperto di pelle d'oca semi sommerso dall'acqua gelata mentre un venticello crudele lo spettinava harry prese a tremare violentemente evitò di guardare le tribune le risate si facevano più alte e si udivano fischi e grida di scherno dei serpeverde poi all'improvviso harry si sentì come se qualcuno gli stesse premendo un cuscino invisibile sul naso e sulla bocca cercò di inspirare ma gli girava la testa aveva i polmoni vuoti ed un tratto provò un dolore acuto da entrambi i lati del collo si strinse le mani attorno alla gola e avvertì due grossi tagli proprio sotto le orecchie che sbatacchiavano nell'aria fredda aveva le branchie senza riflettere fece l'unica cosa sensata si tuffò in acqua la prima sorsata di gelido lago fu come un soffio vitale la testa non gli girava più inghiotti altra acqua e la sentì scorrere attraverso le branchie inviando ossigeno al cervello tese le mani davanti a sé e le guardò erano verdi e spettrali sott'acqua ed erano diventate palmate si contorse per guardarsi i piedi nudi si erano allungati ed erano anch'essi palmati era come se gli fossero cresciute delle pinne e nemmeno l'acqua sembrava più gelata al contrario si sentiva piacevolmente rinfrescato e leggerissimo harry si slanciò in avanti stupito dalla rapidità con cui avanzava grazie ai piedi pinnati e si accorse che ci vedeva chiaramente senza aver più bisogno di sbattere le palpebre ben presto non riuscì più a scorgere il fondo del lago allora si rigirò e si tuffò dritto verso l'abisso il silenzio premeva contro le orecchie mentre sprofondava in uno strano tetro nebuloso paesaggio vedeva solo nel raggio di tre metri e mentre filava nell'acqua nuove immagini affioravano all'improvviso dall'oscurità sempre più fitta foreste di alghe nere aggrovigliate che oscillavano vaste piane di fango coperto di scure pietre luccicanti nuotò sempre più giù verso il centro del lago gli occhi bene aperti fissando l'acqua pervasa di un misterioso lucore grigiastro attorno a lui fino alle ombre più giù dove diventava opaca piccoli pesci saettavano oltrepassandolo come frecce d'argento una o due volte gli parve di vedere qualcosa di più grosso muoversi davanti a lui ma quando si avvicinò scoprì che non era altro che un grosso tronco annerito o un fitto cespo di alghe non c'era traccia degli altri campioni di sirene di ron né per fortuna della piovra gigante alghe di un verde brillante si allungavano davanti a lui a vista d'occhio alte più di mezzo metro come un prato di erba molto cresciuta harry fissava davanti a sé senza strizzare gli occhi cercando di distinguere le forme nell'oscurità e poi senza preavviso qualcosa gli afferrò una caviglia harry si voltò indietro e vide un avvincino un piccolo demone acquatico cornuto spuntare dalle alghe le lunghe dita strette attorno alla sua gamba le zanne puntute scoperte harry infilò in fretta la mano palmata nella veste e frugò in cerca della bacchetta il tempo di afferrarla e altri due avvincini erano affiorati dal tappeto di alghe si erano aggrappati alla veste di harry e tentavano di trascinarlo giù rilascio urlò harry ma non uscì alcun suono una grossa bolla gli scivolò fuori dalla bocca e la bacchetta invece di spedire scintille all'indirizzo degli avvincini scagliò loro quello che pareva un getto di acqua bollente perché sulla loro pelle verde nei punti colpiti comparvero macchie di un vivido rosso harry sfilò la caviglia dalla presa dell'avvincino e nuotò più veloce che poteva sparando di quando in quando altri getti di acqua bollente oltre la spalla dietro di sé a caso ogni tanto un avvincino tentava di nuovo di afferrargli il piede e scalciava forte alla fine sentì il piede cozzare contro un cranio cornuto e guardando indietro vide l'avvincino stordito allontanarsi nell'acqua arrabbiato mentre i suoi compagni alzavano i pugni contro harry e ripiombavano tra le alghe harry rallentò un po nascose la bacchetta sotto la veste e si guardò intorno tendendo di nuovo l'orecchio cominciò a girare in cerchio il silenzio che premeva più forte che mai contro i timpani sapeva di trovarsi ancora più in basso ora ma nulla si muoveva a parte le alghe oscillanti come va a harry venne quasi un infarto si voltò di scatto e vide mirtilla malcontenta che fluttuava confusamente davanti a lui guardandolo attraverso le spesse lenti perlacee mirtilla harry cercò di gridare ma ancora una volta dalla sua bocca non uscì altro che una grossa bolla mirtilla malcontenta invece fece una risatina devi provare raggiù disse indicando col dito io non verrò con te non mi piacciono granché mi inseguono sempre quando mi avvicino troppo harry alzò i pollici per ringraziarla e ripartì facendo attenzione a nuotare un po più su rispetto alle alghe per evitare altri avvicini in agguato lì sotto continuò a nuotare per almeno una ventina di minuti stava passando sopra vaste distese di fango nero che vorticavano oscure mentre spostava l'acqua poi finalmente sentì un frammento del canto ammaliante delle sirene per rintracciarlo hai un'intera ora se lo ritrovi puoi tenerlo ancora harry nuotò più in fretta e presto vide una grossa roccia spuntare nell'acqua fangosa davanti a sé sopra c'erano disegni che raffiguravano il popolo dei maridi i personaggi brandivano lance e inseguivano quello che sembrava la piovra gigante harry superò la roccia seguendo la canzone delle sirene metà del tempo hai speso non tardare se ciò a cui tieni vuoi recuperare un mucchio di edifici di pietra viva macchiati di alghe apparvero all'improvviso dall'oscurità da tutti i lati qua e là alle scure finestre harry vide dei volti volti che non avevano alcuna somiglianza con il dipinto della sirena nel bagno dei prefetti i maridi avevano la pelle grigiastra e lunghe arruffate chiome verde scuro gli occhi erano gialli come i denti spezzati e portavano spesse collane di ciottoli attorno al collo sguardi maligni seguirono harry al suo passaggio un paio di tritoni affiorarono dalle caverne per osservarlo meglio le potenti code pinnate d'argento che battevano l'acqua le lance strette in mano harry accelerò guardandosi attorno e ben presto le caverne diventarono più numerose c'erano giardini di alghe attorno ad alcune e vide perfino un avvincino domestico legato a un palo fuori da una porta i maridi spuntavano da tutte le parti osservandolo con curiosità indicando le sue mani palmate e le branchie parlottando e nascondendosi dietro le mani harry svoltò un angolo in fretta e davanti ai suoi occhi comparve uno spettacolo molto strano una folla di sirene e tritoni nuotava davanti alle case che fiancheggiavano quella che sembrava la versione subacquea della piazza di un villaggio al centro cantava un coro di sirene per attirare i campioni e dietro si ergeva una statua molto rozza un tritone gigantesco sbozzato in una roccia quattro persone erano legate strette alla sua coda di pietra ron stava tra ermione e c'era anche una ragazzina che non dimostrava più di otto anni e la sua nube di capelli di un biondo argenteo convinse harry che dovesse trattarsi della sorella di fleur de la cour tutti e quattro sembravano immersi in un sonno profondo le loro teste ciondolavano sulle spalle e fili sottili di bollicine salivano dalle loro bocche harry si affrettò ad avvicinarsi ai prigionieri aspettandosi quasi che i tritoni abbassassero le lance e lo attaccassero ma quelli non fecero nulla le corde d'alga che tenevano avvinti gli ostaggi alla statua erano spesse viscide e molto robuste per un furtivo istante harry pensò al coltellino che sirius gli aveva regalato a natale chiuso nel suo baule al castello a mezzo chilometro di distanza non gli era di alcun aiuto si guardò intorno molti dei tritoni che li circondavano erano armati di lance nuotò rapido verso uno alto più di due metri con una lunga barba verde e una collanina di denti di squalo e cercò di chiedergli a gesti la lancia il tritone scoppiò a ridere e scosse il capo noi non aiutiamo disse con voce aspra e roca andiamo esclamò harry furioso ma dalla sua bocca non uscirono altro che bolle e cercò di sfilare la lancia dalla mano del tritone ma quest'ultimo la allontanò scuotendo la testa e ridendo harry si voltò in fretta guardando nell'acqua qualcosa di affilato qualunque cosa sul fondo del lago c'erano un sacco di pietre si tuffò ne afferrò una particolarmente tagliente e tornò verso la statua cominciò a segare le funi che legavano ron e dopo parecchi minuti di duro lavoro finalmente si spezzarono ron svenuto si sollevò fluttuando dal fondo del lago sospinto dalla corrente harry si guardò intorno non c'era traccia degli altri campioni a che gioco stavano giocando perché non si sbrigavano si voltò verso ermione brandì la pietra tagliente e cominciò a segare anche le sue funi all'improvviso parecchie robuste mani grigie lo afferrarono una mezza dozzina di tritoni lo stavano allontanando da ermione agitavano le teste verde crinite e ridevano tu prendi il tuo prigioniero gli disse uno di loro lascia gli altri non se ne parla disse eri arrabbiato ma dalla sua bocca uscirono solo due grosse bolle il tuo compito è salvare il tuo amico lascia gli altri anche lei è mia amica strillò eri indicando ermione e un'enorme bolla argentata scivolò senza alcun rumore tra le sue labbra e non voglio che nemmeno loro muoiano ciò aveva il capo posato sulla spalla di ermione la bambina coi capelli d'argento era pallidissima di un verde spettrale eri lottò per respingere i tritoni ma quelli risero più forte trattenendolo eri si guardò intorno disperato dove erano gli altri campioni ce la faceva portare su ron e a tornare giù a recuperare ermione e le altre sarebbe riuscito a ritrovarle guardò l'orologio per vedere quanto tempo gli restava si era fermato ma in quel momento i tritoni attorno a lui cominciarono a indicare eccitati qualcosa sopra di lui eri guardò in su e vide cedric nuotare verso di loro attorno alla testa aveva una bolla enorme che faceva sembrare i suoi lineamenti stranamente larghi e deformati mi sono perso disse muovendo solo le labbra terrorizzato flore crum stanno arrivando infinitamente sollevato eri guardò cedric estrarre un coltello dalla tasca e liberare ciò la portò verso l'alto finché sparirono eri si guardò intorno in attesa dove erano flore crum il tempo stringeva e secondo la canzone gli ostaggi sarebbero stati perduti dopo un'ora i tritoni presero a strillare agitati quelli che immobilizzavano eri allentarono la presa e si volsero indietro eri si voltò e vide qualcosa di mostruoso che fendeva l'acqua sopra di loro un corpo umano in calzoncini da bagno con la testa di squalo era crum evidentemente si era trasfigurato però male l'uomo squalo nuotò diritto verso ermione e prese ad addentare a mordere le funi il guaio era che i nuovi denti di crum si trovavano in una posizione difficile per mordere qualunque cosa più piccola di un delfino eri era sicuro che se crum non fosse stato attento avrebbe tagliato in due ermione sfrecciando in avanti diede una gran botta sulla spalla di crum e gli tese la pietra tagliente crum la afferrò e cominciò a liberare ermione entro pochi secondi ce l'aveva fatta prese ermione per la vita e senza guardarsi indietro cominciò a risalire rapidamente con lei verso la superficie e adesso eri pensò disperato se fosse stato sicuro che flore era in arrivo ma non c'era ancora traccia di lei non c'era nulla raccolse la pietra che crum aveva lasciato cadere ma i tritoni si chiusero attorno a ronne alla ragazzina scuotendo di nuovo la testa eri estrasse la bacchetta toglietevi di mezzo dalla sua bocca uscirono solo bolle ma ebbe la chiara impressione che i tritoni lo avessero capito perché all'improvviso cessarono di ridere i loro occhi giallastri erano puntati sulla bacchetta di eri e sembravano spaventati potevano anche essere in netta maggioranza ma eri capì dalle loro espressioni che di magia ne sapevano quanto la piove era gigante vi do tempo fino al tre urrò eri e mise un fiotto di bolle ma levò tre dita tese per assicurarsi che avessero capito il messaggio uno abbassò un dito due abbassò il secondo si dispersero eri scattò in avanti e prese a colpire le funi che vengavano la bambina alla statua e finalmente fu libera la prese per la vita afferrò il colletto dell'abito di ron e si allontanò scalciando dal fondo la salita fu lentissima non poteva più usare le mani palmate per spingersi in avanti agitava furiosamente le pinne ma ron e la sorellina di fleur erano come sacchi pieni di patate che lo trascinavano in giù puntò gli occhi verso il cielo anche se sapeva di essere ancora molto in profondità l'acqua sopra di lui era così scura i tritoni salivano con lui li vedeva guizzare disinvoltamente attorno a lui e osservarlo nella sua lotta dentro l'acqua lo avrebbero tirato di nuovo giù in fondo a tempo scaduto forse mangiavano gli umani le gambe gli si stavano bloccando per lo sforzo di continuare a nuotare le spalle gli facevano un male terribile per la fatica di trascinare ron e la bambina respirava con estrema difficoltà sentì di nuovo male ai lati del collo avvertì la sensazione dell'acqua che gli riempiva la bocca eppure l'oscurità scemava a vista d'occhio vide la luce del giorno sopra di lui scalciò forte con le pinne e scoprì che non erano altro che piedi l'acqua gli scorreva in bocca ed invadeva i polmoni cominciava a sentirsi stordito ma sapeva che la luce e l'aria erano a soli tre metri di distanza doveva arrivarci doveva harry agitò le gambe così forte così veloce che fu come se i suoi muscoli urlassero per protestare era come se il cervello gli si fosse impregnato d'acqua non riusciva a respirare aveva bisogno di ossigeno doveva continuare a muoversi non poteva fermarsi e poi sentì la testa infrangere la superficie del lago l'aria pura fredda e meravigliosa gli punse la faccia bagnata la inghiottì con la sensazione di non aver mai davvero respirato prima e ansimando tirò su anche ron e la bambina tutto intorno teste arruffate di capelli verdi affioravano dall'acqua con lui ma ora gli sorridevano la folla sulle tribune faceva un gran baccano pareva che tutti fossero in piedi a urlare e sgolarsi forse credevano che ron e la bambina fossero morti ma si sbagliavano avevano entrambi aperto gli occhi la bambina sembrava spaventata e confusa ma ron si limitò a sputare un gran getto d'acqua strizzò gli occhi alla luce forte si voltò verso harry e disse è bagnata e poi vide la sorellina di fleur perché l'hai portata su fleur non si è vista non potevo lasciarla là disse harry ansante harry scemo disse ron non avrai preso sul serio quella canzone eh silente non avrebbe permesso che nessuno di noi annegasse ma la canzone diceva solo per far sì che tu tornassi entro il tempo limite disse ron spero che tu non abbia perso tempo là sotto a fare l'eroe harry si sentì stupido e arrabbiato insieme per ron andava tutto bene lui dormiva lui non si era accorto di come tutto era inquietante laggiù in fondo al lago attorniati da tritoni armati di lance che sembravano più che disposti a uccidere andiamo disse harry in tono asciutto dammi una mano non credo che sappia nuotare bene trascinarono la sorellina di fleur nell'acqua verso la riva dove i giudici erano schierati a guardare con venti tritoni che li scortavano come una guardia d'onore cantando le loro terrificanti canzoni stridule harry vide madame pomfrey affannarsi attorno a ermione crum cedric e ciò tutti avvolti in pesanti coperte silente e ludo bugman rivolsero a harry e ron un gran sorriso dalla riva mentre questi si avvicinavano a nuoto ma persi che era molto pallido e sembrava in qualche modo molto più giovane del solito venne loro incontro schizzando acqua nel frattempo madame maxime cercava di trattenere fleur della cour che era pressoché isterica e lottava con le unghie con i denti per tornare in acqua gabrielle gabrielle è viva è ferita sta bene cercò di dirle harry ma era così sfinito che riusciva stento a parlare figuriamoci a gridare persi afferrò ron e lo trascinò arriva molla mi persi sto benissimo silente e bugman rimisero in piedi harry fleur si liberò dalla presa di madame maxime e abbracciò la sorella sono stati gli avvicini mi agredivano o gabrielle credevo credevo venite qui voi disse madame pomfrey afferrò harry e lo spinse verso ermione e gli altri lo avvolse così stretto in una coperta che gli parve di trovarsi dentro una camicia di forza e lo costrinse a trangugiare una dose di pozione bollente un fiotto di vapore gli uscì dalle orecchie harry sei stato grande gridò ermione ce l'hai fatta hai trovato il modo da solo beh cominciò harry le avrebbe voluto dire di dobby ma aveva appena notato che carcaro lo stava osservando era il solo giudice a non essersi alzato dal tavolo il solo giudice a non dar segno di soddisfazione e sollievo per il fatto che harry ron e la sorellina di fleur erano tornati sani e salvi sì proprio così concluse harry alzando appena la voce in modo da farsi sentire da carcaro tu a scarabeo per la testa ermioni disse crum pareva che crum cercasse di attirare l'attenzione di ermione forse per ricordarle che l'aveva appena salvata dal lago ma lei scacciò bruscamente lo scarabeo e disse però hai superato il tempo massimo harry ci hai messo un secolo a trovarci no vi ho trovati facilmente harry si sentiva sempre più stupido ora che era fuori dall'acqua gli pareva perfettamente chiaro che le misure di sicurezza di silente non avrebbero consentito la morte di un ostaggio solo perché il suo campione non si era fatto vedere perché non aveva preso ron e via sarebbe stato il primo a tornare su cedric e crum non avevano perso tempo a preoccuparsi degli altri non avevano preso sul serio la canzone delle sirene silente era accovacciato accanto all'acqua immerso in una fitta conversazione con quella che sembrava la leader dei maridi una femmina dall'aria particolarmente selvaggia e feroce stava facendo lo stesso tipo di rumori stridenti che emettevano i tritoni sott'acqua era chiaro che silente sapeva parlare il maridese alla fine si rialzò si rivolse ai colleghi giudici e disse credo che sia necessario un consulto prima di assegnare i punteggi i giudici presero a confabulare madame pomfrey era andata a salvare ron dagli abbracci convulsi di persi lo condusse da harry e dagli altri gli diede una coperta e un po di pozione peperina poi andò a recuperare fleur e la sorellina fleur aveva parecchi tagli sul viso e sulle braccia e la veste strappata ma non gliene importava e non voleva che madame pomfrey glieli disinfettasse pensi a gabrielle le disse e poi si rivolse a harry tu l'hai salvata disse senza fiato anche se non era il tuo ostaggio sì disse harry che al momento desiderava con tutto il cuore di aver lasciato tutte e tre le ragazze legate alla statua fleur si chinò baciò harry due volte su ciascuna guancia lui si sentì bruciare la faccia e non si sarebbe stupito se gli fosse uscito di nuovo il fumo dalle orecchie poi disse a ron e anche tu tu hai aiutato lui sì disse ron molto speranzoso sì un pochino fleur piombò anche su di lui e lo baciò ermione era semplicemente furiosa ma proprio in quel momento la voce prodigiosamente amplificata di ludo bugman risuonò altissima facendoli sobbalzare tutti e riducendo al silenzio la folla nelle tribune signore e signori abbiamo preso una decisione la capomaride murcus ci ha raccontato che cosa è successo in fondo al lago e di conseguenza abbiamo deciso di assegnare un punteggio su base 50 a ciascuno dei campioni come segue la signorina fleur della cour anche se ha dimostrato una padronanza eccellente dell'incantesimo testa bolla è stata aggredita dagli avvincini mentre si avvicinava all'obiettivo e non è riuscita a recuperare il suo ostaggio le assegniamo 25 punti applausi dalle tribune mi meritavo zero disse fleur con voce rocca scuotendo la splendida chioma il signor cedric digori che a sua volta ha fatto uso dell'incantesimo testa bolla è stato il primo a fare ritorno col suo ostaggio anche se è riemerso un minuto oltre il tempo massimo di un'ora fragorosi e viva dai tassofrasso in platea harry vide ciò scoccare a cedric uno sguardo raggiante quindi conquista 47 punti il cuore di harry sprofondò se cedric era tornato fuori tempo massimo figuriamoci lui il signor victor crum ha usato una forma incompleta di trasfigurazione che non di meno si è rivelata efficace ed è stato il secondo a tornare col suo ostaggio gli attribuiamo 40 punti carcaroff applaudì molto forte con aria decisamente altezzosa il signor harry potter ha usato l'alga branchia con grande efficacia continuò bugman è tornato per ultimo e ben il tempo massimo di un'ora tuttavia la capo maride ci informa che il signor potter è stato il primo a raggiungere gli ostaggi e che il ritardo nel suo ritorno è stato causato dalla sua decisione di riportare indietro tutti gli ostaggi e non solo il suo sia ron che ermione rivolsero a harry uno sguardo un po' compassionevole quasi tutti i giudici e qui bugman scoccò a carcaro fumocchiata molto torva ritengono che ciò sia prova di tempra morale e meriti il punteggio pieno tuttavia il punteggio del signor potter è di 45 punti lo stomaco di harry sussultò ora era primo alla pari con cedric ron e ermione colti di sorpresa lo fissarono sbigottiti poi scoppiarono a ridere e presero ad applaudire forte con il resto della folla che vai erri urlò ron sopra il frastuono allora non stavi facendo lo scemo stavi dimostrando tempra morale anche fleur batteva le mani con grande vigore ma crum non sembrava affatto contento cercò di nuovo di parlare con ermione ma lei era troppo occupata a festeggiare erri per ascoltarlo la terza e ultima prova avrà luogo il 24 giugno al tramonto riprese bugman i campioni verranno informati su ciò che li attende con un mese esatto di anticipo grazie a tutti voi per il sostegno che avete dato loro era finita pensò erri inebetito mentre madame pomfrey spingeva i campioni e gli ostaggi verso il castello per procurare loro degli abiti asciutti era finita ce l'aveva fatta non doveva pensare a nulla ora fino al 24 giugno la prossima volta che fosse andato a hogsmeade decise mentre risaliva la scalinata di pietra avrebbe comprato a dobby un paio di calzini per ogni giorno dell'anno il ritorno di felpato una delle cose più belle dei giorni successivi fu che tutti facevano a gara per sapere nel dettaglio ciò che era accaduto in fondo al lago e per una volta ron condivise con erri le luci della ribalta c'è da dire che la versione dei fatti data da ron cambiava leggermente ogni volta che la ripeteva all'inizio raccontò quella che pareva la verità o almeno collimava con il racconto di ermione nell'ufficio della professoressa mcgonagall silente aveva fatto cadere tutti gli ostaggi in un sonno incantato dopo aver assicurato loro che non avrebbero corso rischi e si sarebbero svegliati una volta fuori dall'acqua una settimana dopo però ron narrava di un rapimento sensazionale in cui aveva lottato da solo contro 50 tritoni armati fino ai denti che avevano dovuto dargli un sacco di botte per riuscire a legarlo ma io avevo la bacchetta nascosta nella manica assicurò a padma patil ron le piaceva molto di più ora che era sotto i riflettori e gli rivolgeva la parola tutte le volte che si incrociavano nei corridoi potevo uccidere tutti quegli stupidi tritoni quando volevo e come russandogli addosso disse ermione pungente tutti la prendevano in giro perché era risultata la cosa più cara a victor crum e quindi era piuttosto irritabile a quella battuta le orecchie di ron diventarono rosse e da quel momento si attenne alla versione del sonno incantato all'inizio di marzo il tempo divenne più asciutto ma venti crudeli mordevano le mani e il viso degli studenti tutte le volte che uscivano nel parco ci furono ritardi nella consegna della posta perché i gufi continuavano a essere dirottati il gufo bruno che aveva spedito a sirius con la data del fine settimana di hogsmeade ricomparve il venerdì mattina a colazione con tutte le penne arruffate contro piuma harry non fece in tempo ad aprire la lettera che quello prese il volo chiaramente terrorizzato all'idea di essere rispedito là fuori la lettera di sirius era breve quasi quanto la precedente trovati allo steccato alla fine della strada che esce da hogsmeade dopo mondo mago sabato pomeriggio alle due porta tutto il cibo che puoi non sarà mica tornato a hogsmeade disse ron incredulo parrebbe di sì invece disse ermione non ci posso credere commentò harry nervoso se lo prendono ma finora se l'è cavata no disse ron e la zona non pullula più di dissennatori harry ripiegò la lettera e riflettè a essere sincero aveva una gran voglia di rivedere sirius quindi si accinse a seguire l'ultima lezione del pomeriggio doppie pozioni molto più disteso del solito malfoy crebbe goyle erano davanti alla classe insieme a pensy parkinson e alla sua banda di ragazze di serpeverde guardavano qualcosa che harry non riuscì a vedere e sghignazzavano con tutta l'anima il muso da carlino di pensy spuntò eccitato da dietro la vasta schiena di goyle mentre harry ron e ermione si avvicinavano eccoli eccoli disse con una risatina e il manipolo di serpeverde si disperse harry vide che pensy aveva in mano una rivista il settimanale delle streghe la foto animata sulla copertina mostrava una strega ricciuta che esibiva un sorriso tutto denti e puntava la bacchetta contro una grossa torta di pan di spagna guarda un po' qui dentro magari ci trovi qualcosa l'interessante granger disse pensy ad alta voce e lanciò la rivista ermione che la prese al volo perplessa in quel momento la porta della cantina si aprì e piton fece loro cenno di entrare ermione herry e ron si diressero a un tavolo in fondo come al solito quando piton ebbe voltato loro le spalle per trascrivere alla lavagna gli ingredienti della pozione del giorno ermione sfogliò rapida la rivista sotto il banco finalmente nella sezione centrale ermione trovò ciò che stavano cercando herry e ron si fecero più vicini una foto a colori di herry apriva un breve servizio intitolato le pene d'amore di harry potter e firmato rita skitter è un ragazzo fuori dal comune forse eppure è un ragazzo che vive tutti i consueti tormenti dell'adolescenza privato degli affetti fin dalla tragica fine dei suoi genitori harry potter 14 anni credeva di avere trovato conforto nella sua fidanzata ufficiale a hogwarts ermione granger babbana di nascita certo non poteva immaginare che ben presto avrebbe dovuto subire un altro grande dolore in una vita già costellata di gravi perdite personali ermione granger una ragazza bruttina ma ambiziosa sembra aver sviluppato un'inclinazione per i maghi celebri che herry da solo non riesce a soddisfare fin dall'arrivo a hogwarts di victor crum cercatore della nazionale bulgara ed eroe della scorsa coppa del mondo di quidditch ermione granger gioca con i sentimenti di entrambi crum palesemente innamorato cotto dell'ambigua ragazza l'ha già invitata a fargli visita in bulgaria durante le vacanze estive e ripete non ho mai provato niente di simile per nessun'altra comunque potrebbero non essere state le dubbie attrattive naturali di ermione granger a catturare l'interesse di questi sventurati ragazzi è proprio brutta dichiara pensi parkinson una graziosa vivace ragazza del quarto anno ma è probabile che abbia preparato un filtro d'amore è piuttosto sveglia credo proprio che ci sia riuscita così i filtri d'amore naturalmente sono proibiti a hogwarts e senza alcun dubbio albus silente vorrà indagare su queste accuse nel frattempo i sostenitori di harry potter devono augurarsi che la prossima volta egli affidi il suo cuore a una candidata più meritevole te l'avevo detto si bilò ronna ermione che fissava l'articolo sbalordita te l'avevo detto di non dar fastidio a rita skitter ti ha fatto diventare una specie di di donna scarlatta ermione abbandonò l'aria stupefatta e scoppiò a ridere donna scarlatta ripete voltandosi a guardare ron sbellicandosi dalle risate è così che le chiama mia madre borbottò ron le orecchie paonazze se questo è il meglio che rita sa fare sta perdendo la mano disse ermione sempre ridacchiando e gettò il settimanale delle streghe sulla sedia vuota accanto a lei che bel mucchio di porcherie guardò verso i serpeverde che fissavano lei e harry dall'altra parte della stanza per vedere se l'articolo li aveva turbati ermione rivolse loro un sorriso sarcastico e un saluto con la mano e lei harry e ron tirarono fuori gli ingredienti necessari per preparare la pozione aguzza ingegno è curioso però disse ermione dieci minuti dopo il pestello sospeso a mezz'aria sopra una ciotola di scarabei come faceva rita skitter a sapere a sapere che cosa disse ron in fretta non hai preparato dei filtri d'amore vero non dire sciocchezze sbottò ermione e riprese a pestare gli scarabei no è solo come faceva a sapere che victor mi ha chiesto di andarlo a trovare quest'estate nel dire ciò ermione divenne effettivamente scarlatta ed evitò di incrociare lo sguardo di ron cosa fece ron lasciando cadere il pestello con un tonfo sordo me l'ha chiesto appena mi ha tirato fuori dal lago mormorò ermione dopo che si era liberato della testa di squalo madame pomfri ha dato a tutti e due una coperta e poi lui mi ha allontanato dai giudici perché non sentissero e ha detto che se quest'estate non facevo niente di speciale magari mi andava di e tu che cosa gli hai risposto chiese ron che aveva ripreso il pestello e ora lo batteva sul tavolo a una ventina di centimetri dalla ciotola perché aveva gli occhi fissi su ermione e lui in effetti ha detto che non aveva mai provato niente di simile per nessun'altra riprese ermione e arrossì così intensamente che erri riuscì quasi a sentire il calore ma come ha fatto rita skitter a sentire non c'era o invece c'era forse è vero che ha un mantello dell'invisibilità forse è sgattaiolata nel parco per assistere alla seconda prova e tu che cosa gli hai risposto ripete ron picchiando il pestello così forte che lasciò il segno sul tavolo beh ero troppo occupata a vedere se tu erri stavate bene per per quanto affascinante possa essere la tua vita sociale e certo lo è signorina granger disse una voce gelida alle loro spalle devo chiederti di non discuterne durante le mie lezioni dieci punti in meno per grifondoro piton si era avvicinato di soppiatto al loro tavolo mentre stavano parlando ora tutta la classe li fissava malfoi colse l'occasione per accendere la spilla potter fa schifo e farla lampeggiare in direzione di erri in più leggete sotto il banco aggiunse piton afferrando la copia del settimanale delle streghe altri dieci punti in meno per grifondoro ma naturalmente gli occhietti neri di piton scintillarono indugiando sull'articolo di rita skitter potter deve tenersi aggiornato con la rassegna stampa nella cantina e che giarono le risate dei serpeverde e un sorriso sgradevole incraspò la bocca sottile di piton con gran rabbia di erri l'insegnante cominciò a leggere l'articolo ad alta voce le pene d'amore di erri potter caro caro il nostro potter ora che cosa ti affligge un ragazzo fuori dal comune forse erri sentì la faccia ardere piton faceva una pausa alla fine di ogni frase per consentire ai serpeverde di farsi una bella risata letto da piton l'articolo suonava dieci volte più disgustoso i sostenitori di harry potter devono augurarsi che la prossima volta egli affidi il suo cuore a una candidata più meritevole davvero commovente concluse piton con un sorrisetto beffardo arrotolando la rivista mentre i serpeverde continuavano a sghignazzare beh credo che sia meglio separarvi voi tre così potrete concentrarvi sulle vostre pozioni invece che sulla vostra complicata vita sentimentale weasley tu resti qui signorina granger laggiù vicino alla signorina parkinson potter quel tavolo davanti alla mia cattedra muovetevi ora furibondo erri gettò i suoi ingredienti e la borsa nel calderone e lo trascinò davanti verso il tavolo vuoto piton lo seguì prese posto alla cattedra e osservò erri svuotare il calderone deciso a non guardarlo erri riprese a pestare i suoi scarabei immaginando che ciascuno avesse la faccia di piton tutta questa attenzione da parte della stampa sembra averti montato quella testa che peraltro avevi già piena di arie potter disse piton piano quando il resto della classe si fu rimesso al lavoro erri non ribatte sapeva che piton stava cercando di provocarlo l'aveva già fatto in passato senza dubbio sperava di trovare un'altra scusa per togliere una bella cinquantina di punti a grifondoro prima della fine della lezione può anche darsi che tu continui a coltivare l'illusione di aver catturato l'interesse di tutto quanto il mondo della magia continuò piton così piano che nessun altro poteva sentirlo erri continuò a pestare i suoi scarabei anche se li aveva già ridotti a una polverina finissima ma a me non importa quante volte la tua foto compare sui giornali per me potter non sei altro che un ragazzino odioso che si considera al di sopra delle regole erri versò gli scarabei polverizzati nel calderone e prese a tagliuzzare le radici di zenzero gli tremavano le mani per la rabbia ma tenne gli occhi bassi fingendo di non sentire quindi ti avverto potter riprese piton con voce più sua dente minacciosa fama e gloria o no se ti sorprendo un'altra volta entrare nel mio ufficio non mi sono nemmeno avvicinato al suo ufficio di serri rabbioso dimenticando la pretesa sordità non mentire si bilò piton gli impenetrabili occhi neri che perforavano quelli di erri la pelle di gire lacco l'alga branchia vengono tutte e due dalle mie scorte personali e io so chi le ha rubate erri fissò piton di rimando deciso a non batter ciglio né ad assumere un'aria colpevole in verità non aveva rubato nessuna di quelle due cose ermione aveva preso la pelle di gire lacco quando facevano il secondo anno serviva loro per preparare la pozione polisucco e mentre all'epoca piton aveva sospettato di erri non era mai stato in grado di dimostrarlo e l'alga branchia naturalmente l'aveva rubata a dobby non so di cosa stia parlando menti freddamente non eri nel tuo letto la notte che il mio ufficio è stato violato si bilò piton lo so potter ora malocchio mudi può anche essersi unito al tuo fan club ma io non ho intenzione di tollerare il tuo comportamento un'altra passeggiatina notturna nel mio ufficio potter e la pagherai va bene disse erri in tono sostenuto tornando a occuparsi delle sue radici di zenzero me lo ricorderò semmai mi verrà voglia di entrarci gli occhi di piton lampeggiarono infilò una mano nella veste nera per un folle istante erri credette che piton stesse per estrarre la bacchetta e scagliargli contro una maledizione poi si accorse che aveva preso una bottiglietta di cristallo piena di un liquido completamente trasparente erri la guardò incuriosito lo sai che cos'è questa potter disse piton gli occhi accesi di nuovo da un luccichio pericoloso no rispose erri questa volta con assoluta sincerità è verità serum una pozione della verità così potente che solo tre gocce ti costringerebbero a rivelare i tuoi più intimi segreti davanti a tutta la classe disse piton in tono maligno ora l'uso di questa pozione è regolato da severissime disposizioni del ministero ma se non stai attento a quello che fai può anche darsi che la mia mano scivoli e scosse leggermente la bottiglietta di cristallo proprio sopra il tuo succo di zucca serale e allora potter allora scopriremo se sei stato nel mio ufficio o no erri non disse nulla tornò a guardare le sue radici di zenzero brandì il coltello e cominciò ad affettarle di nuovo non gli piaceva affatto quella storia della pozione della verità e non escludeva che piton potesse propinargliene un po represse un brivido al pensiero di ciò che sarebbe potuto uscire dalla sua bocca in quel caso a parte il fatto che avrebbe messo nei guai un sacco di persone ermione e dobby tanto per cominciare c'erano tutte le altre cose che teneva segrete come il fatto che era in contatto con sirius e lo stomaco gli si contorse al pensiero i sentimenti che provava perciò gettò anche le radici di zenzero nel calderone e si chiese se non fosse il caso di prendere esempio da moody e cominciare a bere solo da una fiaschetta personale qualcuno bussò alla porta della cantina avanti disse piton con la voce di sempre la classe si voltò a guardare mentre la porta si apriva entrò il professor karkaroff tutti lo osservarono mentre si avvicinava alla cattedra di piton si attorcigliava di nuovo il dito attorno al pizzetto e sembrava agitato dobbiamo parlare disse karkaroff all'improvviso raggiunto piton pareva così deciso a non far sentire a nessuno quello che diceva che apria stento le labbra sembrava un ventriloquo piuttosto patetico harry tenne gli occhi sulle radici di zenzero e tese le orecchie parlerò con te alla fine della lezione karkaroff borbottò piton ma karkaroff lo interruppe voglio parlarti ora che non puoi sfuggirmi severus tu mi eviti dopo la lezione sbottò piton con la scusa di alzare per aria un chiere dosatore per vedere se aveva versato abbastanza bile di armadillo harry scoccò ai due uno sguardo di sottecchi karkaroff era decisamente preoccupato e piton era furioso karkaroff rimase a incombere dietro la cattedra di piton per quel che restava delle due ore sembrava intenzionato a impedire a piton di sgattaiolare via alla fine della lezione deciso a sentire quello che karkaroff aveva da dire harry rovesciò di proposito la bottiglia di bile di armadillo due minuti prima della campana cosa che gli diede il pretesto di chinarsi dietro il proprio calderone ad asciugare il danno mentre gli altri si accalcavano rumorosamente verso la porta che cosa c'è di tanto urgente sentì piton sibilare rivolto a karkaroff questo rispose karkaroff e harry spiando da dietro il calderone vide karkaroff tirar su la manica sinistra dell'abito e mostrare a piton qualcosa all'interno dell'avambraccio e allora disse karkaroff sempre sforzandosi di non muovere le labbra visto non è mai stato così nitido nemmeno quando fallo sparire ringhiò piton gli occhi neri che scorrevano attorno all'aula ma tu devi essertene accorto cominciò karkaroff con voce agitata possiamo parlare più tardi karkaroff esplose piton potter che cosa fai asciugo la bile di armadillo professore rispose harry in tono innocente rialzandosi e mostrando a piton lo straccio zuppo che aveva in mano karkaroff girò sui tacchi e uscì a grandi passi dalla cantina sembrava preoccupato e furioso insieme per nulla desideroso di restare da solo con un pitono straordinariamente arrabbiato harry gettò i libri e gli ingredienti nella borsa e uscì con la massima rapidità per andare a raccontare a ron e ermione la scena a cui aveva appena assistito la mattina dopo i tre amici uscirono dal castello a mezzogiorno un debole sole argenteo brillava sul parco il clima non era mai stato così mite dall'inizio dell'anno il tempo di arrivare a hogsmeade e tutti e tre avevano dovuto togliersi i mantelli il cibo che sirius aveva chiesto loro di portare era nella borsa di harry avevano rubato una dozzina di cosce di pollo una pagnotta grande e un fiasco di succo di zucca dalla tavola del pranzo entrarono da stretchy and sons abbigliamento per maghi per comprare un regalo a dobby e si divertirono a scegliere i calzini più orrendi compreso un paio con stelle d'oro e d'argento lampeggianti e un altro che strillava forte quando diventava troppo puzzolente poi all'una e mezzo risalirono la high street oltrepassarono mondo mago e si diressero verso il limitare del villaggio harry non era mai stato da quella parte prima il viottolo tortuoso li portava verso l'aperta campagna attorno a hogsmeade qui le case erano più rare e avevano giardini più grandi i tre avanzavano verso le pendici della montagna nella cui ombra si stendeva hogsmeade poi svoltarono un angolo e videro una staccionata alla fine del viottolo in attesa le zampe davanti posate sul palo più alto c'era un cane nero molto grosso dal pelo ispido con alcuni giornali in bocca e l'aria molto familiare ciao sirius disse harry quando si furono avvicinati il cane nero annusò avidamente la borsa di harry scodinzolò una volta poi si voltò e prese a trotterellare per il terreno coperto di cespugli che si inerpicava lungo le pendici rocciose harry ron e ermione scavalcarono la staccionata e lo seguirono sirius li guidò in alto dove il suolo era coperto di rocce e massi era facile per lui a quattro zampe ma harry ron e ermione ben presto furono senza fiato seguirono sirius più in alto sulla montagna vera e propria per quasi mezz'ora salirono lungo un sentiero ripido tortuoso e sassoso seguendo la coda sventolante di sirius sudando al sole mentre le cinghie della borsa di harry gli segavano la spalla poi alla fine sirius sparì dalla loro vista e quando raggiunsero il luogo in cui era scomparso videro una piccola apertura nella roccia vi si insinuarono e si trovarono in una fresca caverna quasi completamente buia legato sul fondo un capo della corda fissato attorno a una grossa roccia c'era fiero becco l'ippogrifo metà cavallo grigio metà aquila gigante fiero becco fece lampeggiare i fieri occhi arancioni alla loro vista tutti e tre gli fecero un profondo inchino e dopo averli scrutati con aria arrogante per un attimo l'animale piegò le ginocchia squamate e permise a ermione di avvicinarsi e di accarezzargli il collo piumato er invece guardava il cane nero che si era appena trasformato nel suo padrino sirius indossava una veste grigia strappata la stessa di quando era fuggito da azkaban i suoi capelli neri erano più lunghi di quando era apparso nel fuoco ed erano di nuovo arruffati e in disordine era molto magro pollo esclamò con voce roca dopo essersi sfilato di bocca i vecchi numeri della gazzetta del profeta e averli gettati a terra erri aprì la borsa e gli tese il fagotto con il pollo e il pane grazie disse sirius afferrò una coscia si sedette sul pavimento della grotta e addentò un grosso pezzo di carne finora ho mangiato soprattutto topi non posso rubare troppo cibo a hogsmith attirerei l'attenzione fece un gran sorriso a erri che lo ricambiò riluttante che cosa ci fai qui sirius domandò compio il mio dovere di padrino rispose sirius rosicchiando l'osso di pollo con piglio molto canino non preoccuparti per me fingo di essere un adorabile randaggio rise ancora ma vedendo il volto preoccupato di erri disse più serio voglio essere sul posto la tua ultima lettera beh diciamo che le cose si fanno più sospette rubo il giornale tutte le volte che qualcuno lo butta via e a quanto pare non sono il solo ad essere in pensiero accennò alle copie ingiallite della gazzetta del profeta sparse per terra ron le prese e le aprì erri invece continuò a fissare sirius e se ti prendono e se ti vedono voi tre e silente siete gli unici qui attorno a sapere che sono un animagus rispose sirius alzando le spalle senza smettere di divorare la coscia di pollo ron fece un cenno a erri e gli passò i giornali erano due numeri il primo titolava misteriosa malattia di bartemius crouch il secondo strega del ministero ancora dispersa il ministero della magia indaga erri scorse l'articolo su crouch gli balzarono all'occhio alcune frasi non compare in pubblico da novembre la sua casa sembra deserta no comment dall'ospedale di san mungo per malattie e ferite magiche il ministero si rifiuta di confermare le voci di una grave malattia a sentir loro è come se fosse moribondo disse erri lentamente ma non può essere tanto malato se è riuscito a venire fin quassù mio fratello è l'assistente personale del signor crouch disse ron a sirius dice che crouch soffre di stress da super lavoro però sembrava davvero malato l'ultima volta che l'ho visto da vicino ribatte erri continuando a leggere l'articolo la sera che dal calice è venuto fuori il mio nome a quel che si meritava per aver licenziato winky no disse ermione freddamente accarezzava fiero becco impegnato a sgranocchiare le ossa di pollo avanzate da sirius scommetto che adesso gli dispiace scommetto che sente la differenza adesso che lei non è là a prendersi cura di lui ron le scoccò un'occhiata cupa ermione alla fissa degli elfi domestici borbottò a sirius sirius però parve interessato crouch ha licenziato il suo elfo domestico sì alla coppa del mondo di quidditch disse erri e si lanciò nel resoconto della comparsa del marchio nero del ritrovamento di winky con la sua bacchetta stretta in mano e dell'ira di crouch quando erri ebbe finito sirius era di nuovo in piedi e aveva cominciato a misurare la caverna a grandi passi fammi capire bene disse dopo un po brandendo un'altra coscia di pollo avete visto l'elfa per la prima volta in tribuna d'onore stava tenendo il posto per crouch giusto giusto risposero in coro erri ron e ermione ma crouch non si è fatto vedere alla partita no rispose erri ha detto che aveva da fare credo sirius misurò la caverna passo dopo passo in silenzio poi disse erri hai controllato se avevi la bacchetta in tasca dopo essere sceso dalla tribuna d'onore erri si sforzò di riflettere no disse alla fine non ne ho avuto bisogno finché non siamo stati nella foresta e allora ho messo la tasca e c'era solo l'omniocolo fissò sirius in attesa vuoi dire che chi ha evocato il marchio mi ha rubato la bacchetta in tribuna d'onore è probabile rispose sirius winky non ha rubato la bacchetta disse ermione con voce acuta l'elfa non era la sola in tribuna disse sirius la fronte aggrottata mentre continuava a camminare avanti e indietro chi c'era seduto dietro di voi un sacco di gente rispose erri dei ministri bulgari cornelius fagge i malfoi i malfoi escramò ron all'improvviso così forte che la sua voce rimbombò nella caverna e fiero becco scrollò la testa innervosito ci scommetto che è stato lucius malfoi qualcun altro disse sirius nessuno rispose erri sì qualcuno c'era ludo bugman gli ricordò ermione ah sì non so nulla di bugman a parte che è stato battitore delle vespe di wimbom disse sirius senza fermarsi che tipo è è a posto rispose erri continua a offrirmi il suo aiuto per il torneo tre maghi davvero fece sirius ancor più accigliato e come mai dice che mi si è affezionato disse erri fece sirius pensieroso l'abbiamo visto nella foresta appena prima della comparsa del marchio nero disse ermione vi ricordate aggiunse di volta erri e ron sì ma non è rimasto nella foresta no rispose ron quando gli abbiamo detto degli scontri è andato al campeggio come fai a dirlo ribatte ermione come fai a sapere dove andava quando si è smaterializzato andiamo disse ron incredulo volesti dire che sospetti che sia stato ludo bugman a evocare il marchio nero è più facile che sia stato lui che non winky replicò ermione ostinata te l'avevo detto disse ron scoccando a sirius un'occhiata eloquente te l'avevo detto che alla fissa degli el ma sirius alzò una mano per zittirlo quando è apparso il marchio nero e l'elfa è stata trovata con la bacchetta di erri che cosa ha fatto crouch è andato a guardare tra i cespugli disse erri ma non c'era nessuno ma certo borbottò sirius andando avanti e indietro ma certo avrebbe accusato chiunque tranne la sua elfa e poi la licenziata sì si accalorò ermione la licenziata solo perché non era rimasta nella sua tenda a farsi calpestare ermione vuoi darci un taglio con quell'elfa disse ron ma sirius scosse la testa e disse ha capito crouch meglio di te ron se vuoi sapere com'è un uomo guarda bene come tratta i suoi inferiori non i suoi pari si passò una mano sul viso ispido per la barba non fatta riflettendo tutte queste assenze di barty crouch si preoccupa che la sua elfa domestica gli tenga un posto alla coppa del mondo di quidditch ma non sicura di andarci lavora sodo per ripristinare il torneo tre maghi e poi smette di venire anche qui non è da crouch se è mai rimasto assente dal lavoro per malattia prima d'ora mi mangio fiero becco allora lo conosci chiese erri sirius si rabbuiò all'improvviso apparve pericoloso come la notte del suo primo incontro con erri la notte in cui erri era ancora convinto che fosse un assassino conosco benissimo crouch disse piano è stato lui a dare l'ordine che mi spedissero ad azkaban senza processo cosa esclamarono insieme ron e ermione stai scherzando aggiunse erri no disse sirius staccando un altro grosso morso dal pollo crouch era il capo delle forze dell'ordine magiche non lo sapevate erri ron e ermione scossero la testa lo davano come prossimo ministro della magia spiegò sirius è un gran mago barty crouch un mago molto potente e assetato di potere non un sostenitore di voldemort questo mai proseguì cogliendo lo sguardo di erri no barty crouch è sempre stato esplicitamente contro il lato oscuro ma allora tante persone che erano contro il lato oscuro beh non potete capire siete troppo giovani è quello che ha detto mio padre alla coppa del mondo disse ron con una traccia di irritazione nella voce mettici alla prova no un sorriso illuminò il viso magro di sirius va bene vi metterò alla prova ripercorse la caverna avanti e indietro e poi cominciò immaginate che ora voldemort sia potente voi non sapete chi sono i suoi sostenitori non sapete chi lavora per lui e chi no sapete che è in grado di controllare le persone in modo da costringerle a fare cose orribili senza riuscire a fermarsi avete paura per voi la vostra famiglia e i vostri amici ogni settimana nuove notizie di altre morti altre sparizioni altre torture il ministero della magia nel caos non sanno cosa fare cercano di tenere tutto nascosto ai babbani ma nel frattempo muoiono anche dei babbani terrore ovunque panico confusione era così allora beh tempi come quelli fanno tirar fuori il meglio a certe persone e il peggio ad altre i principi di crouch potevano anche essere sani all'inizio non saprei fece una rapida carriera al ministero e prese a impartire misure molto severe contro i sostenitori di voldemort gli auror furono investiti di nuovi poteri il potere di uccidere invece di catturare per esempio e io non fui l'unico a essere consegnato ai dissenatori senza processo crouch combatteva la violenza con la violenza e autorizzava l'uso delle maledizioni senza perdono contro i sospetti oserei dire che divenne spietato e crudele quanto molti del lato oscuro aveva i suoi sostenitori badate moltissima gente era convinta che stesse affrontando le cose nella maniera giusta e c'erano un sacco di maghi e streghe che premevano perché diventasse ministro della magia quando voldemort scomparve parve che fosse solo questione di tempo prima che crouch ottenesse la massima carica ma poi accadde una vera disgrazia sirius fece un sorriso cupo il figlio di crouch fu sorpreso con un gruppo di mangiamorte che erano riusciti a farsi rilasciare da azkaban a quanto pareva volevano trovare voldemort e innalzarlo di nuovo al potere hanno preso il figlio di crouch disse ermione senza fiato già fece sirius poi lanciò l'osso di pollo a fiero becco si chinò a prendere la pagnotta e la spezzò in due un bel colpo per il vecchio barzi direi avrebbe dovuto passare un po più di tempo a casa con la sua famiglia no doveva uscire presto dall'ufficio una volta ogni tanto imparare a conoscere suo figlio prese a divorare grossi pezzi di pane suo figlio era davvero un mangiamorte chiese erri non ne ho idea rispose sirius ingollando altro pane ero anch'io ad azkaban quando lo portarono queste sono quasi tutte cose che ho scoperto dopo essere uscito quando fu arrestato il ragazzo era senza dubbio in un gruppo di mangiamorte ma può darsi che si fosse trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato come quell'elfa domestica crouch ha cercato di tirar fuori suo figlio sussurrò ermione sirius sbottò in una risata molto simile a un latrato crouch tirar fuori suo figlio pensavo che l'avessi capito ermione qualunque cosa minacciasse di macchiare la sua reputazione doveva sparire aveva consacrato tutta la vita a un solo progetto diventare ministro della magia l'hai visto licenziare una devota elfa domestica perché lo legava ancora una volta al marchio nero non ti basta per capire che tipo è l'affetto paterno di crouch è arrivato solo al punto di concedere al figlio un processo e comunque per lui non è stato altro che un pretesto per dimostrare quanto detestava il ragazzo poi l'ha spedito dritto ad azkaban ha consegnato suo figlio ai dissennatori chiese erri piano proprio così rispose sirius e non era niente affatto divertito ora ho visto i dissennatori portarlo dentro li ho guardati da dietro le sbarre non poteva avere più di 19 anni l'hanno rinchiuso in una cella vicina alla mia già la sera invocava sua madre dopo qualche giorno si è calmato però si calmavano tutti alla fine tranne quando urlavano nel sonno per un attimo lo sguardo di sirius si fece più spento che mai come se dietro le sue pupille si fossero chiuse delle persiane quindi è ancora ad azkaban chiese erri no rispose sirius in tono tetro no non è più là è morto un anno dopo esserci entrato è morto non è stato l'unico disse sirius con amarezza là dentro impazziscono quasi tutti e molti alla fine smettono di mangiare perdono la voglia di vivere si capiva sempre quando qualcuno stava per morire perché i dissennatori lo sentivano diventavano eccitati quel ragazzo aveva già un'aria malata quando è arrivato visto che krauch era un membro importante del ministero a lui e sua moglie fu concessa una visita in punto di morte è stata l'ultima volta che ho visto barty krauch è passato davanti alla mia cella sorreggendo sua moglie è morta anche lei a quanto pare poco dopo di dolore si è consumata come il ragazzo krauch non è mai venuto a prendere il corpo di suo figlio i dissennatori l'hanno seppellito fuori dalla fortezza li ho visti io sirius mise da parte il pane che aveva appena portato alla bocca prese il fiasco di succo di zucca e lo svuotò così il vecchio krauch ha perso tutto proprio quando credeva di avercela fatta riprese asciugandosi col dorso della mano un attimo prima era un eroe pronto a diventare ministro della magia e un attimo dopo suo figlio è morto sua moglie è morta il buon nome della famiglia è stato disonorato e così almeno ho sentito dire da quando sono fuggito la sua popolarità è calata bruscamente morto il ragazzo tutti hanno cominciato a sentirsi più comprensivi verso di lui e a chiedersi com'era possibile che un ragazzo simpatico di buona famiglia si fosse rovinato così hanno concluso che suo padre non gli aveva mai voluto veramente bene così cornelius fudge si è preso il posto migliore krauch è stato messo da parte ed è finito all'ufficio per la cooperazione magica internazionale cadde un lungo silenzio harry stava pensando agli occhi sporgenti di krauch che fissava la sua elfa domestica disobbediente nel bosco alla coppa del mondo di quidditch forse per quello krauch aveva reagito in modo tanto spropositato al ritrovamento di winky sotto il marchio nero aveva fatto riaffiorare in lui i ricordi del figlio del vecchio scandalo e della sua caduta in disgrazie al ministero moody sostiene che krauch è ossessionato dall'idea di catturare maghi oscuri disse erri a sirius sì ho sentito dire che è diventata un po una mania annui sirius secondo me crede ancora che se riesce a catturare un altro mangiamorte tornerà popolare come una volta ed è venuto quassù di nascosto per rugare nell'ufficio di piton disse ron trionfante guardando ermione sì ed è una cosa che non ha senso disse sirius sì invece esclamò ron vivacemente ma sirius scosse la testa senti se krauch vuole indagare su piton perché non è venuto a fare il giudice al torneo sarebbe stata la scusa ideale per far visita regolarmente a hogwarts e tenerlo d'occhio quindi sei convinto che piton potrebbe avere in mente qualcosa gli chiese erri ma ermione si intromise sentite non mi importa di quello che dite silente si fida di piton o andiamo ermione la interruppe ron impaziente lo so che silente è fantastico e tutto ma questo non vuol dire che un mago oscuro davvero abile non riuscirebbe a ingannarlo e allora perché piton ha salvato la vita erri il primo anno è perché non l'ha lasciato morire tu che cosa ne dici sirius disse forte erri e ron e ermione smisero di rimbeccarsi per stare a sentire io credo che abbiano ragione tutti e due rispose sirius guardandoli pensieroso da quando ho scoperto che piton insegnava qui non ho smesso di chiedermi come mai silente gli abbia offerto un lavoro piton è sempre stato attratto dalle arti oscure a scuola era celebre per questo era un tipo viscido untuoso coi capelli appiccicaticci aggiunse sirius erri e ron si scambiarono un sorrisetto quando è arrivato a scuola conosceva più incantesimi di metà degli allievi del settimo anno e faceva parte di una banda di serpe verde che sono diventati quasi tutti mangia morte sirius alzò le mani e prese a elencare i nomi rosier e wilkes furono entrambi uccisi dagli auror l'anno prima della caduta di voldemort il estrange marito e moglie si trovano ad azkaban averi ho sentito dire che è riuscito a togliersi dai guai sostenendo che aveva agito sotto la maledizione imperius e ancora in libertà ma per quel che ne so piton non è mai nemmeno stato accusato di essere un mangiamorte non che questo conti molto molti di loro non furono mai catturati e piton è certo abbastanza abile e astuto da tenersi fuori dai guai piton conosce molto bene carcaroff ma vuole che non si sappia disse ron si dovevi vedere la faccia che ha fatto quando carcaroff è venuto a pozioni ieri aggiunse er in fretta carcaroff voleva parlare con lui sostiene che piton lo stia evitando sembrava proprio preoccupato ha fatto vedere a piton qualcosa che aveva sul braccio ma non sono riuscito a vedere cosa fosse ha fatto vedere a piton qualcosa che aveva sul braccio chiese sirius decisamente perplesso si passò distrattamente le dita tra i capelli sporchi poi alzò di nuovo le spalle beh non ho idea di che cosa sia ma se carcaroff è davvero preoccupato e vuole sapere qualcosa da piton sirius fissò la parete della caverna poi fece un sorriso amaro c'è ancora il fatto che silente si fida di piton e io so che silente si fida là dove molte altre persone non lo farebbero ma non ce lo vedo a permettere che piton faccia l'insegnante a hogwarts se avesse mai lavorato per voldemort perché moody e crouch sono così inclini a entrare nell'ufficio di piton allora chiese ron ostinato beh rispose sirius lentamente non escludo che malocchio abbia perquisito gli uffici di ogni singolo insegnante quando è arrivato a hogwarts prende sul serio la sua difesa contro le arti oscure moody non so se esiste qualcuno di cui si fida e con le cose che ha visto non mi sorprende ma c'è da dire una cosa a favore di moody che non ha mai ucciso se poteva evitarlo ha sempre consegnato prigionieri vivi per quanto era possibile era duro ma non è mai sceso al livello dei mangiamorte crouch però è di un'altra pasta sarà davvero malato e se sì perché ha fatto la fatica di trascinarsi fino all'ufficio di piton e se no che cosa in mente che cosa doveva fare di tanto importante alla coppa del mondo da non mettere piede in tribuna d'onore che cosa faceva mentre avrebbe dovuto prendere parte al torneo come giudice sirius tacque senza smettere di fissare la parete della caverna fiero becco frugava nel terreno roccioso in cerca di ossa che gli fossero sfuggite alla fine sirius alzò gli occhi verso ron hai detto che tuo fratello è l'assistente personale di crouch non potresti chiedergli se ha visto crouch di recente posso provarci rispose ron dubbioso meglio non fargli capire che sospetto che crouch stia combinando qualcosa di rosco però persi adora crouch e già che ci sei potresti cercare di scoprire se hanno qualche indizio su bertha jorkins aggiunse sirius indicando un'altra copia della gazzetta del profeta bugman mi ha detto che non ne hanno rispose henry sì è citato nell'articolo disse sirius la fa tanto lunga sulla pessima memoria di bertha beh può essere cambiata da quando la conoscevo io ma quella bertha non era affatto smemorata semmai il contrario era un po ottusa ma aveva un'ottima memoria per i pettegolezzi cosa che la metteva spesso nei guai non sapeva mai quando tenere la bocca chiusa un bel peso per il ministero della magia forse è per questo che bugman ha aspettato così tanto a cercarla sirius emise un gran sospiro e si strofinò gli occhi pesti che ore sono henry guardò l'orologio poi gli venne in mente che non funzionava da quando aveva trascorso un'ora nel lago sono le tre e mezzo disse ermione è meglio che torniate a scuola disse sirius alzandosi ora sentite lanciò un'occhiata particolarmente intensa a henry non voglio che voi tre scappiate via da scuola per venire a trovarmi capito mandatemi dei messaggi e basta voglio ancora sapere se succede qualcosa di strano ma non dovete uscire da hogwarts senza permesso sarebbe l'occasione ideale se qualcuno vi volesse aggredire finora nessuno ha cercato di aggredirmi a parte un drago e un paio di avvincini disse henry ma sirius lo guardò severamente non mi importa tirerò un sospiro di sollievo quando questo torneo sarà finito e cioè non prima di giugno e non dimenticate se parlate di me tra di voi chiamatemi tartufo d'accordo tese a henry il tovagliolo e il fiasco vuoto e andò ad accarezzare fiero becco per salutarlo verrò con voi fino all'inizio del villaggio disse così vedo se riesco a scorcare un altro giornale si trasformò di nuovo nell'enorme cane nero prima che uscissero dalla caverna e i tre amici ridiscesero lungo il fianco della montagna con lui attraversarono la landa cosparsa di massi e raggiunsero lo steccato qui sirius permise loro di accarezzargli la testa a turno prima di voltarsi e dirigersi di corsa verso il limitare del villaggio henry ron e ermione riattraversarono hogsmeade e puntarono verso hogwarts chissà se persi sa tutte queste cose di crouch disse ron mentre risalivano il viale che conduceva al castello ma forse non gli importa probabilmente non farebbe che aumentare la sua ammirazione per crouch persi adora le regole direbbe solo che crouch si è rifiutato di violarle per suo figlio persi non darebbe mai nessuno della sua famiglia in pasto ai dissenatori disse ermione in tono serio non lo so rispose ron se si convincesse che siamo d'intralcio alla sua carriera persi è proprio ambizioso sai risalirono i gradini di pietra ed entrarono nell'ingresso dove gli aromi squisiti della cena aleggiarono verso di loro dalla sala grande povero vecchio tartufo disse ron ansante deve proprio volerti bene erri pensa un po dover vivere di topi la follia del signor crouch domenica dopo colazione erri ron e ermione salirono alla guferia per spedire una lettera a persi e chiedergli come aveva suggerito sirius se avesse visto il signor crouch ultimamente usarono edvige perché era tantissimo tempo che non le affidavano un incarico quando l'ebbero vista sparire dalla finestra della guferia scesero nelle cucine per portare a dobbi i suoi calzini nuovi gli elfi domestici diedero loro un caloroso benvenuto facendo inchini e riverenze e affannandosi a preparare di nuovo il tè dobbi fu estasiato dal regalo erri potere troppo buono con dobbi squitti asciugandosi i lacrimoni dagli occhi enormi mi hai salvato la vita con l'alga branchia dobbi veramente disse erri non è che ci sono ancora quei bignè disse ron guardando gli elfi domestici impegnati a sorridere radiosi e inchinarsi hai appena fatto colazione esclamò ermione irritata ma un gran vassoio d'argento carico di bignè stava già sfrecciando verso di loro portato da quattro elfi dovremmo prendere qualcosa da mandare a tartufo sussurrò erri buona idea disse ron diamo qualcosa da fare a leo non potreste darci un po di cibo in più disse agli elfi che lo circondavano quelli si inchinarono rapiti e corsero a prendere altra roba dobbi dov'è winky chiese ermione guardandosi attorno winky è laggiù vicino al fuoco signorina disse dobbi piano le orecchie un po afflosciate o poverina disse ermione quando la vide anche erri guardò verso il focolare winky era seduta sullo stesso sgabello dell'ultima volta ma si era tanto trascurata che sulle prime non si riusciva a distinguerla dai mattoni anneriti dal fumo che le facevano da sfondo i suoi abiti erano strappati e sudici brandiva una bottiglia di burro birra e oscillava sullo sgabello fissando il fuoco mentre la guardavano si inghiozzò sonoramente adesso winky ne butta giù sei bottiglie al giorno sussurrò dobbi a erri beh non è forte quella roba disse erri ma dobbi scosse la testa per un elfo domestico è forte signore disse winky si inghiozzò di nuovo gli elfi che avevano portato i bignè le scoccarono sguardi di disapprovazione mentre tornavano al lavoro winky si strugge a erri potter mormorò dobbi in tono triste winky vuole andare a casa winky crede ancora che il signor crouch è il suo padrone signore e niente di quello che dice dobbi la convincerà che il professor silente è il suo padrone adesso ehi winky disse erri colto da un'improvvisa ispirazione avvicinandosi e chinandosi per parlarle non sai che cosa in mente il signor crouch per caso perché ha smesso di venire a fare il giudice al torneo tre maghi gli occhi di winky si illuminarono le sue enormi pupille si fermarono su erri si dondolò ancora un pochino e poi disse padrone ha smesso di venire sì disse erri non lo vediamo dalla prima prova la gazzetta del profeta dice che è malato winky si dondolò ancora un po fissando confusamente erri padrone malato il labbro inferiore prese a tremare ma non siamo certi che sia vero intervenne rapida ermione padrone ha bisogno della sua winky piagnucolò l'elfa padrone non può farcela tutto solo altre persone riescono a fare i lavori di casa da soli sai winky disse severamente ermione winky non fa solo i lavori di casa per il signor crouch strillò l'elfa indignata dondolandosi più forte che mai e versando la burro birra sulla camicia già coperta di macchie padrone affida a winky il più importante il più segreto cosa chiese erri ma winky scosse violentemente la testa rovesciandosi addosso dell'altra burro birra winky tiene i segreti del suo padrone disse in tono riottoso oscillando forte e guardando erri in cagnesco con gli occhi strabici tu sta ficcando il naso tu sta winky non deve parlare così a harry potter disse dobbia di lato harry potter è coraggioso e nobile e harry potter non è un impiccione lui ficca il naso nelle cose segrete e private del mio padrone winky è una brava elfa domestica winky tiene la bocca chiusa la gente cerca di impicciarsi le palpebre di winky si abbassarono e tutto a un tratto senza preavviso l'elfa scivolò giù dallo sgabello nel focolare russando forte la bottiglia vuota di burro birra rotolò via sul pavimento di pietra una mezza dozzina di elfi si avvicinarono di corsa disgustati uno di loro raccolse la bottiglia gli altri coprirono winky con un'ampia tovaglia a quadretti e ne rimboccarono bene i capi nascondendola alla vista noi e costernati che voi ha dovuto vedere questo signori e signorina squitti un elfo lì accanto scuotendo la testa vergognoso noi spera che voi non ci giudica tutti da come si comporta winky signori e signorina è infelice esclamò ermione esasperata perché non cercate di tirarla un po su invece di coprirla lei ci scusa tanto signorina disse l'elfo domestico con un altro profondo inchino ma gli elfi domestici non hai il diritto di essere infelici quando c'è del lavoro da fare e dei padroni da servire o per l'amor del cielo abbaiò ermione statemi bene a sentire tutti quanti avete diritto quanto i maghi di essere infelici avete il diritto di ottenere salari e vacanze e abiti come si deve non dovete fare tutto quello che vi si ordina guardate dobby signorina per favore tiene dobby fuori da questa faccenda borbottò dobby con aria spaventata i sorrisi allegri erano scomparsi dai volti degli elfi domestici all'improvviso occhieggiarono ermione come se fosse una pazza pericolosa noi al cibo in più per voi squitti un elfo al gomito di erri e gli ficò tra le braccia un grosso prosciutto una dozzina di torte e della frutta arrivederci gli elfi si affollarono attorno a erri ron e ermione e cominciarono a spingerli fuori dalla cucina premendo con tante manine sui loro sederi grazie per i calzini erri potter gridò dobby depresso stava in piedi presso il fuoco vicino alla tovaglia bitorsoluta che nascondeva winky non potevi tenere la bocca chiusa ermione disse ron arrabbiato mentre la porta della cucina sbatteva alle loro spalle ora non vorranno più che andiamo a trovarli potevamo cercare di scoprire da winky qualcosa di più sul signor crouch come se te ne importasse sbottò ermione sprezzante a te piace venire qua giù solo per il cibo dopodiché la giornata fu piuttosto tesa erri era così stanco di vedere ron e ermione battibeccare al di sopra dei compiti in sala comune che quella sera portò da solo il cibo per sirius su alla guferia leo era troppo piccolo per trasportare un prosciutto intero su per la montagna da solo così erri chiese anche l'aiuto di due allocchi di palude della scuola quando furono decollati nella luce del tramonto tre bizzarre sagome che trasportavano insieme il grosso pacco erri si appoggiò al davanzale guardando il parco le cupe cime fruscianti degli alberi della foresta proibita e le vele agitate della nave di durmstrang un gufo reale attraversò in volo il filo di fumo che saliva dal camino di agrid planò verso il castello circunnavigò la guferia e sparì guardando in giù erri vide agrid scavare con foga davanti alla capanna si chiese che cosa stesse facendo era come se stesse preparando un nuovo orticello in quel momento madame maxim sbucò dal carro di bobaton e raggiunse agrid cercò di coinvolgerlo in una conversazione agrid si appoggiò alla pala ma non sembrava desideroso di prolungare la chiacchierata perché madame maxim poco dopo tornò alla sua carrozza erri non aveva voglia di tornare nella torre di grifondoro ad ascoltare ron e ermione che si insultavano così guardò agrid scavare finché l'oscurità non lo inghiottì e i gufi attorno a lui presero a risvegliarsi e si tuffarono nella notte a gran colpi d'ala il giorno dopo a colazione il malumore di ron e di ermione si era dissipato e con gran sollievo di erri le cupe profezie di ron sul fatto che a causa degli insulti di ermione gli elfi domestici avrebbero mandato cibo più scadente al tavolo di grifondoro si rivelarono false il bacon le uova e le aringhe affumicate erano buoni come sempre quando arrivarono i gufi postini ermione guardò in su con l'aria di aspettare qualcosa persi non avrà avuto ancora tempo di rispondere disse ron abbiamo spedito edvige solo ieri no non è quello disse ermione mi sono appena abbonata alla gazzetta del profeta sono stufa di venire a sapere tutto dai serpeverde buona idea esclamò erri alzando a sua volta gli occhi verso i gufi ehi ermione credo che tu sia fortunata un gufo grigio planava verso di lei ma non ha un giornale disse delusa e con sua sorpresa il gufo grigio atterrò davanti al suo piatto seguito da vicino da quattro barbagianni un gufo bruno e un allocco quanti abbonamenti hai fatto chiese erri afferrando il calice di ermione prima che venisse rovesciato dal drappello di gufi che si urtavano tutti cercando di recapitare per primi la loro lettera cosa accidenti cominciò ermione sfilò la lettera dal gufo grigio la aprì e cominciò a leggerla o roba da matti balbettò arrossendo cosa c'è disse ron e o che cosa ridicola gettò la lettera a erri che vide che non era scritta a mano ma composta con lettere incollate che sembravano ritagliate dalla gazzetta del profeta sei una ragazza cattiva harry potter si merita di meglio torna dai babbani da dove sei venuta sono tutte così disse ermione sconvolta aprendo una lettera dopo l'altra harry potter può fare molto meglio di quelli come te meriti di finire bollita in gelatina di rana aia aveva aperto l'ultima busta e un liquido di un verde giallastro con un intenso odore di benzina le schizzò sulle mani che cominciarono a coprirsi di grosse bolle gialle pus di bubo tubero puro gridò ron raccogliendo con circospezione la busta per annusarla ai gridò ermione e gli occhi le si riempirono di lacrime mentre cercava di pulirsi le mani con un tovagliolo ma ormai le sue dita erano talmente coperte di piaghe doloranti che sembrava avesse indosso un paio di guanti bitorzoluti va in infermeria presto disse erri mentre i gufi attorno a ermione spiccavano il volo lo diremo noi alla professoressa sprout l'avevo avvertita disse ron mentre ermione correva fuori dalla sala grande reggendosi le mani l'avevo avvertita di non dare fastidio a rita skitter guarda questa lesse ad alta voce una delle lettere che ermione non aveva ancora visto ho letto sul settimanale delle streghe che stai prendendo in giro harry potter e quel ragazzo ne ha già passate tante e ti spedirò una maledizione con la prossima posta non appena riesco a trovare una busta abbastanza grande accidenti è meglio che si guardi le spalle ermione non si fece vedere a erbologia mentre erri e ron uscivano dalla serra per andare a lezione di cura delle creature magiche videro malfoi crebbe goyle scendere i gradini di pietra davanti al castello dietro di loro pensi parkinson e il suo gruppetto parlavano a bassa voce ridacchiando come vide erri pensi gridò potter ti sei mollato con la tua ragazza come mai a colazione era così sconvolta erri la ignorò non voleva darle la soddisfazione di scoprire quanti guai aveva provocato l'articolo del settimanale delle streghe agrid che nella lezione precedente aveva annunciato di aver finito con gli unicorni li aspettava davanti alla sua capanna con una nuova dotazione di casse aperte ai suoi piedi il cuore di erri ebbe un tuffo e se era un'altra covata di schiopodi ma quando fu abbastanza vicino da guardarci dentro si trovò davanti a tante soffici creature nere dai lunghi musi le zampe davanti erano curiosamente piatte come badili e gli esserini sbattevano le palpebre davanti alla classe rispondendo con educata perplessità a tutta quell'attenzione questi sono snasi spiegò agrid quando la classe lo ebbe attorniato li si trova soprattutto giù nelle miniere gli piacciono le cose che brillano ecco guardate uno degli snasi all'improvviso balzò in alto nel tentativo di strappare con un morso l'orologio da polso di pensi parkinson che strillò e fece un salto indietro sono dei piccoli utili trova tesori disse agrid allegramente ho pensato che oggi ci potevamo divertire un po' con loro vedete laggiù e indicò il bel pezzo di terra appena vangata che erri lo aveva visto lavorare dalla finestra della guferia ho sepolto delle monete d'oro ho un premio per chi sceglie lo snaso che ne trova di più toglietevi gli oggetti preziosi scegliete uno snaso e preparatevi a liberarli erri si tolse l'orologio lo portava solo per abitudine dal momento che non funzionava più e se lo infilò in tasca poi scelse uno snaso che gli ficcò nell'orecchio il lungo muso e annusò entusiasta era decisamente una bestiola coccolosa un momento disse agrid guardando nella cassa qui avanza uno snaso chi è che manca dove è ermione è dovuto andare in infermeria disse ron ti spieghiamo dopo borbottò erri pensi parkinson era in ascolto cura delle creature magiche non era mai stata così divertente gli snasi si tuffavano dentro e fuori dal pezzetto di terra come se fosse stata acqua e ciascuno tornava zampettando dallo studente che l'aveva liberato e gli sputava in mano una moneta quello di ron era particolarmente svelto ben presto gli riempì le mani si possono comprare per tenerli in casa agrid chiese eccitato mentre il suo snaso si rituffava nella terra schizzando gli vestiti tua mamma non sarebbe contenta ron spiegò agrid con un gran sorriso devastano le case e gli snasi mi sa che hanno quasi finito adesso aggiunse camminando su e giù attorno al fazzoletto di terra smossa mentre gli snasi continuavano a immergersi ho sepolto solo un centinaio di monete oh eccoti qui ermione ermione veniva verso di loro attraverso il prato aveva le mani coperte di bende e l'aria tristissima pensi parkinson la osservava con occhi attenti bene vediamo come siete andati disse agrid contate le monete e non è il caso di rubarle goil aggiunse stringendo gli occhi nerissimi e oro dei lepricani sparisce dopo qualche ora goil si svuotò le tasche decisamente imbronciato si scoprì che lo snaso di ron era stato il più bravo di tutti e agrid lo premiò con un blocco enorme di cioccolato di mielandia la campana del pranzo e che giò nel parco il resto della classe si incamminò verso il castello ma erri ron e ermione rimasero indietro per aiutare agrid a rimettere gli snasi nelle loro cassette erri notò madame maxim che li guardava dalla finestra della carrozza che cosa ti sei fatta alle mani ermione chiese agrid preoccupato ermione gli raccontò dei messaggi anonimi che aveva ricevuto la mattina e della busta piena di pus di bubo tubero ah non pensarci disse agrid gentilmente guardandola anch'io ne ho ricevute un po' dopo che rita skitter aveva scritto della mia mamma sei un mostro e dovresti essere eliminato tua madre ha ucciso tante persone innocenti e se avessi un po' di dignità ti butteresti nel lago no esclamò ermione colpita sì disse agrid impilando le casse degli snasi accanto alla parete della capanna sono solo matti ermione se te ne arrivano delle altre non aprirle buttale dritta nel fuoco ti sei persa proprio una bella lezione disse erri a ermione mentre tornavano al castello sono forti gli snasi vero ron ron però scrutava il cioccolato da sotto le sopracciglia aggrottate sembrava arrabbiato per qualcosa che cosa c'è gli chiese erri quel gusto non ti va no rispose brusco ron perché non mi avevi detto dell'oro quale oro disse erri l'oro che ti avevo dato alla coppa del mondo di quidditch rispose ron l'oro dei lepricani che ti avevo dato per pagarmi l'omniocolo in tribuna d'onore perché non mi hai detto che era sparito erri ci mise un po' a capire di che cosa stava parlando ron o disse quando finalmente si ricordò io non non mi sono mai accorto che era sparito ero più preoccupato per la mia bacchetta no risalirono i gradini fino alla sala d'ingresso ed entrarono in sala grande per pranzare deve essere bello disse ron all'improvviso mentre si servivano di roast beef e contorni vari avere così tanti soldi da non accorgerti se ti sparisce una manciata di galeoni senti avevo altre cose per la testa quella sera esclamò erri spazientito e non solo io ti ricordi non lo sapevo che l'oro dei lepricani scompare borbottò ron ero convinto di averti restituito i tuoi soldi non avresti dovuto regalarmi il berretto dei cannoni di chadley per natale lascia perdere va bene disse erri ron infilzò sulla forchetta una patata arrosto scrutandola con rabbia poi disse odio essere povero erri e ermione si cambiarono uno sguardo nessuno dei due sapeva cosa dire è uno schifo proseguì ron senza smettere di fissare la sua patata non biasimo freddo e george perché cercano di far soldi vorrei poterlo fare anch'io vorrei avere uno snaso beh adesso sappiamo cosa regalarti il prossimo natale disse ermione allegramente poi visto che ron continuava a restare imbronciato aggiunse andiamo ron potrebbe andar peggio almeno tu non hai le dita piene di pus ermione faceva una gran fatica a maneggiare forchetta e coltello con le dita così gonfi e rigide odio quella skitter esplose furibonda gliela farò pagare fosse l'ultima cosa che faccio la settimana dopo ermione continuò a ricevere lettere anonime e anche se lei seguì il consiglio di agrid e smise di aprirle parecchi dei suoi nemici spedirono strillettere che esplosero al tavolo di grifondoro coprendola di insulti davanti a tutta la sala grande anche quelli che non leggevano il settimanale delle streghe ormai sapevano tutto del presunto triangolo erri crum ermione erri cominciava a essere stanco di ripetere a tutti che ermione non era la sua fidanzata si calmerà tutto comunque disse a ermione se facciamo finta di niente la gente si è stufata della roba che aveva scritto su di me l'ultima volta voglio capire come fa rita skitter ad ascoltare le nostre conversazioni private quando l'era stato vietato di avvicinarsi al parco esclamò ermione furibonda alla fine della lezione seguente di difesa contro le arti oscure si fermò a chiedere qualcosa al professor moody il resto della classe aveva una gran fretta di andarsene moody aveva dato loro un compito in classe così difficile di deviazione di malefici che molti di loro accusavano piccole ferite erri aveva una forma così ostinata di orecchie agitate che dovette tenerle ferme con le mani mentre si allontanava dalla classe beh è chiaro che rita non usa un mantello dell'invisibilità sbuffò ermione cinque minuti dopo raggiungendo di corsa erri e ron in sala d'ingresso e togliendo la mano da una delle orecchie agitate di erri perché la sentisse moody dice che non l'ha vista attorno al tavolo dei giudici alla seconda prova e nemmeno vicino al lago ermione serve a qualcosa dirti di lasciar perdere disse ron no esclamò ermione ostinata voglio sapere come ha fatto a sentirmi parlare con victor e anche come ha fatto a scoprire della madre di agrid forse ti ha messo una cimice azzardò erri una cimice chiese ron con sguardo vacuo cosa le avrebbe buttato addosso un insetto erri spiegò che si trattava di microfoni nascosti microspie e attrezzature di registrazione ron ne fu affascinato ma ermione l'interruppe voi due non leggerete mai storia di hogwarts a che cosa serve disse ron tu la sai a memoria basta che chiediamo a te tutti i surrogati della magia che usano i babbani l'elettricità i computer e i radar e quelle cose là impazziscono attorno a hogwarts c'è troppa magia nell'aria no rita usa la magia per origliare deve essere così se solo riuscissi a scoprire che cos'è se è illegale l'avrò in pugno non abbiamo abbastanza cose di cui preoccuparci le chiese ron dobbiamo anche imbastire una vendetta contro rita skitter non ti sto chiedendo di aiutarmi sbottò ermione farò tutto da sola e risalì la scalinata di marmo senza guardarsi indietro erri era certo che fosse diretta in biblioteca quanto scommetti che torna con una scatola di spille odio rita skitter disse ron ermione comunque non chiese a erri e ron di aiutarla a vendicarsi di rita skitter cosa per la quale entrambi le furono grati perché il loro carico di compiti diventava sempre più pesante man mano che si avvicinavano le vacanze di pasqua erri era francamente stupito che ermione riuscisse a fare ricerche sui metodi magici per ascoltare le conversazioni altrui con tutto quello che avevano da fare lui lavorava come un pazzo solo per riuscire a star dietro a tutti i compiti e le lezioni anche se ci teneva a spedire regolarmente pacchi di viveri alla caverna sulla montagna per sirius dopo la scorsa estate non aveva dimenticato cosa si provava ad avere continuamente fame allegava biglietti per sirius in cui scriveva che non era successo niente di straordinario e che erano ancora in attesa di una risposta da persi edvige non fece ritorno fino alla fine delle vacanze di pasqua la lettera di persi era infilata in un pacco di uova di pasqua spedite dalla signora weasley quelle di erri e ron erano grandi come uova di drago e ripiene di mu fatto in casa invece quello di ermione era più piccolo di un uovo di gallina quando lo vide rimase a bocca aperta non è che per caso la tua mamma legge il settimanale delle streghe erron chiese sottovoce si rispose ron con la bocca piena di mu lo compra sempre per le ricette ermione guardò malinconica all'ovetto striminzito non vuoi vedere la lettera di persi si affrettò a chiederle erri la lettera di persi era breve e irritata come continuo a ripetere alla gazzetta del profeta il signor crouch si è preso una meritata vacanza spedisce gufi regolari con le istruzioni no non l'ho visto di persona ma credo di poter dire con tutta sicurezza di conoscere la scrittura del mio superiore ho già parecchio da fare al momento senza dover mettere a tacere queste ridicole voci per favore non seccarmi più a meno che non si tratti di una cosa importante buona pasqua di solito l'inizio del trimestre estivo significava per erri allenamenti serrati in vista della partita finale di quiddici della stagione quest'anno invece doveva prepararsi alla terza e ultima prova del torneo tre maghi ma non sapeva ancora che cosa avrebbe dovuto fare finalmente l'ultima settimana di maggio dopo trasfigurazione la professoressa mcgonagall lo trattenne dobbiamo scendere al campo di quiddici stasera alle nove potter gli disse ci sarà il signor bugman e spiegherà la terza prova ai campioni così quella sera alle otto e mezzo erri lasciò ron e ermione nella torre di grifondoro e scese le scale mentre attraversava la sala d'ingresso cedric salì dalla sala comune di tassofrasso di che cosa credi che si chiese a erri mentre scendevano insieme la scala di pietra e si addentravano nella notte nuvolosa fleur continua a parlare di tunnel sotterranei pensa che dobbiamo trovare dei tesori non sarebbe male disse erri pensando che in tal caso avrebbe potuto chiedere a grid uno dei suoi snasi e quello avrebbe fatto tutto da solo discesero il prato buio fino allo stadio di quiddici passarono attraverso una fessura fra le tribune ed entrarono in campo che cosa gli hanno fatto esclamò cedric indignato fermandosi di colpo il campo di quiddici non era più liscio e piatto sembrava che qualcuno li avesse costruito sopra un intrico di lunghe mura basse che piegavano e si incrociavano in tutte le direzioni sono siepi disse erri curvandosi per osservare la più vicina salute laggiù gridò una voce allegra ludo bugman era in piedi al centro del campo con crum e fleur erri e cedric li raggiunsero scavalcando le siepi fleur fece un gran sorriso a erri aveva cambiato completamente atteggiamento nei suoi confronti da quando erri aveva tirato fuori la sua sorellina dal lago beh cosa ne dite disse bugman tutto felice mentre erri e cedric superavano l'ultima siepe crescono bene vero date loro un mese e agrid riuscirà a farle diventare alte sei metri non preoccupatevi aggiunse gioviale notando l'espressione men che lieta dipinta sulla faccia di erri e cedric riavrete il vostro campo di quiddici una volta finita la prova ora suppongo che siate riusciti a immaginare che cosa abbiamo in mente per un attimo nessuno parlò poi labirinto grugnì crum esatto esclamò bugman un labirinto la terza prova è veramente chiara la coppa tre maghi verrà messa al centro del labirinto il primo campione che la tocca otterrà punteggio pieno dobbiamo solo attraversare il labirinto chiese fleur ci saranno degli ostacoli spiegò bugman allegramente saltellando in punta di piedi agrid sta preparando una serie di creature poi ci saranno incantesimi da spezzare tutta roba del genere insomma ora i campioni che la classifica partiranno in vantaggio bugman sorrise a erri e cedric poi entrerà il signor crum poi la signorina della cour ma avrete tutti la possibilità di battervi tutto dipenderà da come supererete gli ostacoli dovrebbe essere divertente erri che conosceva fin troppo bene il genere di creature che agrid avrebbe sfoderato per un'occasione del genere pensò che era alquanto improbabile che la cosa si rivelasse divertente comunque annui educatamente come gli altri campioni molto bene se non avete domande torneremo al castello vero fa un po freddino bugman si affrettò a raggiungere erri mentre si facevano strada tra le siepi per uscire dal labirinto in crescita erri aveva la sensazione che bugman stesse per offrirgli di nuovo il suo aiuto ma in quel momento crum gli batte sulla spalla posso con te parlare sì certo disse erri sorpreso fiene tu con me ok rispose erri incuriosito bugman parve vagamente turbato ti aspetto erri va bene no è tutto a posto signor bugman disse erri reprimendo un sorrisetto credo che riuscirò a ritrovare il castello da solo grazie erri e crum uscirono insieme dallo stadio ma crum non prese la strada che portava alla nave di durmstrang si incamminò invece verso la foresta perché andiamo da questa parte chiese erri mentre superavano la capanna di agrid e la carrozza illuminata di bobaton io non fuole che qualcuno ci sente rispose secco crum quando finalmente ebbero raggiunto un prato tranquillo non lontano dal recinto dei cavalli di bobaton crum si fermò all'ombra degli alberi e si voltò ad affrontare erri io fuole sapere proferì guardandolo in cagnesco cosa esserci fra te e ragnoni erri che dal fare reticente di crum si era aspettato qualcosa di molto più serio fissò crum di sotto in su sbalordito niente rispose ma crum lo guardò torvo erri colpito di nuovo dall'altezza di crum si spiegò meglio siamo amici non è la mia fidanzata e non lo è mai stata è solo quella skitter che si inventa le cose ermioni dice sempre su te rispose crum sospettoso si disse erri perché siamo amici non riusciva a credere di trovarsi nel bel mezzo di una conversazione del genere con victor crum il famoso giocatore internazionale di quidditch era come se il diciottenne crum fosse convinto che lui erri fosse un suo pari un autentico rivale voi non avete mai voi non avete no rispose erri con decisione crum parve un po più allegro fissò erri per qualche istante poi disse tu molto bravo a folare io te guardata la prima profa grazie disse erri con un riso e all'improvviso si sentì anche lui molto più alto ti ho visto alla coppa del mondo di quidditch quella finta vronsky sei stato davvero ma qualcosa si mosse tra gli alberi dietro crum e erri che aveva una certa esperienza del genere di cose che si acquattavano nella foresta afferrò distinto crum per il braccio e lo trasse a sé cosa era che resto erri scosse la testa guardando il punto in cui aveva visto un movimento fece scivolare la mano nella veste in cerca della bacchetta un attimo dopo un uomo uscì barcollando da dietro un'alta quercia per un istante erri non lo riconobbe poi vide che era il signor crouch sembrava che fosse in viaggio da giorni aveva la veste strappata insanguinata all'altezza delle ginocchia il volto coperto di graffi la barba lunga e il viso grigio di stanchezza i capelli e i baffi di solito così in ordine avevano bisogno di una lavata e una regolata il suo strano aspetto comunque era nulla in confronto al suo comportamento il signor crouch borbottava e gesticolava come se stesse parlando con qualcuno che vedeva solo lui a erri fece venire in mente con chiarezza un vecchio barbone che aveva visto una volta quando era a fare compere con i darsley anche quell'uomo discuteva animatamente con il vuoto sia petunia aveva afferrato la mano di dudley e l'aveva trascinato dall'altra parte della strada per evitarlo sia vernon poi aveva inflitto alla famiglia una lunga tirata su quello che avrebbe voluto fare di mendicanti e vagabondi non è giudice chiese crum fissando il signor crouch non è del fostro ministero erri annui esitò per un attimo poi si avvicinò lentamente al signor crouch che non lo guardò ma continuò a parlare con un albero lì vicino e quando hai finito weatherby manda un gufo assilente per confermare il numero di studenti di durmstrang che prenderanno parte al torneo karkaroff ha appena fatto sapere che saranno in dodici signor crouch disse erri con delicatezza e poi manda un altro gufo a madame maxim perché può darsi che voglia aumentare il numero di studenti della sua delegazione ora che karkaroff è arrivato a una dozzina tonda lo farai weatherby vero vero ve il signor crouch aveva gli occhi fuori dalle orbite rimase lì a fissare l'albero mormorando in silenzio poi barcollò da un lato e cadde in ginocchio signor crouch chiese erri a voce alta si sente bene crouch roteò gli occhi erri cercò lo sguardo di crum che lo aveva seguito tra gli alberi e guardava crouch allarmato cosa succede lui non ne ho idea sussurrò erri senti è meglio che tu vada a chiamare qualcuno silenzio esclamò il signor crouch senza fiato tese una mano e afferrò il vestito di erri trascinandolo più vicino anche se i suoi occhi guardavano oltre la testa di erri devo vedere silenzio ok disse erri se si alza signor crouch possiamo andare al ho fatto una cosa stupida esalò il signor crouch sembrava decisamente in pazzito i suoi occhi roteavano sporgenti e un rivolo di saliva gli scivolava giù per il mento ogni parola che pronunciava pareva costargli uno sforzo tremendo devo dire a silenzio si alzi signor crouch disse erri con voce forte e chiara si alzi la porterò da silenzio gli occhi di crouch si fissarono in quelli di erri roteando chi sei mormorò sono un allievo della scuola rispose erri cercando con gli occhi l'aiuto di crum che si teneva a distanza e sembrava decisamente teso non sei suo borbottò crouch con la bocca che tremava no rispose erri senza avere la benché minima idea di cosa intendesse dire di silente proprio così disse erri crouch lo tirava a sé erri cercò di allentare la stretta sulla veste ma era troppo forte avverti silente andrò a chiamare silente se lei mi lascia andare disse erri mi lasci signor crouch e andrò a chiamarlo grazie weatherby e quando hai finito vorrei una tazza di tè mia moglie e mio figlio arriveranno tra poco stasera andiamo a un concerto con il signore la signora fudge ora crouch aveva ripreso a parlare tranquillamente con un albero e sembrava del tutto ignaro della presenza di erri quest'ultimo ne fu così sorpreso che non si accorse nemmeno che crouch lo aveva lasciato andare sì mio figlio ha appena preso 12 gufo una bella soddisfazione sì grazie sì sono davvero molto fiero di lui ora se puoi portarmi quel promemoria del ministero della magia di andorra credo che avrò tempo di buttar giù una risposta tu resta qui con lui disse erri a crum io vado a chiamare silente farò in fretta so dove il suo ufficio è pazzo disse crum dubbioso fissando crouch che continuava a blaterare rivolto all'albero convinto che si trattasse di persi rimani con lui disse erri e fece per alzarsi ma il suo gesto parve innescare un altro brusco mutamento nel signor crouch che lo afferrò alle ginocchia e lo trascinò di nuovo a terra non abbandonarmi sussurrò gli occhi di nuovo sporgenti io sono fuggito devo avvertire devo dire vedere silente colpa mia tutta colpa mia berta morta tutta colpa mia mio figlio colpa mia dire a silente harry potter il signore oscuro più forte harry potter andrò a chiamare silente se mi lascia andare signor crouch esclamò erri poi si rivolse a crum infuriato vuoi aiutarmi crum decisamente preoccupato si fece avanti e si accoccolò vicino al signor crouch trattienilo qui disse erri liberandosi dalla presa di crouch tornerò con silente fai in fretta si gli gridò dietro crum mentre erri filava via dalla foresta e correva su per il parco immerso nell'oscurità erano completamente soli bugman cedric e fleur erano scomparsi harry corse all'impazzata su per i gradini di pietra varcò il portone di quercia e schizzò su per la scalinata di marmo diretto al secondo piano cinque minuti dopo correva verso un gargoyle di pietra eretto a metà di un corridoio vuoto fritz lemon esclamò ansante era la parola d'ordine per la scala nascosta che portava all'ufficio di silente o almeno lo era due anni prima nel frattempo evidentemente era cambiata perché il gargoyle di pietra non prese vita e non balzò di lato ma rimase lì immobile scrutando erri con sguardo malvagio muoviti lo investì erri andiamo ma nulla a hogwarts si era mai mosso solo perché gli strillavi contro erri guardò su e giù per il corridoio buio forse silente era in sala professori prese a correre più veloce che poteva verso le scale potter erri si fermò di colpo e si voltò piton era appena spuntato dalla scala nascosta dietro il gargoyle di pietra il muro si stava ancora chiudendo alle sue spalle mentre faceva segno a erri di tornare indietro che cosa ci fai qui potter devo vedere il professor silente disse erri ripercorrendo di corsa il corridoio e fermandosi davanti a piton il signor crouch è appena tornato è nella foresta chiede che sciocchezze vai dicendo disse piton gli occhi neri scintillanti di che cosa stai parlando il signor crouch urlò erri del ministero sta male non so è nella foresta vuole vedere silente mi dia solo la parola d'ordine il preside è occupato potter rispose piton le labbra incurvate in un sorriso sgradevole devo parlare con silente gridò erri non hai sentito potter erri avrebbe giurato che piton si stesse divertendo negandogli quello che chiedeva e lasciandolo nel panico senta sbottò infuriato crouch sta male è fuori di sé dice che vuole avvertire il muro di pietra alle spalle di piton si aprì silente era lì vestito di un lungo abito verde con un'espressione di vaga curiosità c'è qualche problema disse guardando tra erri e piton professore esclamò erri prima che piton potesse aprir bocca il signor crouch è qui è giù nella foresta vuole parlarle erri si aspettava che silente facesse qualche domanda ma con suo gran sollievo non fece nulla del genere guidami disse immediatamente e si incamminò dietro a erri lungo il corridoio lasciando piton con una faccia ancora più torva del solito in piedi accanto al gargoyle che cosa ha detto il signor crouch erri chiese silente mentre scendevano in fretta la scalinata di marmo ha detto che vuole avvertirla dice che ha fatto qualcosa di orribile ha parlato di suo figlio e di bertha jorkins e e di voldemort ha detto che voldemort è diventato più forte ma senti disse silente e affrettò il passo mentre uscivano nella notte nera come la pece non si comporta in modo normale continuò erri camminando più in fretta al fianco di silente sembra che non sappia dove si trova continua a parlare come se credesse di trovarsi davanti a percy weasley e poi cambia e dice che deve vedere lei l'ho lasciato con victor crum cosa sbottò brusco silente e prese a camminare ancora più in fretta così che erri dovette correre per stargli dietro sai se qualcun altro ha visto il signor crouch no rispose erri io e crum stavamo parlando il signor bugman aveva appena finito di spiegarci la terza prova siamo rimasti indietro e poi abbiamo visto il signor crouch uscire dalla foresta dove sono chiese silente mentre la carrozza di bobaton affiorava dall'oscurità laggiù disse erri superando silente e facendogli strada attraverso gli alberi non sentiva più la voce di crouch ma sapeva dove era diretto non era molto più in là della carrozza di bobaton da qualche parte l'intorno victor urlò erri nessuno rispose erano qui disse erri a silente erano di sicuro qui da qualche parte lumos disse silente accendendo la bacchetta e tenendola alta il suo raggio sottile rimbalzò da un tronco scuro all'altro illuminando il terreno e poi cadde su un paio di piedi erri e silente corsero avanti crum era steso a terra sembrava privo di sensi di crouch nessuna traccia silente si chinò su crum e gli sollevò delicatamente una palpebra schiantato disse piano gli occhiali a mezzaluna brillarono alla luce della bacchetta mentre escrutava gli alberi tutto attorno devo andare a chiamare qualcuno disse erri madame pomfli no rispose in fretta silente stai qui levò la bacchetta e la puntò verso la capanna di agrid erri vide qualcosa di argenteo sfrecciare fuori dalla punta e dirigersi attraverso gli alberi come un uccello spettrale poi silente si curvò di nuovo su crum gli puntò contro la bacchetta e sussurrò re innerva crum aprì gli occhi sembrava intontito quando vide silente cercò di alzarsi a sedere ma il preside gli mise una mano sulla spalla e lo costrinse a rimanere disteso lui a me aggredito borbottò crum portando una mano alla testa quel vecchio folle a me aggredito mentre io guardava dove andato potter lui attaccava mie spalle resta giù ancora un po' disse silente gli raggiunse un rumore di passi tonanti e agrid spuntò ansante con zanna alle calcagna era armato di balestra professor silente disse gli occhi sgranati erri che cosa agrid devi andare a chiamare il professor karkaroff disse silente un suo allievo è stato aggredito quando hai fatto ti prego di avvertire il professor moody non serve silente sono qui moody avanzò zuppicando appoggiandosi al bastone la bacchetta accesa dannata gamba ringhiò sarei arrivato prima che cosa è successo piton ha detto qualcosa a proposito di crouch crouch esclamò agrid ignaro karkaroff per favore agrid disse silente in tono brusco oh sì ha ragione professore disse agrid poi si voltò e sparì tra gli alberi oscuri seguito da zanna non so dove sia barty crouch disse silente a moody ma è fondamentale che riusciamo a trovarlo ci penso io ringhiò moody e alzata la bacchetta si allontanò soppicando nella foresta né silente né erri aprirono bocca finché non udirono il rumore inconfondibile di agrid e zanna che tornavano karkaroff li seguiva di corsa indossava la sua liscia pelliccia argentea e sembrava pallido e agitato che cosa succede gridò quando vide crum a terra e silente erri accanto a lui cos'è successo io è stato aggredito disse crum levandosi a sedere e massaggiandosi la testa che vel crouch o come lui chiama crouch ti ha aggredito crouch ti ha aggredito il giudice del tre maghi igor esordì silente ma karkaroff si erse in tutta la sua altezza stringendosi addosso la pelliccia furente tradimento ululò puntando il dito contro silente è una congiura tu e il ministero della magia mi avete attirato qui con l'inganno silente questa non è una gara corretta prima tramate per ammettere potter al torneo anche se è troppo giovane ora uno dei tuoi amici del ministero cerca di mettere fuori gioco il mio campione io subodoro doppiezza e corruzione in tutta quanta la faccenda e tu silente tu con tutti i tuoi discorsi sui rapporti magici internazionali più stretti sull'importanza di ricreare vecchi legami di dimenticare vecchie divergenze ecco che cosa penso di te karkaroff sputò ai piedi di silente con un rapido gesto agrid afferrò karkaroff per la pelliccia lo sollevò e lo sbatté contro un albero vicino chiedi scusa ringhiò agrid mentre karkaroff annaspava col grosso pugno del guardacaccia alla gola i piedi pensoloni a mezz'aria agrid no gridò silente gli occhi lampeggianti agrid ritirò la mano che inchiodava karkaroff all'albero e quest'ultimo scivolò lungo il tronco e si afflosciò a terra una piccola pioggia di rametti e foglie lo colpì sulla testa ti prego di scortare erri fino al castello agrid disse silente in tono asciutto respirando affannosamente agrid scoccò a karkaroff uno sguardo minaccioso forse è meglio che sto qui preside tu riporti erri a scuola agrid ripetessi lente con decisione portalo di filato su alla torre di grifondoro e erri voglio che tu vi rimanga qualunque cosa ti venga in mente di fare qualunque gufo tu voglia spedire possono aspettare fino a domattina mi hai capito sì rispose erri guardandolo negli occhi come faceva silente a sapere che proprio in quell'istante aveva pensato di spedire leo di filato da sirius per fargli sapere cos'era successo lascio qui zanna preside disse agrid senza smettere di fissare torvo karkaroff che era ancora ai piedi dell'albero in un groviglio di pellicce e radici rimani qui zanna andiamo erri insieme oltrepassarono la carrozza di bobaton e ripresero la salita verso il castello come osa ringhiò agride mentre passavano accanto al lago come osa accusare silente silente non fa ste cose silente non ti voleva al torneo preoccupato non so quando ho mai visto silente più preoccupato di adesso e tu esclamò agrid all'improvviso rivolto a erri che guardò in su sorpreso che cos'è che facevi cosa andavi in giro a fare con quel tipaccio di crum è di durmstrang erri poteva farti una fattura moody non ti ha insegnato niente ma pensa a te lui che ti attira là fuori da solo crum è a posto disse erri mentre risalivano i gradini verso la sala d'ingresso non stava cercando di farmi il malocchio voleva solo parlare di ermione ci dirò due paroline anche a lei disse agrid cupo salendo pesantemente i gradini meno tutti quanti voi avete a che fare con quegli stranieri meglio sarà non potete fidarvi di nessuno di quelli là tu però andavi d'accordo con madame maxim disse erri irritato non parlarmi di lei disse agrid e per un attimo parve davvero spaventoso adesso sì che l'ho capita sta cercando di fare la pace solo perché vuole che le dico che cosa succede nella terza prova non ci si può fidare di nessuno di quelli là agrid era così di malumore che erri fu contento di separarsi da lui davanti alla signora grassa attraversò il buco del ritratto si arrampicò sul nella sala comune e raggiunse in fretta l'angolo in cui sedevano ron e ermione per raccontare loro l'accaduto il sogno il punto è questo disse ermione massaggiandosi la fronte o il signor crouch ha aggredito victor o qualcun altro ha aggredito tutti e due mentre victor non guardava deve essere stato crouch disse subito ron ecco perché era spalito quando erri e silente sono arrivati laggiù era scappato via non credo rispose erri scuotendo la testa sembrava proprio debole non credo che volesse smaterializzarsi o altro non ci si può smaterializzare entro i confini di hogwarts ve l'ho detto mille volte esclamò ermione ok sentite un po questa disse ron eccitato crum aggredisce crouch no aspettate un attimo e poi si schianta il signor crouch è evaporato vero fece ermione freddamente o vabbè era l'alba erri ron e ermione erano sgattaiolati fuori dai loro letti molto presto ed erano corsi insieme su alla guferia per spedire un biglietto a sirius ora erano in piedi e guardavano il parco immerso in una nebbiolina tutti e tre avevano gli occhi gonfi ed erano pallidi perché avevano parlato di crouch fino a tardi ricomincia da capo erri disse ermione allora che cosa ha detto il signor crouch te l'ho detto non aveva molto senso disse erri ha detto che voleva mettere in guardia silente da qualcosa ha nominato berta jorkins questo certo e sembrava convinto che fosse morta continuava a dire che era colpa sua ha parlato di suo figlio beh quella è stata sì colpa sua disse ermione stizzita era fuori di testa disse erri metà del tempo sembrava convinto che sua moglie e suo figlio fossero ancora vivi e continuava a parlare di lavoro con persi e a dargli istruzioni e ripeti un po cosa ha detto di tu sai chi disse ron esitante te l'ho detto ripete erri ostinato diceva che sta diventando più forte ci fu una pausa poi ron cominciò in tono falsamente fiducioso ma era fuori di testa come dicevi tu quindi probabilmente metà delle cose che ha detto erano puro delirio aveva l'aria di essere più lucido quando cercava di parlare di voldemort rispose erri ron sussultò faceva una gran fatica a mettere insieme due parole ma solo in quei momenti sembrava che sapesse dove si trovava e cosa voleva fare continuava a ripetere che doveva vedere silente erri si allontanò dalla finestra e prese a scrutare le travi metà dei molti trespoli erano vuoti ogni tanto un altro gufo piombava giù da una delle finestre di ritorno dalla caccia notturna con un topo nel becco se piton non mi avesse trattenuto disse erri con amarezza forse saremmo arrivati in tempo il preside occupato potter che cosa sono queste sciocchecce potter perché non si è tolto di torno e basta forse non voleva che tu arrivassi in tempo incalzò ron forse aspetta un po quanto ci poteva mettere ad arrivare giù alla foresta credi che possa essere arrivato prima di te e silente no a meno che non sappia trasformarsi in pipistrello rispose erri non lo escluderei borbuttò ron dobbiamo vedere il professor moody disse ermione dobbiamo scoprire se ha trovato il signor crouch facile se aveva con sé la mappa del malandrino disse erri a meno che crouch non fosse già fuori dal parco aggiunse ron perché la mappa arriva solo fino ai confini non sts fece ermione all'improvviso qualcuno stava salendo alla guferia erri udì due voci batti beccare sempre più vicine erri catto ecco cos'è potremmo finire nei guai guai seri abbiamo cercato di essere corretti adesso è il momento di giocare sporco come lui non vorrebbe certo che il ministero della magia sapesse che cosa ha fatto ti dico che se lo metti per iscritto è un ricatto sì ma poi mica ti lamenti se otteniamo un bel premio vero la porta della guferia si spalancò fred e george attraversarono la soglia poi si fermarono di botto alla vista di erri ron e ermione che cosa fate qui dissero ron e fred contemporaneamente spediamo una lettera risposero erri e george all'unisono come a quest'ora dissero ermione e fred fred sorrise bene noi non vi chiederemo che cosa state facendo se voi non lo chiedete a noi disse aveva in mano una busta sigillata erri le diede un'occhiata ma fred per caso o di proposito spostò la mano così da coprire il nome del destinatario beh non vogliamo trattenervi disse facendo un buffo inchino e indicando la porta ron non si mosse chi state ricattando chiese il sorriso scomparve dalle labbra di fred george gli lanciò un'occhiata prima di rivolgersi a ron non fare lo stupido stavo solo scherzando rispose con disinvoltura non sembrava proprio osservò ron fred e george si scambiarono un'altra occhiata poi fred disse bruscamente te l'ho già detto ron tieni il naso fuori da questa faccenda se ti piace così com'è non capisco come mai ma sono fatti miei se state ricattando qualcuno incalzò ron george ha ragione potreste cacciarvi in un grosso guaio te l'ho detto stavo scherzando insistette george si avvicinò a fred gli sfilò la lettera di mano e la legò alla zampa del barbagianni più vicino comincia ad assomigliare al nostro caro fratello maggiore siron continua così e ti faranno prefetto no disse ron veemente george portò il barbagianni alla finestra e quello spiccò il volo poi si voltò con un gran sorriso beh allora smettila di dire alla gente cosa deve fare a più tardi lui e fred se ne andarono erri ron e ermione si guardarono perplessi non credete che sappiano qualcosa di questa faccenda sussurrò ermione di crauce del resto no rispose erri se fosse una cosa così seria lo direbbero a qualcuno lo direbbero a silente ron comunque sembrava a disagio cosa c'è gli chiese ermione beh disse ron lentamente non so se lo farebbero sono sono ossessionati dall'idea di far soldi ultimamente me ne sono accorto stando con loro quando sapete noi non ci parlavamo concluse erri per lui sì ma un ricatto è quella loro idea del negozio di scherzi disse ron credevo che ne parlassero solo per irritare la mamma ma fanno sul serio vogliono aprirne uno rimanca solo un anno per finire hogwarts continuano a ripetersi che è ora di pensare al futuro e papà non li può aiutare e hanno bisogno di soldi per cominciare fu la volta di ermione di essere a disagio sì ma non farebbero nulla di illegale per ottenere del denaro tu dici le fece ecoron con aria scettica non so non è che gli importi granché di infrangere le regole no sì ma questa è la legge disse ermione spaventata questa non è una stupida regola della scuola prenderanno ben più di una pulizione se ricattano qualcuno ron forse sarebbe meglio se lo dicesse a persi sei pazza disse ron dirlo a persi probabilmente farebbe come crouch e li denuncierebbe fissò la finestra dalla quale era partito il barbagianni di fredda e george poi si riscosse dai andiamo a fare colazione credete che sia troppo presto per andare dal professor moody domandò ermione mentre scendevano la scala a chiocciola sì rispose erri probabilmente ci fulminerebbe da dietro la porta se lo svegliassimo all'alba crederebbe che stiamo cercando di assalirlo nel sonno aspettiamo l'intervallo di rado una lezione di storia della magia era stata così lunga erri continuava a guardare l'orologio di ron visto che finalmente aveva rinunciato al suo ma quello di ron si muoveva così piano che sembrava essersi rotto anche quello erano tutti e tre così stanchi che avrebbero posato volentieri la testa sul banco per dormire perfino ermione non prendeva appunti come al solito ma era seduta con la testa appoggiata alla mano e fissava il professor beans con occhi vuoti quando finalmente suonò la campana corsero lungo i corridoi fino alla classe di difesa contro le arti oscure e incontrarono il professor moody che ne usciva sembrava stanco quanto loro la palpebra dell'occhio normale era afflosciata e dava al suo viso un aspetto ancora più deforme del solito professor moody gridò erri mentre gli si avvicinavano facendosi largo tra la folla salute potter ringhiò moody l'occhio magico seguì un paio di ragazzini del primo anno che filarono via con aria nervosa proteò girandosi verso l'interno della testa di moody e li guardò girare l'angolo poi moody parlò di nuovo entrate si ritrasse per lasciarli entrare nell'aula vuota soppicò dietro di loro e chiuse la porta l'ha trovato chiese erri senza preamboli il signor crouch no rispose moody si avvicinò alla scrivania sedette allungò la gamba di legno con un lieve gemito ed estrasse la fiaschetta ha usato la mappa chiese erri certo disse moody e beve ho preso esempio da te potter l'ho consultata dal mio ufficio fino nella foresta non era da nessuna parte allora si è smaterializzato disse ron non ci si può smaterializzare nella cerchia del castello ron esclamò ermione può aver usato altri modi per sparire vero professore l'occhio magico di moody vibrò indugiando su ermione tu sei un'altra che dovrebbe pensare alla carriera di auror le disse la tua testa lavora nel modo giusto granger ermione arrossì compiaciuta beh non era invisibile disse erri la mappa mostra anche le persone invisibili allora deve essersene andato ma di sua volontà disse ermione impaziente o perché qualcuno lo ha costretto sì è possibile che qualcuno che qualcuno lo abbia messo su una scopa e sia volato via con lui no aggiunse ron rapido guardando speranzoso moody come se volesse sentirsi dire che anche lui aveva l'istinto di un auror non possiamo escludere un rapimento ringhiò moody allora disse ron pensa che possa essere da qualche parte a hogsmeade potrebbe essere ovunque disse moody scuotendo la testa la sola cosa che sappiamo per certo è che non è qui fece un gran sbadiglio le cicatrici si distesero e la bocca storta rivelò una serie di denti mancanti poi disse ora silente mi ha detto che voi tre vi credete investigatori ma non potete far nulla per crouch adesso lo cercherà il ministero silente li ha informati potter concentrati sulla terza prova come disse erri oh certo non aveva pensato una volta al labirinto da quando lo aveva lasciato assieme a crum la sera prima dovrebbe essere la cosa giusta per te questa disse moody guardando erri e grattandosi il mento segnato dalle cicatrici e coperto di peli ispidi da quello che ha detto silente sei riuscito a superare cose del genere un sacco di volte ti sei fatto strada oltrepassando un bel po di ostacoli che custodivano la pietra filosofale al primo anno vero gli abbiamo dato una mano intervenne rapido ron io ermione gli abbiamo dato una mano moody fece un gran sorriso beh dategli una mano a esercitarsi per questa cosa e sarò molto sorpreso se non vince disse nel frattempo vigilanza costante potter vigilanza costante trasse un'altra gran sorsata dalla fiaschetta e l'occhio magico roteò verso la finestra da cui si scorgeva la vela più alta della nave di durmstrang voi due l'occhio normale era puntato su ron e ermione state vicini a potter d'accordo io vigilo su tutto ma comunque gli occhi aperti non bastano mai sirius rispedì indietro il loro gufo la mattina dopo la no davanti a erri mentre un allocco atterrava di fronte a ermione con una copia della gazzetta del profeta stretta nel becco lei prese il giornale scorse le prime pagine disse ah quella non ha saputo di crouch poi si unì a ron e erri nella lettura dei commenti di sirius sui fatti misteriosi di due notti prima erri che cosa ti viene in mente di andare nella foresta con victor crum voglio che tu mi giuri a stretto giro di gufo che non uscirai di notte con nessuno c'è qualcuno estremamente pericoloso a hogwarts è evidente che questo qualcuno voleva impedire a crouch di incontrare silente ed è probabile che tu ti sia trovato nell'oscurità a pochi metri da costui potevi rimanere ucciso il tuo nome non è finito per caso nel calice di fuoco se qualcuno sta cercando di farti del male alla sua ultima possibilità non allontanarti da ron e ermione non uscire dalla torre di grifondoro la sera e preparati alla terza prova esercitati a schiantare e disarmare non sarebbe male che provassi anche qualche stregoneria non puoi fare niente per crouch giù la testa e bada a te stesso aspetto una tua lettera in cui mi dai la tua parola che non uscirai più dal castello sirius chi si crede di essere a farmi la predica perché sono uscito dal castello esclamò erri indignato mentre ripiegava la lettera di sirius e se la infilava in tasca con tutte le cose che ha combinato lui a scuola è in pensiero per te disse ermione bruscamente come mudi e agrid quindi dai loro retta nessuno cerca di aggredirmi ribatte erri nessuno mi ha fatto niente tranne mettere il tuo nome nel calice di fuoco lo interruppe ermione e deve averlo fatto per un buon motivo erri tartufo ha ragione forse questo qualcuno sta solo prendendo tempo forse questa la prova che ha scelto per prenderti senti di serri impaziente diciamo che tartufo ha ragione e che qualcuno ha schiantato crum per rapire crouch beh doveva essere lì tra gli alberi vicino a noi no ma ha aspettato che io fossi lontano prima di agire no quindi non pare proprio che sia io il suo obiettivo no non poteva farlo passare per un incidente se ti assassinava nella foresta esclamò ermione ma se muori durante una prova però non ha avuto problemi ad aggredire crum vero disse erri perché non mi ha fatto fuori nella stessa occasione poteva far finta che io e crum ci fossimo sfidati a duello o qualcosa del genere erri non capisco neanch'io sospirò ermione sconfortata so solo che stanno succedendo un sacco di cose strane e non mi piacciono mudi ha ragione tartufo ha ragione devi cominciare ad allenarti per la terza prova e subito e rispondi subito a tartufo e promettigli che non scapperai via da solo un'altra volta il parco di hogwarts non era mai apparso così invitante da quando erri doveva restare chiuso dentro il castello nei giorni che seguirono trascorse tutto il suo tempo libero in biblioteca con ermione e ron a studiare stregonerie o in qualche classe vuota dove sgattaiolavano per esercitarsi erri si era concentrato sullo schiantesimo che non aveva mai usato prima il guaio era che fare pratica comportava parecchi sacrifici da parte di ron e ermione non possiamo rapire missis norris propose ron lunedì all'ora di pranzo mentre giaceva lungo disteso nel bel mezzo della classe di incantesimi era appena stato schiantato e risvegliato da erri per la quinta volta di seguito possiamo schiantare lei qualche volta oppure puoi usare dobby erri scommetto che farebbe qualunque cosa per aiutarti non è che mi lamenti si alzò in piedi cautamente massaggiandosi la schiena ma mi fa male dappertutto beh certo se continui a mancare i cuscini esclamò ermione impaziente risistemando la pila di cuscini che avevano usato per l'incantesimo di esilio e che flitwick aveva lasciato in un armadio quando sei schiantato non riesce a prendere la mira molto bene ermione ribatte rabbiosamente ron perché non vieni tu al mio posto beh credo che erri l'abbia imparato ormai disse ermione in fretta e non dobbiamo darci pensiero per l'incantesimo di disarmo perché sono secoli che lo sa fare credo che stasera dovremmo cominciare con qualche stregoneria scorse la lista che avevano fatto in biblioteca mi piace questa qui disse questa fattura impediente dovrebbe rallentare qualunque cosa cerchi di aggredirti erri cominceremo con questa suonò la campana rimisero in fretta i cuscini nell'armadio di flitwick e sgattaiolarono fuori dalla classe ci vediamo a cena disse ermione diretta ad aritmanzia mentre erri e ron andavano verso la torre nord a divinazione ampie strisce di abbagliante luce solare attraversavano il corridoio entrando a fiotti dalle alte finestre il cielo era di un azzurro così luminoso che sembrava smaltato ci sarà da cuocere nell'aula della trelone quella non spegne mai fuoco disse ron mentre salivano la scala che portava la scaletta argentata e alla botola aveva ragione nella stanza pervasa da una luce fioca c'era un caldo soffocante gli effluvi del fuoco profumato erano più grevi che mai erri si sentì stordito mentre si avvicinava a una delle finestre schermate da tende mentre la professoressa trelonei guardava dall'altra parte intenta a sbrogliare lo scialle da una lampada l'aprì di qualche centimetro e si risistemò nella poltrona foderata di jeans in modo che un venticello leggero gli accarezzasse il viso era decisamente piacevole miei cari esordì la professoressa trelonei seduta in una profonda poltrona di fronte alla classe scrutando i ragazzi uno per uno con gli occhi stranamente ingranditi dalle lenti abbiamo quasi finito il nostro lavoro sulla divinazione planetaria oggi comunque ci si presenta un'ottima occasione per osservare gli effetti di marte perché in questo momento si trova in una posizione assolutamente interessante se volete guardare da questa parte spegnerò le luci agitò la bacchetta e le lampade si spensero il fuoco rimase l'unica fonte di luce la professoressa trelonei si chinò e prese da sotto la sedia un modellino in miniatura del sistema solare rinchiuso sotto una cupola di vetro era un oggetto molto bello ciascuna delle lune scintillava dolcemente al suo posto attorno ai nove pianeti e al sole che brillava forte e ciascun globo galleggiava a mezz'aria sotto il vetro erri guardò pigramente mentre la professoressa trelonei cominciava a indicare l'angolo affascinante che marte formava con nettuno vapori dal greve profumo gli aleggiavano addosso e l'arietta che entrava dalla finestra gli giocherellava sul viso udì il morbido lonzio di un insetto da qualche parte dietro la finestra le palpebre gli si fecero pesanti cavalcava un gufo reale e insieme planavano nel cielo azzurro chiaro verso una vecchia casa ricoperta ad edera aggrappata sul fianco di una collina volavano sempre più in basso e il vento soffiava piacevole sul viso di erri finché non raggiunsero un'oscura finestra rotta al piano di sopra della casa ed entrarono ora sfrecciavano lungo un corridoio buio verso una porta alla fine la varcarono ed entrarono in una stanza dalle finestre chiuse con tavole di legno erri scese dal dorso del gufo lo guardò svolazzare attraverso la stanza e posarsi su una poltrona voltata verso il fuoco c'erano due forme scure sul pavimento davanti alla poltrona entrambe si agitavano uno era un serpente enorme l'altro era un uomo un uomo basso quasi calvo un uomo con gli occhi acquosi e il naso appuntito ansimava e si inghiozzava sul tappeto davanti al camino sei fortunato coda liscia una voce fredda e acuta si levò dalla poltrona su cui era atterrato il gufo hai davvero molta fortuna il pasticcio che hai combinato non ha rovinato tutto è morto mio signore esclamò l'uomo sul pavimento senza fiato mio signore sono sono così contento e mi dispiace tanto nagini disse la voce fredda tu sei sfortunata non ti darò in pasto coda liscia dopo tutto ma non preoccuparti non preoccuparti c'è sempre harry potter il serpente si bilò harry vide la sua lingua saettare ora coda liscia disse la voce fredda forse è il caso di ricordarti perché non ho intenzione di tollerare ulteriori guai da parte tua mio signore no vi supplico dalla poltrona emerse la punta di una bacchetta era puntata contro coda liscia crucio disse la voce gelida coda liscia urlò urlò come se ogni nervo che aveva in corpo fosse in preda alle fiamme e le urla riempirono le orecchie di harry mentre la cicatrice che aveva sulla fronte gli bruciava insopportabilmente anche lui si ritrovò a urlare voldemort l'avrebbe sentito avrebbe scoperto che era lì harry harry aprì gli occhi era disteso sul pavimento della stanza della professoressa trelonei con le mani sulla faccia la cicatrice gli bruciava ancora così forte che gli lacrimavano gli occhi il dolore era vero tutta la classe era in piedi attorno a lui e ron era inginocchiato al suo fianco terrorizzato ti senti bene disse certo che no esclamò la professoressa trelonei profondamente agitata i suoi enormi occhi indugiarono su harry scrutandolo che cosa è stato potter una premonizione un'apparizione che cosa hai visto nulla menti harry si alzò a sedere si accorse di tremare violentemente non riuscì a impedirsi di guardare attorno nel fitto delle ombre alle sue spalle la voce di voldemort era sembrata così vicina ti stavi toccando la cicatrice esclamò la professoressa trelonei ti sei rotolato per terra toccandoti la cicatrice andiamo potter ho una certa esperienza in materia harry alzò gli occhi verso di lei devo andare in infermeria credo disse ho un brutto mal di testa mio caro senza alcun dubbio sei stato sollecitato dalle eccezionali vibrazioni chiaroveggenti della mia aula disse la professoressa trelonei se adesso te ne vai potresti perdere l'occasione di vedere più lontano di quanto tu non abbia mai non voglio vedere altro che una medicina per il mal di testa disse harry si alzò i compagni indietreggiarono sembravano tutti nervosi a dopo sussurrò harry a ron poi prese la borsa e si diresse alla botola ignorando la professoressa trelonei che ostentava un'aria profondamente delusa come se ne fosse appena stato negato un grosso regalo quando harry fu ai piedi della scala a pioli comunque non si diresse verso l'infermeria non aveva alcuna intenzione di andarci sirius gli aveva detto cosa fare se la cicatrice gli avesse fatto di nuovo male harry avrebbe seguito il suo consiglio stava andando di filato nell'ufficio del preside percorse i corridoi pensando a ciò che aveva visto nel sogno era reale quanto quello che lo aveva svegliato di soprassalto a prive drive ripassò i particolari nella mente cercando di ricordarli aveva sentito voldemort accusare codaliscia di aver combinato un pasticcio ma il gufo aveva portato buone notizie il guaio era stato rimediato qualcuno era morto quindi codaliscia non sarebbe stato dato in pasto al serpente questa sorte sarebbe toccata a lui harry harry aveva oltrepassato senza accorgersene il gargoyle di pietra che sorvegliava l'ingresso dell'ufficio di silente sbatté le palpebre si guardò attorno capì che cosa aveva fatto e tornò sui suoi passi per fermarsi davanti alla statua poi gli venne in mente che non sapeva la parola d'ordine fritz lemon disse esitante il gargoyle non si mosse ok disse harry squadrandolo succherino alla pera bacchetta di liquidizia ape frizzola gomma bolla drubol gelatina e tutti i gusti più uno o no non gli piacciono vero o insomma apriti no sbottò devo assolutamente vederlo è urgente il gargoyle rimase immobile harry gli sferrò un calcio con l'unico risultato di farsi un male tremendo all'alluce cioccorana urlò furioso saltellando su un piede solo penne d'oca di zucchero scarafaggia grappolo il gargoyle prese vita e balzò da un lato harry strizzò gli occhi scarafaggia grappolo disse stupefatto stavo solo scherzando si affrettò a varcare l'apertura e salì il primo gradino di una scala a chiocciola di pietra che si avvolse lentamente verso l'alto mentre le porte si chiudevano alle sue spalle e lo portò fino a una porta di quercia lucida con un battente di ottone udì delle voci all'interno dell'ufficio scese dalla scala mobile ed esitò tendendo le orecchie silente mi spiace ma non vedo il nesso non lo vedo proprio era la voce del ministro della magia cornelius fagge ludo sostiene che berta è perfettamente in grado di perdersi sono d'accordo ormai avremmo dovuto trovarla ma comunque non abbiamo alcuna prova che sia stato commesso un delitto silente assolutamente no e nemmeno che la sua scomparsa sia legata a quella di barty crouch e cosa crede che sia successo a barty crouch ministro disse la voce ringhiosa di moody vedo due possibilità alastor rispose fagge o crouch alla fine è crollato è più che probabile sono sicuro che lei la pensa come me vista la sua storia personale ha perso la testa e ora sta vagando chissà dove vaga con estrema rapidità se è questo che è successo cornelius commentò silente con tranquillità oppure beh fagge sembrava imbarazzato beh mi astengo dal giudizio finché non avrò visto il luogo in cui l'hanno incontrato ma dici che era subito dopo la carrozza di bobaton silente sai che cos'è quella donna io la ritengo una preside molto capace e un'ottima ballerina disse silente piano silente andiamo esclamò fagge infuriato non credi di essere parziale nei suoi confronti a causa di agrid non si rivelano tutti innocui sempre che agrid si possa definire innocuo con quella sua mania per i mostri non sospetto di madame maxim più che di agrid disse silente con la medesima calma ritengo possibile che sia tu a essere prevenuto cornelius possiamo chiudere questa discussione ringhiò moody sì sì andiamo giù nel palco allora disse fagge impaziente no non è per questo disse moody è solo che potter vuole parlarle silente è fuori dalla porta il pensatoio la porta dell'ufficio si aprì salute potter disse moody entra allora e rientrò era già stato una volta nell'ufficio di silente era una camera circolare molto bella tappezzata di ritratti di presidi di hogwarts del passato tutti immersi in un sonno profondo il petto che si alzava e si abbassava dolcemente cornelius fagge era in piedi accanto alla scrivania di silente col suo solito mantello gessato e la bombetta verde acido in mano eri esclamò cordiale facendo un passo avanti come stai bene menti eri stavamo parlando della notte in cui il signor crouch è apparso nel parco disse fagge sei stato tu a trovarlo vero sì rispose eri poi visto che era inutile fingere di non aver origliato la loro conversazione aggiunse però non ho visto madame maxim da nessuna parte e farebbe fatica a nascondersi no alle spalle di fagge silente sorrise a eri gli occhi scintillanti sì beh rispose fagge imbarazzato stiamo per andare a fare una passeggiata nel parco eri se non ti dispiace forse se torni in classe volevo parlare con lei professore disse eri rapido a silente che gli scoccò uno sguardo indagatore aspettami eri disse il nostro sopralluogo nel parco non durerà a lungo uscirono in drappello silenziosi e chiusero la porta dopo un minuto circa eri udì i tonfi della gamba di legno di mudi diventare più deboli nel corridoio di sotto si guardò intorno ciao fox disse fox la fenice del professor silente era appollaiato sul trespolo d'oro accanto alla porta grande come un cigno coperto di splendide piume scarrate e dorate agitò la lunga coda e strizzò gli occhi in uno sguardo benevolo eri si sedette davanti alla scrivania di silente per parecchi minuti rimase a guardare i vecchi presidi russare nelle cornici riflettendo su quanto aveva appena udito estrofinandosi la cicatrice aveva smesso di fargli male si sentiva molto più tranquillo ora che si trovava nell'ufficio di silente sapendo che di lì a poco gli avrebbe raccontato il suo sogno guardò la parete dietro la scrivania il cappello parlante rattoppato e strappato si trovava su una mensola una bacheca di vetro lì accanto racchiudeva una splendida spada d'argento con grossi rubini incastonati nell'elsa e harry la riconobbe era quella che aveva estratto dal cappello parlante al secondo anno la spada era appartenuta a godric grifondoro fondatore della casa di harry la fissò ricordando come era venuta in suo aiuto quando ormai credeva che ogni speranza fosse perduta e fu allora che notò una macchia di luce argentata danzare e vibrare sulla teca di vetro si volse a cercarne la fonte e vide una lama di luce di un biancore argenteo scintillare da un armadio nero alle sue spalle lo sportello non era stato chiuso bene harry esitò lanciò un'occhiata a fox poi si alzò attraversò l'ufficio e aprì lo sportello dell'armadio dentro c'era un basso bacile di pietra con strane figure incise sul bordo rune e simboli che harry non riconobbe la luce d'argento emanava dal contenuto del bacile che non somigliava a nulla che harry avesse mai visto prima non riuscì a capire se la sostanza fosse liquida o gassosa era di un colore argento luminoso e biancastro e si muoveva incessantemente la superficie si increspò come acqua accarezzata dal vento e poi simile alle nuvole in cielo si separò e vorticò dolcemente sembrava luce liquida o vento solido harry non riuscì a capirlo voleva toccarla scoprire com'era al tatto ma quasi quattro anni di esperienza del mondo magico gli suggerivano che infilare la mano in una ciotola piena di una sostanza sconosciuta sarebbe stata una cosa molto stupida quindi estrasse la bacchetta gettò un'occhiata nervosa intorno guardò di nuovo il contenuto del bacile e lo tentò con la punta la superficie della cosa argentea prese a vorticare molto in fretta harry si avvicinò ormai aveva la testa dentro l'armadio la sostanza argentea era diventata trasparente sembrava vetro vi guardò dentro aspettandosi di vedere il fondo di pietra del bacile invece vide un enorme sala una sala che gli parve di guardare da una finestra rotonda nel soffitto una luce fioca illuminava l'ambiente poteva trovarsi sottoterra perché non c'erano finestre solo torce sorrette da bracci come quelle che illuminavano le sale di hogwarts abbassando il viso fin quasi a sfiorare col naso la sostanza vetrosa harry vide file e file di maghi e streghe seduti lungo tutte le pareti sopra quelle che sembravano panche disposte a diverse altezze nel centro della stanza troneggiava una sedia vuota aveva un aspetto vagamente sinistro dai braccioli pendevano delle catene dov'era quel luogo certo non a hogwarts non aveva mai visto una sala del genere nel castello per di più la folla nella sala misteriosa in fondo al bacile era formata da adulti e harry sapeva che non ce n'erano così tanti a hogwarts pareva che stessero aspettando qualcosa anche se vedeva solo le punte dei loro capelli sembrava che fossero tutti rivolti nella stessa direzione e non parlavano tra loro dal momento che il bacile era circolare e la sala che stava osservando quadrata harry non riuscì a vedere che cosa succedeva negli angoli si chinò ancora di più cercando di vedere poi la punta del suo naso toccò la superficie vetrosa l'ufficio di silente sussultò con violenza harry fu scagliato in avanti e precipitò a testa in giù dentro il bacile ma non urtò contro il fondo di pietra stava cadendo dentro qualcosa di gelido e nero era come essere risucchiati in un gorgo oscuro e all'improvviso si ritrovò seduto su una panca in fondo alla sala dentro il bacile una panca più in alto delle altre guardò verso l'alto soffitto di pietra aspettandosi di vedere la finestra circolare dalla quale aveva appena osservato la scena ma lassù non c'era altro che scura solida pietra respirando affannosamente harry si guardò attorno non uno dei maghi non una delle streghe presenti e ce n'erano almeno 200 lo stava guardando nessuno pareva essersi accorto che un ragazzo di 14 anni era appena piovuto tra loro dal soffitto harry si voltò verso il mago che sedeva accanto a lui e gettò un alto grido di sorpresa che che giò nella sala silenziosa era seduto al fianco di albus silente professore sussurrò affannosamente mi dispiace non volevo stavo solo guardando il bacile nell'armadio io dove siamo ma silente non si mosse ne parlò ignorò del tutto harry come ogni altro mago sulle panche fissava l'angolo più remoto della sala dove si apriva una porta interdetto harry guardò silente poi la folla in silenziosa attesa poi di nuovo silente e poi cominciò a capire gli era già successo di trovarsi in un posto dove nessuno poteva vederlo o sentirlo quella volta era caduto dentro una pagina di un diario stregato diritto nella memoria di un altro e a meno che non si sbagliasse di grosso era successa di nuovo una cosa del genere harry alzò la mano destra esitò poi la sventolò con foga davanti al volto di silente quest'ultimo non batte ciglio non si volse verso harry non si mosse affatto e ciò per harry sistemava la faccenda silente non lo avrebbe ignorato così si trovava dentro un ricordo e quello non era il silente di oggi eppure non poteva essere passato molto tempo il silente seduto accanto a lui in quel momento aveva i capelli d'argento proprio come il silente di oggi ma che cos'era quel posto che cosa aspettavano tutti quei maghi harry si guardò attorno più attentamente la sala come aveva sospettato osservandola dall'alto era quasi certamente sottoterra una segreta pensò via leggiava un'atmosfera cupa e inquietante non c'erano quadri alle pareti solo quelle file serrate di panche che si alzavano in ranghi tutte disposte in modo da godere di una vista indisturbata su quella sedia con le catene e sui braccioli prima che harry potesse giungere a qualche conclusione udì dei passi la porta nell'angolo della segreta si aprì ed entrarono tre persone o meglio un uomo scortato da due dissennatori harry si sentì gelare i dissennatori alte creature incappucciate dai volti nascosti scivolarono lentamente verso la sedia al centro della sala le mani putrefatte attorno alle braccia del prigioniero che sembrava sul punto di svenire harry lo capiva ricordava perfettamente il potere dei dissennatori benché ora non potessero toccarlo dentro la memoria di un altro la folla in attesa si ritrasse mentre i dissennatori spingevano l'uomo sulla sedia e uscivano silenziosamente dalla sala la porta si chiuse alle loro spalle harry guardò l'uomo seduto era karkaroff a differenza di silente sembrava molto più giovane i capelli e il pizzetto erano neri non indossava soffici pellicce ma un abito leggero e strappato era scosso dei brividi sotto gli occhi di harry le catene sui braccioli della sedia scintillarono d'oro all'improvviso e strisciarono lungo le sue braccia avviluppandolo igor karkaroff disse una voce asciutta alla sinistra di harry lui si voltò e vide il signor crouch in piedi al centro della panca al suo fianco aveva i capelli scuri il volto molto meno segnato e sembrava sano e vigile sei stato portato da azkaban per deporre davanti al ministero della magia ci hai lasciato capire di avere delle informazioni importanti per noi karkaroff si raddrizzò meglio che poteva legato com'era è così signore disse e anche se il suo tono di voce era molto spaventato harry vi riconobbe la familiare nota melliflua desidero rendermi utile al ministero desidero collaborare io io so che il ministero sta cercando di isolare gli ultimi sostenitori del signore oscuro sono disposto a collaborare come posso tra le panche si diffuse un mormorio alcuni maghi e streghe osservavano karkaroff con interesse altri con esplicita diffidenza poi harry udì distintamente una voce ben nota ringhiare una parola da dietro di silente feccia harry si protese in avanti dietro a silente c'era malocchio moody un malocchio molto diverso dal solito non aveva l'occhio magico ma due occhi normali entrambi scrutavano karkaroff ed entrambi erano stretti in un'espressione di profondo disgusto crouch lo lascerà andare sussurrò piano a silente ha fatto un patto con lui ci ho messo sei mesi a scovarlo e crouch lo lascerà andare se otterrà nuovi nomi a sufficienza sentiamo quello che ha da dire dico io e poi ributtiamolo subito in pasto ai dissennatori silente emise un piccolo sbuffo di dissenso dal lungo naso adunco ah dimenticavo a te non piacciono i dissennatori vero albus disse mudi con un sorriso sardonico no rispose tranquillamente silente temo di no da tempo ritengo che il ministero sbagli ad allearsi con creature del genere ma perfeccia come questa disse piano mudi sostieni di essere in grado di fare dei nomi karkaroff riprese crouch sentiamoli allora dovete capire disse in fretta karkaroff che colui che non deve essere nominato ha sempre agito con la massima segretezza preferiva che noi voglio dire i suoi sostenitori e io ora mi rammarico profondamente di essere stato uno di loro vai avanti soggignò mudi che non conoscessimo mai i nomi di tutti i nostri compagni solo lui sapeva esattamente chi eravamo saggia mossa davvero visto che ha impedito a uno come te karkaroff di denunciarli tutti borbottò eppure tu dici di conoscerli disse il signor crouch io io sì disse karkaroff senza fiato ed erano sostenitori importanti badate li ho visti eseguire i suoi ordini con i miei occhi vi fornisco queste informazioni come prova della mia totale piena rinuncia a lui e sono pervaso da un rimorso così profondo che riesco a stento allora questi nomi esclamò secco il signor crouch karkaroff trasse un profondo respiro c'era antonin dolohov disse io io l'ho visto torturare i numerevoli babbani e e non sostenitori del signore oscuro e gli hai dato manforte mormorò mudi abbiamo già arrestato dolohov disse crouch è stato catturato poco dopo di te davvero disse karkaroff con gli occhi che gli si dilatavano io io sono lieto di saperlo ma non lo sembrava affatto henry capì che la notizia era stata un grave colpo per lui uno dei suoi nomi non valeva nulla altri nomi disse crouch con freddezza beh sì c'era rosier disse karkaroff in fretta evan rosier rosier è morto rispose crouch anche lui è stato acciuffato poco dopo di te ha preferito combattere invece di seguirci ed è stato ucciso durante lo scontro ma si è portato via un mio pezzo sussurrò moody henry si voltò di nuovo verso di lui e lo vide indicare assilente il grosso pezzo mancante di naso nessuno nessuno se l'è meritato più di rosier esclamò karkaroff una nota di autentico panico nella voce cominciava a temere che nessuna delle sue informazioni sarebbe stata di alcuna utilità al ministero gli occhi di karkaroff saettarono verso la porta nell'angolo dietro la quale certo incombevano ancora i dissennatori in attesa altro disse crouch sì esclamò karkaroff c'era travers è stato complice dell'assassinio dei mckinnon marciber si era specializzato nella maledizione imperius ha costretto tantissime persone a fare cose orribili rookwood che era una spia e passava a colui che non deve essere nominato informazioni utili dall'interno del ministero stavolta karkaroff aveva fatto centro un mormorio corse tra la folla rookwood chiese crouch facendo un cenno a una strega seduta davanti a lui che prese a scrivere in fretta su un rotolo di pergamena augustus rookwood del dipartimento dei misteri proprio lui disse karkaroff con impazienza credo che usasse una rete di maghi in posizioni strategiche sia dentro il ministero che fuori per raccogliere informazioni ma travers e malsiber li abbiamo già presi disse crouch molto bene karkaroff se questo è tutto verrai ricondotto ad azkaban mentre decidiamo non ancora urlò karkaroff disperato aspettate ne ho altri harry lo vide sudare alla luce delle torce la pelle candida che faceva un netto contrasto con la barba ai capelli neri piton gridò severus piton piton è stato assolto da questo tribunale disse crouch in tono gelido albus silente si è fatto garante per lui no urlò karkaroff tendendo le catene che lo legavano alla sedia ve lo assicuro severus piton è un mangiamorte silente si alzò ho già deposto a questo proposito disse chiaramente severus piton è stato un mangiamorte è vero però è tornato dalla nostra parte prima della caduta di voldemort e ha fatto la spia per noi a suo rischio e pericolo ora non è un mangiamorte più di quanto lo sia io harry guardò malocchio mudi la sua espressione alle spalle di silente era di profondo scetticismo molto bene karkaroff concluse crouch freddamente sei stato d'aiuto riesaminerò il tuo caso nel frattempo farai ritorno ad azkaban la voce di crouch si fece remota harry si guardò intorno la segreta si stava dissolvendo come se fosse fatta di fumo tutto sbiadiva riusciva a distinguere solo il proprio corpo tutto il resto era oscurità vorticante e poi la segreta riapparve harry era seduto in un altro posto sempre sulla panca più in alto ma questa volta alla sinistra di crouch l'atmosfera sembrava diversa rilassata perfino allegra i maghi e le streghe tutto attorno parlavano tra loro quasi fossero a un incontro sportivo una strega a metà della fila di panche di fronte attrasse l'attenzione di harry aveva corti capelli biondi era vestita di cremisi e succhiava la punta di una penna verde acido era un inconfondibile rita skitter più giovane harry si guardò intorno silente era seduto di nuovo accanto a lui con una veste diversa il signor crouch sembrava più stanco e in un certo modo più feroce più emaciato harry capì era un altro ricordo un altro giorno un altro processo la porta nell'angolo si aprì ed entrò ludobagman non era un ludobagman sciupato ma un ludobagman giocatore di quidditch chiaramente al massimo della forma non aveva il naso rotto era alto atletico e muscoloso sembrava nervoso quando prese posto nella sedia con le catene ma questa non lo legò come aveva legato carcaroff e bagman forse rincuorato volse lo sguardo sulla folla che lo osservava salutò con la mano un paio di conoscenti e tentò un sorrisetto ludovic bagman sei stato condotto qui al cospetto del tribunale della legge magica per rispondere di accuse connesse alle attività dei mangiamorte disse crouch abbiamo ascoltato le testimonianze contro di te e stiamo per raggiungere un verdetto hai qualcosa da aggiungere alla tua deposizione prima che la sentenza venga emessa harry non credeva alle sue orecchie ludo bugman un mangiamorte solo disse bugman con un sorriso imbarazzato beh lo so che sono stato un bell'idiota alcuni maghi e streghe nei posti circostanti sorrisero con indulgenza crouch non parve condividere i loro sentimenti fissava ludo bugman con un'espressione di massima severità e profondo disgusto non hai mai detto niente di più vero ragazzo borbottò seccamente qualcuno assilente dietro le spalle di harry lui si voltò e vide di nuovo mudi se non sapessi che è sempre stato un po tardo avrei detto che quei bolidi gli hanno provocato danni permanenti al cervello ludovic bagman sei stato sorpreso a trasmettere informazioni ai sostenitori di voldemort disse crouch per questo io chiedo la condanna ad azkaban per un periodo non inferiore a ma dalle panche circostanti si levò un clamore rabbioso parecchi maghi e streghe si alzarono scuotendo la testa e levando i pugni contro crouch ma ve l'ho detto non ne sapevo nulla gridò bugman in tono convinto sovrastando il brusio della folla gli occhi azzurri sgranati nulla di nulla il vecchio rookwood era un amico di mio padre non mi è mai passato per la mente che fosse un alleato di voi sapete chi credevo di raccogliere informazioni per il nostro partito e rookwood continuava a ripetere che più in là mi avrebbe procurato un incarico al ministero quando la mia stagione del quiddice sarà finita sapete voglio dire non posso continuare a farmi bersagliare da bolidi per il resto dei miei giorni no risatine dalla folla verrà messo ai voti disse gelido crouch si voltò verso i ranghi sulla destra la giuria è pregata di alzare la mano chi è a favore della detenzione nessuno alzò la mano molti maghi e streghe cominciarono ad applaudire una delle streghe della giuria si alzò sì abbaiò crouch vogliamo solo complimentarci con il signor bugman per la sua magnifica prova a favore dell'inghilterra nell'incontro di quiddice contro la turchia di sabato scorso disse la strega tutto lunfiato crouch era fulente la segreta ora risuonava di applausi bugman si alzò e si inchinò con un gran sorriso ignominioso sbottò crouch assilente e si mise a sedere mentre bugman usciva dalla segreta rookwood trovargli un lavoro figuriamoci il giorno in cui ludo bugman si unirà a noi sarà un giorno molto triste per il ministero e la segreta scomparve di nuovo quando riapparve harry si guardò intorno lui e silente erano ancora seduti accanto a crouch ma l'atmosfera non avrebbe potuto essere più diversa c'era un silenzio assoluto rotto solo dai singhiozzi senza lacrime di una fragile strega minghirlina al fianco di crouch stringeva con mani tremanti un fazzoletto vicino alla bocca harry guardò crouch e vide che era più magro e grigio che mai sulla tempia gli pulsava una vena fateli entrare disse e la sua voce echeggiò nella segreta silenziosa la porta nell'angolo si apria ancora una volta questa volta entrarono sei dissenatori scortando un gruppo di quattro persone harry vide che molti tra il pubblico si voltavano a guardare crouch alcuni si scambiarono sussurri le sedie incatenanti stavolta erano quattro i dissenatori vi spinsero i prigionieri c'era un uomo grosso che fissò crouch con occhi vacui un uomo più magro e nervoso i cui occhi si spostavano rapidi tra il pubblico una donna con una folta scura chioma lucente e le palpebre semichiuse seduta sulla sedia con le catene come una regina su un trono e un ragazzo sui vent'anni che sembrava niente meno che pietrificato tremava i capelli color paglia gli ricadevano sul viso la pelle lentigginosa era di un bianco latteo la piccola strega accanto a crouch cominciò a dondolarsi avanti e indietro singhiozzando dentro il fazzoletto crouch si alzò e guardò i quattro con un'espressione di odio allo stato puro siete stati condotti di fronte al tribunale della legge magica disse con voce chiara perché siate giudicati per un crimine atroce padre disse il ragazzo dei capelli color paglia padre ti prego del quale raramente abbiamo udito il pari in questa corte crouch alzò la voce sovrastando quella del figlio abbiamo ascoltato le testimonianze contro di voi siete accusati di aver catturato un auror frank longbottom e di averlo sottoposto a maledizione cruciatus convinti che conoscesse l'attuale dimora del vostro signore in esilio colui che non deve essere nominato padre non è vero strillò il ragazzo in catene non è vero lo giuro padre non rimandarmi dai dissennatori siete inoltre accusati tuonò crouch di aver usato la maledizione cruciatus contro la moglie di frank longbottom quando egli non vi ha dato le informazioni richieste avete progettato di restaurare il dominio di colui che non deve essere nominato e di tornare alla vita di violenza che probabilmente avete condotto quando era potente io ora chiedo alla giuria madre urlò il ragazzo e la piccola strega accanto a crouch si indiozzò più forte dondolandosi avanti e indietro madre fermalo madre non ho fatto niente non sono stato io io ora chiedo alla giuria gridò crouch di alzare la mano se è convinta come me che questi crimini meritino una condanna a vita ad azkaban tutti insieme maghi e streghe dell'ala destra della segreta alzarono la mano la folla disposta lungo le pareti scoppiò in un applauso come aveva fatto per bugman i volti pervasi di selvaggio trionfo il ragazzo prese a urlare no madre no non ho fatto niente non ho fatto niente non sapevo non lasciare che mi mandi laggiù non lasciarli allo fare i dissennatori rientrarono scivolando i tre compagni del ragazzo si alzarono in silenzio la donna dalle palpebre pesanti guardò crouch e gridò il signore oscuro risorgerà crouch gettaci pure ad azkaban noi aspetteremo risorgerà e verrà a cercarci e ricompenserà noi più di ogni altro suo seguace solo noi siamo fedeli solo noi abbiamo cercato di trovarlo ma il ragazzo cercò di respingere i dissennatori anche se erri vide che già cedeva al loro freddo potere divorante la folla lanciava grida di scherno alcuni in piedi mentre la donna veniva portata fuori dalla sala e il ragazzo continuava a divincolarsi sono tuo figlio urlò a crouch sono tuo figlio tu non sei affatto mio figlio tuonò crouch gli occhi all'improvviso fuori dalle orbite io non ho figli la strega ossuta accanto a lui trattenne il fiato e si accasciò era svenuta crouch non parve accorgersene portateli via rugia i dissennatori sputando saliva portateli via e che possano marcire laggiù padre padre io non c'entro no no padre ti prego erri credo che sia ora di tornare nel mio ufficio disse una voce tranquilla all'orecchio di erri erri sobbalzò diede un'occhiata attorno poi di lato alla sua destra c'era un albus silente che guardava portateli via dai dissennatori il figlio di crouch e c'era un albus silente alla sua sinistra che guardava lui vieni disse il silente alla sua sinistra e lo prese per il gomito erri si sentì sollevare a mezz'aria la segreta si dissolse attorno a lui per un attimo tutto fu scuro e poi gli parve di aver fatto una capriola al rallentatore d'improvviso atterrò in piedi in quella che sembrava la luce accecante dell'ufficio di silente inondato di sole il bacile di pietra scintillava nell'armadio accanto a lui e albus silente era in piedi al suo fianco professore boccheggiò erri lo so che non avrei dovuto non volevo la porta dell'armadio era aperta e capisco disse silente prese il bacile lo portò alla sua scrivania e si sedette fece cenno a erri di sedersi di fronte a lui erri obbedì fissando il bacile di pietra il suo contenuto era tornato allo stato originario di un bianco argenteo e vorticava e si increspava sotto il suo sguardo che cos'è chiese erri con voce inclinata questo si chiama pensatoio rispose silente a volte e sono certo che conosci questa sensazione ho l'impressione di avere semplicemente troppi pensieri e troppi ricordi stipati nella mente rispose erri che in tutta sincerità non poteva dire di aver mai provato niente del genere quando mi capita proseguì silente uso il pensatoio basta travasare i pensieri in eccesso dalla propria mente versarli nel bacile ed esaminarli a piacere diventa più facile riconoscere trame e collegamenti sai quando assumono questa forma vorrebbe dire che quelle cose sono i suoi pensieri chiese erri scrutando la sostanza bianca che vorticava nel bacile certo disse silente ora ti faccio vedere estrasse la bacchetta e infilò la punta tra i propri capelli d'argento vicino alla tempia quando la torse parve che dei capelli vi restassero attaccati ma erri si accorse che si trattava di una striscia scintillante della stessa strana sostanza bianco argentea che riempiva il pensatoio silente aggiunse quel pensiero fresco agli altri erri esterrefatto vide il proprio volto galleggiare nel bacile silente pose le lunghe mani sui lati del pensatoio e lo fece ruotare come un cercatore d'oro che setaccia la sabbia per scoprire frammenti del prezioso metallo erri vide il proprio volto trasformarsi gradualmente in quello di piton che aprì la bocca e parlò al soffitto mentre la sua voce echeggiava appena sta tornando anche quello di carcarof più forte e nitido che mai un collegamento che avrei potuto fare anche da solo sospirò silente ma non importa svirciò erri al di sopra degli occhiali a mezzaluna il ragazzo guardava a bocca aperta il viso di piton che continuava a roteare stavo usando il pensatoio quando faggio è venuto all'appuntamento e l'ho riposto in gran fretta e in dubbio che non ho chiuso bene lo sportello dell'armadio era naturale che attirasse la tua attenzione mi dispiace borbottò erri silente scosse il capo la curiosità non è un peccato disse ma dovremmo andarci cauti con la curiosità sì davvero lievemente accigliato con la punta della bacchetta diede un colpetto alla superficie vetrosa immediatamente ne emerse una sagoma una ragazzina robusta e torva sui sedici anni che prese a girare lentamente i piedi ancora dentro la sostanza non fece alcun caso a erri o al professor silente quando parlò la sua voce echeggiò come quella di piton poco prima come se provenisse dal profondo del bacile di pietra mi ha scagliato un incantesimo professor silente e io lo stavo solo prendendo in giro avevo solo detto che l'avevo visto baciare florence dietro le serre giovedì scorso ma perché bertha disse silente in tono triste guardando la ragazza che ora girava senza parlare perché ti è venuto in mente di seguirlo bertha sussurrò erri senza distogliere gli occhi era bertha jorkins si rispose silente sfiorando i pensieri con la punta della bacchetta bertha vi si immerse di nuovo e quelli tornarono argente e upachi quella era bertha come la ricordo a scuola la luce che emanava dal pensatoio riverberò sul viso di silente e all'improvviso fu colpito da quanto fosse vecchio sapeva ovvio che silente era avanti con gli anni ma per qualche ragione non pensava mai a lui come a un vecchio allora erri disse piano il preside prima di perderti tra i miei pensieri volevi dirmi qualcosa si rispose erri professore poco fa ero a divinazione e mi sono addormentato a quel punto esitò incerto se aspettarsi un rimprovero ma silente si limitò a dire comprensibile direi continua beh ho fatto un sogno riprese erri ho sognato voldemort stava torturando codaliscia lei sa chi è codaliscia lo so disse prontamente il preside ti prego continua voldemort ha ricevuto una lettera via gufo ha detto una cosa tipo che era stato posto rimedio al pasticcio di codaliscia ha detto che qualcuno era morto poi ha detto che codaliscia non sarebbe finito in pasto al serpente c'era un serpente vicino alla sua poltrona ha detto ha detto che al suo posto gli avrebbe dato in pasto me poi ha scagliato la maledizione cruciatus su codaliscia e la cicatrice ha cominciato a bruciarmi concluse erri faceva così male che mi ha svegliato silente si limitò a guardarlo è tutto disse erri capisco disse silente piano capisco ora la cicatrice ti ha fatto male ancora quest'anno a parte quella volta che ti ha svegliato la scorsa estate no io come fa a sapere che mi ha svegliato la scorsa estate chiese erri sbalordito non sei l'unico corrispondente di sirius disse silente anch'io sono in contatto con lui da quando se ne è andato da hogwarts l'anno scorso sono stato io a suggerirgli che la caverna sul fianco della montagna era il posto più sicuro dove nascondersi silente si alzò e prese a camminare su e giù dietro la scrivania ogni tanto si puntava la bacchetta alla tempia prelevava un altro scintillante pensiero d'argento e lo aggiungeva al pensatoio i pensieri da dentro cominciarono a vorticare così in fretta che erri non riuscì a distinguere nulla era solo un turbine confuso di colore professore mormorò dopo un paio di minuti silente smise di andare avanti indietro e lo guardò le mie scuse disse a voce bassa riprese posto alla scrivania lei lei sa perché la cicatrice mi fa male silente guardò intensamente erri per un istante poi disse ho una teoria niente di più è mia convinzione che la cicatrice ti faccia male sia quando voldemort si trova vicino a te sia quando prova un moto d'odio particolarmente violento ma perché perché tu e lui siete legati dalla maledizione fallita spiegò silente quella non è una ferita normale quindi lei crede che quel sogno sia successo davvero è possibile disse silente direi probabile erri hai visto voldemort no rispose erri solo lo schienale della sua poltrona ma non ci sarebbe stato niente da vedere no voglio dire non ha un corpo vero ma ma allora come faceva a tenere la bacchetta aggiunse lentamente già come mormorò silente come per un po né silente né erri parlarono silente guardava fisso attraverso la stanza ogni tanto avvicinava la bacchetta alla tempia e aggiungeva un altro lucente pensiero argenteo alla massa fremente contenuta nel pensatoio professore disse erri alla fine crede che stia diventando più forte voldemort chiese silente guardando erri al di sopra del pensatoio era il tipico sguardo penetrante che silente gli aveva rivolto in altre occasioni e che faceva sempre provare a erri la sensazione che il preside vedesse attraverso di lui in un modo impossibile perfino per l'occhio magico di moody ancora una volta erri posso solo rivelarti i miei sospetti silente sospirò di nuovo e parve più vecchio e stanco che mai gli anni dell'ascesa al potere di voldemort disse furono segnati dalle sparizioni bertha jorkins è scomparsa senza lasciar traccia nell'ultimo luogo in cui si è avuta notizia di voldemort anche crouch è scomparso e proprio qui al castello e c'è stata una terza sparizione che il ministero mi rammarica dirlo non considera di alcuna importanza perché riguarda un babbano si chiamava frank bryce viveva nel villaggio in cui è cresciuto il padre di voldemort e non è più stato visto dallo scorso agosto vedi io leggo i giornali babbani a differenza di gran parte dei miei amici al ministero silente rivolse a erri uno sguardo molto serio a me queste sparizioni sembrano collegate il ministero non è d'accordo come forse hai sentito mentre aspettavi fuori dal mio ufficio erri annui tra i due cadde di nuovo il silenzio ogni tanto silente si sfilava dei pensieri erri sentiva che era ora di andarsene ma la curiosità lo trattenne sulla sedia professore disse di nuovo si erri posso chiederle di quel tribunale in cui sono stato nel pensatoio puoi rispose silente con gravità vi ho preso parte molte volte ma alcuni processi mi tornano in mente più nitidi di altri soprattutto ora sa sai il processo in cui mi ha trovato quello contro il figlio di crouch beh parlavano dei genitori di neville silente lanciò a erri un'occhiata penetrante neville non ti ha mai detto perché è cresciuto con sua nonna chiese erri scosse la testa chiedendosi come mai non gli era mai venuto in mente di domandarlo a neville in quasi quattro anni che lo conosceva sì parlavano dei genitori di neville disse silente suo padre frank era un auror proprio come il professor moody lui e sua moglie furono torturati per estorcere loro informazioni su dove si trovasse voldemort dopo aver perso i suoi poteri come hai sentito quindi sono morti chiese erri molto piano no rispose silente con un'amarezza che erri non gli aveva mai sentito prima hanno perso la ragione si trovano tutti e due all'ospedale di san mungo per malattie e ferite magiche credo che neville vada a trovarli con la nonna durante le vacanze loro non lo riconoscono erri rimase lì seduto impietrito dall'orrore non aveva mai saputo mai in quattro anni si era dato la pena di scoprire i long button erano molto famosi riprese silente furono aggrediti dopo la caduta di voldemort quando ormai tutti credevano di essere al sicuro ciò che subirono provocò un'ondata di rabbia senza precedenti il ministero fu sottoposto a forti pressioni per la cattura dei responsabili sfortunatamente viste le loro condizioni la testimonianza dei long bottom non era molto affidabile ma allora può darsi che il figlio del signor crouch non vi fosse coinvolto chiese erri lentamente silente scosse la testa quanto a questo non ne ho idea erri rimase ancora una volta seduto in silenzio gli occhi fissi al turbolento contenuto del pensatoio c'erano altre due domande che moriva dalla voglia di fare ma riguardavano le colpe di persone viventi e disse il signor badman non è mai stato accusato di attività oscure da allora concluse tranquillo silente bene disse erri in fretta tornando a scrutare il contenuto del pensatoio che vorticava più lentamente ora che silente aveva smesso di riversarvi altri pensieri e ma il pensatoio parve formulare la domanda al suo posto il volto di piton affiorò di nuovo silente gli gettò un'occhiata poi alzò lo sguardo verso erri e nemmeno il professor piton disse erri scrutò gli occhi azzurro chiaro di silente e la domanda cruciale gli sfuggì di bocca prima che riuscisse a fermarsi che cosa le ha fatto credere che avesse davvero smesso di sostenere voldemort professore silente sostenne lo sguardo di erri per qualche secondo e poi rispose questa erri è una faccenda tra il professor piton e me erri seppe che la conversazione era finita silente non sembrava arrabbiato ma una nota definitiva nel suo tono di voce suggerì a erri che era ora di andare si alzò e così fece silente erri disse mentre il ragazzo si avvicinava alla porta ti prego di non raccontare a nessuno dei genitori di neville ha il diritto di essere lui a parlarne quando si sentirà pronto sì professore disse erri e si voltò per andarsene e erri si voltò silente era in piedi davanti al pensatoio il viso illuminato dal basso dalle macchie di luce argentea sembrava più vecchio che mai fissò erri per un attimo poi disse buona fortuna per la terza prova la terza prova anche silente crede che voi sapete chi stia diventando di nuovo più forte sussurrò ron tutto ciò che erri aveva visto nel pensatoio quasi tutto quello che silente gli aveva raccontato e mostrato dopo l'aveva confidato a ron e ermione e naturalmente a sirius al quale aveva spedito un gufo nell'istante in cui era uscito dall'ufficio di silente quella sera erri ron e ermione rimasero di nuovo alzati fino a tardi in sala comune a ridiscutere il tutto finché a erri non cominciò a girare la testa e capì che cosa intendeva silente parlando di una mente così affollata di pensieri che sarebbe stato un sollievo riversarli altrove ron fissò il fuoco della sala comune a erri parve che tremasse anche se la serata era tiepida e si fida di piton chiese ron si fida veramente di piton anche se sa che era un mangiamorte si disse erri ermione non parlava da dieci minuti era seduta con la fronte tra le mani a guardarsi le ginocchia anche lei sembrava avere urgente bisogno di un pensatoio rita skitter borbottò alla fine come fai a preoccuparti di lei in questo momento esclamò ron incredulo non mi preoccupo di lei disse ermione alle sue ginocchia sto solo pensando ricordate quello che mi ha detto ai tre manici di scopa so cose a proposito di ludo bugman che vi farebbero arricciare i capelli è a questo che alludeva no ha fatto la cronaca del suo processo sapeva che aveva passato delle informazioni ai mangiamorte e anche winky ricordate il signor bugman è un mago cattivo il signor crouch deve essere stato furente che se la sia cavata deve averne parlato a casa sì ma bugman non ha passato informazioni di proposito no ermione alzò le spalle e fudge crede che madame maxim abbia aggredito crouch chiese ron sì rispose erri ma lo dice solo perché crouch è scomparso vicino alla carrozza di bobaton a lei non abbiamo mai pensato vero disse ron lentamente badate è chiaro che ha sangue di gigante e non vuole ammetterlo certo che no sbottò ermione alzando gli occhi guarda cosa è successo a agrid quando rita ha scoperto di sua madre guarda fudge che salta le conclusioni su di lei solo perché è in parte gigante chi vuole quel genere di pregiudizio anche io probabilmente direi che ho le ossa grandi se sapessi quel che ci guadagno a dire la verità guardò l'orologio non ci siamo esercitati esclamò agitata dovevamo fare la fattura impediente dovremo metterci l'impegno domani andiamo erri devi dormire un po' erri e ron salirono lentamente le scale che portavano al loro dormitorio mentre erri si infilava il pigiama guardò verso il letto di neville aveva mantenuto la parola e non aveva raccontato a ron e ermione dei genitori di neville mentre si toglieva gli occhiali e si arrampicava sul letto a baldacchino cercò di immaginare che cosa si provasse ad avere i genitori ancora in vita ma incapaci di riconoscerti gli estranei avevano spesso compassione di lui perché era orfano ma mentre ascoltava neville russare pensò che l'amico ne meritava molta di più disteso al buio erri provò un moto di rabbia e odio verso quelli che avevano torturato i long bottom gli tornarono alla mente le grida di scherno della folla mentre il figlio di crouch e i suoi compari venivano trascinati fuori dal tribunale dai dissennatori capiva cosa avevano provato poi ripensò al viso bianco latte o del ragazzo urlante e si rese conto con un sussulto che era morto un anno dopo era voldemort riflette erri fissando il baldacchino nell'oscurità tutto faceva capo a voldemort era lui che aveva diviso quelle famiglie che aveva rovinato tutte quelle vite ron e ermione avrebbero dovuto ripassare per gli esami che si sarebbero conclusi il giorno della terza prova ma in realtà pensavano soprattutto ad aiutare erri non preoccuparti disse ermione bruscamente quando erri glielo fece osservare dicendo che poteva anche esercitarsi da solo per un po almeno prenderemo il massimo dei voti in difesa contro le arti oscure a lezione non avremmo mai scoperto tutti questi incantesimi un buon allenamento per quando saremo tutti auror disse ron eccitato scagliando la fattura impediente su una vespa che ronzava nella stanza e immobilizzando la mezzaria all'inizio di giugno l'atmosfera nel castello si fece di nuovo tesa e agitata tutti aspettavano con ansia la terza prova che avrebbe avuto luogo una settimana prima della fine del trimestre erri si esercitava negli incantesimi in ogni momento libero si sentiva più tranquillo per questa prova che per le altre certo sarebbe stata difficile e pericolosa ma moody aveva ragione erri era riuscito a cavarsela davanti a creature mostruose e barriere incantate prima d'allora questa volta lo sapeva in anticipo e poteva prepararsi per ciò che lo aspettava stanca di imbattersi nel terzetto in tutti gli angoli della scuola la professoressa mcgonagall aveva dato a erri permesso di usare la classe di trasfigurazione che era vuota all'ora di pranzo ben presto erri padroneggiò la fattura impediente che rallentava e ostacolava gli aggressori la maledizione reductor che gli consentiva di far saltare in aria oggetti solidi che fossero d'intralcio e il sortilegio quattro punti un'utile scoperta di ermione che avrebbe indirizzato la sua bacchetta esattamente a nord permettendogli di orientarsi all'interno del labirinto aveva ancora qualche difficoltà con l'incantesimo scudo però questo avrebbe dovuto creargli attorno un muro temporaneo invisibile che deviava gli incantesimi minori ma ermione riuscì a mandarlo in pezzi con una fattura gambe molli ben piazzata erri si aggirò barcollando per dieci minuti prima che lei riuscisse a scoprire la controfattura però vai molto bene davvero disse ermione in tono incoraggiante scorrendo la lista e cancellando gli incantesimi che avevano già imparato alcuni di questi si riveleranno utili venite un po' a vedere disse ron che era alla finestra e guardava giù nel parco che sta facendo malfoy henry e ermione si avvicinarono malfoy crebbe goyle erano all'ombra di un albero crebbe goyle erano intenti a far la guardia entrambi avevano un sorriso perfido malfoy si teneva la mano vicino alla bocca e vi parlava dentro sembra che stia usando un walkie-talkie disse erri incuriosito non è possibile disse ermione ve l'ho detto quelle cose lì non funzionano a hogwarts andiamo erri aggiunse in tono pratico allontanandosi dalla finestra e tornando al centro della stanza riproviamo l'incantesimo scudo sirius spediva gufi tutti i giorni ormai come ermione sembrava deciso a concentrarsi su come far superare a erri l'ultima prova prima di pensare ad altro in ogni lettera gli ricordava che qualunque cosa stesse accadendo al di fuori delle mura di hogwarts non era sua responsabilità ne era in suo potere modificarla se voldemort sta davvero ritornando in forze scrisse il mio primo pensiero è accertarmi che tu sia al sicuro non può sperare di mettere le mani su di te finché ti trovi sotto la protezione dissidente ma comunque non correre rischi concentrati su come uscire sano e salvo da quel labirinto e poi potremo rivolgere l'attenzione ad altre faccende il nervosismo di erri crebbe man mano che il 24 di giugno si avvicinava ma non era paragonabile allo stato d'animo con cui aveva atteso la prima e la seconda prova primo questa volta era sicuro di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per prepararsi secondo era l'ostacolo finale e che ne uscisse bene o male finalmente il torneo si sarebbe concluso con suo enorme sollievo la mattina della terza prova la colazione al tavolo di grifondoro fu molto rumorosa comparvero i gufi postini e consegnarono a erri una cartolina di auguri da parte di sirius era solo un foglio di pergamena piegato in due con stampata davanti un'impronta fangosa ma erri la gradì comunque a ermione arrivò un barbagianni con l'edizione del mattino della gazzetta del profeta come al solito lei aprì il giornale diede un'occhiata alla prima pagina e sputacchiò una sorsata di succo di zucca cosa c'è dissero erri e ron in coro fissandola sbalorditi niente rispose frettolosamente ermione cercando di far sparire il giornale ma ron lo afferrò fissò il titolo e disse non è possibile non oggi quella vecchia vacca cosa disse erri di nuovo rita skitter no rispose ron e come ermione cercò di allontanare il giornale parla di me vero disse erri no rispose ron in tono niente affatto convincente ma prima che erri potesse impuntarsi per vedere il giornale draco malfoi gridò dal tavolo di serpeverde ehi potter potter come va la testa ti senti bene sei sicuro che non ci farai a pezzi anche lui brandiva una copia della gazzetta del profeta i serpeverde seduti a tavola ridacchiavano agitandosi sulle sedie per riuscire a vedere la reazione di erri fammi vedere disse erri a ron dammelo con molta riluttanza ron gli tese il quotidiano erri lo voltò e si ritrovò a fissare la propria foto sotto un titolo a caratteri cubitali harry potter è disturbato e pericoloso il ragazzo che ha sconfitto colui che non deve essere nominato è instabile e potenzialmente pericoloso scrive rita skitter inviato speciale sono venute alla luce testimonianze allarmanti sullo strano comportamento di harry potter che insinuano seri dubbi sull'opportunità che partecipi a una gara impegnativa come il torneo tre maghi e perfino che frequenti la scuola di hogwarts potter come la gazzetta del profeta in grado di rivelare in esclusiva sviene regolarmente durante le elezioni e spesso lo si sente lamentare un dolore alla cicatrice che porta sulla fronte ricordo della maledizione con la quale voi sapete chi cercò di ucciderlo lunedì scorso durante una lezione di divinazione il vostro inviato della gazzetta del profeta può testimoniare che potter è uscito di gran fretta dalla classe sostenendo che la cicatrice gli faceva troppo male per continuare a studiare è possibile spiegano i massimi esperti dell'ospedale di san mungo per malattie e ferite magiche che il cervello di potter sia stato danneggiato dall'aggressione di voi sapete chi e che la sua insistenza nel sostenere che la cicatrice gli fa ancora male sia una manifestazione del profondo stato confusionale in cui versa potrebbe anche fingere ha dichiarato uno specialista la sua potrebbe essere una richiesta di attenzioni la gazzetta del profeta intanto ha scoperto fatti preoccupanti a proposito di harry potter che albus silente preside di hogwarts ha accuratamente tenuto nascosti al pubblico mago potter parla il serpentese rivela draco malfoy uno studente del quarto anno di hogwarts un paio di anni fa si sono verificate parecchie aggressioni ai danni di studenti e tutti pensavano che dietro ci fosse potter aveva perso la testa al club dei duellanti e aveva aizzato un serpente contro un altro ragazzo ma è stato tutto messo a tacere lui però ha anche fatto amicizia con lupi mannari e giganti siamo convinti che farebbe qualunque cosa per un briciolo di potere il serpentese la capacità di parlare ai serpenti da molto tempo è considerato un'arte oscura in verità il più celebre conoscitore del serpentese dei nostri giorni è niente meno che voi sapete chi in persona un membro della lega per la difesa contro le arti oscure che preferisce conservare l'anonimato ha dichiarato che riterrebbe ogni mago in grado di parlare serpentese passibile di indagini personalmente nutrirei gravi sospetti su chiunque sapesse conversare con i serpenti poiché questi rettili sono spesso usati nella magia oscura della peggior specie e sono storicamente legati ai malfattori parimenti chiunque cerchi la compagnia di creature malvagie come lupi mannari e giganti parrebbe nutrire inclinazioni violente albus silente dovrebbe senza dubbio chiedersi se a un ragazzo del genere debba essere permesso gareggiare nel torneo tre maghi c'è chi teme che potter possa ricorrere alle arti oscure nel suo folle desiderio di vincere il torneo la terza prova del quale avrà luogo questa sera mi ha un po strapazzato vero commentò harry in tono leggero ripiegando il giornale al tavolo di serpe verde malfoy crebbe goyle ridevano di lui si picchiavano la testa con le dita facevano grottesche smorfie da matti e dardeggiavano la lingua come serpenti come ha fatto a sapere che ti faceva male la cicatrice a divinazione disse ron non è possibile che fosse là non c'è modo che possa aver sentito la finestra era aperta disse harry l'ho aperta per respirare eri in cima alla torre nord esclamò ermione la tua voce non può essere arrivata fin giù nel parco beh sei tu quella che doveva indagare sui metodi magici di spionaggio disse harry devi dirmelo tu come ha fatto ci sto provando replicò ermione ma io ma una strana espressione rapita per vase all'improvviso il volto di ermione alzò lentamente una mano e si fece scorrere le dita tra i capelli ti senti bene chiese ron guardandola accigliato sì rispose ermione in un sussurro fece scorrere di nuovo le dita tra i capelli e poi avvicinò la mano alla bocca come se parlasse in un walkie talkie invisibile harry e ron si guardarono stupiti mi è venuta un'idea disse ermione fissando il vuoto credo di sapere perché così nessuno avrebbe visto nemmeno mudi e lei avrebbe potuto salire sul davanzale ma non è autorizzata non è assolutamente autorizzata credo di averla incastrata datemi solo due secondi in biblioteca solo per esserne certa e con queste parole ermione afferrò la borsa e sfrecciò fuori dalla sala grande ehi le gridò ron abbiamo l'esame di storia della magia tra dieci minuti accidenti disse a erri deve proprio odiarla quella skitter per rischiare di perdersi l'inizio di un esame che cosa farai tu alla lezione di beans continuerai a leggere dispensato dalle prove di fine trimestre in quanto campione del tre maghi durante gli esami erri sedeva in fondo alla classe a cercare nuovi incantesimi immagino di sì disse erron ma in quel momento gli si avvicinò la professoressa mcgonagall potter i campioni si riuniscono nella saletta qui accanto dopo colazione disse ma la prova comincia stasera disse erri e si rovesciò addosso le uova strapazzate temendo di aver sbagliato orario lo so potter disse lei i familiari dei campioni sono invitati ad assistere alla prova finale lo sai questa è solo un'occasione per salutarli si allontanò erri la guardò a bocca aperta non si aspetterà che arrivino i darsley vero chiese a ron incredulo non so disse ron erri è meglio che mi muova o sarò in ritardo da beans a più tardi erri finì di fare colazione nella sala grande che si andava svuotando vide fleur de la cour alzarsi dal tavolo di corvo nero e unirsi a cedric che entrava nella saletta chrome avanzò ciondolando e li raggiunse poco dopo erri rimase dove era non voleva andarci proprio no non aveva genitori nessuno della sua famiglia sarebbe venuto a vederlo rischiare la vita comunque ma proprio mentre si alzava pensando che avrebbe potuto approfittarne per salire in biblioteca a fare un altro rapido ripasso di incantesimi la porta della saletta si aprì e sbucò la testa di cedric erri dai ti stanno aspettando decisamente perplesso erri si alzò i darsley non potevano certo essere là dentro vero attraversò la sala e aprì la porta cedric e i suoi genitori erano vicino all'ingresso victor clum era in un angolo e conversava fitto in bulgaro con il padre e la madre entrambi scuri di capelli aveva ereditato dal padre il naso adunco dall'altro lato della stanza fleur chiacchierava in francese con la madre che teneva per mano la piccola gabrielle salutò erri agitando l'altra mano e lui le rispose poi vide la signora weasley e bill in piedi davanti al camino con un sorriso radioso tutto per lui sorpresa esclamò gioiosa la signora weasley mentre erri li raggiungeva con un enorme sorriso abbiamo pensato di venire a vederti erri si chinò e lo baciò su una guancia tutto bene disse bill offrendo a erri un ghigno e una stretta di mano voleva venire anche charlie ma non è riuscito a prendersi un giorno di vacanza ha detto che sei stato incredibile contro lo spinato flor de la cour notò erri studiava bill con profondo interesse da sopra la spalla della madre erri capì che non aveva proprio nulla da obiettare sui capelli lunghi o gli orecchini zannuti è davvero gentile da parte vostra mormorò erri alla signora weasley per un attimo ho pensato i darsley disse la signora weasley stringendo le labbra si era sempre trattenuta dal criticare i darsley davanti a erri ma i suoi occhi lampeggiavano tutte le volte che venivano nominati è magnifico essere di nuovo qui disse bill guardandosi attorno violet l'amica della signora grassa gli fece occhiolino dalla cornice sono cinque anni che non vedo questo posto è ancora in giro quel quadro col cavaliere suonato ser cadogan oh sì disse erri che aveva conosciuto ser cadogan l'anno prima e la signora grassa chiese bill era già qui ai miei tempi disse la signora weasley mi ha fatto la predica una notte che ero tornata in dormitorio alle 4 del mattino che cosa ci facevi fuori dal dormitorio alle 4 del mattino chiese bill guardando la madre stupito lei fece un gran sorriso gli occhi scintillanti io e tuo padre eravamo andati a fare una passeggiatina notturna disse lui fu sorpreso da apollyon pringle a quel tempo era lui il custode ha ancora i signi ti va di farci fare un giretto erri disse bill sì certo disse erri e si diressero verso la porta che dava nella sala grande mentre passavano davanti ad amos digori lui si voltò eccoti qui allora sbottò squadrando erri da capo a piedi scommetto che non ti senti così tronfio adesso che cedric ti ha raggiunto è cosa fece erri ignorano gli disse cedric a bassa voce guardando accigliato suo padre e arrabbiato da quando è uscito quell'articolo di rita skitter sul torneo tre maghi sai quando lasciò capire che eri il solo campione di hogwarts e non si è preso la briga di correggerla però eh disse amos digori abbastanza forte da farsi sentire da erri che stava per uscire con la signora weasley e bill comunque gliela farai vedere sed l'hai già battuto una volta no rita skitter è solo contenta se può fare danni amos ribatte con forza la signora weasley credevo che lo sapessi visto che lavori al ministero il signor digori aveva l'aria di chi sta per dire qualcosa di feroce ma sua moglie gli posò una mano sul braccio e lui si limitò ad alzare le spalle e a voltarsi dall'altra parte henry trascorse una mattinata molto piacevole passeggiando per il parco inondato di sole con bill e la signora weasley mostrò loro la carrozza di bobaton e la nave di durmstrang la signora weasley fu incuriosita dal salice schiaffeggiante che era piantato dopo che lei aveva finito gli studi e si lasciò andare a diffusi ricordi del guardacaccia predecessore di agrid un uomo chiamato og come sta persi chiese erri mentre costeggiavano le serre non bene rispose bill è molto turbato disse la signora weasley abbassando la voce e guardandosi intorno il ministero vuole tenere riservata la notizia della scomparsa del signor crouch ma persi è stato convocato per un interrogatorio sulle istruzioni che crouch gli spedisce sembrano convinti che non siano state scritte di suo pugno persi è sotto pressione non gli permettono di sostituire crouch come quinto giudice stasera cornelius fudge prenderà il suo posto tornarono al castello per il pranzo mamma bill esclamò ron e sterrefatto arrivando al tavolo di grifondoro che cosa ci fate qui siamo venuti a vedere erri nell'ultima prova rispose allegramente la signora weasley devo dire che è una bella novità non dover cucinare come è andato il tuo esame oh bene disse ron non mi ricordavo i nomi di tutti i goblin ribelli così ne ho inventati un po non ti preoccupare aggiunse servendosi di pasticcio della cornovaglia mentre la signora weasley assumeva un cipiglio severo hanno tutti nomi tipo bodrod il barbuto e urg lunticcio non è stato difficile anche fred george e ginny si sedettero vicino a loro erri si sentì così bene che gli parve quasi di essere tornato alla tana dimenticò la prova che lo aspettava e solo quando ricomparve ermione a metà pranzo gli venne in mente del suo lampo di genio a proposito di rita skitter vuoi spiegarci ermione lo ammonì con un cenno della testa e lanciò un'occhiata alla signora weasley buongiorno ermione disse lei molto più rigida del solito buongiorno rispose ermione ma il suo sorriso svanì di fronte all'espressione fredda della signora weasley erri guardò l'una e l'altra poi disse signora weasley non avrà creduto alla robaccia che rita skitter ha scritto sul settimanale delle streghe vero perché ermione non è la mia fidanzata o esclamò la signora weasley no certo che no dopodiché però fu molto più affettuosa con ermione nel pomeriggio erri bill e la signora weasley fecero una lunga passeggiata attorno al castello e poi tornarono nella sala grande per il banchetto serale ludo bugman e cornelius fudge nel frattempo avevano preso posto al tavolo dei professori bugman sembrava piuttosto allegro ma cornelius fudge che era seduto accanto a madame maxim era torvo e non parlava madame maxim era concentrata sul suo piatto e a erri parve che avesse gli occhi rossi agrid continuava a guardarla in tralice c'erano più portate del solito ma erri che cominciava a sentirsi molto più teso non mangiò molto mentre il soffitto incantato sopra le loro teste cominciava a sbiadire dall'azzurro a un fosco silente si alzò al tavolo dei professori e subito cadde il silenzio signore e signori tra cinque minuti vi chiederò di scendere al campo di quidditch per la terza e ultima prova del torneo tre maghi i campioni vogliano per favore seguire il signor bugman giù allo stadio adesso erri si alzò tutti i grifondoro lo applaudirono i weasley e ermione gli augurarono tutti quanti buona fortuna e lui uscì dalla sala grande con cedric fleur e crum tutto a posto erri gli chiese bugman mentre scendevano gli scalini di pietra e si addentravano nel parco tranquillo sto bene rispose erri era quasi vero era nervoso ma lungo il tragitto continuava a ripetersi le fatture e gli incantesimi che aveva imparato e scoprire che se li ricordava tutti lo fece sentire meglio entrarono nel campo di quidditch che ormai era del tutto irriconoscibile una siepe alta sei metri correva per tutto il suo perimetro c'era un'apertura proprio davanti a loro l'ingresso dell'enorme labirinto il corridoio al di là era buio e sinistro cinque minuti dopo l'aria si riempì di voci eccitate e dello scalpiccio di innumerevoli piedi mentre centinaia di studenti riempivano le tribune il cielo era di un intenso limpido azzurro e cominciavano a spuntare le prime stelle agrid il professor moody la professoressa mcgonagall e il professor flitwick si avvicinarono a bugman e ai campioni portavano grosse stelle rosse lucenti sul cappello tutti tranne agrid che aveva fissato la sua sulla schiena del cappotto di talpa noi pattuglieremo l'esterno del labirinto disse la professoressa mcgonagall se vi trovate in difficoltà e desiderate essere salvati sparate in aria una raffica di scintille rosse e uno di noi verrà a prendervi avete capito i campioni annuirono allora andate disse allegramente bugman ai quattro di pattuglia buona fortuna harry sussurrò agrid e i quattro si allontanarono in direzioni diverse per disporsi attorno al labirinto bugman si puntò la bacchetta alla gola borbottò sonorus e la sua voce amplificata per magia e che giò sugli spalti signore e signori sta per cominciare la terza prova del torneo tre maghi la prova finale permettete che vi ricordi la situazione del punteggio al primo posto alla pari con 85 punti ciascuno il signor cedric digori e il signor harry potter entrambi della scuola di hogwarts le grida e gli applausi fecero alzare in volo nel cielo sempre più scuro gli uccelli appollaiati sugli alberi della foresta proibita al secondo posto con 80 punti il signor victor crum dell'istituto durmstrang altri applausi e al terzo posto mademoiselle fleur de la cour dell'accademia di bobaton harry riuscì a scorgere la signora weasley bill ron e ermione che applaudivano educatamente fleur a metà altezza delle tribune li salutò con la mano ed essi gli risposero con grandi sorrisi di incoraggiamento allora al mio segnale harry e cedric disse bugman 3 2 1 fischiò brevemente e harry e cedric scattarono in avanti ed entrarono nel labirinto le siepi torreggianti proiettavano ombre nere sul sentiero e fosse perché erano così alte e fitte o perché erano state stregate il fragore della folla circostante svanì nell'istante in cui misero piede nel labirinto harry si sentì quasi di nuovo sott'acqua estrasse la bacchetta sussurrò lumos e udì cedric fare lo stesso alle sue spalle dopo 150 metri si trovarono a un bivio si guardarono ci vediamo disse harry e prese a sinistra mentre cedric prendeva a destra harry udì per la seconda volta il fischio di bugman crum era entrato nel labirinto harry accelerò il sentiero che aveva imboccato sembrava completamente deserto voltò a destra e avanzò rapido la bacchetta tesa sopra la testa cercando di vedere il più avanti possibile ma non c'era ancora nulla in vista il segnale di bugman suonò per la terza volta in lontananza ora tutti i campioni si trovavano nel labirinto harry continuava a guardarsi alle spalle con la sensazione di essere osservato il labirinto era sempre più immerso nell'oscurità man mano che il cielo diventava blu marino si trovò a un secondo bivio guidami sussurrò alla bacchetta tenendo la piatta sul palmo della mano la bacchetta roteò una volta e puntò alla sua destra verso il folto della siepe da quella parte c'era il nord e sapeva di doversi dirigere a nord ovest per raggiungere il centro del labirinto la cosa migliore che poteva fare era prendere il sentiero a sinistra e girare di nuovo a destra alla prima occasione la strada era deserta e tale rimase anche quando harry imboccò un sentiero sulla destra non sapeva perché ma l'assenza di ostacoli lo rendeva nervoso avrebbe già dovuto incontrarne uno no era come se il labirinto volesse indurlo a una falsa sensazione di sicurezza poi sentì un movimento alle sue spalle tese la bacchetta pronto all'attacco ma il raggio di luce colpì soltanto cedric che era appena sbucato di corsa da un sentiero a destra sembrava profondamente scosso la manica della sua veste fumava gli schiopodi sparacoda di agrid sibilò sono enormi sono riuscito a fuggire per un pelo scosse la testa e sparì imboccando un altro sentiero ben deciso a mettere una bella distanza tra sé e gli schiopodi harry riprese a correre poi volto a un angolo e vide un dissenatore avanzava scivolando verso di lui alto tre metri e mezzo il volto nascosto dal cappuccio le mani potrescenti e coperte di croste tese davanti a sé si faceva strada alla cieca verso di lui harry ne udì il respiro simile a un rantolo si sentì invadere da un gelo appiccicoso ma sapeva che cosa doveva fare evocò il pensiero più felice che poté si concentrò con tutte le sue forze sul pensiero di uscire dal labirinto e festeggiare con ron e ermione levò la bacchetta e urlò expecto patronum un cervo d'argento sbucò dalla punta della bacchetta di harry e avanzò al galoppo verso il dissenatore che cadde indietro e s'impigliò nell'orlo della veste harry non aveva mai visto un dissenatore inciampare aspetta gridò avanzando nella scia del suo patronus d'argento tu sei un molliccio ridiculus si udì un colpo secco e forte e la figura esplose in un fil di fumo il cervo d'argento svanì harry avrebbe voluto che restasse con lui gli avrebbe fatto bene un po di compagnia avanzò più rapidamente e silenziosamente possibile le orecchie tese la bacchetta di nuovo alta sinistra destra ancora sinistra due volte si trovò in un vicolo cieco rifece il sortilegio quattro punti e scoprì che stava andando troppo a est fece dietro front svoltò a destra e vide una strana nebbiolina dorata aleggiare davanti a lui harry si avvicinò cautamente la bacchetta puntata sembrava una qualche sorta di incantesimo si chiese se sarebbe stato capace di sbarazzarsene facendolo saltare per aria reducto esclamò la formula magica schizzò nella nebbiolina lasciandola intatta si disse che avrebbe dovuto saperlo la maledizione reductor funzionava con gli oggetti solidi che cosa sarebbe successo se avesse attraversato la nebbia valeva la pena di tentare o doveva tornare sui suoi passi era ancora incerto quando un grido lacerò il silenzio fleur gridò harry silenzio si guardò attorno che cosa le era accaduto il grido sembrava provenire da un punto più avanti trasse un profondo respiro e si tuffò nella nebbiolina incantata il mondo si rovesciò harry pensolava dal suolo coi capelli dritti gli occhiali che minacciavano di cadere nel cielo senza fondo harry se li ricacciò sul naso e rimase lì a ciondolare terrorizzato era come avere i piedi incollati all'erba sotto di lui il cielo scuro tra punto di stelle si stendeva all'infinito aveva la sensazione che se solo avesse cercato di muovere un piede si sarebbe staccato per sempre dal terreno pensa si disse mentre gli andava il sangue alla testa pensa ma nessuno degli incantesimi che aveva provato era progettato per opporsi a un improvviso scambio tra cielo e terra avrebbe osato spostare il piede sentiva il sangue pulsare nelle orecchie aveva due possibilità o cercare di muoversi o sparare in alto scintille rosse farsi tirar fuori dal labirinto ed essere squalificato chiuse gli occhi per non vedere il cielo senza fondo e staccò con decisione il piede dal soffitto d'erba all'improvviso il mondo si raddrizzò harry cadde sulle ginocchia sul terreno meravigliosamente solido per un attimo si sentì molle dallo spavento respirò profondamente per calmarsi poi si rialzò e corse avanti guardandosi indietro mentre usciva dalla nebbiolina dorata che scintillava innocente al chiaro di luna si fermò a un incrocio e si guardò intorno cercando qualche traccia di fleur era sicuro che fosse stata lei a urlare in cosa si era imbattuta stava bene non c'era segno di scintille rosse significava che se l'era cavata o che era nei guai al punto da non riuscire a recuperare la bacchetta harry imboccò il sentiero a destra con una sensazione di crescente disagio ma nello stesso tempo non riuscì a non pensare un campione di meno la coppa era da qualche parte nelle vicinanze e a quel che pareva fleur non era più in gara era arrivato fino lì no e se fosse davvero riuscito a vincere fugacemente e per la prima volta da quando si era ritrovato tra i campioni si vide di nuovo alzare la coppa tre maghi davanti al resto della scuola non incontrò nulla per dieci minuti tranne vicoli ciechi due volte prese la stessa direzione sbagliata alla fine trovò un nuovo percorso e lo imboccò di corsa la luce della bacchetta sobbalzava agitando e deformando la sua ombra sulle pareti di siepe poi girò un altro angolo e si trovò davanti a uno schiopodo sparacoda cedric aveva ragione era proprio enorme lungo tre metri sembrava più che altro uno scorpione gigante il suo lungo pungiglione era inarcato sopra la schiena la spessa corazza brillò alla luce della bacchetta di harry che gliela puntò contro stupeficium l'incantesimo colpì la corazza dello schiopodo e rimbalzò indietro harry si chinò appena in tempo ma sentì odore di capelli bruciati gli aveva strinato la testa lo schiopodo emise un lampo di fuoco dalla coda e gli si scagliò addosso impedimenta strillò harry l'incantesimo colpì di nuovo la corazza dello schiopodo e rimbalzò indietro harry arretrò barcollando di qualche passo e inciampò impedimenta a pochi centimetri da lui lo schiopodo si fermò di colpo harry l'aveva colpito al ventre molle indifeso ansante si allontanò da lui e corse nella direzione opposta la fattura impediente non era indissolubile lo schiopodo avrebbe riguadagnato l'uso delle zampe da un momento all'altro prese un sentiero a sinistra e finì in un vicolo cieco uno a destra e finì in un altro vicolo cieco si costrinse a fermarsi col cuore che martellava in petto formulò il sortilegio quattro punti tornò sui suoi passi e scelse un sentiero che lo avrebbe portato a nord ovest correva da qualche minuto quando udì qualcosa nel sentiero parallelo oltre la siepe qualcosa che lo fece fermare di botto che cosa fai urlò la voce di cedric che cosa diavolo credi di fare e poi harry sentì la voce di crum crucio l'aria si riempì all'improvviso delle urla di cedric atterrito harry scattò in avanti cercando di trovare un passaggio per raggiungere cedric quando capì che non ce n'erano ritentò con la maledizione reductor non fu molto efficace ma bruciò una piccola apertura nella siepe in cui harry fece passare a forza la gamba prendendo a calci i fitti rovi e i rami finché non si spezzarono si infilò a fatica nel varco strappandosi la veste e guardando a destra vide crum incombere su cedric che sussultava e si contorceva al suolo harry si rialzò e puntò la bacchetta contro crum proprio mentre questi alzava lo sguardo crum si voltò e cominciò a correre stupeficium l'incantesimo colpì crum alla schiena si bloccò all'improvviso cadde in avanti e giacque immobile a faccia in giù nell'erba harry raggiunse di corsa cedric che aveva smesso di contorcersi ed era disteso col respiro affannato e le mani sul viso stai bene disse harry in tono brusco afferrandolo per un braccio si rispose cedric ansimando si non posso crederci mi è strisciato alle spalle l'ho sentito mi sono voltato e aveva la bacchetta puntata contro di me cedric si alzò era ancora scosso da un tremito lui e harry guardarono crum a terra non posso crederci credevo che fosse a posto disse harry fissando all'ibito crum anch'io disse cedric prima hai sentito fleur urlare chiese harry si rispose cedric pensi che crum abbia preso anche lei non lo so disse harry lentamente dobbiamo lasciarlo qui borbottò cedric no disse harry credo che dovremmo sparare delle scintille rosse qualcuno verrà a prenderlo altrimenti è probabile che finisca in pasto a uno schiopodo se lo meriterebbe mormorò cedric ma levò la bacchetta e sparò uno spruzzo di scintille rosse che rimasero sospese in alto sopra crum indicando il luogo in cui si trovava harry e cedric rimasero vicini nell'oscurità per un momento guardandosi attorno poi cedric disse beh credo che sia meglio andare avanti cosa disse harry oh sì certo fu una sensazione strana per un attimo lui e cedric si erano alleati contro crum ora entrambi si ricordarono di essere avversari avanzarono lungo il sentiero oscuro senza parlare poi harry prese a sinistra e cedric a destra il rumore dei suoi passi ben presto svanì harry avanzò e ricorse più volte al sortilegio quattro punti per essere sicuro di andare nella direzione giusta ora si giocava tutto tra lui e cedric il suo desiderio di arrivare alla coppa per primo era più bruciante che mai ma non riusciva a credere a ciò che aveva appena visto fare a crum l'uso di una maledizione senza perdono su un proprio simile un essere umano significava la condanna a vita ad azkaban così aveva detto moody crum non poteva certo desiderare la coppa tre maghi così ardentemente harry accelerò ogni tanto imboccava altre strade senza uscita ma l'oscurità sempre più fitta gli dava la certezza di essere vicino al centro del labirinto poi mentre percorreva un lungo sentiero dritto colse di nuovo un movimento e il raggio della sua bacchetta cadde su una creatura straordinaria che aveva visto solo disegnata nel libro mostro dei mostri era una sfinge aveva il corpo di un leone molto grosso enormi zampe dotate di artigli e una lunga coda giallastra che terminava con un ciuffo marrone la testa invece era di donna puntò gli occhi a mandorla su harry mentre quest'ultimo si avvicinava lui levò la bacchetta esitante non era rannicchiata come per balzare ma misurava il sentiero a grandi passi sbarrandogli la strada poi parlò con voce rauca e profonda sei molto vicino al tuo obiettivo la via più breve è dopo di me quindi quindi puoi spostarti per favore disse eric che conosceva già la risposta no rispose continuando ad andare avanti e indietro a meno che tu non risolva il mio enigma se rispondi al primo tentativo ti lascerò passare se sbagli ti attaccherò se rimani in silenzio ti lascerò andar via illeso lo stomaco di harry si contraste ermione era brava in quel genere di cose non lui soppresò le possibilità se l'enigma era troppo difficile poteva starsene zitto andarsene via illeso e cercare di trovare un percorso alternativo per il centro va bene disse posso ascoltare l'enigma la sfinge sedette sulle zampe posteriori proprio al centro del sentiero e recitò la prima cosa che ti viene a tiro deve essere l'imbroglio che circuisce lo nomini e poi gli togli un giro quindi chiedi cos'è che mi impedisce di avere quel che voglio ciò a cui aspiro cosa dice colui che non capisce unisci le due parti per trovare qualcuno che ti astieni dal baciare harry la guardò a bocca aperta potresti ripeterlo più lentamente chiese esitante lei batte le palpebre sorrise e ripete la poesia gli indizi si sommano dando una creatura che non mi piacerebbe baciare chiese harry la creatura si limitò a sorridere il suo sorriso misterioso harry lo considerò un sì si mise a riflettere c'erano moltissimi animali che non avrebbe baciato volentieri il primo che gli venne in mente fu uno schiopodo sparacoda ma qualcosa gli disse che non era quella la risposta doveva cercare di risolvere l'enigma un pezzo alla volta la prima cosa è l'imbroglio che circuisce no non mi viene aspetta truffa ma in che senso togli un giro alla truffa no questo non lo capisco e poi come va avanti per favore la sfinge paziente ripete i successivi tre versi dell'enigma cos'è che mi impedisce ciò a cui aspiro cosa dice colui che non capisce no non capisco ma sì ecco cosa dico dico no la sfinge gli sorrise imbroglio truffa prese in giro no aspetta raggiro che senza un giro è raggi raggi e no disse harry camminando avanti e indietro qualcuno che mi astengo dal baciare un ragno la sfinge gli rivolse un sorriso più ampio si alzò stiracchiò le superiori e poi si spostò per lasciarlo passare grazie esclamò harry e scattò in avanti stupito della propria abilità ormai doveva essere vicino doveva la bacchetta gli diceva che era proprio sulla strada giusta se non incontrava nulla di troppo orrendo forse aveva anche una possibilità in fondo c'era un bivio guidami sussurrò di nuovo alla bacchetta che ruotò sulla sua mano e gli indicò il sentiero a destra lo imboccò rapido e vide una luce davanti a sé la coppa tre maghi scintillava eretta su un piedistallo a un centinaio di metri harry si era appena messo a correre quando una sagoma scura sbucò davanti a lui sul sentiero cedric sarebbe arrivato prima correva come il vento verso la coppa e harry capì che non lo avrebbe mai raggiunto cedric era molto più alto aveva le gambe molto più lunghe poi harry vide qualcosa di immenso torreggiare su una siepe alla sua sinistra qualcosa che si muoveva rapido lungo un sentiero che incrociava il suo avanzava così in fretta che cedric stava per urtarlo e poiché aveva gli occhi fissi sulla coppa non l'aveva visto cedric urlò harry a sinistra cedric si voltò a guardare appena in tempo per evitare l'urto e gettarsi oltre la cosa ma inciampò nello slancio la bacchetta gli sfuggì di mano mentre un ragno gigantesco calava sul sentiero e avanzava verso di lui stupeficium gridò harry l'incantesimo colpì il mostruoso corpo nero e peloso ma per l'effetto che ebbe avrebbe anche potuto tirargli un sasso il ragno sobbalzò si voltò zampettando e puntò dritto su di lui stupeficium impedimenta stupeficium ma non servì a nulla il ragno era così grosso o così magico che gli incantesimi riuscivano solo a rallentarlo harry ebbe un'orrenda visione di otto occhi neri scintillanti e tenaglie come rasoi prima che gli fosse addosso il ragno lo afferrò tra le zampe anteriori e lo sollevò in aria harry lottò furiosamente cercando di prenderlo a calci la sua gamba urtò contro le tenaglie e un attimo dopo provò un dolore terribile udì cedric urlare a sua volta stupeficium ma il suo incantesimo non ebbe effetto poi mentre il ragno spalancava di nuovo le tenaglie harry levò la bacchetta ed esclamò expelliarmus funzionò l'incantesimo di disarmo costrinse il ragno a lasciarlo andare ma con questo harry cadde da un'altezza di quasi quattro metri sulla gamba già ferita che si piegò sotto il suo peso senza fermarsi a riflettere mirò dritto all'addome del ragno come aveva fatto con lo schiopodo e urlò stupeficium contemporaneamente a cedric i due incantesimi insieme riuscirono dove uno solo aveva fallito il ragno si rovesciò su un fianco schiacciando una siepe e invadendo il sentiero con un groviglio di zampe pelose harry gridò cedric tutto bene ti è caduto addosso no rispose harry ansimando si guardò la gamba sanguinava parecchio vide una sorta di spessa sostanza collosa emessa dalle tenaglie del ragno sulla veste strappata cercò di alzarsi ma la gamba gli tremava violentemente e non riusciva a sostenere il suo peso si appoggiò alla siepe cercando di prendere fiato e si guardò intorno cedric era a pochi metri dalla coppa tre maghi che brillava alle sue spalle prendila dai ansimò harry avanti prendila ormai ci sei ma cedric non si mosse rimase lì a guardare harry poi si voltò verso la coppa nel riverbero dorato harry lo vide contemplare il trofeo con un'espressione di intenso desiderio cedric tornò a guardare harry che si era aggrappato alla siepe per rimanere in piedi e sospirò profondamente prendila tu tu devi vincere è la seconda volta che mi salvi la vita qui dentro non è così che funziona rispose harry era arrabbiato la gamba gli faceva un male tremendo aveva tutto il corpo dolorante a causa della lotta con il ragno e dopo tutti i suoi sforzi cedric l'aveva battuto proprio come l'aveva battuto nell'invitare ciò al ballo il primo che raggiunge la coppa prende i punti e quello sei tu ti assicuro che con questa gamba non vincerò nessuna corsa cedric fece qualche passo verso il ragno allontanandosi dalla coppa e scosse la testa no disse smettila di essere nobile disse harry irritato prendila e basta così possiamo uscire di qui cedric osservò harry raddrizzarsi tenendosi stretto alla siepe tu mi hai detto dei draghi disse cedric sarei crollato alla prima prova se non mi avessi detto che cosa mi aspettava anch'io sono stato aiutato allora sbottò harry cercando di asciugarsi con la veste la gamba insanguinata tu mi hai aiutato con l'uovo siamo pari sì ma qualcuno mi aveva già detto dell'uovo disse cedric siamo sempre pari insistette harry provando con cautela ad appoggiare la gamba ma la sentì tremare violentemente quando il ragno lo aveva lasciato cadere si era storto alla caviglia tu avresti dovuto prendere più punti per la seconda prova disse cedric ostinato sei rimasto indietro per salvare tutti gli ostaggi avrei dovuto farlo io io sono stato l'unico a essere così stupido da prendere sul serio quella canzone esclamò harry amaramente avanti prendi la coppa no disse cedric scavalcò le zampe aggrovigliate del ragno per avvicinarsi a harry che lo guardò stupito cedric diceva sul serio stava voltando le spalle a quella gloria che la casa di tassofrasso non conosceva da secoli vai tu disse sembrava che ciò gli stesse costando fino all'ultima goccia di determinazione ma aveva il volto risoluto le braccia incrociate e sembrava deciso harry spostò lo sguardo da cedric alla coppa per un luminoso istante si vide uscire dal labirinto reggendola tra le braccia si vide levare in alto la coppa tre maghi udì il ruggito della folla vide il viso di ciò radioso di ammirazione più nitido di quanto non l'avesse mai visto e poi l'immagine sbiadì e si ritrovò a fissare l'ostinato volto in ombra di cedric tutti e due disse harry come la prenderemo nello stesso istante è sempre una vittoria di hogwarts finiremo alla pari cedric lo guardò stupefatto allargò le braccia sei sei sicuro sì rispose harry sì ci siamo dati una mano a uscirne no siamo arrivati fin qui tutti e due prendiamola insieme e basta per un attimo cedric parve non credere alle sue orecchie poi sorrise raggiante va bene disse dai vieni sostenne harry e lo aiutò ad avvicinarsi zoppicando al piedistallo che reggeva la coppa quando l'ebbero raggiunto tesero una mano ognuno verso i manici scintillanti al tre d'accordo disse harry uno due tre afferrarono i manici della coppa immediatamente harry avvertì uno strappo in un punto imprecisato dietro l'ombelico i suoi piedi si erano staccati da terra non riuscì ad aprire la mano che stringeva la coppa tre maghi il trofeo lo trascinava in alto in un ululato di vento in un vortice di colori con cedric al suo fianco carne sangue e ossa harry sentì i piedi urtare il suolo la gamba ferita cedette e lui cadde in avanti la mano lasciò finalmente andare la coppa tre maghi alzò la testa dove siamo disse cedric scosse la testa si tirò su aiutò harry ad alzarsi e si guardarono intorno quel luogo non faceva assolutamente parte del territorio di hogwarts era chiaro che avevano viaggiato per chilometri forse centinaia di chilometri perché anche le montagne che circondavano il castello erano sparite si trovavano in un cimitero buio e abbandonato il profilo nero di una chiesetta era riconoscibile oltre un grande tasso alla loro destra alla loro sinistra si innalzava una collina sul cui versante harry riuscì a distinguere la sagoma di una bella dimora antica cedric guardò la coppa tre maghi poi alzò gli occhi verso harry a te qualcuno aveva detto che la coppa era una passaporta chiese no disse harry stava osservando il cimitero era immerso nel silenzio e vagamente inquietante questo dovrebbe far parte della prova non lo so rispose cedric il suo tono di voce era teso fuori le bacchette che ne dici si disse harry lieto che a suggerirlo fosse stato cedric estrassero le bacchette harry continuava a guardarsi intorno aveva di nuovo la strana sensazione di essere osservato arriva qualcuno disse all'improvviso aguzzando gli occhi nell'oscurità videro una sagoma avanzare decisa tra le tombe verso di loro harry non riuscì a nel viso ma da come camminava e teneva le braccia capì che stava trasportando qualcosa chiunque fosse era piccolo di statura e indossava un mantello con il cappuccio abbassato sul volto per nasconderlo e man mano che la distanza tra loro si riduceva vide che la cosa tra le braccia della persona sembrava un neonato o era solo un fagotto di abiti harry abbassò appena la bacchetta e gettò un'occhiata obliqua a cedric cedric gli rispose con uno sguardo interrogativo entrambi tornarono a studiare la sagoma che si avvicinava si fermò accanto a un alta lapide di marmo a un paio di metri di distanza per un attimo tutti e tre si limitarono a guardarsi e poi senza preavviso la cicatrice di harry esplose di dolore era un male che non aveva mai provato prima la bacchetta gli cadde dalle dita mentre si portava le mani sul viso le ginocchia cedettero cadde a terra accecato dal dolore la testa stava per spaccargli si in due da molto lontano sopra di lui una voce fredda e acuta disse uccidi l'altro un sibilo e una seconda voce urlò le parole nella notte avada che davra un lampo di luce verde saettò attraverso le palpebre di harry e sentì qualcosa di pesante cadere a terra accanto a lui il dolore alla cicatrice raggiunse un tale picco che fu preso da un conato di vomito e poi diminui terrorizzato all'idea di ciò che stava per vedere aprì gli occhi che gli bruciavano cedric era disteso a terra al suo fianco a braccia aperte era morto per un secondo lungo un'eternità harry fissò il viso di cedric i suoi occhi grigi aperti vacui e privi di espressione come le finestre di una casa abbandonata la bocca socchiusa in un'espressione di vaga sorpresa e poi prima che la mente di harry potesse accettare ciò che aveva davanti agli occhi prima che potesse provare altro che sorda incredulità si sentì trarre in piedi l'uomo basso col mantello aveva deposto il fagotto acceso la bacchetta e stava trascinando harry verso la lapide di marmo harry vide il nome inciso tremare alla luce della bacchetta prima che l'uomo lo costringesse a voltarsi e lo scaraventasse contro la pietra tom riddle l'uomo col mantello legò strettamente harry con funi apparse dal nulla assicurandolo da capo a piedi alla pietra tombale harry udì un respiro corto e affannato dall'interno del cappuccio si divincolò e l'uomo lo colpì lo colpì con una mano a cui mancava un dito harry capì chi c'era sotto il cappuccio era codaliscia tu disse senza fiato ma codaliscia non rispose controllava che le funi fossero ben strette armeggiando attorno ai nodi con dita scosse da un tremito incontrollabile una volta sicuro che harry fosse legato così bene da non potersi muovere di un centimetro codaliscia estrasse un pezzo di stoffa nera dall'interno del mantello e glielo ficcò bruscamente in bocca poi senza dire una parola si voltò e corse via harry non riusciva a emettere un suono né a girarsi per vedere dall'altra parte della pietra tombale vedeva solo ciò che si trovava davanti a lui il corpo di cedric era disteso a sei metri di distanza un po più in là lucente nell'oscurità giaceva la coppa tre maghi la bacchetta di harry era a terra ai suoi piedi il fagotto di stoffe che harry aveva scambiato per un neonato era poco più in là vicino alla tomba sembrava che si agitasse furiosamente harry lo osservò e la cicatrice gli bruciò di nuovo e all'improvviso seppe che non voleva vedere che cosa c'era lì dentro non voleva che il fagotto venisse aperto udì dei rumori e guardò in giù un serpente gigantesco strisciava nell'erba aggirando la pietra tombale a cui era legato il respiro rapido e affannoso di coda liscia diventò di nuovo più forte era come se stesse spingendo qualcosa di pesante poi tornò nel campo visivo di harry che lo vide spingere un calderone di pietra ai piedi della tomba era pieno di quella che sembrava acqua harry ne sentì lo sciacquio ed era più grande di qualunque calderone harry avesse mai usato un enorme ventre di pietra abbastanza vasto da contenere un uomo adulto seduto la cosa dentro il fagotto si agitava sempre di più come se cercasse di liberarsi coda liscia stava trafficando con una bacchetta alla base del calderone all'improvviso sotto di esso scoppiettò un fuoco il grosso serpente scomparve strisciando nell'oscurità il liquido nel calderone parve scaldarsi molto in fretta la superficie prese non solo a ribollire ma anche a emettere scintille ardenti come se fosse incendiata il vapore si addensava offuscando la sagoma di coda liscia che alimentava il fuoco i movimenti sotto il mantello divennero più frenetici harry udì di nuovo la voce fredda e acuta muoviti tutta la superficie dell'acqua era coperta di scintille sembrava incrostata di diamanti è pronta mio signore ora disse la voce fredda coda liscia apri il fagotto per terra rivelandone il contenuto e harry si lasciò sfuggire un urlo che fu soffocato dal tappo di tessuto che gli sigillava la bocca era come se coda liscia avesse rivoltato una pietra per rivelare qualcosa di brutto viscido e cieco anzi peggio cento volte peggio la cosa che coda liscia aveva portato fin lì aveva la forma di un bambino rannicchiato ma harry non aveva mai visto nulla di meno simile a un bambino era privo di capelli e coperto di squame palpitanti di un cupo nero rossastro le braccia e le gambe erano sottili e deboli e il viso nessun bambino al mondo poteva avere un viso del genere era piatto e serpentino con occhi rossi scintillanti la cosa sembrava quasi innocua levò le braccine e le mise attorno al collo di coda liscia che lo sollevò nel farlo il cappuccio gli ricadde indietro e nel bagliore del fuoco harry vide l'espressione di disgusto sul volto pallido e debole di coda liscia mentre portava la creatura fino alla bocca del calderone per un istante harry vide la malvagia faccia piatta illuminata dalle scintille che danzavano sulla superficie della pozione e poi coda liscia vi immerse la creatura quella scomparve sotto la superficie con un sibilo harry udì il suo corpo fragile cadere sul fondo con un tonfo lieve lascialo annegare pensò harry con la cicatrice che gli bruciava insopportabilmente ti prego lascialo annegare coda liscia parlò la sua voce tremava sembrava spaventato più di quanto non potesse tollerare levò la bacchetta chiuse gli occhi e parlò alla notte osso del padre donato a sua insaputa rinnoverà il figlio la superficie della tomba ai piedi di harry si infranse paralizzato dall'orrore harry vide un sottile filo di polvere levarsi nell'aria all'ordine di coda liscia e ricadere dolcemente nel calderone lo specchio adamantino dell'acqua si infranse con un sibilo sprigionò scintille in tutte le direzioni e divenne di un intenso blu venefico ed ecco che coda liscia si mise a piagnucolare estrasse un lungo sottile pugnale d'argento dall'interno della veste la sua voce si spezzò in singhiozzi impietriti carne del servo donata con l'assenso rinnoverai il tuo signore tese la mano destra davanti a sé la mano priva di un dito strinse forte il pugnale nella sinistra e lo levò in alto harry capì ciò che coda liscia stava per fare un secondo prima che accadesse serrò disperatamente gli occhi ma non pote fermare l'urlo che squarciò la notte che lo attraversò come se anche lui fosse stato trafitto dal pugnale udì qualcosa a cadere a terra udì gli ansiti angosciati di coda liscia poi un tonfo rivoltante mentre qualcosa veniva gettato nel calderone harry non osava guardare ma la pozione era diventata di un rosso bruciante la luce splendeva attraverso le sue palpebre serrate coda liscia gemeva e si lamentava per il dolore harry non capì di averlo di fronte finché non ne avvertì il respiro affannoso sul volto sangue del nemico preso con la forza farai risolgere il tuo avversario harry non pote far nulla per evitarlo era legato troppo stretto attraverso gli occhi socchiusi lottando in vano con le corde che lo avvincevano vide il lucente pugnale d'argento tremare nella mano rimasta a coda liscia avvertì la punta penetrare nell'incavo del braccio destro e il sangue scorrere lungo la manica della veste strappata coda liscia sempre ansimando di dolore si frugò in tasca estrasse un'ampolla di vetro e la riempì del sangue che scorreva dalla ferita di harry poi tornò parcollando al calderone e lo versò il liquido divenne di colpo di un bianco accecante coda liscia compiuta la sua opera cadde in ginocchio poi scivolò su un fianco e rimase a terra a reggersi il moncherino sanguinante singhiozzando e gemendo il calderone ribolliva schizzandola per tutto le scintille simili a diamanti di una lucentezza così abbagliante che trasformava tutto il resto in un unico velluto nero non accadde nulla fa che sia annegato pensò harry fa che tutto sia andato storto e poi all'improvviso le scintille che emanavano dal calderone si spensero al loro posto si levò un'ondata densa che cancellò tutto davanti a harry nascondendo coda liscia cedric o altro che non fosse il vapore che fluttuava a mezz'aria è andata male pensò è annegato per favore per favore fa che sia morto ma poi con un sussulto di terrore vide nella nebbia la sagoma scura di un uomo alto e scheletrico che si ergeva lentamente dall'interno del calderone vestimi disse la voce fredda e acuta e coda liscia tra lamenti e singhiozzi reggendosi il braccio mutilato strisciò a raccogliere da terra la veste nera si alzò e con una sola mano la protese al di sopra del capo del suo signore l'uomo magro uscì dal calderone fissando harry harry a sua volta fissò il viso che da tre anni infestava i suoi incubi più bianco di un teschio con grandi lividi occhi rossi il naso piatto come quello di un serpente due fessure per narici voldemort era risorto i mangiamorte voldemort distorse lo sguardo da harry e prese a esaminare il proprio corpo le mani erano come grossi palli di ragni le lunghe dita bianche sfiorarono il petto le braccia il viso gli occhi rossi dalle pupille verticali come quelle di un gatto scintillarono ancor più vivi nell'oscurità alzò le mani e flette le dita l'espressione rapita e trionfante non vado affatto a coda liscia che giaceva a terra contorcendosi e sanguinando né al grosso serpente che era tornato strisciando e girava di nuovo attorno a harry sibilando voldemort fece scivolare una di quelle sue mani dalle dita innaturalmente lunghe in una tasca profonda ed estrasse una bacchetta sfiorò anch'essa con dolcezza e poi la levò e la puntò contro coda liscia che fu sollevato da terra e scagliato contro la pietra tombale a cui era legato harry cadde vicino alla base e rimase lì accasciato a piangere voldemort rivolse gli occhi scarlatti verso harry e rise una risata acuta fredda senza gioia la veste di coda liscia in cui aveva fasciato il moncherino ora luccicava di sangue mio signore disse con voce soffocata mio signore avevate promesso avevate promesso fuori il braccio disse voldemort pigramente padrone grazie padrone tese il moncherino sanguinante ma voldemort rise di nuovo l'altro braccio coda liscia padrone per favore per favore voldemort si chinò e afferrò il braccio sinistro di coda liscia gli spinse la manica della veste oltre il gomito e harry vide qualcosa sulla pelle qualcosa di simile a un tatuaggio di un rosso vivo un teschio con un serpente che sbucava dalla bocca la stessa immagine che era comparsa nel cielo alla coppa del mondo di quidditch il marchio nero voldemort lo studiò attentamente ignorando il pianto incontrollabile di coda liscia è tornato disse piano se ne saranno accorti tutti e ora vedremo ora sapremo premette il lungo indice bianco sul segno sopra il braccio di coda liscia harry provò di nuovo una fitta di intenso dolore alla cicatrice e coda liscia emise un altro gemito voldemort tolse il dito dal marchio e harry vide che era diventato nero come il giaietto con un'espressione di feroce soddisfazione voldemort si rialzò gettò indietro la testa e osservò il cimitero nell'ombra quanti avranno il coraggio di tornare quando lo sentiranno sussurrò i lucenti occhi rossi fissi alle stelle e quanti saranno così sciocchi da rimanere lontani prese a camminare avanti e indietro davanti a harry e coda liscia mentre i suoi occhi percorrevano il campo santo dopo un minuto circa guardò di nuovo harry con un sorriso crudele che gli deformava il volto di serpente tu ti trovi harry potter sui resti di mio padre si bilò dolcemente un babbano e uno sciocco molto simile alla tua cara madre ma entrambi hanno avuto la loro utilità vero tua madre è morta per difenderti quando eri un bambino e io ho ucciso mio padre e vedi come si è dimostrato utile da morto voldemort rise ancora andò avanti e indietro guardandosi intorno mentre il serpente continuava a strisciare in tondo nell'erba la vedi quella casa sulla collina potter mio padre viveva lassù mia madre una strega che abitava in questo villaggio si innamorò di lui ma lui la abbandonò quando lei gli rivelò chi era non piaceva la magia a mio padre la lasciò e tornò dai suoi genitori babbani prima che io nascessi potter e lei morì dandomi alla luce e così fui allevato in un orfanotrofio babbano ma promisi di ritrovarlo mi vendicai di lui di quello sciocco che mi aveva dato il suo nome tom riddle continuò a camminare gli occhi rossi che saettavano da una tomba all'altra ma senti un po eccomi qui a rievocare la storia della mia famiglia disse piano davvero sto diventando sentimentale ma guarda erri la mia vera famiglia è di ritorno l'aria si riempì all'improvviso del fruscio di mantelli tra le tombe dietro il tasso in ogni angolo in ombra si materializzavano maghi erano tutti incappucciati e mascherati e uno a uno si fecero avanti lenti cauti come se non credessero ai loro occhi voldemort rimase in silenzio in attesa poi uno dei mangiamorte cadde in ginocchio arrancò verso voldemort e baciò l'orlo della sua veste nera padrone padrone mormorò i mangiamorte alle sue spalle fecero lo stesso ciascuno si avvicinò a voldemort avanzando sulle ginocchia e gli baciò la veste prima di alzarsi e ritrarsi in un cerchio silenzioso con al centro la tomba di tom riddle erri voldemort e il fagotto singhiozzante e fremente che era coda liscia però lasciarono dei vuoti nel cerchio come in attesa di altre persone voldemort invece aveva l'aria di non aspettarsi l'arrivo di altri guardò i volti incappucciati e anche se non c'era vento un fruscio parve diffondersi nel cerchio scosso da un tremito improvviso benvenuti mangiamorte disse voldemort piano tredici anni tredici anni dall'ultima volta che ci siamo incontrati eppure rispondete alla mia chiamata come se fosse ieri siamo ancora uniti sotto il marchio nero allora vero riprese il suo cipiglio orribile e annusò allargando le narici a fessura sento l'odore della colpa disse c'è un puzzo di colpa nell'aria un secondo brivido percorse il cerchio come se ognuno desiderasse arretrare ma non osasse farlo vi vedo tutti sani e immutati con i vostri poteri intatti che apparizione tempestiva la vostra e mi chiedo perché questa banda di maghi non è mai venuta in aiuto del suo padrone al quale aveva giurato eterna lealtà nessuno parlò nessuno si mosse tranne coda liscia che era a terra e continuava a singhiozzare sul braccio sanguinante e mi rispondo sussurrò voldemort che devono avermi creduto sconfitto hanno pensato che fossi perduto sono tornati nelle file dei miei nemici e si sono dichiarati innocenti e ignoranti e strecati e poi mi chiedo ma come hanno potuto credere che non sarei risorto loro che conoscevano le misure che ho preso tempo fa per proteggermi dalla morte dei mortali loro che avevano visto le prove dell'immensità del mio potere ai tempi in cui ero più grande di ogni altro mago vivente e mi rispondo forse hanno creduto che potesse esistere un potere ancora più grande tale da poter vincere perfino lord voldemort forse ora sono fedeli a un altro forse a quel paladino dei comuni mortali dei sangue marcio e dei babbani albus silente nell'udire il nome di silente i membri del cerchio si agitarono e alcuni borbottarono e scossero il capo voldemort li ignorò è una delusione per me mi confesso deluso uno degli uomini all'improvviso si gettò in avanti spezzando il cerchio tremando tutto si accasciò ai piedi di voldemort padrone strillò padrone perdonami perdona tutti noi voldemort scoppiò a ridere alzò la bacchetta crucio il mangiamorte a terra si contorse e urlò harry era certo che la sua voce avrebbe raggiunto le case nelle vicinanze fa che arrivi la polizia pensò disperato chiunque qualunque cosa voldemort levò la bacchetta il mangiamorte torturato rimase a terra boccheggiante alzati everi disse dolcemente voldemort alzati tu chiedi perdono io non perdono io non dimentico tredici lunghi anni voglio essere ripagato di tredici anni prima di perdonarvi codaliscia qui ha già pagato parte del suo debito vero codaliscia guardò in giù verso codaliscia che si inghiozzava tu sei tornato da me non per lealtà ma per paura dei tuoi vecchi amici ti meriti questo dolore codaliscia lo sai vero si padrone mugolò codaliscia per favore padrone per favore però mi hai aiutato a tornare nel mio corpo proseguì freddamente voldemort buono a nulla e fedi frago come sei mi hai aiutato e lord voldemort ricompensa chi lo aiuta voldemort levò di nuovo la bacchetta e la fece ruotare in aria una striscia di ciò che pareva argento fuso aleggiò lucente nella scia della bacchetta per un istante rimase informe si contorse e poi si addensò nella copia di una mano umana splendente come la luce della luna che discese e si innestò sul polso sanguinante di codaliscia i singhiozzi cessarano all'improvviso con il respiro aspro e irregolare codaliscia alzò la testa e fissò in credulo la mano d'argento ora invisibilmente saldata al braccio come fosse un guanto piegò le dita lucenti poi tremando raccolse un rametto dal suolo e lo ridusse in polvere mio signore sussurrò signore è bella grazie grazie avanzò goffamente sulle ginocchia e baciò l'orlo della vesta di voldemort che la tua fedeltà non abbia mai più a vacillare codaliscia disse voldemort no mio signore mai più mio signore codaliscia si alzò e prese posto nel cerchio fissando la sua potente mano nuova il volto ancora lucente di lacrime voldemort si avvicinò all'uomo alla destra di codaliscia lucius mio viscido amico mormorò fermandosi di fronte a lui mi dicono che non hai ripudiato le vecchie abitudini anche se davanti al mondo presenti un volto rispettabile sei ancora pronto a prendere il comando in una battuta di caccia al babbano suppongo eppure non hai mai cercato di trovarmi lucius le tue imprese alla coppa del mondo di quidditch sono state divertenti oserei dire ma le tue energie non sarebbero state meglio indirizzate nel trovare nel sostenere il tuo padrone mio signore sono stato costantemente allerta disse pronta la voce di lucius malfoi da sotto il cappuccio se vi fosse stato un segnale da parte vostra una qualche voce su dove vi trovavate sarei stato immediatamente al vostro fianco nulla mi avrebbe potuto impedire eppure sei fuggito davanti al mio marchio quando un mangiamorte fedele l'ha inviato in cielo la scorsa estate rispose moldemort con voce melliflua e malfoi tacque all'improvviso sì so tutto lucius mi hai deluso mi aspetto un servizio più leale in futuro ma certo mio signore ma certo siete generoso grazie moldemort avanzò e si fermò a scrutare il vuoto abbastanza grande da contenere due persone che separava malfoi dall'uomo successivo il estrange dovrebbero trovarsi qui disse piano voldemort ma sono sepolti vivi ad azkaban sono stati fedeli sono finiti ad azkaban piuttosto che rinnegarmi quando le porte di azkaban verranno spalancate il estrange riceveranno onori oltre l'immaginabile i dissennatori si uniranno a noi sono i nostri naturali alleati richiameremo i giganti messi al bando vedrò tornare a me i miei devoti servitori e un esercito di creature temute da tutti avanzò ancora oltrepassò in silenzio alcuni dei mangiamorte ma davanti ad altri si fermò e si rivolse loro meckner ora fai a pezzi bestie pericolose per il ministero della magia mi dice codaliscia presto avrai vittime migliori meckner lord voldemort te le offrirà grazie il padrone grazie mormorò meckner e qui voldemort si avvicinò alle sagome incappucciate più robuste abbiamo creb ti comporterai meglio questa volta vero creb e tu goil i due fecero un goffo inchino e borbottarono ottusamente sì padrone certo padrone lo stesso vale per te not continuò piano voldemort oltrepassando una figura curva all'ombra di goil mio signore io mi prostro davanti a voi sono il vostro più fedele basta così disse voldemort aveva raggiunto lo spazio vuoto più grande e si fermò a osservarlo con i vuoti occhi rossi come se potesse vedere delle persone lì ritte e qui abbiamo sei mangiamorte assenti tre morti per servirmi uno troppo vile per fare ritorno la pagherà uno che credo mi abbia lasciato per sempre verrà ucciso naturalmente e uno il mio servo più fedele che è già rientrato al mio servizio i mangiamorte si agitarono e rivide i loro occhi d'ardeggiare di lato per guardarsi a vicenda attraverso le maschere si trova a hogwarts quel servo fedele ed è stato grazie ai suoi sforzi che il nostro giovane amico è arrivato stasera sì proseguì voldemort con un ghigno che gli arricciava la bocca priva di labbra mentre gli occhi di tutti saettavano verso harry potter si è graziosamente unito a noi per la festa della mia rinascita ci si potrebbe perfino azzardare a definirlo il mio ospite d'onore silenzio poi il mangiamorte alla destra di codaliscia fece un passo in avanti e la voce di lucius malfoi risuonò da sotto la maschera padrone siamo avidi di sapere vi supplichiamo di dirci come siete riuscito a compiere questo questo miracolo come siete potuto tornare tra noi che gran bella storia è questa lucius disse voldemort e comincia e finisce con il mio giovane amico qui si avvicinò a passi indolenti a harry così che gli occhi di tutti i componenti del cerchio furono puntati su di loro il serpente continuò a strisciare intorno sapete naturalmente che questo ragazzo è stato definito la mia rovina disse dolcemente voldemort gli occhi rossi fissi su harry la cicatrice prese a fargli così male che quasi urlò dal dolore sapete tutti che la notte in cui persi i miei poteri e il mio corpo avevo cercato di ucciderlo sua madre morì nel tentativo di salvarlo e senza volerlo gli fornì una protezione che lo ammetto non avevo previsto non riuscì a toccare il bambino voldemort alzò una delle lunghe dita bianche e la avvicinò alla guancia di harry sua madre lasciò su di lui le tracce del suo sacrificio è magia antica avrei dovuto ricordarmela fui uno sciocco a non pensarci ma non importa ora posso toccarlo harry avvertì la punta fredda del lungo dito bianco che lo toccava e credette che la testa gli esplodesse dal dolore voldemort scoppiò in una risatina dolce al suo orecchio poi tolse il dito e continuò a parlare rivolto ai mangiamorte avevo fatto male i miei conti amici miei lo ammetto il mio maleficio fu deviato dall'insensato sacrificio di quella donna e mi rimbalzò contro fui strappato via dal mio corpo diventai meno che spirito meno del più miserabile fantasma eppure ero vivo che cosa fossi nemmeno io lo so io che mi sono spinto più in là di ogni altro sul sentiero che conduce all'immortalità conoscete il mio obiettivo dominare la morte e allora fui messo alla prova e a quanto pare uno o più dei miei esperimenti funzionarono perché non ero morto anche se il maleficio avrebbe dovuto uccidermi comunque ero inerme come la più debole creatura e non potevo fare nulla perché non avevo corpo e qualunque incantesimo in grado di aiutarmi richiedeva l'uso di una bacchetta ricordo solo di aver costretto infinitamente me stesso istante dopo istante senza mai dormire a esistere presi dimora in un luogo remoto in una foresta e aspettai certo che uno dei miei fedeli mangiamorte avrebbe cercato di ritrovarmi uno di loro sarebbe venuto a compiere la magia a me impossibile a restituirmi un corpo ma attesi in vano il brivido percorse di nuovo il circolo di mangiamorte in ascolto voldemort lasciò che il silenzio incombesse spaventoso su di loro prima di riprendere mi era rimasto solo un potere potevo impossessarmi dei corpi altrui ma non osavo andare dove altri umani erano numerosi perché sapevo che gli auror erano ancora all'estero impegnati a cercarmi a volte abitavo gli animali i serpenti naturalmente erano i miei preferiti ma non stavo molto meglio dentro di loro che in forma di puro spirito perché i loro corpi erano poco adatti a compiere magie e quando li possedevo ciò abbreviava loro la vita nessuno è durato a lungo poi quattro anni fa i mezzi per il mio ritorno parvero assicurati un mago giovane sciocco ingenuo attraversò la mia strada vagando nella foresta che avevo eletto a mia abitazione parve proprio l'opportunità che sognavo perché lui insegnava alla scuola di silente fu facile piegarlo al mio volere mi riportò in questo paese e dopo un po presi possesso del suo corpo per sorvegliarlo da vicino mentre eseguiva i miei ordini ma il mio piano fallì non riuscì a rubare la pietra filosofale non sarei riuscito ad assicurarmi l'immortalità fui ostacolato ostacolato ancora una volta da harry potter di nuovo silenzio nulla si muoveva nemmeno le foglie del tasso i mangiamorte erano immobili gli occhi lucenti nelle maschere puntati su voldemort e su harry il servo morì quando lasciai il suo corpo e mi ritrovai debole come non mai riprese voldemort tornai al mio mascondiglio remoto e non fingerò con voi di non aver temuto allora di non riuscire mai a riguadagnare i miei poteri sì quella fu forse la mia ora più cupa non potevo sperare che mi venisse mandato un altro mago da possedere e avevo smesso di sperare ormai che uno dei miei mangiamorte si preoccupasse di ciò che era stato di me un paio dei maghi mascherati in cerchio si mossero a disagio ma voldemort non vi fece caso e poi nemmeno un anno fa quando avevo ormai abbandonato ogni speranza finalmente è successo un servo è tornato a me codaliscia qui che aveva finto di essere morto per sfuggire alla giustizia fu tratto dal suo nascondiglio da coloro che un tempo aveva considerato amici e decise di tornare dal suo padrone mi cercò nel paese in cui da tempo si diceva che mi celassi aiutato naturalmente dai topi che incontrò sul suo cammino codaliscia una strana affinità con i topi vero codaliscia i suoi sudici piccoli amici gli dissero che c'era un posto nel cuore di una foresta albanese che evitavano con cura dove piccoli animali come loro avevano trovato la morte a opera di un'ombra oscura che si impossessava di loro ma il suo viaggio per tornare da me non fu facile velo codaliscia perché una notte affamato proprio sul limitare della foresta in cui aveva sperato di trovarmi stupidamente si fermò in una locanda per mangiare e chi incontrò se non una certa perta jorkins una strega del ministero della magia ora vedete bene come la sorte favorisce lord voldemort quella sarebbe potuta essere la fine di codaliscia e della mia ultima speranza di rinascere ma codaliscia dando prova di una presenza di spirito che da lui non mi sarei mai aspettato convince bertha jorkins ad accompagnarlo in una passeggiata notturna la assali la portò da me e bertha jorkins che avrebbe potuto rovinare tutto si rivelò invece un dono superiore ai miei più folli sogni perché certo fu necessario esercitare un po di persuasione divenne un'autentica miniera di informazioni mi disse che il torneo tre maghi si sarebbe tenuto a hogwarts quest'anno mi disse che sapeva di un mangiamorte fedele che avrebbe avuto una gran voglia di aiutarmi se solo fossi riuscito a mettermi in contatto con lui disse molte cose ma gli strumenti che usai per spezzare l'incantesimo di memoria che le era stato imposto erano potenti e quando le ebbi strappato tutte le informazioni utili la sua mente e il suo corpo erano entrambi irreparabilmente rovinati ormai era servita al suo scopo non potevo possederla me ne liberai Voldemort sorrise in quel suo modo orribile gli occhi rossi vacui e implacabili il corpo di codaliscia naturalmente era poco adatto a essere posseduto poiché tutti lo credevano morto e avrebbe attirato troppa attenzione se fosse stato visto comunque era il servo robusto di cui avevo bisogno e benché come mago sia scarso riuscì a eseguire le istruzioni che gli diedi che mi restituirono un corpo rozzo e debole un corpo che potessi abitare in attesa degli ingredienti essenziali a una vera rinascita uno due incantesimi di mia creazione un piccolo aiuto dalla mia cara nagini gli occhi rossi di Voldemort si soffermarono sul serpente che continuava a strisciare in cerchio una pozione ottenuta bollendo sangue di unicorno e il veleno di serpente fornito da nagini ben presto fui restituito a una forma quasi umana e fui abbastanza in forze da poter viaggiare non c'era più alcuna speranza di rubare la pietra filosofale perché sapevo che silente avrebbe provveduto a farla distruggere ma anelavo ad abbracciare di nuovo la vita mortale prima di cercare quella immortale moderai le mie ambizioni avrei cercato di ottenere il mio vecchio corpo e la mia vecchia forza sapevo che per ottenere ciò è un vecchio ritrovato della magia oscura la pozione che mi ha fatto tornare in vita stanotte avrei avuto bisogno di tre potenti ingredienti beh uno era già a portata di mano vero codaliscia carne donata da un servo l'osso di mio padre naturalmente voleva dire che saremmo dovuti venire qui dove fu sepolto ma il sangue di un nemico codaliscia voleva che usassi un mago qualunque vero codaliscia un mago qualunque che mi odiasse e sono ancora in tanti a odiarmi ma io sapevo chi dovevo usare se volevo risorgere più potente di quando ero caduto volevo il sangue di colui che mi aveva spogliato del potere tredici anni prima perché allora anche ciò che restava della protezione fornita gli da sua madre sarebbe scorso nelle mie vene ma come arrivare a Harry Potter perché è stato protetto meglio di quanto credo sappia lui stesso protetto in modi architettati tempo fa da Silente quando toccò a lui provvedere al futuro del ragazzo Silente invocò un'antica magia per assicurare la protezione del ragazzo finché è affidato ai suoi parenti nemmeno io posso toccarlo quando è là poi naturalmente c'è stata la coppa del mondo di Quidditch ho pensato che laggiù la sua protezione sarebbe potuta essere più labile lontano dai parenti e da Silente ma non ero ancora abbastanza forte da poter cercare di rapirlo nel bel mezzo di un'orda di maghi del ministero e poi il ragazzo sarebbe tornato a Hogwarts dove è sotto il naso di quello sciocco babbanofilo da mane a sera allora come fare per catturarlo beh ma usando le informazioni di Berta Jorkins naturalmente usando il mio fedele mangiamorte distanza a Hogwarts per essere certo che il nome del ragazzo venisse inserito nel calice di fuoco usando il mio mangiamorte per assicurarmi che il ragazzo vincesse il torneo che toccasse la coppa tre maghi per primo la coppa che il mio mangiamorte aveva trasformato in una passaporta che lo avrebbe portato qui lontano dall'aiuto e dalla protezione di Silente tra le mie braccia aperte ed eccolo qui il ragazzo che tutti voi avete creduto fosse stato la mia fine Voldemort avanzò lentamente e si voltò a guardare Harry levò la bacchetta crucio era un dolore al di là di quanto Harry avesse mai provato perfino le ossa erano in fiamme la testa stava per spaccarsi lungo la cicatrice lo sentiva gli occhi gli roteavano folli nella testa voleva che finisse che si spegnesse voleva morire e poi tutto passò si ritrovò abbandonato contro le funi che lo regavano alla pietra tombale del padre di Voldemort a guardare quegli occhi rosso vivo attraverso una specie di nebbiolina la notte echeggiava delle risate dei mangiamorte vedete credo che sciocchezza è stata credere che questo ragazzo sarebbe mai potuto essere più forte di me disse Voldemort ma io voglio che non ci siano dubbi nella mente di nessuno Harry Potter mi è sfuggito per una circostanza fortunata e io ora dimostrerò il mio potere uccidendolo qui e ora davanti a tutti voi ora che non c'è nessun silente ad aiutarlo e nessuna madre a morire per lui gli darò un'opportunità potrà battersi e voi non avrete più dubbi su chi di noi è il più forte ancora un po' di pazienza naggini sussurrò e il serpente si allontanò strisciando nell'erba verso il punto in cui i mangiamorte stavano in piedi in attesa ora slegalo codaliscia e ridagli la bacchetta prior incantazio codaliscia si avvicinò a Harry che tentò affannosamente di rimettersi in piedi di reggersi prima che le corde fossero slegate codaliscia alzò la nuova mano d'argento sfilò il tampone di tessuto che imbavagliava Harry e poi con un solo colpo tagliò le funi che lo fissavano alla pietra tombale ci fu un rapido istante forse in cui Harry soppesò l'idea di darsi alla fuga ma la gamba ferita tremò sotto il suo peso mentre si alzava sulla tomba ricoperta di erbacce e i mangiamorte serravano i ranghi formando un cerchio più stretto attorno a lui e voldemort colmando gli spazi lasciati dai compagni assenti codaliscia uscì dal cerchio si avvicinò al corpo di cedric e fece ritorno con la bacchetta di Harry che gli ficcò rudemente in mano senza guardarlo poi riprese il suo posto nel cerchio di mangiamorte in attesa ti è stato insegnato come ci si sfida a duello Harry potter chiese voldemort dolcemente gli occhi rossi scintillanti nell'oscurità a quelle parole Harry ricordò come se appartenesse a una vita precedente il club dei duellanti a hogwarts che aveva frequentato per poco tempo due anni prima tutto ciò che aveva imparato era l'incantesimo di disarmo ex pelliarmus e a cosa sarebbe servito anche se vi fosse riuscito privare voldemort della sua bacchetta quando era circondato da mangiamorte in una proporzione di almeno 30 a 1 non aveva mai imparato nulla che potesse rivelargli si utile in quella circostanza sapeva di trovarsi di fronte alla cosa contro la quale moody lo aveva sempre messo in guardia l'inesorabile maledizione avada che davra e voldemort aveva ragione sua madre questa volta non era lì a morire per lui era decisamente inerme ora ci inchiniamo Harry disse voldemort curvandosi appena senza distogliere il viso di serpente da Harry andiamo bisogna osservare le regole nel dettaglio silente sarebbe lieto che facessi sfoggio delle tue buone maniere inchinati alla morte Harry i mangiamorte ridevano di nuovo la bocca senza labbra di voldemort era piegata in un sorriso Harry non si inchinò non aveva intenzione di permettere a voldemort di giocare con lui prima di ucciderlo non gli avrebbe dato quella soddisfazione ho detto inchinati disse voldemort levando la bacchetta Harry sentì la spina dorsale piegarsi come se un enorme mano invisibile lo spingesse inesorabilmente in avanti e i mangiamorte risero più forte che mai molto bene disse voldemort dolcemente e mentre alzava la bacchetta si sollevò anche la pressione che schiacciava Harry e ora affrontami da uomo a uomo diritto e fiero così come morì tuo padre e ora duelliamo voldemort alzò la bacchetta e prima che Harry potesse fare qualcosa per difendersi prima ancora che potesse muoversi fu di nuovo colpito dalla maledizione cruciatus il dolore fu così intenso così ardente che non seppe più dov'era coltelli incandescenti gli trafiggevano ogni centimetro di pelle era certo che la testa gli sarebbe esplosa urlò più forte che mai e poi cessò Harry rotolò a terra e si rimise in piedi a fatica era scosso da un tremito incontrollabile come codaliscia quando si era tagliato la mano barcollò di lato contro il muro di mangiamorte che assistevano alla scena ed essi lo sospinsero indietro verso voldemort ancora una piccola pausa disse voldemort le narici a fessura dilatate dall'eccitazione una piccola pausa ti ha fatto male vero Harry non vuoi che lo faccia ancora vero Harry non rispose sarebbe morto come cedric glielo dicevano quegli spietati occhi rossi sarebbe morto e non poteva farci nulla ma non aveva intenzione di assecondare quel mostro non avrebbe obbedito a voldemort non lo avrebbe supplicato ti ho chiesto vuoi che lo rifaccia ripete voldemort con voce dolce rispondimi imperio Harry provò per la terza volta nella vita la sensazione che la sua mente venisse svuotata di qualunque pensiero ah che immenso piacere non pensare era come galleggiare come sognare basta che tu dica no di di no rispondi solo di no no disse una voce più forte in fondo alla sua mente non risponderò di di no non cederò non lo dirò di di no mi rifiuto e queste parole esplosero sulle labbra di Harry e che giarono nel cimitero e la dimensione di sogno si dissolse all'improvviso come se gli fosse stata gettata addosso dell'acqua fredda rapidi fecero ritorno i dolori che la maledizione cruciatus gli aveva lasciato in tutto il corpo rapida fece ritorno la coscienza di dov'era e che cosa stava affrontando ti rifiuti chiese Voldemort piano e questa volta i mangia morte non risero ti rifiuti di dire di no Harry l'obbedienza è una virtù che devo insegnarti prima che tu muoia forse un'altra piccola dose di dolore Voldemort levò la bacchetta ma questa volta Harry era pronto con i riflessi sviluppati dagli allenamenti di Quidditch si gettò a terra di lato rotolò dietro la lapide di marmo del padre di Voldemort e la udì spezzarsi mentre il maleficio lo mancava non stiamo giocando a nascondino Harry disse la voce gelida di Voldemort avvicinandosi mentre i mangia morte sghignazzavano non puoi nasconderti da me vorrebbe forse dire che sei stanco del nostro duello vorrebbe forse dire che preferisci che vi ponga fine ora Harry vieni fuori Harry vieni fuori a giocare allora farò in fretta forse sarà perfino indolore non saprei non sono mai morto Harry si rannicchiò dietro la pietra tombale e seppe che era la fine non c'era alcuna speranza alcun aiuto e mentre sentiva Voldemort avvicinarsi seppe una sola cosa ed era al di là della paura o della ragionevolezza non sarebbe morto rannicchiato lì come un bambino che gioca a nascondino non sarebbe morto prostrandosi ai piedi di Voldemort sarebbe morto in piedi come suo padre e sarebbe morto cercando di difendersi anche se nessuna difesa era possibile prima che il viso serpentino di Voldemort spuntasse da dietro la lapide Harry si rialzò strinse forte la bacchetta la tese davanti a sé e si scagliò dall'altra parte della lapide affrontando Voldemort Voldemort era pronto mentre Harry urlava expelliarmus gridò avada che davrà un fiotto di luce verde sgorgò dalla bacchetta di Voldemort mentre un fiotto di luce rossa esplodeva da quella di Harry si incontrarono a mezz'aria e all'improvviso la bacchetta di Harry prese a vibrare come percorsa da una corrente elettrica la mano gli si serrò attorno nemmeno volendo l'avrebbe potuta lasciare e un sottile raggio di luce ora univa le due bacchette né rosso né verde ma di un luminoso oro intenso e Harry seguendo il raggio con sguardo attonito vide che anche le lunghe dita bianche di Voldemort stringevano una bacchetta che tremava e vibrava e poi nulla avrebbe potuto preparare Harry per ciò che vide si sentì alzare da terra lui e Voldemort furono entrambi sollevati per aria le bacchette ancora unite da quel filo di luce d'oro scintillante volarono via dalla lapide del padre di Voldemort e si posarono su un lembo di terreno spianato privo di tombe i mangiamorte urlavano chiedevano ordine a Voldemort si stringevano ricostituivano il cerchio attorno a Harry e Voldemort e il serpente strisciava i loro piedi alcuni estrassero le bacchette il filo d'oro che univa Harry e Voldemort si divise le bacchette rimase lo connesse mentre un centinaio di raggi disegnarono archi sopra di loro incrociandosi tutto attorno finché i due non si trovarono rinchiusi in una rete d'oro a forma di cupola una gabbia di luce oltre la quale i mangiamorte si aggiravano come sciacalli le loro urla stranamente soffocate non intervenite urlò Voldemort ai mangiamorte e Harry vide i suoi occhi rossi dilatarsi dallo stupore per quanto stava accadendo lo vide lottare per spezzare il filo di luce che univa ancora la sua bacchetta a quella di Harry Harry strinse più forte la sua con tutte e due le mani e il filo d'oro rimase intatto non intervenite se non ve l'ordino e poi una musica ultraterrena e bellissima per vase l'aria veniva da ogni filo della rete in tessuta di luce che vibrava attorno a Harry e Voldemort era una musica che Harry riconobbe anche se l'aveva udita solo una volta prima d'allora il canto della fenice per Harry fu la musica della speranza la cosa più bella e benvenuta che avesse mai udito gli parve che la canzone fosse dentro di lui invece che attorno a lui era la musica che collegava a silente ed era quasi come se un amico gli stesse parlando all'orecchio non interrompere il contatto lo so disse Harry alla musica lo so che non devo ma l'aveva appena pensato che la cosa divenne molto più difficile a farsi la sua bacchetta prese a vibrare più intensamente che mai e anche il raggio tra lui e Voldemort cambiò era come se grosse perle di luce scivolassero su e giù per il filo che univa le bacchette Harry sentì la sua sussultare nella mano mentre le perle di luce cominciavano a scorrere lente e decise dalla sua parte ora il raggio di luce si muoveva verso di lui si allontanava da Voldemort e sentì la bacchetta vibrare rabbiosa mentre la perla di luce si avvicinava alla punta della bacchetta di Harry il legno tra le sue dita divenne così caldo che temette di vederlo prendere fuoco più la perla si avvicinava più forte vibrava la bacchetta era certo che non sarebbe sopravvissuta al contatto aveva l'impressione che stesse per andare in pezzi tra le sue dita concentrò ogni minima particella della mente sullo sforzo di ricacciare la perla indietro verso Voldemort le orecchie invase dal canto della fenice gli occhi ardenti fissi e lentamente molto lentamente le perle si arrestarono tremando e poi altrettanto lentamente presero a muoversi nella direzione opposta ora era la bacchetta di Voldemort a vibrare fortissimo era Voldemort ad apparire stupefatto e quasi impaurito una delle perle di luce vibrò a pochi centimetri dalla punta della bacchetta di Voldemort Harry non capiva il perché non sapeva a cosa potesse servire ma si concentrò più che mai sull'idea di costringere quella perla di luce ad arretrare fino alla bacchetta di Voldemort e lentamente molto lentamente si mosse lungo il filo d'oro tremò per un attimo e poi entrò in contatto all'istante la bacchetta di Voldemort emise urla di dolore poi mentre gli occhi di Voldemort si dilatavano per lo stupore una densa mano di fumo uscì volando dalla punta e scomparve il fantasma della mano che aveva creato per Codaliscia altre urla di dolore e poi dalla punta della bacchetta prese a sbocciare qualcosa di molto più grosso un enorme qualcosa grigiastro che sembrava fatto del più denso e fitto fumo era una testa ora un petto delle braccia il torso di Cedric Diggory Harry rischiò di lasciar cadere la bacchetta per lo spavento ma l'istinto gli disse di tenerla ben stretta in modo da non spezzare il filo di luce anche se il denso spettro grigio di Cedric Diggory era uno spettro sembrava così concreto affiorava completamente dall'estremità della bacchetta di Voldemort come se stesse uscendo a fatica da un tunnel molto stretto e quell'ombra di Cedric si alzò e guardò il filo di luce d'oro nella sua lunghezza e parlò resisti Harry disse la sua voce era remota e rimbombante Harry guardò Voldemort i suoi occhi rossi dilatati erano ancora colmi di sorpresa non era più preparato di Harry a ciò che stava accadendo e poi udì molto fiocche le urla terrorizzate dei mangiamorte che si aggiravano attorno al perimetro della cupola d'oro altre urla di dolore sgorgarono dalla bacchetta e poi dalla punta affiorò qualcos'altro l'ombra densa di seconda testa seguita subito da braccia e busto un vecchio che Harry aveva visto una volta in sogno si spingeva fuori dall'estremità della bacchetta come aveva fatto Cedric e il suo fantasma o la sua ombra o quello che era cadde accanto a quello di Cedric e scrutò Harry e Voldemort e la rete d'oro e le chette unite vagamente sorpreso appoggiandosi al bastone da passeggio allora era davvero un mago disse il vecchio gli occhi su Voldemort mi ha ucciso eh sì stendilo ragazzo ma già un'altra testa affiorava e questa testa grigia come una statua di fumo apparteneva a una donna Harry con le mani che tremavano mentre cercava di tenere ferma la bacchetta vide la sagoma cadere a terra e rialzarsi come le altre guardandosi attorno l'ombra di Bertha Jorkins osservò la battaglia a occhi sgranati non mollare adesso gridò e la sua voce che giò come quella di Cedric come da molto lontano non lasciare che ti prenda Harry non mollare lei e le altre due sagome d'ombra presero a misurare a grandi passi le pareti interne della rete d'oro mentre i mangiamorte aleggiavano all'esterno e le vittime di Voldemort sussurravano girando attorno ai duellanti sussurravano parole di incoraggiamento a Harry e similavano parole che Harry non riusciva a udire contro Voldemort ed ecco che un'altra testa spuntava dalla punta della bacchetta di Voldemort e Harry nel vederla seppe di chi si trattava lo seppe come se non avesse atteso altro fin dal momento in cui Cedric era apparso dalla bacchetta lo seppe perché la donna che comparve era colei alla quale aveva pensato più spesso quella notte l'ombra di fumo di una giovane donna dai capelli lunghi cadde al suolo come Bertha poco prima si rialzò e lo guardò e Harry con le braccia che tremavano follemente guardò a sua volta il volto del fantasma di sua madre tuo padre sta arrivando disse piano lo spettro vuole vederti andrà tutto bene resisti e lui venne prima la testa poi il corpo un uomo alto con i capelli spettinati come quelli di Harry la sagoma di fumo ed ombra di James Potter sbocciò dalla punta della bacchetta di Voldemort cadde a terra e si rialzò come aveva fatto sua moglie si avvicinò a Harry lo guardò e parlò con la stessa voce remota e rimbombante degli altri però sottovoce così che Voldemort il volto livido di terrore mentre le sue vittime si aggiravano attorno a lui non potesse sentire quando il contatto si interromperà rimarremo qui solo per pochi istanti ma ti daremo il tempo devi correre alla passaporta ti riporterà a Hogwarts hai capito Harry sì disse Harry senza fiato lottando per mantenere la presa sulla bacchetta che gli scivolava tra le dita Harry sussurrò la sagoma di Cedric riporterà indietro il mio corpo vero riporta il mio corpo ai miei genitori lo farò disse Harry il volto contratto nello sforzo di trattenere la bacchetta fallo ora sussurrò la voce di suo padre preparati a correre ora ora urlò Harry non credeva di poter resistere un istante di più puntò la bacchetta in alto con un potente strattone e il filo d'oro si spezzò la gabbia di luce svanì il canto della fenice si spense ma le sagome d'ombra delle vittime di Voldemort non scomparvero accerchiarono Voldemort nascondendo Harry alla sua vista e Harry corse come non aveva mai corso in tutta la vita urtando due mangiamorte esterrefatti sfrecciò zigzagando tra le lapidi avvertì le loro maledizioni che lo inseguivano li sentì colpire le pietre tombali scansava incantesimi e lapidi precipitandosi verso il corpo di Cedric senza più avvertire il dolore alla gamba tutto il suo essere concentrato su ciò che doveva fare schiantatelo udì Voldemort gridare a tre metri da Cedric Harry si tuffò dietro un angelo di marmo per evitare gli spruzzi di luce rossa e vide la punta dell'ala andare in pezzi colpita dall'incantesimo tenendo più stretta la bacchetta sfrecciò fuori da dietro l'angelo impedimenta urlò puntando furiosamente la bacchetta indietro contro i mangiamorte che gli stavano alle calcagna da uno strillo soffocato credette di aver fermato almeno uno di loro ma non ci fu il tempo di voltarsi a guardare balzò oltre la coppa e si slanciò in avanti mentre sentiva altri dardi saettare alle sue spalle altri fiotti di luce gli volarono sopra la testa mentre cadeva tendendo la mano per afferrare il braccio di Cedric state indietro lo ucciderò io è mio strillò Voldemort la mano di Harry si chiuse sul polso di Cedric solo una pietra tombale lo separava da Voldemort ma Cedric era troppo pesante da trasportare e la coppa era irraggiungibile gli occhi rossi di Voldemort dardeggiarono nell'oscurità Harry vide la sua bocca arricciarsi in un sorriso lo vide levare la bacchetta accio gridò puntando la sua verso la coppa tre maghi il trofeo si alzò in volo e planò verso di lui Harry lo afferrò per uno dei manici udì l'urlo di rabbia di Voldemort nello stesso istante in cui avvertì lo strappo dietro l'ombelico che significava che la passaporta era in funzione ed ecco che lo trascinava via in un vortice di vento e colori e Cedric era con lui stavano tornando indietro veritaserum Harry si sentì scagliare a terra aveva il viso schiacciato nell'erba il suo odore gli riempì le narici aveva chiuso gli occhi mentre la passaporta lo trasportava e li tenne chiusi non si mosse sembrava che tutto il fiato gli fosse stato sottratto a forza la testa gli girava così forte che il terreno sotto di lui gli parve dondolare come il ponte di una nave per cercare di restare fermo si aggrappò più forte alle due cose che teneva ancora strette il liscio freddo manico della coppa tre maghi e il corpo di Cedric sentiva che sarebbe scivolato via nell'oscurità che si addensava sulla soglia della sua mente se solo avesse mollato la presa dell'uno o dell'altro lo spavento e la lo trattennero a terra a respirare l'odore dell'erba in attesa in attesa che qualcuno facesse qualcosa che succedesse qualcosa e intanto la cicatrice era un dolore sordo sulla fronte una cascata di rumori lo assordò e lo confuse c'erano voci dappertutto uno scalpiccio di passi urla rimase rovera il viso contratto per il frastuono come se si trattasse di un incubo che sarebbe passato poi due mani lo afferrarono bruscamente e lo rivoltarono erri erri aprì gli occhi si ritrovò a guardare il cielo stellato con albus silente chino su di lui le ombre scure della folla premevano attorno a loro avvicinandosi a spintoni erri sentì il terreno vibrare sotto la testa scosso dai loro passi era tornato al limitare del labirinto vide le tribune innalzarsi sopra di lui su di esse le sagome di gente che si muoveva le stelle in alto erri lasciò andare la coppa ma strinse ancora più forte a sé il braccio di cedric alzò la mano libera e afferrò silente per un polso mentre il volto del mago fluttuava un attimo nitido l'attimo dopo sfocato è tornato sussurrò è tornato voldemort che cosa succede che cosa è successo il viso di cornelius fagge apparve sopra erri alla rovescia era pallido sconvolto cielo digori sussurrò silente ma è morto le parole furono ripetute le sagome in ombra che premevano attorno le mormorarono senza fiato ai loro vicini e poi altri le urrarono le strillarono nella notte è morto è morto cedric digori morto erri lascialo andare sentì dire la voce di fagge e avvertì dita che cercavano di separarlo dal corpo svuotato di cedric ma lui non voleva lasciarlo poi il volto di silente ancora confuso e nebuloso si avvicinò erri ora non puoi aiutarlo è finita lascialo voleva che lo portassi indietro sussurrò erri gli parve importante spiegarlo voleva che lo riportassi ai suoi genitori va bene erri adesso però lascialo silente si curvò e con una forza straordinaria per un uomo così vecchio e magro sollevò erri da terra e lo rimise in piedi erri barcollò la testa gli pulsava la gamba ferita non reggeva più il suo peso le persone affollate attorno a lui si facevano avanti sgomitando lottavano per avvicinarsi incombevano minacciose su di lui cos'è successo che cosa che non va digori è morto deve andare in infermeria disse faggia ad alta voce sta male è ferito silente i genitori di digori sono qui sono in tribuna ci penso io ad accompagnare erri silente lo porto io no è meglio che silente amos digori sta correndo da questa parte ormai è vicino non credi che dovresti dirgli prima che veda erri rimani qui strilli e singhiozzi isterici di ragazze la scena parve guizzare stranamente davanti ai suoi occhi va tutto bene ragazzo ti leggo io andiamo infermeria silente ha detto di restare disse erri con voce incerta la ferita gli pulsava tanto che credette di essere sul punto di vomitare la sua vista era sempre più annebbiata devi stenderti andiamo adesso qualcuno più grosso e forte di erri un polo spingeva un polo trasportava di peso attraverso la folla terrorizzata erri la udì trattenere il fiato urrare e gridare mentre l'uomo che lo sosteneva si faceva strada e lo riportava al castello su per il prato oltre il lago e la nave di durmstrang erri non udiva altro che il respiro affannoso dell'uomo che lo aiutava a camminare che cosa è successo erri chiese infine l'uomo trascinando erri su per i gradini di pietra clank 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 era malocchio moody la coppa era una passaporta disse erri mentre attraversavano la sala d'ingresso ha portato me e cedric in un cimitero e c'era voldemort voldemort clank 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 su per gli scalini di marmo c'era il signore oscuro e poi che cosa è successo ha ucciso cedric hanno ucciso cedric e poi clank 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 lungo il corridoio ha fatto una pozione si è ripreso il suo corpo il signore oscuro si è ripreso il suo corpo è tornato e sono venuti i mangiamorte e poi abbiamo duellato hai duellato con il signore oscuro gli sono sfuggito la mia bacchetta ha fatto una cosa strana ho visto mia madre e mio padre sono usciti dalla sua bacchetta entra qui erri vieni qui e si additi ora ti sentirai meglio bevi questo erri udì una chiave grattare in una serratura e sentì che gli mettevano tra le mani una tazza bevi ti sentirai meglio andiamo ora erri devo sapere esattamente che cosa è successo moody aiutò erri a bere erri tossì mentre un sapore pungente gli bruciava la gola l'ufficio di moody fu meno sfocato e anche moody era pallido come faggio ed entrambi i suoi occhi erano puntati immobili sul volto di erri voldemort è tornato erri sei certo che sia tornato come ha fatto ha preso qualcosa dalla tomba di suo padre e da coda liscia e da me rispose erri la testa gli si snebbiava la cicatrice non faceva poi così male ora vedeva distintamente il volto di moody anche se l'ufficio era buio udì ancora gemiti e grida dal lontano campo di quiddici che cosa ti ha preso il signore oscuro gli domandò moody sangue rispose erri alzando il braccio la manica era strappata dove il pugnale di coda liscia l'aveva lacerata moody si lasciò sfuggire un lungo basso fischio e i mangiamorte sono tornati sì disse erri tantissimi come li ha trattati chiese moody piano li ha perdonati ma erri all'improvviso ricordò avrebbe dovuto dirlo assilente avrebbe dovuto dirlo subito c'è un mangiamorte a hogwarts c'è un mangiamorte qui è stato lui a mettere il mio nome nel calice di fuoco è stato lui a fare in modo che arrivassi fino alla fine erri cercò di alzarsi ma moody lo risospinse indietro io so chi è il mangiamorte disse piano carcaroff esclamò erri agitato dov'è l'avete preso è prigioniero carcaroff disse moody con una strana risata carcaroff è fuggito stasera quando ha sentito il marchio nero bruciargli il braccio ha tradito troppi fedeli seguaci del signore oscuro per avere voglia di incontrarli ma dubito che andrà lontano il signore oscuro ha i suoi metodi per scovare i suoi nemici carcaroff è sparito è scappato ma allora non è stato lui a mettere il mio nome nel calice no rispose moody lentamente no non è stato lui sono stato io erri lo sentì ma non gli credette no non è vero disse non è stato lei non può essere stato ti assicuro di sì disse moody e l'occhio magico roteò e si fermò sulla porta e erri capì che stava controllando che fuori non ci fosse nessuno nello stesso tempo moody estrasse la bacchetta e la puntò contro erri allora li ha perdonati disse i mangiamorte che sono rimasti in libertà quelli che hanno sfuggito azkaban cosa disse erri stava guardando la bacchetta di moody puntata verso di lui era un brutto scherzo doveva essere così ti ho chiesto insistette moody a voce bassa se ha perdonato la feccia che non è mai andata a cercarlo quei codardi traditori che non sono nemmeno riusciti ad affrontare azkaban per lui l'infedele indegna spazzatura che ha avuto il coraggio di saltellare mascherata alla coppa del mondo di quidditch ma che se l'è data a gambe alla vista del marchio nero quando l'ho sparato in cielo lei ha sparato ma che cosa sta dicendo te l'ho detto erri te l'ho detto se c'è una cosa che odio più di ogni altra è un mangiamorte rimasto in libertà hanno voltato le spalle al mio padrone quando aveva più bisogno di loro mi aspettavo che li punisse mi aspettavo che li torturasse dimmi che ha fatto loro del male erri il volto di moody a un tratto si illuminò di un sorriso folle dimmi che ha detto loro che io io solo sono rimasto fedele pronto a rischiare tutto per consegnargli la cosa che desiderava più di ogni altra te lei non non può essere lei chi ha messo il tuo nome nel calice di fuoco sotto il nome di una scuola diversa io chi ha terrorizzato qualunque persona che pensavo potesse farti del male o impedirti di vincere il torneo io chi ha convinto agrid a mostrarti i draghi io chi ti ha aiutato a capire qual era il solo modo per superare il drago io l'occhio magico di moody si era allontanato dalla porta era puntato su erri la bocca obliqua si schiuse in un sorriso più turpe che mai non è stato facile erri guidarti attraverso queste prove senza suscitare sospetti ho dovuto ricorrere a ogni grammo di astuzia in mio possesso in modo che il mio intervento non fosse riconoscibile nella tua vittoria silente si sarebbe alquanto insospettito se tu te la fossi cavata troppo facilmente purché tu entrassi in quel labirinto possibilmente con un vantaggio dignitoso allora sapevo che avrei avuto una possibilità di sbarazzarmi degli altri campioni e spianarti la strada ma ho dovuto anche combattere contro la tua stupidità la seconda prova è stato allora che ho più temuto che non ce la facessimo ti tenevo d'occhio potter sapevo che non avevi risolto l'indovinello dell'uovo così ho dovuto darti un altro suggerimento non è vero disse erri con voce roca è stato cedric a darmi la chiave chi ha detto a cedric di aprirlo sott'acqua io contavo sul fatto che ti avrebbe passato l'informazione le persone oneste sono così facili da manovrare potter però sicuro che cedric avrebbe voluto restituirti il piacere visto che gli avevi detto dei draghi e così ha fatto ma anche allora potter anche allora sembrava probabile che avresti fallito io sono stato riguardi a tutto il tempo tutte quelle ore in biblioteca non hai capito che il libro di cui avevi bisogno è rimasto sempre nel tuo dormitorio ce l'avevo messo io parecchio tempo prima l'avevo dato al giovane long bottom non ricordi piante acquatiche magiche del mediterraneo e loro proprietà ti avrebbe detto tutto quello che ti serviva sull'alga branchia mi aspettavo che chiedessi aiuto a tutti ma proprio tutti long bottom te l'avrebbe detto in un secondo ma invece no no quel tuo tocco di orgoglio indipendenza avrebbe potuto rovinare tutto quanto e allora che cosa potevo fare fornirti l'informazione attraverso un'altra fonte ignara al ballo del ceppo mi avevi raccontato che un elfo domestico di nome dobby ti aveva fatto un regalo di natale ho chiamato l'elfo in sala professori perché venisse a prendere delle vesti da lavare ho inscenato una conversazione a voce alta con la professoressa mcgonagall sugli ostaggi che erano stati scelti e le ho chiesto se era dell'opinione che potter avrebbe pensato di ricorrere all'alga branchia e il tuo amichetto elfo è corso dritto alla dispensa di piton e si è affrettato a venirti a cercare la bacchetta di moody era ancora puntata al cuore di erri alle sue spalle sagome nebulose si muovevano nell'avversa specchio appeso alla parete sei rimasto così a lungo in quel lago potter che ho pensato che fossi annegato ma per fortuna silente ha scambiato la tua imbecillità per nobiltà e ti ha dato un putteggio alto ho respirato di sollievo un'altra volta naturalmente questa sera nel labirinto per te è stato più facile di quanto non avrebbe dovuto disse moody e questo perché ero di pattuglia attorno al perimetro potevo vedere attraverso le siepi esterne e sono riuscito a eliminare parecchi ostacoli dal tuo percorso ho schiantato fleur de la cour quando è passata ho scagliato la maledizione imperius su crum in modo che eliminasse rigori e ti lasciasse libero il cammino verso la coppa erri fissò moody stupefatto non riusciva a capire come fosse possibile l'amico di silente il celebre auror colui che aveva catturato tanti mangiamorte non aveva senso nessun senso le forme nebulose nell'avversa specchio si precisavano diventavano più definite erri vide la sagoma di tre persone dietro a moody tre persone che si avvicinavano ma moody non stava guardando il suo occhio magico era puntato su erri il signore oscuro non è riuscito a ucciderti potter e lo desiderava tanto sussurrò moody prova a pensare come mi ricompenserà quando scoprirà che l'ho fatto io al posto suo io ti ho consegnato a lui tu la cosa di cui più di ogni altra aveva bisogno per rigenerarsi e poi ti ho ucciso per lui verrò onorato più di ogni altro mangiamorte sarò il suo più caro il suo più intimo sostenitore più vicino di un figlio l'occhio normale di moody sporgeva l'occhio magico era fisso su erri la porta era sbarrata erri sapeva che non sarebbe mai riuscito a raggiungere la bacchetta in tempo io e il signore oscuro disse moody e ormai sembrava completamente folle chino su erri con un orrendo sorriso storto sulle labbra abbiamo molto in comune entrambi per esempio abbiamo avuto padri molto deludenti davvero molto deludenti entrambi abbiamo subito l'oltraggio erri di prendere il nome da quei padri ed entrambi abbiamo avuto il piacere l'enorme piacere di uccidere i nostri padri per assicurare l'ascesa ininterrotta dell'ordine oscuro lei è pazzo esclamò erri senza riuscire a trattenersi lei è pazzo pazzo io disse moody la voce che si alzava incontrollabile la vedremo vedremo chi è pazzo ora che il signore oscuro è tornato con me al suo fianco è tornato harry potter non l'hai vinto e ora io vincerò te moody levò la bacchetta aprì la bocca erri affondò la mano nella veste stupeficium ci fu un lampo accecante di luce rossa e con un'esplosione fragorosa la porta dell'ufficio di moody andò in pezzi moody fu scagliato all'indietro e cadde sul pavimento harry che non aveva smesso di fissare il punto in cui un attimo prima c'era il viso di moody vide albus silente il professor piton e la professoressa mcgonagall restituirgli lo sguardo dall'avversa specchio si voltò e vide il terzetto in piedi sulla soglia silente in testa la bacchetta tesa in quel momento harry comprese fino in fondo per la prima volta perché si diceva che silente era l'unico mago di cui voldemort avesse mai avuto paura l'espressione di silente mentre scrutava il corpo privo di sensi di malocchio moody era più terribile di quanto harry avesse mai potuto immaginare non c'era alcun sorriso benevolo sul suo volto alcun brillio ironico negli occhi dietro le renti una fredda furia era incisa in ogni tratto del suo viso antico un senso di potere emanava da lui come se sprigionasse vapore bollente entrò infilò un piede sotto il corpo abbandonato di moody e con un calcio lo rovesciò sulla schiena in modo da vederlo in faccia piton lo seguì guardando l'avversa specchio nel quale il suo volto era ancora visibile intento a scrutare torvo la stanza la professoressa mcgonagall andò subito da harry vieni con me potter sussurrò la sua bocca sottile si contraste come se stesse per piangere andiamo in infermeria no disse silente seccamente silente dovrebbe proprio lo guardi ne ha passate abbastanza stanotte rimarrà minerva perché deve capire ribatte silente asciutto capire è il primo passo per accettare e solo accettando si può guarire deve sapere chi lo ha condotto alle sofferenze di questa notte e perché moody disservi era ancora completamente incredulo come può essere stato moody questo non è alastor moody rispose piano silente tu non hai mai conosciuto alastor moody il vero moody non ti avrebbe allontanato da me dopo ciò che è successo stanotte nel momento in cui ti ha portato via ho capito e vi ho seguiti silente si chinò sul corpo afflosciato di moody e infilò una mano nella sua veste estrasse la fiaschetta di moody e un mazzo di chiavi fissate a un anello poi si voltò verso la mcgonagall e piton severus per favore portami la pozione della verità più potente che possiedi e poi scendi in cucina e porta qui l'elfa domestica di nome winky minerva gentilmente vai alla capanna di agrid dove troverai un grosso cane nero nell'orto delle zucche porta il cane nel mio ufficio digli che lo raggiungerò tra poco poi torna qui se pitono la mcgonagall trovarono queste istruzioni stravaganti non lo dettero a vedere entrambi uscirono immediatamente dall'ufficio silente posò la fiaschetta sulla scrivania si avvicinò al baule con sette serrature infilò la prima chiave nella serratura e lo aprì conteneva un gran numero di libri di magia silente chiuse il coperchio infilò una seconda chiave nella seconda serratura e lo riaprì i libri di magia erano scomparsi questa volta conteneva un assortimento di spioscopi rotti penne e pergamena e quello che sembrava un mantello dell'invisibilità argentato harry guardò attonito silente infilare la terza la quarta la quinta e la sesta chiave nelle rispettive serrature riaprendo ogni volta il baule che rivelava ogni volta un contenuto diverso poi infilò la settima chiave nella serratura sollevò il coperchio e harry si lasciò sfuggire un urlo di sorpresa si ritrovò a guardare in una specie di pozzo una stanza sotterranea e disteso al suolo tre metri più in basso apparentemente immerso in un sonno profondo magro e affamato giaceva il vero malocchio moody la gamba di legno era sparita l'orbita che avrebbe dovuto accogliere l'occhio magico sembrava vuota sotto la palpebra e gli mancavano ciuffi di capelli grigi harry attonito spostò lo sguardo dal moody addormentato nel baule al moody svenuto disteso sul pavimento dell'ufficio silente entrò nel baule si calò e si lasciò cadere con un balzo sul pavimento accanto al moody addormentato si curvò su di lui schiantato controllato dalla maledizione imperius molto debole sentenziò naturalmente avevano bisogno di tenerlo in vita harry buttami giù il mantello di quell'impostore alastor è gelato madame pomfrey dovrà occuparsi di lui ma non sembra in pericolo immediato harry esegui silente avvolse mudi nel mantello e si arrampicò fuori dal baule poi prese la fiaschetta dalla scrivania svitò il tappo e la rovesciò un liquido denso e vischioso schizzò sul pavimento dell'ufficio pozione polisucco harry disse silente vedi com'è tutto semplice e geniale perché moody non beve mai se non dalla sua fiaschetta lo sanno tutti l'impostore naturalmente aveva bisogno di tenere a portata di mano il vero moody in modo da poter continuare a prepararsi la pozione hai visto i suoi capelli silente gettò uno sguardo al moody in fondo al baule l'impostore ha continuato a tagliarglieli per tutto l'anno vedi dove sono irregolari ma credo che nell'agitazione di questa notte il nostro falso moody si sia dimenticato di prenderla tanto spesso quanto avrebbe dovuto allo scoccare dell'ora ogni ora vedremo silente prese la sedia da sotto la scrivania e vi sedette gli occhi puntati sul moody svenuto sul pavimento anche harry lo fissò i minuti passarono in silenzio poi sotto gli occhi di harry il volto dell'uomo disteso a terra prese a cambiare le cicatrici sparivano la pelle diventava liscia il naso mozzato tornò intero e rimpicciolì la lunga criniera di capelli grigi brizzolati si ritirava nella cute e diventava color paglia all'improvviso con un sordo clank la gamba di legno cadde mentre una gamba normale ricresceva al suo posto un attimo dopo la pupilla magica schizzò fuori dall'occhio dell'uomo sostituita da un occhio vero rotolò sul pavimento e continuò a roteare da una parte all'altra davanti a harry giaceva un uomo pallido con vaghe lentiggini e un ciuffo di capelli biondi sapeva chi era l'aveva visto nel pensatoio di silente l'aveva visto mentre i dissennatori lo portavano via e lui cercava di convincere crouch della sua innocenza ma ora era segnato attorno agli occhi e sembrava molto più vecchio nel corridoio si udirono passi affrettati piton entrò con winky alle calcagna la professoressa mcgonagall era dietro di loro crouch esclamò piton restando immobile sulla soglia barty crouch santo cielo disse la professoressa mcgonagall fissando l'uomo disteso al suolo sporca e scarmigliata winky sbirciò da dietro le gambe di piton la sua bocca si spalancò e l'elfa emise uno strillo penetrante padron barty padron barty che cosa fa tu qui si gettò sul petto del giovane voi l'ha ucciso voi l'ha ucciso voi ha ucciso il figlio del padrone è solo schiantato winky disse silente fatti da parte per favore severus hai portato la pozione piton consegnò a silente una bottiglietta di vetro colma di un liquido trasparente il verità serum col quale aveva minacciato erni in classe silente si alzò si chinò sull'uomo a terra e lo mise a sedere contro il muro dietro l'avversa specchio dal quale le sagome riflesse di silente piton e della mcgonagall continuavano a scrutarli cupe winky rimase in ginocchio tremante le mani sul viso silente apri a forza la bocca dell'uomo e vi lasciò cadere tre gocce poi gli puntò la bacchetta contro il petto e disse re innerva il figlio di crouch aprì gli occhi aveva il viso molle lo sguardo perso silente si inginocchiò accanto a lui in modo da guardarlo dritto in faccia mi senti chiese a bassa voce l'uomo sbatte le palpebre si borbottò vorrei che ci dicessi disse piano silente come mai sei qui come hai fatto a fuggire da azgaban crouch trasse un profondo respiro tremante poi prese a parlare in tono piatto inespressivo mi ha salvato mia madre sapeva di stare per morire ha convinto mio padre a salvarmi come ultimo desiderio lui l'amava come non ha mai amato me ha consentì vennero a trovarmi mi diedero una dose di pozione polisucco che conteneva un capello di mia madre lei beve una dose di pozione polisucco che conteneva un mio capello prendemmo l'uno le sembianze dell'altra winky scuoteva il capo tremante non dire altro padron barti non dire altro tu mette tuo padre nei guai ma crouch trasse un altro respiro profondo e riprese con la stessa voce piatta i dissennatori sono ciechi hanno avvertito una persona sana e una morente entrare ad azgaban hanno avvertito una persona sana e una morente uscirne mio padre mi portò fuori di nascosto travestito da mia madre nel caso che qualche prigioniero guardasse dalla porta della cella mia madre morì poco dopo ad azgaban fece attenzione a bere la pozione polisucco fino alla fine fu sepolta col mio nome e le mie sembianze tutti credettero che si trattasse di me l'uomo sbatte le palpebre e che cosa fece di te tuo padre una volta che ti ebbe riportato a casa chiese silente piano inscenò la morte di mia madre un funerale privato discreto quella tomba è vuota l'elfa domestica mi guarì poi dovetti rimanere nascosto dovevo essere controllato mio padre fu costretto a ricorrere a parecchi incantesimi per soggiogarmi quando ebbe ripreso le forze pensai solo a ritrovare il mio maestro a tornare al suo servizio come fece tuo padre a soggiogarti chiese silente con la maledizione imperius disse crouch ero in potere di mio padre ero costretto a indossare un mantello dell'invisibilità giorno e notte ero sempre con l'elfa domestica era la mia governante e custode le facevo pena convince mio padre a farmi qualche regalino come ricompensa della mia buona condotta padron barti padron barti disse winky singhiozzando attraverso le dita tu non deve dirglielo noi finisce nei guai nessuno ha mai scoperto che eri ancora vivo chiese piano silente nessuno lo sapeva tranne tuo padre e l'elfa domestica sì rispetto pose crouch sbattendo di nuovo le palpebre una strega dell'ufficio di mio padre bertha jorkins venne da noi con dei documenti da far firmare a mio padre lui non era in casa winky la fece entrare e tornò in cucina da me ma bertha jorkins la sentì parlare con me venne a vedere ascoltò abbastanza da indovinare chi si nascondeva sotto il mantello dell'invisibilità mio padre tornò lei lo affrontò lui le scagliò un potente incantesimo di memoria per farle dimenticare ciò che aveva scoperto troppo potente disse che le aveva danneggiato per sempre la memoria perché lei è venuta a ficcare il naso negli affari privati del mio padrone disse winky tra i singhiozzi perché non ci ha lasciati stare dimmi della coppa del mondo di quidditch disse silente fu winky a convincere mio padre rispose crouch con la stessa voce monotona le ci vollero mesi a persuaderlo erano anni che non uscivo di casa avevo amato il quidditch lo lasci andare gli disse porterà il mantello dell'invisibilità può vedere la partita gli lasci respirare un po d'aria fresca una volta tanto disse che mia madre avrebbe approvato disse a mio padre che mia madre era morta per darmi la libertà non mi aveva salvato per infliggermi una vita di prigionia alla fine lui accettò fu tutto studiato con la massima cura mio padre scortò me e winky su in tribuna d'onore molto presto winky doveva dire che stava tenendo il posto a mio padre io dovevo star lì seduto invisibile quando tutti fossero scesi dalle tribune sarebbe toccato a noi winky sarebbe stata sola in apparenza nessuno l'avrebbe mai saputo ma winky non sapeva che stavo diventando più forte cominciavo a contrastare la maledizione imperius di mio padre a volte ero di nuovo me stesso quasi c'erano brevi periodi in cui mi pareva di sfuggire al suo controllo accade lassù in tribuna d'onore fu come svegliarsi da un sonno profondo mi ritrovai in pubblico nel bel mezzo della partita e vidi una bacchetta spuntare dalla tasca di un ragazzo davanti a me non avevo il permesso di tenere una bacchetta da prima di azkaban la rubai winky non se ne accorse winky a paura dell'altezza aveva il viso nascosto padron parti cattivo sussurrò winky mentre le lacrime le scorrevano tra le dita così hai preso la bacchetta disse silente e poi che cosa ne hai fatto tornammo alla tenda disse crouch poi li sentimmo sentimmo i mangiamorte quelli che non erano mai stati ad azkaban quelli che non avevano mai sofferto per il mio padrone gli avevano voltato le spalle non erano finiti in tu come me erano liberi di andare a cercarlo ma non l'hanno fatto si sono limitati a prendersi gioco dei babbani il rumore delle loro voci mi svegliò la mia mente non era così limpida da anni ero furioso avevo la bacchetta volevo aggredirli per la loro infedeltà al mio padrone mio padre era uscito dalla tenda era andato a liberare i babbani winky ebbe paura vedendomi così arrabbiato usò la magia in suo potere per tenermi legato a lei mi fece uscire dalla tenda mi spinse nella foresta lontano dai mangiamorte io cercai di trattenerla volevo tornare al campeggio volevo mostrare a quei mangiamorte che cos'era la vera fedeltà al signore oscuro e punirli per il loro tradimento usai la bacchetta rubata per scagliare in cielo il marchio nero giunsero i maghi del ministero scagliarono schiantesimi ovunque uno attraversò gli alberi e raggiunse me e winky il legame che ci univa fu spezzato fumo entrambi schiantati quando winky venne scoperta mio padre capì che dovevo essere nei dintorni frugò nei cespugli attorno a dove era stata ritrovata e sentì che giacevo lì attese che gli altri membri del ministero si allontanassero dalla foresta mi pose di nuovo sotto la maledizione imperios e mi portò a casa licenziò winky lo aveva deluso aveva permesso che mi impossessassi di una bacchetta mi aveva quasi lasciato fuggire winky emise un gemito disperato rimanemmo io e mio padre soli in casa e allora e allora crouch roteò il capo e un ghigno folle gli attraversò il volto il mio padrone venne a prendermi arrivò a casa nostra nel cuore della notte tra le braccia del suo servo codaliscia il mio signore aveva scoperto che ero ancora vivo aveva catturato bertha jorkins in albania l'aveva torturata e lei gli aveva detto molte cose gli aveva detto del torneo tre maghi gli aveva detto che mudi l'anziano auror avrebbe insegnato a hogwarts la torturò finché non spezzò l'incantesimo di memoria che mio padre aveva scagliato su di lei gli disse che ero fuggito da azkaban gli disse che mio padre mi teneva prigioniero per impedire che andasse a cercare il mio signore e così il mio signore seppe che ero ancora il suo fedele servitore forse il più fedele di tutti concepì un piano sulla base delle informazioni che bertha gli aveva fornito aveva bisogno di me giunse a casa nostra verso mezzanotte mio padre aprì la porta il sorriso si diffuse sul volto di crouch come se stesse rievocando il ricordo più bello della sua vita attraverso le dita di winky si vedevano i suoi occhi marroni impietriti sembrava troppo sconvolta per parlare fu tutto molto rapido mio padre fu sottoposto alla maledizione imperius dal mio signore ora era mio padre a essere imprigionato sotto controllo il mio signore lo costrinse a continuare il suo lavoro come al solito a comportarsi come se non ci fosse niente che non andava e io fui liberato mi ridestai fui di nuovo me stesso vivo come non lo ero da anni e voldemort che cosa ti chiese di fare domandò silente mi chiese se ero pronto a rischiare tutto per lui ero pronto era il mio sogno la mia più grande ambizione servirlo dimostrargli la mia abilità mi disse che aveva bisogno di infiltrare a hogwarts un suo servo fedele un servo che aiutasse harry potter a vincere il torneo tre maghi senza farsi notare un servo che vegliasse su harry potter che si assicurasse di fargli raggiungere la coppa tre maghi che trasformasse la coppa in una passaporta che avrebbe portato dal mio padrone la prima persona che l'avesse toccata ma prima avevate bisogno di alastor mudi intervenne silente i suoi occhi azzurri fiammeggiavano d'ira anche se la sua voce ribase calma fummo io e codaliscia avevamo preparato in anticipo la pozione polisucco raggiungemmo la sua casa mudi reagì lottando ci fu un'esplosione riuscimmo a soggiogarlo appena in tempo lo infilammo a forza in un comparto del suo baule magico gli prendemmo dei capelli e li aggiungemmo alla pozione io la bevi e divenni il sosia di mudi gli presi la gamba e l'occhio fui pronto ad affrontare arthur weasley quando venne a sistemare i babbani che avevano sentito dei rumori feci muovere i bidoni della spazzatura nel cortile gli dissi che avevo sentito aggirarsi degli estranei che avevano fatto saltare i bidoni poi raccolsi gli abiti di mudi e i detector oscuri li misi nel baule con mudi e partii per Hogwarts lo tenni in vita sotto l'effetto della maledizione imperios volevo riuscire a interrogarlo per sapere del suo passato imparare le sue abitudini in modo da poter ingannare anche silente mi servivano anche i suoi capelli per preparare la pozione polisucco gli altri ingredienti erano facili da trovare rubai la pelle di girilacco dai sotterranei quando il responsabile delle pozioni mi trovò nel suo ufficio dissi che avevo avuto l'ordine di perquisirlo e cosa ne fu di coda liscia dopo l'aggressione di mudi chiese silente coda liscia tornò a prendersi cura del mio signore a casa di mio padre e a sorvegliare mio padre ma tuo padre fuggì disse silente sì dopo un po cominciò a contrastare la maledizione imperios proprio come avevo fatto io c'erano momenti in cui capiva ciò che stava succedendo il mio signore decise che non era più prudente lasciarlo uscire di casa lo costrinse a inviare lettere al ministero gli fece scrivere che era malato ma coda liscia trascurò i suoi doveri non lo sorvegliò abbastanza mio padre fuggì il mio signore suppose che fosse diretto a hogwarts mio padre avrebbe detto tutto a silente avrebbe confessato avrebbe ammesso di avermi fatto uscire di nascosto da azkaban il mio padrone mi informò della fuga di mio padre mi disse di fermarlo a ogni costo così attesi e vegliai usai la mappa che avevo preso a harry potter la mappa che aveva quasi rovinato tutto mappa disse silente in fretta quale mappa la mappa di hogwarts di potter potter mi ci ha visto una sera potter mi ha visto rubare altri ingredienti per la pozione polisucco dall'ufficio di piton credeva che fossi mio padre visto che abbiamo lo stesso nome di battesimo quella sera ho preso a potter la mappa gli ho detto che mio padre odiava i maghi oscuri potter ha creduto che mio padre stesse seguendo piton per una settimana attesi l'arrivo di mio padre a hogwarts finalmente una sera sulla mappa comparve mio padre che entrava nel parco indossai il mantello dell'invisibilità e gli andai incontro stava costeggiando la foresta poi arrivarono potter e crum attesi non potevo fare del male a potter il mio padrone aveva bisogno di lui potter corse a chiamare silente schiantai crum uccisi mio padre no gemette winky padron marty padron marty che cosa dice hai ucciso tuo padre disse silente con la solita voce dolce che cosa hai fatto del corpo l'ho portato nella foresta l'ho coperto con il mantello dell'invisibilità avevo con me la mappa vidi potter correre al castello incontro piton silente si unì a loro vidi potter guidare silente fuori dal castello usci dalla foresta tornai sui miei passi mi feci loro incontro a silente raccontai che piton mi aveva detto dove andare silente mi disse di andare a cercare mio padre tornai accanto al suo corpo guardai la mappa quando tutti se ne furono andati trasfigurai il corpo di mio padre divenne un osso lo seppellì indossando il mantello dell'invisibilità nella terra appena smossa davanti alla capanna di agrit calò un totale silenzio rotto solo dai singhiozzi irrefrenabili di winky poi silente disse e stasera mi sono offerto di portare la coppa tre maghi nel labirinto prima di cena mormorò barty crouch l'ho trasformata in una passaporta il piano del mio signore ha funzionato è tornato potente e io sarò onorato da lui al di là dei sogni di ogni mago il sorriso folle gli illuminò di nuovo il viso e la testa gli ricadde sulla spalla mentre winky urulava e si inghiozzava al suo fianco le strade si dividono silente si alzò per un attimo guardò barty crouch disgustato poi alzò di nuovo la bacchetta e ne volarono fuori delle corde che si avvolsero attorno a barty crouch legandolo stretto quindi si rivolse alla professoressa mcgonagall minerva posso chiederti di restare qui di guardia mentre porto henry di sopra ma certo rispose la professoressa mcgonagall sembrava nauseata come se avesse appena visto qualcuno vomitare ma quando estrasse la bacchetta e la puntò contro barty crouch la sua mano era ferma severus silente si volse verso piton per favore dia madame pomfrey di venire qui dobbiamo portare alastor mudi in infermeria poi vai fuori cerca cornelius faggio e accompagnalo qui vorrà certo interrogare crouch di persona digli che se ha bisogno di me mi troverà in infermeria tra mezz'ora piton annui in silenzio e uscì dalla stanza harry disse silente con dolcezza harry si alzò e di nuovo barcollò il dolore alla gamba che non aveva notato finché ascoltava crouch tornò vivissimo si accorse che stava tremando silente lo afferrò per un braccio e lo sostenne lungo il corridoio buio voglio che tu venga nel mio ufficio harry disse piano mentre risalivano il corridoio sirius ci sta aspettando harry annui si sentiva oppresso da una sorta di stordimento e da un senso di totale irrealità ma non gli importava ne era perfino contento non voleva dover pensare a nulla di ciò che era successo da quando aveva toccato la coppa tre maghi per la prima volta non voleva dover passare in rassegna e ricordi freschi e nitidi come fotografie che continuavano a lampeggiare nella sua mente ma l'occhio mudi dentro il baule coda liscia accasciato a terra che si leggeva il moncherino voldemort che sorgeva tra i vapori del calderone cedric morto cedric che gli chiedeva di riportarlo dai suoi genitori professore sussurrò harry dove sono il signore e la signora digori sono con la professoressa sprout rispose silente la sua voce che era rimasta così calma per tutto il tempo dell'interrogatorio di barty crouch per la prima volta si incrinò è la direttrice della casa di cedric e lo conosceva meglio di tutti erano arrivati davanti al gargoyle di pietra silente pronunciò la parola d'ordine la statua balzò di lato e lui e harry si lasciarono trasportare dalla scala a chiocciola fino alla porta di quercia silente l'aprì dentro c'era sirius aveva il volto pallido e demaciato come quando era fuggito da azgaban con un rapido movimento attraversò la stanza harry stai bene lo sapevo sapevo che qualcosa del genere che cosa è successo gli tremavano le mani mentre aiutava harry a sistemarsi su una sedia davanti alla scrivania e prendeva posto accanto a lui che cosa è successo incalzò silente cominciò a raccontargli tutto ciò che aveva detto barty crouch harry ascoltava solo a metà era tanto stanco che aveva male dappertutto e voleva solo restare lì seduto tranquillo per ore e ore fino ad addormentarsi e non dover pensare o sentire più niente si udì un morbido frullo d'ali fox la fenice si librò dal trespolo attraversò in volo l'ufficio e atterrò sul ginocchio di harry ciao fox disse piano harry accarezzando le belle piume dorate e scarlatte fox socchiuse placidamente gli occhi c'era qualcosa di confortante nel suo peso caldo silente aveva smesso di parlare sedette di fronte a harry dietro la scrivania lo guardò e lui evitò il suo sguardo silente stava per interrogarlo stava per fargli rivivere tutto quanto devo sapere che cos'è successo dopo che hai toccato la passaporta nel labirinto harry disse silente possiamo aspettare domattina vero silente intervenne sirius con voce roca posò una mano sulla spalla di harry lascialo dormire lascialo riposare harry provò un moto di gratitudine per sirius ma silente non fece caso a quello che aveva detto si protese verso harry con profonda riluttanza harry alzò la testa e guardò quegli occhi azzurri se pensassi di poterti aiutare disse silente con dolcezza facendo scendere su di te un sonno intantato e permettendoti di posticipare il momento di ripensare a ciò che è accaduto stanotte lo farei ma so quello che faccio attenuare il dolore per un po lo renderà più acuto quando alla fine lo sentirai ti sei dimostrato coraggioso ben al di là di quanto mi sarei aspettato da te ti chiedo di dimostrare il tuo coraggio ancora una volta ti chiedo di raccontarci cos'è successo la fenice emise un verso dolce e tremulo vibrò nell'aria e harry avvertì come una goccia di liquido bollente scorrergli dalla gola allo stomaco riscaldandolo e dandogli forza respirò profondamente e cominciò a raccontare mentre parlava le immagini di tutto ciò che era accaduto quella notte parvero levarsi davanti ai suoi occhi vide la superficie scintillante della pozione che aveva fatto risorgere voldemort vide i mangiamorte materializzarsi tra le tombe vide il corpo di cedric disteso a terra accanto alla coppa una o due volte sembrò che sirius fosse sul punto di parlare stringendo la spalla di harry ma silente glielo impedì con un cenno harry ne fu felice perché era più facile andare avanti ora che aveva cominciato fu perfino un sollievo come se si liberasse di qualcosa di velenoso continuare a parlare gli costò ogni briciola di determinazione che possedeva ma capiva che una volta finito si sarebbe sentito meglio quando harry disse che coda liscia lo aveva ferito al braccio col pugnale comunque sirius reagì con veemenza e silente si alzò così in fretta che harry sobbalzò fece il giro della scrivania e chiese a harry di tendere il braccio harry mostrò entrambi il punto in cui la veste era strappata e il taglio sotto la stoffa ha detto che il mio sangue lo avrebbe rafforzato più di quello di chiunque altro disse harry ha detto che la protezione che mia mia madre aveva lasciato su di me che si sarebbe preso anche quella e aveva ragione è riuscito a toccarmi senza farsi del male mi ha toccato la faccia per un rapido istante credette di aver visto qualcosa di simile a un lampo di trionfo negli occhi di silente ma un attimo dopo fu certo di averlo solo immaginato perché quando silente tornò al suo posto era più vecchio e stanco che mai molto bene disse sedendo di nuovo voldemort ha superato quel particolare ostacolo harry vai avanti ti prego harry riprese spiegò come voldemort era sorto dal calderone e riferì tutto ciò che ricordava del discorso di voldemort ai mangiamorte poi raccontò come lo aveva slegato gli aveva restituito la bacchetta e si era preparato al duello ma quando giunse al punto in cui il raggio di luce d'oro aveva unito la sua bacchetta a quella di voldemort si ritrovò con la gola bloccata cercò di continuare a parlare ma il ricordo di ciò che era scaturito dalla bacchetta di voldemort gli invase la mente vide cedric vide il vecchio bertha jorkins sua madre suo padre fu contento quando sirius ruppe silenzio le bacchette sono entrate in connessione chiese guardando harry e poi silente perché priori incantazio mormorò silente con aria assorta i suoi occhi fissarono quelli di harry e fu come se una scintilla scoccasse fra di loro l'incantesimo reversus disse sirius bruscamente proprio così rispose silente la bacchetta di harry e quella di voldemort hanno lo stesso nucleo entrambe contengono una piuma della coda della stessa fenice di questa fenice in effetti aggiunse indicando l'uccello oro e scarlatto appollaiato tranquillo sul ginocchio di harry la piuma che c'è dentro la mia bacchetta è di fox domandò harry sballordito sì rispose silente il signor olivander mi ha scritto per dirmi che avevi comprato la seconda bacchetta nell'istante in cui sei uscito dal suo negozio quattro anni fa e che cosa succede quando una bacchetta incontra la sua sorella chiese sirius non funzionano correttamente l'una contro l'altra rispose silente e se i loro proprietari costringono le bacchette a scontrarsi si verifica un effetto molto raro una delle bacchette costringe l'altra a emettere gli incantesimi che ha operato al contrario prima il più recente e poi quelli che l'hanno preceduto rivolse a harry uno sguardo interrogativo e harry annui il che significa disse silente lentamente gli occhi fissi sul volto di harry che cedric deve essere riapparso sotto qualche forma harry annui di nuovo digori è tornato in vita chiese sirius seccamente non esiste incantesimo che possa ridestare i morti rispose silente con gravità tutto quello che può essersi verificato è una sorta di eco un'ombra del cedric vivente che affiora dalla bacchetta dico bene harry mi ha parlato rispose harry che all'improvviso tremava di nuovo il il fantasma di cedric o quello che era ha parlato un eco disse silente che ha mantenuto l'aspetto e il carattere di cedric immagino che siano apparse altre forme del genere vittime meno recenti della bacchetta di voldemort un vecchio disse harry la gola ancora serrata bertha jorkins e i tuoi genitori chiese piano silente si la stretta di sirius sulla spalla di harry si fece così forte da fargli male gli ultimi omicidi compiuti dalla bacchetta disse silente annuendo in ordine inverso ne sarebbero comparsi altri naturalmente se tu avessi mantenuto il contatto allora harry questi echi queste ombre che cosa hanno fatto harry raccontò come le sagome spuntate dalla bacchetta si erano spinte a limitare della rete d'oro come voldemort sembrava averne paura come l'ombra di suo padre gli aveva detto cosa fare e quella di cedric aveva espresso il suo ultimo desiderio a quel punto harry scoprì di non poter continuare cercò lo sguardo di sirius e vide che aveva il viso nascosto tra le mani si accorse all'improvviso che fox non era più sul suo ginocchio la fenice si era posata a terra la bella testa indugiò contro la gamba di harry e grosse lacrime simili a perle stillarono dagli occhi sulla ferita inflitta dal ragno il dolore svanì la pelle guarì la gamba tornò sana lo dirò ancora disse silente mentre la fenice spiccava il volo e si posava di nuovo sul trespolo vicino alla porta questa notte hai dato prova di un coraggio ben superiore a quanto mi sarei aspettato da te harry hai dimostrato un coraggio pari a quello di coloro che sono morti combattendo a voldemort al massimo del suo potere ti sei fatto carico della responsabilità di un mago adulto e ti sei scoperto pari a lui e ora ci hai detto tutto quello che dovevamo sapere vieni con me in infermeria non voglio che torni in dormitorio stanotte una pozione sonnifera e un po di pace sirius ti andrebbe di restare con lui sirius annui si trasformò di nuovo nel grosso cane nero e uscì dall'ufficio con harry e silente scortandoli giù per una rampa di scale verso l'infermeria quando silente aprì la porta harry vide la signora weasley bill ron e ermione riuniti attorno a una madame pomfrey dall'aria infastidita a quanto pareva volevano sapere da lei dove era harry e che cosa gli era successo tutti quanti si voltarono di scatto all'ingresso di harry silente e del cane nero e la signora weasley si lasciò sfuggire un grido soffocato harry o harry fece percorrere da lui ma silente si frappose tra i due molly disse con una mano alzata ti prego ascoltami un attimo harry questa notte ha vissuto esperienze terribili ha appena dovuto riviverle per me ora ha solo bisogno di sonno pace e tranquillità se desidera che tutti voi restiate con lui aggiunse guardando ron e ermione e anche bill potete farlo ma non voglio che gli facciate domande finché non sarà pronto a rispondere è certo non stasera la signora weasley annui era molto pallida si voltò verso ron e ermione e bill come se stessero facendo baccano e si bilò sentito ha bisogno di calma preside disse madame pomfri fissando il cane nero posso chiedere che cosa questo cane rimarrà con harry per un po si limitò a dire silente le garantisco che è molto ben educato harry aspetterò che tu vada a letto harry provò per silente un moto inesprimibile di gratitudine per aver chiesto agli altri di non fargli domande non perché non li volesse lì ma il pensiero di rispiegare tutto l'idea di riviverlo un'altra volta era più di quanto potesse sopportare tornerò a trovarti non appena avrò visto faggio harry disse silente vorrei che tu rimanessi qui domani finché non avrò parlato alla scuola e uscì mentre madame pomfri lo accompagnava a un letto vicino harry vide il vero mudi disteso immobile all'estremità della stanza la gamba di legno e l'occhio magico erano posati sul comodino sta bene chiese harry si rimetterà disse madame pomfri diede a harry un pigiama e tirò le tende lui si svestì si infilò il pigiama e andò a letto ron ermione bill la signora weasley e il cane nero spostarono le tende e sedettero al suo fianco ron ermione lo fissavano quasi guardinghi come se avessero paura di lui sto bene disse loro sono solo stanco gli occhi della signora weasley si riempirono di lacrime mentre lisciava senza motivo il copriletto madame pomfri che era sparita alla volta del suo ufficio tornò con un calice e vi versò una pozione viola da una bottiglietta devi berla tutta harry disse è una pozione che assicura un sonno senza sogni harry prese il calice e beve qualche sorsata gli venne subito sonno tutto attorno a lui divenne sfocato sembrava che le lampade dell'infermeria ammicassero attraverso le tende sembrava che il suo corpo affondasse sempre più giù nel calore del materasso di piuma prima ancora di finire la pozione prima di poter dire un'altra parola la stanchezza lo fece sprofondare nel sonno harry si svegliò così caldo e sonno lento che non aprì gli occhi voleva riaddormentarsi subito la stanza era ancora illuminata fiocamente doveva essere ancora notte e aveva l'impressione di non aver dormito molto poi udì dei sussurri attorno a lui lo sveglieranno se non stanno zitti perché urlano non può essere successo qualcos'altro vero harry aprì gli occhi e vide tutto verato qualcuno gli aveva tolto gli occhiali distinse la sagoma confusa della signora weasley e di bill molto vicino a lui la signora weasley era in piedi è la voce di fudge mormorò e questa è minerva mcgonagall vero ma perché litigano ora anche harry riusciva a sentirli gente che gridava e correva verso l'infermeria increscioso ma comunque minerva stava dicendo cornelius fudge ad alta voce lei non avrebbe mai dovuto portarlo nel castello urlò la mcgonagall quando lo scoprirà silente harry udì spalancarsi le porte dell'infermeria senza che nessuno di quelli che si trovavano attorno al suo letto se ne accorgesse harry si alzò a sedere e inforcò gli occhiali fudge entrò a grandi passi la professoressa mcgonagall e piton lo seguivano da vicino dove è silente chiese fudge alla signora weasley non è qui rispose lei seccamente questa è un'infermeria ministro non crede che farebbe meglio a ma la porta si aprì e silente avanzò lungo la corsia che cosa è successo chiese in tono brusco spostando lo sguardo da fudge alla professoressa mcgonagall perché disturbate queste persone minerva mi meraviglio di te ti avevo chiesto di fare la guardia a barty crouch non c'è più bisogno di fargli la guardia silente strillò lei ha provveduto il ministro harry non aveva mai visto la professoressa mcgonagall perdere il controllo a quel modo aveva le guance chiazzate di rosso e le mani strette a pugno tremava dalla rabbia quando abbiamo detto al signor fudge che avevamo catturato il mangiamorte responsabile dei fatti di questa sera disse piton a bassa voce è stato come se fosse a rischio la sua sicurezza personale ha insistito per convocare un dissennatore che lo scortasse dentro il castello l'ha condotto su nell'ufficio dove barty crouch io gliel'ho detto che lei non sarebbe stato l'accordo silente sbottò la professoressa mcgonagall gli ho detto che non avrebbe mai permesso a un dissennatore di mettere piede nel castello ma mia cara signora rugì fudge anche lui arrabbiato come harry non lo aveva mai visto in qualità di ministro della magia spetta a me decidere se desidero portare con me una scorta quando interrogo un elemento potenzialmente pericoloso ma la voce della professoressa mcgonagall sovrastò quella di fudge nell'istante in cui quel quella cosa è entrata nella stanza urlò puntando il dito verso fudge tremando tutta si è gettata su crouch e harry provò una sensazione di gelo allo stomaco mentre la professoressa mcgonagall si sforzava di trovare le parole per descrivere ciò che era successo non dovette finire la frase lui sapeva che cosa doveva aver fatto il dissennatore aveva dato il suo bacio fatale a barty crouch gli aveva risucchiato l'anima dalla bocca era peggio che morto comunque non è una gran perdita inveì fudge pare che sia responsabile di parecchie morti ma ora non può testimoniare cornelius disse silente fissava fudge con insistenza come se lo vedesse chiaramente per la prima volta non può spiegare il motivo per cui ha ucciso quelle persone perché le ha uccise beh non è certo un mistero o forse sì sbottò fudge era un pazzo furioso da ciò che mi hanno raccontato minerva e severus era convinto di aver agito per ordine di voi sapete chi voldemort gli ha dato davvero degli ordini cornelius disse silente la morte di quelle persone è stata solo la conseguenza di un piano per restituire a voldemort tutto il suo potere il piano è riuscito voldemort ha riavuto il suo corpo fu come se qualcuno avesse colpito faggi in pieno viso con qualcosa di pesante stordito sbattendo le palpebre guardò silente come se non riuscisse a credere a ciò che aveva appena sentito tu sai chi tornato assurdo andiamo silente farfugliò come certo minerva e piton ti avranno detto disse silente abbiamo ascoltato la confessione di barty crouch sotto l'effetto del verita serum ci ha raccontato come fu fatto uscire in segreto da azgaban e come voldemort dopo aver appreso da bertha jorkins che era ancora vivo si è andato a liberarlo da suo padre e l'abbia usato per catturare harry il piano ha funzionato ti dico crouch ha aiutato voldemort a tornare senti silente disse faggio harry rimase sbalordito vedendogli spuntare un sorrisetto tu non puoi crederci veramente tu sai chi risorto andiamo andiamo certo crouch può aver creduto di agire per l'ordine di tu sai chi ma prendere sul serio la parola di un pazzo del genere silente quando harry stasera ha toccato la coppa tre maghi è stato trasportato diritto da voldemort disse silente deciso ha assistito alla rinascita di voldemort ti spiegherò tutto nel mio ufficio poi cercò harry con lo sguardo e vide che era sveglio ma scosse il capo e disse temo di non poterti permettere di interrogare harry stanotte quel bizzarro sorriso indugio sulle labbra di faggio guardò harry poi tornò a fissare silente e disse tu sei disposto a credere alla parola di harry vero silente ci fu un istante di silenzio interrotto dal ringhio di sirius i peli sul collo erano ritti e scopriva i denti contro faggio certo che credo harry disse silente ora i suoi occhi dardeggiavano ho ascoltato la confessione di crouch e ho sentito il resoconto di harry le due storie collimano e spiegano tutto ciò che è successo dopo che bertha jorkins è scomparsa l'estate scorsa faggio aveva ancora quello strano sorriso di nuovo scoccò un'occhiata a harry prima di replicare sei disposto a credere che voldemort sia tornato fidandoti della parola di un pazzo assassino e di un ragazzo che beh fudge guardò ancora harry che all'improvviso capì lei ha letto gli articoli di rita skitter signor fudge disse piano ron ermione la signora weasley e bill sobbalzarono nessuno di loro si era accorto che harry era sveglio fudge arrossì un po ma assunse un cipiglio caparbio insolente e allora disse guardando silente e se avessi scoperto che hai taciuto certi fatti riguardanti il ragazzo parla serpentese e ha degli strani attacchi ovunque si trovi suppongo che tu ti riferisca al dolore che harry prova alla cicatrice disse silente imperturbabile allora ammetti che quei dolori li ha avuti e li ha disse fudge in fretta mal di testa incubi magari allucinazioni ascoltami cornelius disse silente facendo un passo verso fudge e ancora una volta parve emanare quell'indefinibile aura di potere che harry aveva avvertito dopo che aveva stordito il giovane crouch harry è sano quanto te e me quella cicatrice che porta sulla fronte non ha danneggiato il suo cervello credo che gli faccia male quando voldemort è vicino o si sente particolarmente in vena di uccidere fudge fece un passo indietro ma non parve meno ostinato mi perdonerai silente ma non ho mai sentito parlare di una cicatrice da maledizione che si comporta come un campanello d'allarme senta io ho visto voldemort tornare gridò harry cercò di scendere dal letto ma la signora weasley lo trattenne ho visto i mangi a morte posso dirvi i loro nomi lucius malfoy piton fece un movimento improvviso ma mentre harry lo guardava i suoi occhi tornarono su fudge malfoy è stato scagionato esclamò fudge visibilmente offeso una famiglia molto antica donazioni per iniziative eccellenti mcner continuò harry scagionato anche lui ora lavora per il ministero averi not creb goyle stai solo ripetendo i nomi di coloro che furono accusati di essere mangi a morte 13 anni fa esclamò fudge il lato puoi benissimo aver letto quei nomi nelle vecchie cronache dei processi per l'amor del cielo silente il ragazzo ci ha rifilato una storia pazzesca anche alla fine dell'anno scorso le sue frottole stanno diventando sempre più colossali e tu le bevi ancora il ragazzo sa parlare con i serpenti silente e tu credi ancora che sia degno di fiducia idiozie urlò la professoressa mcgonagall cedric digori crouch la loro morte non è stata l'opera casuale di un pazzo non vedo alcuna prova del contrario urlò fudge con uguale rabbia paonazzo in volto a me pare che siate tutti decisi a diffondere un'ondata di terrore che metterà in serio pericolo tutto ciò per cui abbiamo lavorato in questi 13 anni harry non riusciva a credere alle sue orecchie aveva sempre pensato a fudge come a un uomo gentile un po chiassoso un po pomposo ma fondamentalmente buono e ora davanti a lui c'era un piccolo mago iroso che si rifiutava categoricamente di accettare l'idea che il suo comodo mondo tranquillo potesse venire turbato che si rifiutava di credere che voldemort potesse essere risorto voldemort è tornato ripete silente se accetti immediatamente questo fatto fudge e prendi i provvedimenti necessari può darsi che siamo ancora in tempo a salvare la situazione il primo passo il più importante è sottrarre azkaban al controllo dei dissenatori assurdo urlò di nuovo fudge destituire i dissenatori mi caccerebbero via solo per averlo suggerito metà di noi dormono sonni tranquilli solo perché sanno che i dissenatori fanno la guardia ad azkaban tutti gli altri dormono sonni meno tranquilli cornelius sapendo che è affidato i più pericolosi seguaci di voldemort alla sorveglianza di creature che si uniranno a lui nell'istante in cui lui glielo chiederà disse silente non rimarranno fedeli a te fudge voldemort può offrire loro molte più opportunità di te la possibilità di esercitare il loro potere e di divertirsi con i dissenatori dalla sua e l'appoggio dei suoi vecchi sostenitori farai molta fatica a impedirgli di riconquistare il potere che aveva 13 anni fa fudge apriva e chiudeva la bocca come se le parole non riuscissero a esprimere la sua indignazione la seconda misura che devi prendere e subito lo incalzò silente e mandare messaggeri ai giganti messaggeri ai giganti strillò fudge ritrovando la favella che follia è questa tendi loro la mano dell'amicizia ora prima che sia troppo tardi disse silente o voldemort li convincerà come ha fatto in passato che lui solo tra i maghi potrà restituire loro diritti e libertà tu non puoi parlare seriamente esclamò fudge con voce soffocata scuotendo la testa e arretrando ancora da silente se la comunità magica avesse sentore del fatto che ho avvicinato i giganti la gente li odia silente la fine della mia carriera sei accecato disse silente alzando la voce l'aura di potere palpabile attorno a lui gli occhi dardeggianti dall'amore per la poltrona che occupi cornelius dai troppa importanza come hai sempre fatto alla cosiddetta purezza di sangue non riesci a vedere che non è importante ciò che sia alla nascita ma ciò che si diventa il tuo dissenatore ha appena distrutto l'ultimo membro di una famiglia di sangue purissimo e quanto mai antica e guarda che cosa ha scelto di fare quell'uomo della sua vita te lo dico ora prendi i provvedimenti che ti ho suggerito e verrai ricordato come uno dei più grandi e coraggiosi ministri della magia che abbiamo mai avuto scegli di non agire e la storia ti ricorderà come l'uomo che si è fatto da parte quello che ha concesso a voldemort una seconda possibilità di distruggere il mondo che abbiamo cercato di ricostruire follia borbottò faggio indietraggiando ancora è pazzo e poi calò il silenzio madame pomfrey era immobile ai piedi del letto le mani sulla bocca la signora weasley era ancora accanto a erri la mano posata sulla sua spalla per impedirgli di alzarsi bill ron e ermione fissavano faggio sbalorditi se la tua ostinazione nel chiudere gli occhi ti conduce a questo cornelius rispose silente allora qui le nostre strade si dividono devi comportarti come ritieni giusto e io io mi comporterò come ritengo giusto la voce di silente non aveva alcun cenno di minaccia suonava come una pura constatazione ma faggio si irrigidì come se silente avanzasse verso di lui con la bacchetta sfoderata ora senti un po silente disse agitando un dito minaccioso ti ho lasciato carta bianca sempre ho nutrito molto rispetto per te posso anche non essermi trovato d'accordo con alcune tue decisioni ma sono stato generoso non sono molti coloro che ti avrebbero permesso di assumere lupi mannari o di tenere agrid o di decidere cosa insegnare ai tuoi studenti senza risponderne al ministero ma se ha intenzione di agire contro di me il solo contro cui intendo agire lo interruppe silente è voldemort se sei contro di lui cornelius allora restiamo dalla stessa parte a questo faggio parve non trovare risposta oscillò avanti e indietro sui piccoli piedi per un attimo rigirando la bombetta tra le mani alla fine con un cenno di supplica nella voce disse non può essere tornato silente non è possibile piton si fece avanti e superò silente sollevando la manica della veste tese l'avambraccio e lo mostrò a faggio che si ritrasse ecco disse piton con voce roca ecco il marchio nero non è netto come un'ora fa quando è diventato scuro ma si vede ancora ogni mangiamorte è stato marchiato a fuoco così dal signore oscuro era un modo per riconoscerci e per convocarci a lui quando lui toccava il marchio di qualunque mangiamorte dovevamo smaterializzarci e materializzarci immediatamente al suo fianco è dall'inizio dell'anno che questo marchio ha cominciato a diventare più evidente anche quello di carcaroff perché crede che carcaroff sia fuggito stanotte abbiamo sentito entrambi il marchio bruciare abbiamo capito entrambi che era tornato carcaroff teme la vendetta del signore oscuro ha tradito troppi dei suoi vecchi compagni per essere certo di essere il benvenuto fudge si allontanò anche da piton scosse la testa pareva che non avesse capito una parola di quello che piton aveva detto fissò apparentemente disgustato l'orrendo marchio sul braccio di piton poi alzò gli occhi verso silente e sussurrò non so a che cosa state giocando tu e i tuoi colleghi silente ma ne ho abbastanza non ho altro da aggiungere mi metterò in contatto con te domani per discutere la gestione di questa scuola ora devo tornare al ministero era quasi alla porta quando si fermò si voltò ripercorse la corsia e si fermò davanti al letto di erri la tua vincita disse asciutto estrasse un sacchetto gonfio dalla tasca e lo lasciò cadere sul comodino di erri mille galeoni doveva esserci una cerimonia di consegna ma date le circostanze si premette la bombetta in testa e uscì dalla stanza sbattendo la porta non appena se ne fu andato silente si rivolse al gruppo che attorniava il letto di erri c'è del lavoro da fare disse molly ho ragione di credere di poter contare su di te e su ma certo rispose la signora weasley era pallidissima ma decisa lui sa com'è fatto faggio è solo per la sua passione per i babbani che arthur è rimasto al ministero per tutti questi anni faggio è convinto che ad arthur manchi il doveroso orgoglio di mago allora ho bisogno di mandargli un messaggio disse silente tutti coloro che riusciamo a convincere della verità devono essere avvertiti immediatamente e arthur è in una buona posizione per avvicinare i membri del ministero che non sono miopi come cornelius vado io da papà disse bill alzandosi ci vado subito ottimo disse silente raccontagli cos'è successo digli che fra breve mi metterò direttamente in contatto con lui dovrà comportarsi con discrezione però se faggio pensasse che interferisco lasci fare a me disse bill batte una mano sulla spalla di harry baciò sua madre sulla guancia si infilò il mantello e uscì rapido dalla stanza minerva disse silente rivolto alla professoressa mcgonagall voglio vedere agride nel mio ufficio il più presto possibile e anche se ha consente avvenire madame maxim la professoressa mcgonagall annui e uscì senza una parola poppy disse silente a madame pomfrey saresti così gentile da scendere nell'ufficio del professor moody credo che troverai un elfa domestica di nome winky in uno stato di profonda prostrazione fai quello che puoi per lei e riaccompagnana in cucina credo che dobby si occuperà di lei molto molto bene disse madame pomfrey allarmata e uscì silente si assicurò che la porta fosse chiusa e che i passi di madame pomfrey si fossero spenti prima di parlare di nuovo e ora disse è venuto il momento che due di noi si riconoscano per ciò che sono sirius ti prego di riprendere il tuo solito aspetto il grosso cane nero guardò silente poi in un attimo si trasformò in un uomo la signora weasley urlò e fece un balzo indietro sirius black mamma zitta gridò ron è un amico piton non aveva urlato né si era ritratto ma aveva un'espressione di rabbia mistà terrore lui ringhiò fissando sirius il cui volto esprimeva altrettanto disgusto che cosa ci fa qui è qui dietro mio invito spiegò silente spostando lo sguardo dall'uno all'altro come te severus ho fiducia in tutti e due e ora che mettiate da parte i vecchi dissapori e vi fidiate l'uno dell'altro per harry silente chiedeva quasi un miracolo sirius e piton si squadravano con il più profondo disprezzo per il momento mi basterà disse silente con un filo d'impazienza che evitiate ogni aperta ostilità stringetevi la mano ora state dalla stessa parte abbiamo poco tempo e se i pochi che sanno la verità non restano uniti non c'è speranza per nessuno di noi molto lentamente ma senza smettere di scrutarsi torvi come se ognuno augurasse all'altro ogni male sirius e piton avanzarono e si strinsero la mano si separarono molto in fretta per andare avanti questo basterà disse silente e si mise di nuovo tra i due ora ho un compito per entrambi l'atteggiamento di fudge anche se non giunge inaspettato cambia tutto sirius ho bisogno che tu parta subito devi avvertire remus lupin arabella fig mandangus fletcher il vecchio gruppo nasconditi da lupin per un po ti cercherò lì ma intervenne harry voleva che sirius restasse non voleva dirgli di nuovo addio così presto mi rivedrai molto presto harry gli disse sirius te lo prometto ma devo fare quello che posso capisci vero sì disse harry sì certo che capisco sirius gli afferrò la mano fece un cenno a silente si trasformò di nuovo nel cane nero e con un balzo fu alla porta abbassò la maniglia con una zampa poi sparì severus disse silente rivolto a piton sai che cosa devo chiederti di fare se sei pronto se sei in grado lo sono disse piton era un po più pallido del solito e i suoi fortuna disse silente e con una traccia di preoccupazione sul viso guardò piton scomparire silenziosamente passarono parecchi minuti prima che silente parlasse di nuovo devo andare giù disse alla fine devo vedere i digori harry prendi il resto della pozione vi rivedrò tutti più tardi harry ricadde sui cuscini ermione ron e la signora weasley lo guardavano nessuno di loro parlò per parecchio tempo devi bere il resto della pozione harry disse infine la signora weasley nel prendere la bottiglietta e il calice sfiorò con la mano il sacco pieno d'oro sul comodino dormi cerca di pensare a qualcos'altro per un po pensa a quello che comprerai con la tua vincita non voglio quell'oro disse harry con voce inespressiva prendetelo voi chiunque può prenderlo non avrei dovuto vincerlo doveva essere di cedric quello contro cui aveva lottato fin da quando era uscito dal labirinto minacciava ora di sopraffarlo avvertì un bruciore come un solletico agli angoli interni degli occhi sbatte le palpebre e fissò il soffitto non è stata colpa tua harry sussurrò la signora weasley le ho detto di prendere la coppa insieme a me disse harry ora il bruciore gli aveva invaso anche la gola si augurò che ron stesse guardando da un'altra parte la signora weasley posò la pozione sul comodino si chinò e circondò harry con le braccia lui non ricordava di essere mai stato abbracciato così come da una mamma il pieno significato di tutto ciò che aveva visto quella notte sembrò precipitargli addosso mentre la signora weasley lo stringeva a sé il viso di sua madre la voce di suo padre la vista di sedrica terra morto tutto prese a vorticare nella sua testa finché non contrasse il viso per cercare di opporsi al grido di dolore che lottava per uscire dalla sua gola si udì un rumore di porte sbattute la signora weasley e harry si separarono ermione era in piedi vicino alla finestra teneva qualcosa stretto in mano mi dispiace mormorò la tua pozione disse in fretta la signora weasley asciugandosi gli occhi col dorso della mano harry la beve in un sorso l'effetto fu istantaneo onde pesanti e irresistibili di un sonno senza sogni gli si rovesciarono addosso ricadde sui cuscini e non pensò più l'inizio ripensandoci anche a un mese di distanza harry scoprì di ricordare molto poco dei giorni seguenti era come se ne avesse passate troppe per riuscire ad accettare altro i ricordi che aveva erano molto dolorosi il peggiore forse fu l'incontro con i digori che ebbe luogo la mattina dopo non lo accusarono di quanto era accaduto al contrario lo ringraziarono per aver restituito loro il corpo di cedric il signor digori fu scosso dai singhiozzi per gran parte dell'incontro il dolore della signora digori pareva al di là delle lacrime allora ha sofferto pochissimo disse quando harry lebbe raccontato come era morto cedric e dopo tutto amos è morto quando aveva appena vinto il torneo doveva essere felice quando si furono alzati guardò harry e disse adesso bada a te stesso harry afferrò il sacco dell'oro sul comodino prendete questo le sussurrò doveva essere di cedric è arrivato per primo prendetelo ma lei indietreggiò oh no è tuo caro non potremmo tienilo tu la sera seguente harry tornò alla torre di grifondoro da quanto gli avevano raccontato ron e ermione silente aveva parlato a tutta la scuola quella mattina a colazione aveva semplicemente chiesto che lasciassero in pace harry che nessuno gli facesse domande o insistesse per farsi raccontare ciò che era successo nel labirinto moltissimi osservò harry lo scansavano nei corridoi evitando il suo sguardo alcuni sussurravano al suo passaggio nascondendo la bocca con la mano immaginò che molti di loro avessero creduto all'articolo di rita skitter su quanto fosse disturbato e potenzialmente pericoloso forse stavano elaborando le loro teorie sulla morte di cedric scoprì che non gliene importava granché la cosa migliore era stare con ron e ermione mentre loro parlavano di altre cose oppure lo lasciavano star lì in silenzio mentre giocavano a scacchi era come se tutti e tre avessero stretto un patto che non aveva bisogno di parole ciascuno di loro era in attesa di un segnale una parola su quanto stava succedendo al di fuori di hogwarts ed era inutile fare congetture finché non avessero saputo qualcosa di certo l'unica volta che affrontarono l'argomento fu quando ron disse a harry dell'incontro che la signora weasley aveva avuto con silente appena prima di tornare a casa è andata a chiedergli se quest'estate potevi venire subito da noi disse ma lui vuole che tu torni dai darsley almeno per ora perché chiese harry ha detto che silente ha le sue buone ragioni disse ron scuotendo la testa cupamente immagino che dobbiamo avere fiducia in lui no a parte ron e ermione l'unica persona con cui harry riusciva a parlare era agrid dal momento che non c'era più un insegnante di difesa contro le arti oscure quelle ore di lezione erano rimaste vuote usarono quella del giovedì pomeriggio per andare a trovarlo alla sua capanna era una giornata limpida e soleggiata zanna scattò fuori dalla porta aperta sentendoli avvicinarsi abbaiando e scodinzolando come un matto chi è gridò agrid avvicinandosi alla soglia harry andò loro incontro abbracciò forte harry gli spettinò i capelli e disse è bello vederti amico è bello vederti una volta entrati videro due tazzine grandi come secchi con il loro piattino troneggiare sul tavolo di legno davanti al camino stavo bevendo una tazza con lamp disse agrid è appena andata via chi chiese ron incuriosito madame maxim naturale rispose agrid voi due avete fatto la pace vero disse ron non so di cosa stai parlando disse agrid in tono leggero prendendo altre tazze dalla credenza quando ebbe preparato il tè ed ebbe offerto un vassoio di biscotti pastosi si abbandonò contro lo schienale della sedia e osservò harry da vicino con i suoi occhi nerissimi stai bene chiese con voce burbera si rispose harry no non è vero disse agrid certo che no ma ti rimetterai harry tacque lo sapevo che tornava disse agrid harry ron e ermione lo guardarono spaventati lo sapevo da anni harry lo sapevo che era là fuori ad aspettare l'occasione buona doveva succedere beh adesso è successo e dobbiamo andare avanti combatteremo forse ce la facciamo affermarlo in tempo questo è il piano di silente comunque grande uomo silente finché abbiamo lui non sono preoccupato agrid sollevò le sopracciglia cespugliose notando l'espressione incredula stampata sui volti dei tre amici non serve star qui a preoccuparsi disse quel che sarà sarà e lo affronteremo quando è il momento silente mi ha detto quello che hai fatto harry il petto di agrid si gonfiò mentre guardava harry hai fatto quello che avrebbe fatto tuo padre e non c'è lode più grande di questa harry gli dispose con un sorriso era la prima volta da giorni che sorrideva che cosa ti ha chiesto di fare silente agrid gli chiese ha mandato la professoressa mcgonagall a chiedere a te a madame maxim di incontrarlo quella notte mi ha trovato un lavoretto per l'estate disse agrid segreto però non dovrei parlarne neanche con voi tre o lamp madame maxim forse viene con me credo che viene credo che l'ho convinta a che fare con voldemort agrid si ritrasse a sentir pronunciare quel nome può darsi rispose evasivo ora volete venire con me a trovare l'ultimo schiopodo stavo scherzando stavo scherzando ripete in fretta guardando le loro facce fu con il cuore oppresso che harry preparò il baule la sera prima del suo ritorno a private drive temeva il banchetto da dio che di solito era l'occasione per grandi festeggiamenti e il momento della proclamazione del vincitore della coppa delle case fin da quando era uscito dall'infermeria aveva evitato di entrare nella sala grande quando era gremita e aveva preferito mangiare quando era quasi vuota per evitare gli sguardi dei suoi compagni quando lui ron e ermione entrarono nella sala videro subito che mancavano le consuete decorazioni la sala grande di solito era addobbata con i colori della casa vincitrice in occasione della festa di fine anno quella sera invece c'erano stendardi neri sulla parete dietro il tavolo degli insegnanti harry capì subito che erano lì in segno di rispetto per cedric il vero malocchio mudi era al tavolo degli insegnanti la gamba di legno e l'occhio magico erano tornati al loro posto era estremamente nervoso e sobbalzava tutte le volte che qualcuno gli rivolgeva la parola harry non poteva asimarlo la sua paura di essere aggredito doveva essere ben aumentata in dieci mesi di prigionia nel proprio baule la sedia del professor karkaroff era vuota harry si chiese mentre prendeva posto con gli altri di grifondoro dove si trovasse in quel momento e se voldemort fosse riuscito a raggiungerlo madame maxime invece era lì era seduta vicino a agrid parlavano piano più in là vicino alla professoressa mcgonagall c'era piton i suoi occhi indugiarono su harry per un istante mentre harry ricambiava lo sguardo la sua espressione era difficile da interpretare sembrava acido e sgradevole come sempre harry continuò a osservarlo anche dopo che lui ebbe distolto lo sguardo che cos'era che piton aveva fatto su ordine di silente la notte del ritorno di voldemort e perché perché silente era così convinto che piton fosse davvero dalla loro parte era la loro spia l'aveva detto silente nel pensatoio piton era diventato una spia contro voldemort a suo rischio e pericolo era quello il compito che si era assunto di nuovo aveva preso contatto con i mangiamorte forse aveva finto di non essere mai davvero passato dalla parte di silente di aver semplicemente come voldemort stesso aspettato l'occasione propizia fu silente alzandosi a porre fine alle riflessioni di henry la sala grande che era già meno rumorosa di quanto non fosse di solito al banchetto da dio cadde nel silenzio siamo alla fine esordì silente facendo scorrere lo sguardo su tutti loro di un altro anno fece una pausa e i suoi occhi si posarono sul tavolo di tassofrasso il loro era il tavolo più taciturno già da prima che silente si alzasse e i loro volti erano anche i più tristi e pallidi della sala ci sono molte cose che vorrei dire a tutti voi stasera disse silente ma prima di tutto devo ricordare la perdita di una persona molto bella che dovrebbe essere seduta qui e fece un gesto verso il tavolo di tassofrasso a godersi il banchetto con noi vorrei che tutti voi per favore vi alzaste e brindaste a cedric diggori obbedirono tutti le panche grattarono per terra mentre tutti in sala si alzavano e levavano i calici e ripetevano in un solo cupo rumbo a cedric diggori henry intravide ciò tra la folla le lacrime le rigavano il viso fissò il tavolo mentre tutti tornavano a sedere cedric era una persona che riuniva in sé molte delle qualità che distinguono la casa di tassofrasso riprese silente era un amico buono e fedele un gran lavoratore credeva nel gioco leale la sua morte ha toccato tutti voi che lo conoscesse o no credo che abbiate il diritto dunque di sapere esattamente com'è successo henry alzò il capo e fissò silente cedric diggori è stato assassinato da voldemort un sussurro terrorizzato spazzò la sala grande tutti fissarono silente increduli e atterriti lui rimase perfettamente calmo a guardarli con fabulare e poi tacere di nuovo il ministero della magia riprese silente non vorrebbe che ve lo dicessi è possibile che alcuni dei vostri genitori si scandalizzeranno per ciò che ho fatto perché non vogliono credere al ritorno di voldemort o perché sono convinti che non dovrei dirvelo giovani come siete è mia convinzione tuttavia che la verità sia generalmente preferibile alle menzogne e che ogni tentativo di fingere che cedric sia morto in seguito a un incidente o a un errore da lui commesso sia un insulto alla sua memoria tutti quanti in sala erano rivolti a silente stupefatti e sconvolti o meglio quasi tutti al tavolo di serpeverde henry vide draco malfoi bofonchiare qualcosa a crebbe goil henry sentì lo stomaco contrarsi per la rabbia una rabbia folle e bruciante si costrinse a guardare di nuovo verso silente c'è qualcun altro che deve essere ricordato in merito alla morte di cedric continuò silente naturalmente sto parlando di harry potter un mormorio percorse la sala grande mentre poche teste si voltavano dalla parte di harry prima di tornare rapide a silente harry potter è riuscito a sfuggire a voldemort disse silente ha rischiato la vita per riportare il corpo di cedric a hogwarts ha dimostrato in tutti i sensi il coraggio che pochi maghi hanno mostrato nell'affrontare voldemort e per questo io gli rendo onore silente si voltò con gravità verso harry e levò di nuovo il calice quasi tutti in sala grande lo imitarono subito mormorarono il suo nome come avevano mormorato quello di cedric e bevero alla sua salute ma da uno spazio vuoto tra le persone in piedi harry notò che malfoi creb goyle e molti degli altri serpeverde erano rimasti seduti al loro posto in segno di sfida senza toccare i calici silente che dopo tutto non possedeva occhi magici non li vide quando tutti si furono rimesse a sedere silente riprese lo scopo del torneo tre maghi era di approfondire e promuovere l'intesa tra maghi alla luce di quanto è accaduto il ritorno di voldemort questi legami sono più importanti che mai silente spostò lo sguardo da madame maxime agrid a flor de la cour e ai suoi compagni di bobaton a victor crum e ai ragazzi di durmstrang al tavolo di serpeverde crum osservò harry era guardingo quasi spaventato come se si aspettasse che silente dicesse qualcosa di terribile tutti gli ospiti di questa sala disse silente e i suoi occhi indugiarono sugli studenti di durmstrang saranno i benvenuti qui in qualunque momento quando vorranno venire ripeto ancora una volta a tutti voi alla luce del ritorno di voldemort siamo forti solo se uniti deboli se divisi l'abilità di voldemort nel seminare discordia in amicizia è molto grande possiamo combatterla solo mostrando un legame altrettanto forte di amicizia e fiducia le differenze di abitudini e linguaggio non sono nulla se i nostri scopi sono gli stessi e i nostri cuori sono aperti è mia convinzione e non ho mai desiderato tanto di sbagliarmi che stiamo tutti per affrontare tempi oscuri e difficili alcuni di voi in questa sala hanno già subito terribili sofferenze a opera di voldemort molte delle vostre famiglie sono state distrutte una settimana fa uno studente ci è stato portato via ricordatevi di cedric quando e se per voi dovesse venire il momento di scegliere tra ciò che è giusto e ciò che è facile ricordate cos'è accaduto a un ragazzo che era buono e gentile e coraggioso per aver attraversato il cammino di voldemort ricordatevi di cedric diggori i bagagli di harry erano pronti edvige era di nuovo rinchiusa nella sua gabbia in cima al baule nella sala d'ingresso affollata harry ron e ermione insieme agli altri del quarto anno aspettavano l'arrivo delle carrozze che gli avrebbero portati alla stazione di hogsmeade era un'altra bella giornata estiva harry suppose che quella sera al suo arrivo prive drive sarebbe stata calda e fronzuta le aiuole un tripudio di colori ma il pensiero non gli suscitò alcuna gioia eri si voltò fleur de la cour saliva di corsa i gradini di pietra davanti al castello dietro di lei lontano nel parco harry vide agrid aiutare madame maxim a mettere i finimenti a due cavalli giganti la carrozza di bobaton era pronta a partire au revoir a presto disse fleur avvicinandosi con la mano tesa spera di trovare lavoro qui per ameliorare mio inglese è già ottimo intervenne ron con voce soffocata fleur gli sorrise ermione si incubi arrivederci eri disse fleur è stato un piacere conoscerti l'umore di eri non poté non migliorare un po mentre guardava fleur correre nel prato verso madame maxim i capelli argentei che scintillavano al sole chissà come faranno gli studenti di durmstrang a tornare a casa disse ron credete che siano in grado di governare la nave senza carcaroff carcaroff governava un pel niente disse una voce burbera stavre in sua capina e faceva la forale noi crum era venuto a dire addio a ermione posso con te parlare uno momento le chiese oh sì certo disse ermione arrossendo e sparì con crum tra la folla è meglio se ti muovi le gridò dietro ron le carrozze saranno qui tra un attimo ma lasciò che fosse eri a sorvegliare l'arrivo delle carrozze e passò i minuti seguenti allungando il collo al di sopra della folla per cercare di vedere che cosa facevano crum e ermione i due tornarono molto presto ron scoccò a ermione uno sguardo penetrante ma lei rimase impassibile mi piace fa digodi disse all'improvviso crum a erri è stato sempre gentile con me sempre anche se ero di durmstrang con carcaroff aggiunse accigliato avete già un nuovo preside crum alzò le spalle tese la mano come aveva fatto flor strinse quella di erri e poi quella di ron ron sembrava preda di un doloroso conflitto interiore crum aveva già cominciato ad allontanarsi quando ron non si trattenne più mi fai l'autografo ermione distorse lo sguardo e sorrise alle carrozze senza cavalli che risalivano pesantemente il viale mentre crum sorpreso malusingato firmava un foglio di pergamena per ron durante il viaggio di ritorno a king's cross il tempo non avrebbe potuto essere più diverso da quello del viaggio di andata non c'era nemmeno una nuvola in cielo erri ron e ermione erano riusciti a trovare uno scompartimento tutto per loro leo era stato di nuovo nascosto sotto l'abito da sera di ron per impedirgli di continuare a ululare edvige dormicchiava la testa sotto l'ala e grattastinchi era acciambellato su un sedile vuoto come un grosso peloso cuscino rossiccio erri ron e ermione parlarono più a lungo e più liberamente del resto della settimana mentre il treno li portava sfrecciando verso sud era come se il discorso di silente alla festa di fine anno avesse sbloccato erri era meno doloroso ora discutere dell'accaduto solo all'arrivo del carrello del pranzo interruppero le loro congetture sui provvedimenti che forse in quello stesso momento silente stava prendendo per fermare voldemort quando ermione tornò dal carrello rimise il denaro nella borsa dei libri e ne sfilò una copia della gazzetta del profeta erri la guardò senza sapere se voleva veramente scoprire che cosa c'era scritto ma ermione intercettato il suo sguardo disse tranquillamente non c'è niente qui sopra puoi guardare anche tu ma non c'è niente di niente controllo tutti i giorni solo un articoletto il giorno dopo la terza prova che diceva che avevi vinto il torneo non hanno nemmeno fatto cenno a cedric non ne parlano proprio secondo me fagge li sta costringendo a starsene tranquilli non riuscirà mai a far stare tranquilla rita disse erri non con una storia del genere o rita non ha scritto nemmeno una riga della terza prova rispose ermione in tono stranamente controllato in effetti aggiunse e ora la sua voce ebbe un dieve tremito rita skitter non scriverà proprio niente per un po a meno che non voglia che io vuoti il sacco su di lei ma che cosa stai dicendo ho scoperto come faceva ad ascoltare le nostre conversazioni private quando non avrebbe dovuto nemmeno mettere piede nel terreno della scuola disse ermione tutto d'un fiato erri ebbe l'impressione che ermione morisse dalla voglia di raccontarlo da giorni ma che si fosse trattenuta per via dell'accaduto come faceva chiese subito erri come hai fatto a scoprirlo chiese ron fissando la stupefatto beh sei stato tu veramente a darmi l'idea erri rispose lei io chiese erri perplesso e come cimici disse ermione allegramente ma dicevi che non funzionavano non cimici elettroniche disse ermione no vedete rita skitter la voce di ermione tremò di tranquillo trionfo è un animagus non iscritto al registro sa trasformarsi estrasse dalla borsa un barattolino di vetro sigillato in uno scarabeo stai scherzando disse ron non l'avrai non sarà oh sì invece rispose ermione trionfante tendendo il barattolo verso di loro dentro c'erano foglie rametti e un grosso grasso scarabeo non è possibile stai scherzando sussurrò ron prese il barattolo e lo avvicinò agli occhi no che non scherzo disse ermione raggiante l'ho catturata sul davanzale dell'infermeria guardate bene e vedrete che i segni attorno alle antenne sono identici a quei suoi orrendi occhiali erri guardò bene e vide che aveva ragione gli venne in mente qualcosa c'era uno scarabeo sulla statua la notte che abbiamo sentito agrid raccontare di sua madre a madame maxim proprio così rispose ermione e victor mi ha tolto uno scarabeo dai capelli dopo che avevamo parlato vicino al lago e se non mi sbaglio di grosso rita era appollaiata sul davanzale dell'aula di divinazione il giorno che ti faceva male la cicatrice è tutto l'anno che ronze in giro in cerca di storie quando abbiamo visto malfoi sotto quell'albero disse ron lentamente stava parlando con lei e la teneva in mano spiegò ermione lui sapeva naturalmente è così che lei ha ottenuto tutte quelle belle intervistine con i serpe verde a loro non importava che lei facesse qualcosa di illegale pur di raccontarle cose orribili su di noi e su agrid ermione sfilò il barattolo dalla mano di ron e sorrise allo scarabeo che ronzò rabbioso contro il vetro le ho detto che la lascerò uscire quando saremo tornati a londra disse ermione ho imposto un incantesimo infrangibile sul barattolo sapete così non può trasformarsi e le ho detto che deve tenere la penna chiusa in borsetta per un anno intero vediamo se riesce a perdere l'abitudine di scrivere tremende bugie sulla gente con un sorriso sereno ermione rimise il barattolo nella borsa dei libri poi la porta dello scompartimento si aprì davvero brillante granger disse draco malfoi crebbe goil erano alle sue spalle tutti e tre sembravano più compiaciuti arroganti e minacciosi che mai allora disse malfoi lentamente avanzando appena nello scompartimento e volgendo lo sguardo su di loro un ghigno beffardo che gli increspava le labbra tu hai catturato una giornalista patetica e potter è di nuovo il cocco di silente magnifico il ghigno si allargò crebbe goil si scambiarono un'occhiata complice stiamo cercando di non pensarci vero continuò malfoi con voce morbida guardando tutti e tre uno alla volta stiamo cercando di far finta che non sia successo fuori disse erri non si era trovato vicino a malfoi da quando l'aveva visto confabulare con crebbe goil durante il discorso di silente su cedric udì qualcosa risuonargli nelle orecchie la sua mano afferrò e strinse la bacchetta sotto la veste hai scelto il partito sbagliato potter ti avevo avvertito ti avevo detto che dovevi scegliere più attentamente i tuoi amici ricordi quando ci siamo incontrati sul treno il primo giorno di scuola ti avevo detto di non frequentare della plebaglia del genere e indicò con un cenno del capo ronne ermione ora è troppo tardi potter saranno i primi a sparire ora che il signore oscuro è tornato sangue marcio e babbanofili saranno i primi beh i secondi digori è stato il fu come se qualcuno avesse fatto esplodere una cassa di fuochi d'artificio nello scompartimento accecato dal bagliore degli incantesimi che erano schizzati da tutte le parti assordato da una serie di scoppi harry strizzò le palpebre e guardò sul pavimento malfoy creb e goyle erano distesi sulla soglia privi di sensi lui ronne ermione erano in piedi ciascuno di loro aveva scagliato un incantesimo diverso e non erano i soli avevamo pensato di venire a vedere che cosa avevano in mente quei tre disse freddi in tono pratico urtando goyle per entrare nello scompartimento brandiva la bacchetta e così george che si premurò di inciampare in malfoy mentre entrava alle spalle di fred un risultato interessante disse guardando creb chi è stato a usare l'incantesimo furnunculus io disse erri curioso disse george con leggerezza io ho usato la fattura gambe molli a quanto pare non bisognerebbe mescolarli è come se gli fossero spuntati dei piccoli tentacoli su tutta la faccia beh non lasciamoli qui non fanno molto per migliorare l'arredamento ron erri e george calciarono rotolarono e spinsero i corpi svenuti di malfoy crebbe goyle tutti e tre assai marridotti visto il miscuglio di incantesimi che li avevano bersagliati nel corridoio poi tornarono nello scompartimento e chiusero la porta qualcuno vuole giocare a spara schiocco propose fred estraendo un mazzo di carte erano nel bel mezzo della quinta partita quando erri decise di fare la domanda allora ce lo dite domandò rivolto a george chi stavate ricattando o disse george cupo quello non ha importanza disse fred scuotendo il capo spazientito non era niente di importante ora non lo è comunque abbiamo lasciato perdere disse george con una scrollata di spalle ma erri ron e ermione continuarono a interrogarli e finalmente fred sbuffò va bene va bene se proprio lo volete sapere era ludo bugman bugman esclamò erri in tono brusco state dicendo che era coinvolto nel no disse george tetro niente del genere quello sciocco idiota non avrebbe avuto abbastanza cervello beh allora fred esitò poi disse vi ricordate che avevamo scommesso con lui alla coppa del mondo di quidditch che avrebbe vinto l'irlanda ma crum avrebbe preso il boccino sì dissero erri e ron lentamente beh quell'idiota ci ha pagato con loro dei lepricani che aveva preso alle mascotte dell'irlanda e allora e allora ripete fred spazientito è sparito no la mattina dopo non c'era più ma deve essere stato un incidente no disse ermione george scoppiò in una risata molto amara se è quello che abbiamo pensato anche noi all'inizio abbiamo pensato che scrivendogli dicendogli che aveva fatto un errore avrebbe sganciato i nostri soldi ma niente da fare ha ignorato la nostra lettera abbiamo cercato di parlargli un sacco di volte a hogwarts ma trovava sempre qualche scusa per sfuggirci alla fine è diventato odioso aggiunse fred ci ha detto che eravamo troppo giovani per il gioco d'azzardo e che non ci avrebbe dato un bel niente allora abbiamo chiesto che ci restituisse il nostro denaro disse george arrabbiato non avrà rifiutato disse ermione senza fiato proprio così disse fred ma erano tutti i vostri risparmi disse ron non dirmelo disse george naturalmente alla fine abbiamo scoperto che cosa stava succedendo anche il padre di lee jordan ha fatto fatica a ottenere da bugman il denaro che gli spettava è venuto fuori che era nei pasticci con i goblin ha preso in prestito da loro un sacco di denaro una loro banda lo ha salito nel bosco dopo la coppa del mondo e gli ha portato via tutto l'oro che aveva e non è nemmeno bastato a coprire tutti i suoi debiti l'hanno seguito fino a hogwarts per tenerlo d'occhio ha perso tutto al gioco non ha più un galeone e lo sapete quell'imbecille come ha cercato di risarcire i goblin come chiese erri ha puntato su di te amico disse fred ha fatto una grossa giocata scommettendo che avresti vinto il torneo contro i goblin allora è per quello che cercava di aiutarmi a vincere esclamò erri beh ho vinto no quindi può restituirvi il vostro denaro no disse george scuotendo il capo i goblin giocano sporco quanto lui dicono che tu hai pareggiato con digori e bugman aveva scommesso che saresti stato il primo assoluto così è dovuto fuggire è scappato subito dopo la terza prova george sospirò ricominciando a distribuire le carte il resto del viaggio fu abbastanza piacevole erri si scoprì a desiderare che continuasse per tutta l'estate in modo da non arrivare mai a king's cross ma come aveva imparato quell'anno grazie a tutti 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 grazie a tutti